Bentornati sul canale, bentornati. Inseriamo un testo di un autore poco conosciuto ma relativo a un personaggio famoso e storico. Buon abbraccio e buon ascolto. Giordano Bruno. Anacleto Verrecchia. Giordano Bruno, 1548-1600, non fu soltanto una delle menti filosofiche più lucide e ispirate del suo tempo, fu anche un uomo che seppe trarre le più estreme conseguenze dalle sue idee, una falena dello spirito, che bruciò alla luce dei propri ideali. La sua vita tempestosa, ma anche tragicamente bella, viene qui rievocata in tono partecipe e appassionato. Con grande vivacità e immediatezza il libro, che ha già conosciuto una prima edizione in lingua tedesca, ripercorre passo per passo la burrascosa peregrinazione del filosofo attraverso l'Europa, visitando tutti i luoghi in cui visse e cercando di immedesimarsi nei suoi stati d'animo. Per il suo andamento, il testo attiene alla tragedia in prosa, più ancora che alla biografia o al saggio critico. Verrecchia sferza con estremo vigore il fanatismo religioso che per secoli insanguinò l'Europa e fece più vittime delle pestilenze. Altamente drammatico il capitolo sull'uccisione del filosofo, bruciato vivo in campo dei fiori a Roma, era l'alba del 17 febbraio 1600. Ai cardinali inquisitori che lo condannavano a una morte così atroce, Bruno lanciò la sfida, Forse tremate più voi nell'infliggermi questa sentenza che io nell'accoglierla. Evidentemente quelle parole continuano a far paura, se è vero che la Chiesa non ha ancora avuto il coraggio di assumersi tutta la responsabilità di quel rogo. Usare le fiamme per distruggere l'intelligenza è un crimine che non si cancella e che può far tremare lo stesso colonnato del Vaticano. E in effetti vi sono pagine, in questo libro, che fanno venire davvero i brividi, sia per le atrocità commesse in nome di Dio, sia per il tono drammatico, partecipe vivo con cui vengono rievocate. Prefazione Questo è un libro di passione. Non un ennesimo libro sui libri di Giordano Bruno, ma piuttosto un ritratto dell'uomo Giordano Bruno. Meno accademia e più partecipazione umana al suo tragico destino, meno filologia e più vita. Anziché perdermi dietro a questo o a quel particolare, come fanno molti, ho cercato di seguire il filosofo nella sua tempestosa peregrinazione attraverso l'Europa e di riviverne in qualche modo gli stati d'animo. Ho parlato di passione ed è bene specificare. Dinanzi a una morte atroce come quella di Bruno, bruciato vivo dalla Chiesa Cattolica, non si può rimanere indifferenti e conservare il cosiddetto distacco critico. Il cuore e la testa, in questo caso, si muovono spontaneamente in favore della vittima, così come è spontaneo lo sdegno contro gli autori di quel crimine, che alcuni sciagurati tentano ancora di giustificare o almeno di scusare. Uno di essi è Angelo Mercati, un monsignore, il quale, con cinismo impassibile e sintassi spericolata, scrive che nel processo al filosofo ci fu abbondante materia legittimamente perseguibile e legittimamente condannabile dal tribunale della fede, che solo per motivo di essa e giustamente emanò la sentenza, a cui seguì l'esecuzione. Finché non solo il furto, l'assassinio, la sedizione e simili sono delitti anche se commessi da persone d'ingegno, di condizione elevata, di benemerenza per altri titoli, e la condanna che li colpisce deve farsi sostenere, pur compassionandoli, dai re e facendo tacere i sentimenti del cuore, finché la Chiesa, al pari almeno di altre legittime istituzioni, ha diritto e dovere di stabilire e proporre il credo e di legiferare nel suo campo con sanzioni, che non piaceranno a tutti in tutti i secoli, ma che rispondono alle concezioni e dagli usi dei tempi, finché la semplice e retta ragione umana, che diremo poi se illuminata dalla infallibile verità di fede, troverà giusto che precisamente per l'onore della ragione umana e per il vero interesse spirituale dell'umanità non si lasci libero passo a fantastiche e strampalate ideologie spesso affatto inutili, spesso perturbatrici senza plausibile ragione o dannose, che, giustissima e terribile punizione divina alla superbia umana misconoscente, senza mai imparare dall'esperienza, chi è via, verità e vita, e perciò abbandonata e sterilissima babele di ideologie pullulanti a disorientare sempre più le menti, coinvolgono talora nella loro vanità e miseria intellettuale e morale le geniali intuizioni e le vere conquiste della vera scienza, la sentenza romana contro il Bruno potrà biasimarsi soltanto se la si possa dimostrare manata senza legittime ragioni o controragione, ciò che è perentoriamente escluso sia da altre notizie del processo, sia specialmente dal sommario, il quale fa nettamente comprendere come solo per legittimi motivi di ortodossia, per reali mancanze punibili del Bruno l'inquisizione di Roma portò alla conclusione il processo contro di lui. E aggiunge, la Chiesa poteva, doveva intervenire e intervenne, I documenti del processo dimostrano la legalità di esso e l'onestà con cui venne condotto. Che se c'è da registrare una condanna, la ragione di essa va cercata non nei giudici, ma nell'imputato Mercati 1942, prefazione. Queste parole, intellettualmente mostruose e sintatticamente sgangherate, si commentano da sole. Vorrei solo far notare che esse non furono scritte nel secolo di Giordano Bruno, ma nel nostro, e non da un rozzo parroco di campagna, ma da un alto prelato del Vaticano. Considerare le idee di un filosofo alla stessa stregua dell'assassinio. Per far questo ci vuole una mente completamente tenebrata dal fanatismo. Una religione che ricorra ai tribunali della fede, alle forche e ai roghi, anziché al buon esempio e alla mansuetudine, fa ancor più paura di un regime dispotico e sanguinario. Infatti il despot ha almeno il merito di non fingere e si presenta per quello che è, mentre la Chiesa predicava la bontà e seminava il terrore. Questo libro vuole anche dimostrare a quale grado di follia criminale possa giungere il fanatismo religioso. Se il mondo è un condominio tra la malvagità e la pazzia, in cui l'una regna e l'altra comanda, la religione ha dimostrato molto spesso di essere l'una e l'altra insieme. Ma ora parliamo d'altro. Negli ultimi tempi, all'estero come in Italia, la linea ascensionale della bibliografia brugnana si è impennata vertiginosamente. Saggi, ristampe, nuove edizioni, articoli, monografie, atti congressuali, film, opere teatrali e perfino romanzi con l'apparenza di scientificità. Il filosofo è veramente risorto, come la Fenice, dalle ceneri di Campo dei Fiori. Sono anche venuti alla luce nuovi documenti, che ci permettono di orientarci meglio nella sua vita errabonda. Così ora sappiamo, per esempio, che egli era stato anche a Tubinga, con la vana speranza di potervi insegnare. Recentemente è sorta anche la rivista brugnana e campanelliana, strumento indispensabile per tenersi aggiornati sugli studi che riguardano il nostro filosofo. Eugenio Canone, che la dirige insieme con Germana Ernst, è un ottimo cacciatore di notizie e documenti nuovi su Bruno, oltre ad avere antenne molto sensibili per muoversi nella sua filosofia. Da lui ci aspettiamo anche una raccolta, filologicamente accurata e tale da far testo, di tutti i documenti sulla vita e sul processo del filosofo. La novità più grande, in tanto fervore di studi, è la nuova edizione critica di tutte le opere, italiane e latine. Diretta da Ives Ersante e da Noccio Ordine, viene pubblicata dalla casa editrice Les Belles Lettres di Parigi, con il testo originale e la traduzione francese a fronte. Il tutto è affidato a un comitato scientifico internazionale, in cui fa spicco Giovanni Aquilecchia, uno dei più grandi studiosi di Bruno. Con questa magnifica impresa editoriale la Francia sesta, meritatamente, uno schiaffo morale all'Italia, che il filosofo prima lo bruciò vivo e poi lo dimenticò. Naturalmente la Chiesa Cattolica vorrebbe che si continuasse a ignorarlo, ma ormai essa non può fare più niente contro il corso delle cose. Un proverbio arabo dice che quando il Nilo è arrivato al Cairo non c'è nulla che possa rimandarlo indietro. La stessa cosa si potrebbe dire di Giordano Bruno, una specie di Nilo filosofico, anche lui è arrivato al suo Cairo, come dimostra l'immensa bibliografia. A togliere Bruno dall'oblio furono gli stranieri, come per esempio il filosofo irlandese John Tuland, che all'inizio del 1700 svolsa in diversi paesi europei una intensa propaganda a favore della nolana filosofia. Egli fu attratto in modo particolare dallo spaccio della bestia trionfante, trovandovi molta consonanza con le proprie idee. Ma la vera rinascita filosofica di Bruno si deve ai tedeschi, a cominciare da Jacobi, che nel 1789, per dimostrare che Gassendi, Descartes e Leibniz avevano preso molte cose da quello scuro autore italiano, fece una eccellente esposizione del della causa. Prima di lui Aman, in una lettera a Herder del 17 novembre 1782, aveva scritto, Giordani Bruni Principium Coincidentiae Oppositorum e ai miei occhi più importante di tutta la critica kantiana. Poi vennero altri, fra cui Schelling, Egel, Schopenhauer e via di seguito. Così Bruno ebbe un trionfo postumo proprio in quella Germania in cui aveva trascorso cinque anni della sua vita. L'edizione in due volumi delle sue opere italiane, curata da Adolf Wagner, zio del musicista, e uscita all'Ipsia nel 1830, andò presto esaurita. Si noti che era in lingua originale, non in tedesco. L'Italia venne dopo, molto tempo dopo, e i suoi applausi al nome del filosofo furono in gran parte un eco di quelli che erano già risuonati in Germania, in Francia e in altri paesi. Solo nella seconda metà del secolo scorso, sull'onda del risorgimento, l'Italia incominciò a ricordarsi di quel suo grande figlio martoriato e a tributargli onori ufficiali. Lo storico della letteratura Francesco de Sanctis, allora ministro della pubblica istruzione, promosse per decreto l'edizione nazionale delle opere latine del filosofo, 1879-1891. Quelle italiane dovettero aspettare ancora e furono pubblicate in edizione critica da Giovanni Gentile negli anni 1907-1908. Ma l'iniziativa più clamorosa, che acquistò anche carattere politico e che tanto urtò il Vaticano, fu quella di erigere un monumento a Giordano Bruno in Campo dei Fiori a Roma, proprio dove egli era stato arso. L'inaugurazione avvenne il 9 giugno 1889 e l'oratore ufficiale disse fra l'altro, nell'universo di Bruno non ci sono scomuniche, e il genere umano vi entra tutto. Avrebbe potuto aggiungere che vi entrano tutti gli esseri viventi, come nel buddismo e nella filosofia di Schopenhauer. Come reagì la Chiesa, che con il risorgimento aveva perso definitivamente il potere temporale. Non con stile ed eleganza, come ci si sarebbe potuto aspettare da una istituzione bimillenaria, ma con rabbia e meschinità. Papa Leone XIII, che colloquiava con lo Spirito Santo e civettava con le muse, che si vantava di conoscere i classici latini e le opere di Galilei, indirizzò una lettera di monito ai fedeli, da leggersi in tutte le chiese, Bruno veniva diffamato ed descritto nel peggiore dei modi, quindi le anime cristiane dovevano tenersene alla larga. Così parlò sua santità. In seguito il Vaticano arrivò addirittura a pretendere la distruzione di quel monumento, ma il capo del governo italiano, che allora era Mussolini, rispose picche e disse che la statua di Giordano Bruno, malinconica come il destino di chi vi era raffigurato, sarebbe rimasta al suo posto. Indispettito, questa volta Api, come Lichtenberg chiama sarcasticamente il Papa Cattolico, reagì in maniera ancora più meschina. Il 29 giugno del 1930 santificò il cardinale Roberto Bellarmino, uno dei più spietati giudici di Bruno, e l'anno dopo lo proclamò anche dottore della chiesa. Non occorre essere anticlericali o mangiapreti per dire che questo non è bello. Ma come si spiega l'accanimento della chiesa contro il frate di Nola? La risposta va cercata nella filosofia stessa di Bruno, la quale teorizza non solo che l'universo è infinito, ma che è eterno, cioè che è sempre esistito e sempre esisterà. Tutto questo rende superfluo un Dio creatore, che infatti non si saprebbe dove piazzare. Ma se non c'è posto per un Dio, non c'è neppure per i chierici, suoi ministri, tutti disoccupati. Visto così, Bruno deve essere subito apparso un filosofo troppo pericoloso per la chiesa, e ciò spiega perché essa, dopo averlo ucciso, abbia sempre cercato di insegretirlo o almeno di diffamarlo. Se avessimo tutti gli atti del processo, anziché solo frammenti spezzoni, sicuramente verrebbe fuori che il vero motivo della sua condanna al rogo fu soprattutto la teoria dell'universo infinito ed eterno. Invece la chiesa ha accettato, in qualche modo, la teoria del Big Bang, dicendo che solo un essere onnipotente, in altre parole un Dio, poteva provocare una simile esplosione cosmica. Già, ma quell'esplosione potrebbe anche far pensare che Dio si sia sparato. Infatti né in terra né in cielo c'è traccia di un essere sommamente buono come quello di cui cianciano i chierici. Motivi per spararsi non gliene mancavano di certo, dopo aver creato un mondo come questo. È ciò che pensa anche Schopenhauer, se un Dio ha fatto questo mondo, io non vorrei essere quel Dio, perché il dolore del mondo mi strazzerebbe il cuore na class, M.U. con Dieresink in 1985, ni, 57. Fra tutte le biografie di Giordano Bruno, la più minuiziosa e circostanziata resta ancora quella di Vincenzo Spampanato, vecchia ormai di tre quarti di secolo. Solo che la si legge come una mappa catastale o una circolare ministeriale. Bravissimo nel fare ricerche, Spampanato era un pessimo scrittore. Per questo la lettura del suo libro riesce spesso insopportabile. La prosa è inceppata e ingarbugliata. Inoltre i continui richiami bibliografici e le numerosissime note a zoppano il ritmo, già bolso, della narrazione. In breve, il libro è ricchissimo di notizie, ma somiglia a un magazzino in disordine. Spampanato, anche lui di Nola, ha certamente innalzato monumento al suo grande concittadino, però si tratta di un monumento troppo carico e piuttosto freddo. C'è più testa che cuore, più ricerca erodita che palpito per il destino del filosofo. Anche gli altri studiosi italiani di Bruno non dimostrano molta partecipazione umana alle tragiche vicissitudini del loro autore. Ciò dipende forse dal fatto che gli italiani, in genere, hanno più sensibilità per la commedia che per la tragedia, e per questo non sentono un personaggio tragico come Giordano Bruno. Lo sentono molto di più gli stranieri, a cominciare dai tedeschi, i quali hanno addirittura tentato di germanizzarlo. Nella prefazione al primo volume della sua edizione di Bruno, Leipzig 1904-1906, Ludwig Culembach arriva a scrivere che nelle vene del filosofo doveva scorrere sangue germanico. E perché mai? Perché a Nola ci sarebbe stata una colonia di lanzichenecchi tedeschi. Ci mancava solo questo, di considerare Giordano Bruno un lanzichenecco o un rampollo di lanzichenecchi. E non parliamo di altre cervellotiche considerazioni di Culembach, che si rifà a due eccellenti studiosi delle razze quali Chamberlain e Dresmans. Siamo seri. E che cos'è questa strana storia, ripetuta anche da Eidegger, secondo la quale solo la lingua tedesca sarebbe adatta a esprimere concetti filosofici. Culembach scrive, così il pensiero di Bruno avrà la sua piena ripercussione solo quando, liberato dal suo casuale involucro linguistico neonatino, si esprimerà nella più nobile delle lingue viventi, il tedesco. La prova di ciò la fornisce, oltre a Schopenhauer, sul mestiere di scrivere è sullo stile, che non era propriamente un nazionalista, che disgrazia, soprattutto Fichte, discorso alla nazione tedesca, L. Culembach, in G. Bruno, Gesammel Teuerche, prefazione Alivol. Ma guardate un po' che cosa ci tocca di sentire. Schopenhauer si rivolterebbe nella tomba, se leggesse ciò e si vedesse messo accanto al ciarlatano Fichte, come soleva chiamarlo. Io so per esperienza quanto sia difficile tradurre in tedesco la prosa rupestre di Giordano Bruno, e perciò riconosco a Culembach tutti i suoi meriti, ma trovo piuttosto infantile il suo sperticato e cieco nazionalismo. Proprio Schopenhauer, che egli cita a sproposito, ci insegna la diffidenza e il disprezio verso il nazionalismo. La filosofia e la cultura in generale non conoscono confini, e le muse non hanno bisogno di un passaporto. Tra le disgrazie postume toccate a Giordano Bruno c'è anche quella di essere caduto nelle mani dei pedanti e degli accademici, due categorie di persone da lui tanto detestate in vita. Questa è gente che sarebbe capace di fare accoltellate per un avverbio o una preposizione. Oppure muoiono dietro alle varianti e, se ne scoprono una, giubilano come se avessero individuato le idee di Platone. Inoltre credono che sia di capitale importanza stabilire se nei documenti del processo, peraltro non scritti da Bruno, la virgola sia proprio una virgola o un punto e virgola. E via bazzecolando. Ma c'è di più. Per dimostrare come si chiamava questo o quello stampatore di Bruno, oppure per stabilire se una sua opera sia uscita un mese prima o un mese dopo, gli accademici scrivono più pagine di quante ne abbia scritte il filosofo per dimostrare l'infinità dell'universo. E tutto questo lo chiamano lavoro scientifico. Sorge il sospetto che a questi bravi signori, in fondo, non importi assolutamente nulla di Bruno e che lo prendano solo come soggetto su cui scriverò le loro bazsoffie accademiche, dette più elegantemente contributi. Senza voler generalizzare, si può dire che Bruno non è cosa per professori. Non lo capirono da vivo e continuano a non capirlo da morto. Lo dimostra proprio la bibliografia accademica sul filosofo, la quale consiste per lo più in una sterpaglia di saggi e di saggetti su questo o quel particolare, ma quasi mai ci scappa un libro d'insieme pieno di slancio. Non mi si fraintenda, per ricostruire la grande avventura intellettuale di Giordano Bruno, su cui per tanto tempo ha gravato una cappa di silenzio, qualsiasi particolare, anche il più piccolo, è utile e necessario. A patto, però, che il particolare venga inserito in una visione d'insieme che si faccia, per così dire, una specie di anastilosi in chiave filologica o biografica. Mi è stato riferito che lo storico Walter Maturi, dopo aver letto il libro del professor Luigi Firpo sul processo di Bruno, commentò, leggendo questo libro veniamo a sapere che cosa mangiò Bruno nel carcere dell'Inquisizione a Roma. Ma il personaggio Giordano Bruno dov'è? Esattamente la stessa cosa si potrebbe dire dopo aver letto tanta bibliografia accademica. Notte su note, che si uncinano e si intrecciano l'una con l'altra, ma la tragedia di Bruno dov'è? Studiosi si fatti o li chiamerei scalpellini della cultura, sanno squadrare la piccola pietra, ma non hanno idea dell'edificio. Eppure la vita di Bruno è così tragicamente bella che dovrebbe commuovere anche le pietre. Egli visse ciò che pensò e pensò ciò che visse, la sua vita rispecchia la sua filosofia e viceversa. È quello che dice anche Bertrand Levergeois nel suo magnifico libro Giordano Bruno, uscito a Parigi nel 1995. È un libro profondo senza essere pesante. Bruno fu sicuramente la vittima più illustre dell'inquisizione, ma non l'unica, innumerevoli altri, prima e dopo di lui, furono bruciati vivi in nome del Dio cristiano. E si trattava molto spesso di persone intellettualmente dotate, perché chi più pensa più si ribella alle imposture. Così la Chiesa, per spianare la strada allo Spirito Santo, toglieva di mezzo l'intelligenza. D'altronde la religione, come le lucciole, ha bisogno dell'oscurità per risplendere. E non facciamoci illusioni, perché in questo povero mondo le tenebre prevarranno sempre sulla luce. Lo dice molto bene Lichtenberg, si parla molto di illuminismo e si desidera più luce. Ma, Dio mio, a che serve tutta questa luce, se la gente è cieca, mentre quei pochi che hanno gli occhi li chiudono deliberatamente? Aforismen, L469. Li chiudono oppure glieli chiudono, come per l'appunto nel caso di Giordano Bruno. E se prima erano i preti dell'ideologia religiosa a spegnere gli occhi del prossimo, in seguito lo hanno fatto i preti dell'ideologia politica. È cambiato forse qualche cosa? Sì, è aumentato il numero delle vittime. Povera umanità. Nessuno è mai riuscito a decifrare l'enigma dell'esistenza e così viviamo avvolti da una nebbia con visibilità zero. Ma in tutte le epoche e a qualsiasi latitudine non sono mai mancati quelli che, spacciandosi per segretari del cielo, asserissero di avere, al riguardo, delle rivelazioni speciali. E guai a chi non credeva alle loro favole. Veniva subito accusato di impietà e magari messo a morte. Nessuno è tanto pericoloso come chi crede di avere la verità in tasca e pretende che gli altri gli prestino fede cieca e assoluta. Io non ho nulla contro chi crede onestamente e pacificamente in qualche cosa che trascende il mistero della vita mortale o meglio il mondo fenomenico, ma rabbrividisco dinanzi agli impostori che instaurano dittature ideologiche. Ciò spiega perché qua e là ho usato un tono aspro e sarcastico. Ma questo il lettore lo capirà da solo. E poi, diciamola tutta, i preti ci ammazzano i filosofi, vale a dire gli unici apportatori di luce in questo mondo del mistero, e noi non dovremmo neanche protestare. Spero che la Chiesa, almeno in questo, non pretenda degli applausi. Un'ultima considerazione. Alcuni vorrebbero che la Chiesa riabilitasse Giordano Bruno. Un momento, la Chiesa dovrebbe semmai riabilitare se stessa e non le sue vittime. Bruno, al quale ormai tutti riconoscono uno dei primi posti nella storia della filosofia, non ha alcun bisogno di essere riabilitato dai suoi carnefici. Sarebbe tuttavia un gesto nobile e bello, se il Papa si recasse in campo dei fiori e recitasse, magari in ginocchio e senza televisione, il confite ordinanzi alla statua del filosofo. Con tale gesto il vicario di Cristo, oltre a rendere più credibile se stesso, potrebbe in qualche misura lavare le colpe dei suoi predecessori. Ma non lo farà, ne siamo certi, perché la Chiesa, anche se predica l'amore, preferisce apparire anziché essere. Del resto quando l'attuale Papa Giovanni Paolo II, nel maggio del 1992, visitò Nola, il monumento a Giordano Bruno in quella città fu ricoperto con un telo. Domanda, si voleva risparmiare al Papa la vista del filosofo o al filosofo la vista di un altro Papa? Io propendo per la seconda ipotesi, che mi sembra più logica. Eppure la Chiesa potrà salvarsi e sopravvivere, solo se si metterà in condizione di non dover temere lo sguardo accusatore di un Giordano Bruno. Ci auguriamo che lo faccia, perché sarebbe pur sempre una iattura, se in quest'epoca di disorientamento generale, dove non esistono più né valori né riferimenti etici, crollasse anche una istituzione bimillenaria come la Chiesa. E una cosa bisogna oggi dire a favore della Chiesa cattolica, paragonata ad altri monopoli della verità, essa è diventata più tollerante e meno allergica alle critiche, sì che la si può attaccare senza correre il rischio di essere linciati o impiccati. Sarà forse perché i chierici si sanno adattare ai tempi come la salamandra all'ambiente, ma è così. Una buona religione, ammesso che esista, non dovrebbe né avere né fare paura, ma solo dare dei buoni esempi. Questo libro esce direttamente in tedesco. Così il mio Giordano Bruno è già in partenza privo dell'involucro linguistico neonatino, come direbbe il Kulenbeck. Per non appesantire il testo, ho ridotto il più possibile riferimenti bibliografici e ho eliminato le note a piedi pagina, le quali servono solo a distogliere l'attenzione del lettore. Soprattutto ho cercato di dare alla narrazione uno stile andante e vivace, qua è l'anche scansonato, e spero di esserci riuscito almeno in parte. Forse in una materia come questa si dovrebbe piuttosto parlare di ritmo di danza, sia pure di danza della morte. Una novità assoluta è lo stupendo ritratto ideale di Bruno che figura sulla copertina. È stato fatto appositamente per questo libro dal pittore torinese Ottavio Mazzonis. Il dipinto, con la sua plasticità e immediatezza, è più forte della parola, visualizza il pensiero. Il falso e brutto ritratto di Bruno, che viene sempre riprodotto e nel quale egli sembra un cero pasquale, non vogliamo vederlo più. Una figura geniale e demoniaca come Giordano Bruno non può avere un viso da mozzarella. Questo proprio no. Bisogna dargli un'espressione drammatica, con uno sguardo profondo intento a scrutare il mistero dell'universo, ed è quello che ha fatto Mazzonis. Premessa all'edizione italiana, l'edizione originale di questo libro è in lingua tedesca. Il testo italiano, che ho curato io stesso, segue fedelmente quello tedesco, tranne in qualche piccolo particolare di nessun conto. Molti mi hanno chiesto perché il libro sia uscito prima in tedesco. È semplice, perché parlare liberamente della Chiesa, senza che nessuno si scandalizzi o ti salti addosso, è molto più facile in tedesco che in italiano. Mi si intende? Bisogna anche dire che nei paesi di lingua tedesca Giordano Bruno è certamente più amato e capito che in Italia. Non per niente l'editore B.O. Condiere Silau, appena saputo che intendevo scrivere una biografia del filosofo, volle subito farmi il contratto. Nel frattempo la linea ascensionale della bibliografia brugnana ha continuato a salire ed è arrivata alle stelle. È la prova più sicura che anche il nostro filosofo ha avuto la sua Pasqua di resurrezione. Ci sono state pure le celebrazioni per il quarto centenario della morte, compresa la mostra storico-documentaria organizzata da Eugenio Canone nella Biblioteca Casanatense di Roma. E la Chiesa come ha reagito? Con suprema abilità, bisogna riconoscerlo. Non potendo far finta di niente, si è prontamente inserita nelle manifestazioni e ne ha preso l'appalto. Così Giordano Bruno, dopo essere stato bruciato vivo, è stato anche affogato nell'acqua santa. La parte peggiore l'hanno fatta agli accademici, che o sono stati zitti o si sono comportati come preti di complemento. Forse hanno paura di andare all'inferno. Già, ma sono proprio sicuri che Caronte lì vorrebbe con sé e non li rispedirebbe piuttosto in sacrestia? Il dubbio è lecito. Giordano Bruno, umana anteo culos foede cum vita i acerenterri soppressa gravi subreligione cae capo taca e li regionibus sostendeva torribili superaspectuno talibus instans. Virgola processit longe flammantia moeniamun di Lucrezio, dere rum natura, i, avvertenza, o l'uguale Giordani Bruni Nolani, opera latine conscripta, Napoli Firenze 1879-1891, tre voli, in otto parti. O uguale Gi Bruno, opere italiane, a cura di Gi Gentile, due voli, Bari 1925, seconda edizione, terza edizione a cura di Gi Aquilecchia, Firenze 1958, ristampa, Firenze 1985. L uguale Gi Bruno, opere latine, trad. Dici Monti, Torino 1980, contiene solo i poemi francofortesi. O uguale Gi Bruno, o i ouvres completes, ed. Les belles lettres, Paris. È la nuova edizione critica di tutti gli scritti del filosofo, italiani e latini, con traduzione francese a fronte. L'edizione è prevista in una ventina di volumi. Finora sono uscite solo le opere italiane. S uguale V spampanato, vita di Giordano Bruno, con documenti editi e inediti, Messina 1921, ristampa anastatica, Roma 1988. D uguale V spampanato, documenti della vita di Giordano Bruno, Firenze 1933. Sono suddivisi in documenti napoletani, ginevrini, parigini, tedeschi, veneti e romani. Vengono indicati in forma abbreviata. Esempio, Doc. Ven. Uguale documenti veneti. F uguale L firpo, il processo di Giordano Bruno, Roma 1993. Contiene tutto ciò che ci è pervenuto sui processi di Venezia e di Roma. Le altre fonti vengono di volta in volta menzionate nel testo oppure tratte dai libri indicati nella bibliografia, spesso i titoli delle opere di Bruno vengono indicati in forma abbreviata. Spaccio uguale spaccio della bestia trionfante, cena uguale la cena delle ceneri, c così via. Nola, ricca di storia millenaria, Nola si estende ad est del Vesuvio e ai piedi del Monte Cicala. Il 19 agosto del 14 d. Civi morì Ottaviano Augusto, il cui monumento sorge nel centro della città. Svetonio racconta che l'imperatore, sentendosi prossimo alla fine, chiese agli amici che lo circondavano se, a loro parere, egli avesse recitato bene la Commedia della Vita. Poi, parlando in greco, aggiunse, se è andata bene, allora applaudite il mimo e tutti gioiosamente salutateci mentre ci congediamo. Poco lontano dal monumento ad Augusto si trova quello a Giordano Bruno, il quale recitò non già una commedia, bensì una tragedia. E senza che nessuno lo applaudisse. Semmai gli applausi, peraltro contrastati, vennero dopo, molto tempo dopo, tanto è vero che Nola, la sua città natale, si ricordò di erigergli quel monumento solo nel 1867. Una fatale coincidenza, si è pure a distanza di secoli, Augusto nacque a Roma e morì a Nola, Bruno viceversa nacque a Nola e morì a Roma. Ora le loro statue, nel centro della città campana, quasi si fronteggiano e formano uno strano contrasto, da una parte l'imperatore che dominò il mondo e fu glorificato, dall'altra il filosofo che il mondo cercò di illuminarlo e per questo fu condannato ad essere arso vivo. Ma anche Augusto era a modo suo filosofo, se parlava di commedia della vita. Quanto meno era disincantato e non si lasciò abbagliare dall'effimera gloria che tanto inebri ai poveri figli della terra. Proprio le vie di Nola sono una testimonianza eloquente della caducità di tutte le cose. Le statue, le colonne e i capitelli, che in epoca romana ornavano la città, ora giacciono nella polvere o fanno da basamento a case costruite molto tempo dopo e senza l'assistenza delle muse. Che cosa avrebbero voluto eternare i frammenti romani che sono incastonati nel basamento del cinquecentesco palazzo Covoni? Anche il palazzo Orsini, il più ragguardevole della città, è fatto con pietre romane. E così pure le chiese. Qui, come in altre parti del mondo, gli splendidi templi romani furono abbattuti soprattutto dai cristiani o dai ciandala, come direbbe Nice. Si trattò di un'ecatombe dell'estetica per il trionfo della straccioneria intellettuale. La cripta del Duomo di Nola risale all'epoca di San Paolino, che per erigerla fece distruggere un precedente tempio di Giove. Ma che altro ci si poteva aspettare da un fanatico come San Paolino, che giubilò alla notizia che i cristiani avevano distrutto il meraviglioso Serapeo di Alessandria d'Egitto. Carmen 18, 107-110. La terra di Nola, su cui si riversarono le ceneri del Vesuvio, è una delle più fertili del mondo. Oltre che di prodotti agricoli, però, essa è ricca anche di reperti archeologici, ne sono forniti moltissimi musei, italiani e stranieri. Terra molto generosa, dunque, che dispensa cibi e cultura. Manola, le cui origini si perdono nella notte dei tempi, ha sempre prodotto anche caratteri forti e indomiti. Dopo la battaglia di Canne, la città divenne la principale base d'operazione dei Romani contro i cartaginesi. Annibale l'assedio, ma in vano, anzi fu lui ad essere sconfitto in un combattimento che si svolse a ridosso delle mura di Cinta. Così i fieri Nolani e le truppe del console Claudio Marcello insegnarono al mondo che il grande capitano cartaginese non era invincibile. Negli ultimi anni dell'impero, Nola era una delle più importanti città della Campania e aveva dodici porte, due anfiteatri, di cui uno in marmo, e molti templi. Insomma, come dice il poeta Luigi Tanzillo, un tempo la città fu grande e possente, ma poi la fortuna le voltò le spalle. Nel Medioevo, tra orde barbariche, cataclismi ed eruzioni del Vesuvio, Nola riuscì a salvare poco più del suo nome. Poi ci furono anche le pestilenze. Durante quella del 1504 morirono quasi diecimila persone. La città risorse, ma non riacquistò più l'importanza e lo splendore di un tempo. All'inizio del XVI secolo la sua superficie era appena un terzo di quella antica. Tuttavia Nola non si lasciò piegare dalle calamità, di qualunque natura esse fossero, e riprese a prosperare. Vincenzo Spampanato, autore della più circostanziata biografia di Giordano Bruno e Nolano lui stesso, dedica molto spazio alla vita culturale della città durante il Rinascimento. Se è vero che molti si davano alle armi e brandivano la spada, è altrettanto vero che altri coltivavano le lettere e brandivano la penna. Qualche nome di spicco, lo storico Ambrogio Leone, amico e corrispondente di Erasmo da Rotterdam, che lo chiama Doctissimus, lo scultore Giovanni Merliani, l'architetto militare Carlo Testi e il giovane Pomponio de Algerio, finito sul rogo proprio come, più tardi, sarebbe capitato al suo concittadino Giordano Bruno. Ma Nolano per sangue e per elezione, se non di nascita, era anche Luigi Tanzillo. Bruno stesso lo chiama il Nolano Tanzilloi, 2, 718. Oltre agli studi letterari e filosofici, a Nola si coltivavano anche le buone maniere. Non era ammessa la rusticità e si badava al parlare elegante. L'ospite veniva accolto con grande cordialità e cortesia, era forse il retaggio della cultura greca. Non c'erano fazioni e non si conoscevano né tradimenti, né rapine, né omicidi. Leggendo queste cose, par quasi di sognare. Citiamo ancora Tanzillo, che in una poesia su Nola scrive, «Questa è la terra al ciel tanto gradita, che il nome di felice all'altre tolle, questa è la terra che ha ben farti in vita, e per altri e per sé tanto sestolle». Riesce facile capire, dunque, la struggente nostalgia di Bruno per il luogo natio, cui, come vedremo in seguito, sciolse un inno di grande bellezza. E si capisce anche perché egli aggiungesse al proprio nome quello di Nolano. Tutti buoni e pacifici, dunque, coloro che vivevano ai piedi del monte Cicala? Parrebbe di sì. Ma all'occasione i Nolani seppero dimostrare anche forza di carattere e in sofferenza verso i tiranni. Pomponio dei Algerio e Giordano Bruno, che preferirono la morte alla sottomissione, sono gli esempi più vistosi. Chissà, forse essi avevano ereditato i cromosomi e la combattività di quelli che si erano opposti ad Annibale. La semente di un popolo non va mai persa del tutto. E anche sintomatico che a Nola, all'inizio di luglio del 1820, si ebbe il primo motto del risorgimento. Ribellarsi è giusto, queste parole, scritte con la vernice, le lessi sulla facciata di un edificio poco distanti dal monumento a Bruno. Oggi Nola ha circa 30.000 abitanti. Vista dal monte Cicala, che è poi una collina, fa una bella impressione. Il panorama, con il monte somma all'orizzonte, è magnifico. Ma se ci si aggira per le vie di Nola, si riceve subito un'impressione di disordine e di trasandatezza. Non sarebbe giusto ribellarsi anche contro chi amministra così male le nostre città? Il palazzo del municipio ospita il circolo Giordano Bruno, dove ogni anno si commemora la morte del filosofo e poi si porta una corona al suo monumento. Di tanto in tanto si fa anche qualche, convegno sulla sua filosofia. Molto più di Giordano Bruno, però, ai Nolani sta a cuore San Paolino, che è il vero genius loci. Al supposto inventore delle campane, in realtà le campane esistevano da tempo immemorabile, vissuto dal 354 al 431, la città tributa onori tra il faraonico e il farsesco. Durante la sua festa, che viene celebrata nel mese di giugno, si portano in processione otto guglie ad orne di giglie alte fino a 30 metri. Tutto questo per ricordare che il vescovo Paolino, che pare si fosse recato in Africa per riscattare dalla schiavitù dei vandali il figlio di una vedova di Nola, fu accolto al ritorno con tappeti di gigli. Si tratta, insomma, di una sacra farsa, che alla gente dice molto di più che non la filosofia di Bruno. E anche le campane, dette nel Medioevo nolae o campanai, cioè della campania, sono per il pubblico di gran lunga più eloquenti di un trattato di filosofia. No, lo spirito di Giordano Bruno bisogna andarlo a cercare sul Monte Cicala, dove elli si aggirò da ragazzo. La è possibile raffigurarselo con lo sguardo già intento a scrutare i misteri del mondo. La fanciullezza, Schopenhauer dice che la vita di un uomo di genio è sempre tragica, anche se, vista dall'esterno, può sembrare tranquilla. Però ci sono delle vite che appaiono tragiche anche all'esterno. Quella di Giordano Bruno ha tutto l'andamento di una tragedia in cinque atti, fanciullezza, giovinezza, esilio, processo e condanna a morte. Ma mentre alcuni atti ci sono abbastanza noti, gli altri li conosciamo solo attraverso spiragli o sprazzi di luce, e questo rende ancora più cupa la tragedia, così come i lampi rendono più sinistra la notte. Scarseggiano le notizie sulla sua famiglia e sui suoi primi anni di vita. Nei Costituti Veneti del 1592 e li dichiarò, io ho nome Giordano della famiglia di Bruni, della città di Nola vicina a Napoli 12 miglia, nato ed allevato in quella città, e la professione mia è stata idee di lettere ed ogni scienza, e mio padre aveva nome Giovanni, e mia madre Fraulissa Savolina, e la professione dei mio padre era di soldato, il quale è morto insieme anche con mia madre. E ancora, io son d'età dei anni 44 in circa, e nacqui, per quanto ho inteso dall'e-mail, dell'anno 48, Doc. Ven. 8. La data esatta della sua nascita, dunque, non la conosceva neppure lui. Secondo lo spampanato, che ha scavato a fondo più di qualsiasi altro biografo, Bruno sarebbe nato nel mese di gennaio o di febbraio del 1548. Ma non proprio in Nola città, bensì nella contrada di S. Giovanni del Cesco, alle falde del Monte Cicala e di fronte al Vesuvio. È lo stesso filosofo a dire che la casa di suo padre si trovava alle radici del Monte Cicala. E dove, se non vicino a un vulcano, poteva nascere un uomo così focoso e tempestoso. Fu battezzato con il nome di Filippo, in onore dell'erede al trono di Spagna Filippo II. Giordano è il nome che assunse quando entrò nell'ordine dei Domenicani. Ebbe fratelli e sorelle? Non si sa. Se li ebbe, egli fu l'unico a sopravvivere ai genitori. La madre, di piccola borghesia rurale, aveva circa 26 anni, quando mise al mondo quel figlio geniale, il padre superava la Trentina. Alcuni si sono chiesti se Giordano Bruno fosse di famiglia nobile. A una simile domanda si potrebbe rispondere che egli, la nobiltà, ce l'aveva nella testa. Ad ogni modo il padre, se non di alto lignaggio, era certamente un piccolo gentiluomo. Era la condizione richiesta, in quel tempo, per fare l'uomo darme. E non doveva essere neppure indigente, visto che mandò a studiare il figlio a Napoli. Un poveraccio questo non se lo sarebbe potuto permettere, e forse non ci avrebbe neppure pensato. Anche il disdegno che il filosofo ebbe sempre per la folla e per la grossolanità farebbe pensare a un'origine distinta. È vero che nel candelaio ci sono espressioni grevi e sboccate, ma non bisogna confondere la finzione scenica con la realtà. Nella sua vita errabonda e tormentata egli cercò di tenersi piuttosto in nobile isolamento. Giovanni Bruno, nato intorno al 1517, abbracciò molto presto la professione delle armi. Prima fu al servizio del conte di Caserta, don Baldassarre a cua viva, poi del duca di Sessa, don Consalvo di Cordova. La sua qualifica era di alfiere, e pare che si distinguesse fra i commilitoni. Dai libri paga risulta che arrivò a guadagnare fino a 86 ducati all'anno, che erano lo stipendio massimo di un uomo d'arme. Fatalità, uno dei suoi commilitoni era Leonardo Santoro, fratello di quel Giulio Santoro che sarebbe stato uno dei giudici più accaniti del filosofo. Come uomo d'arme Giovanni era costretto a rimanere per lunghi periodi lontano dalla famiglia, ma questo non significa che la trascurasse. Anzi, chiedeva e riceveva spesso notizie. Risulta che prestò servizio almeno fino a luglio del 1582, quando aveva superato di parecchio la sessantina e quando il figlio, esule e perseguitato, andava peregrinando per l'Europa. Non conosciamo la data della sua morte. Alla fine del 1585 era ancora vivo, ma nel maggio del 1592, come si è visto, era già morto. Si era ritirato a Nola e così ebbe la fortuna di morire in casa propria, il che dimostra che menare la spada è meno pericoloso che menare la penna. Doveva essere un uomo saggio e disincantato, come si rileva da una sua battuta riferitaci dal figlio negli eroici furore, indi dicendo una sera dopo cena un certo dei nostri vicini, giamai fui tanto allegro quanto sono adesso, gli rispose Joan Bruno, padre del Nolano, mai fuste più pazzo che adesso ho i, due, novecentosettantacinque. La casa natale del filosofo, come tante altre cose legate alla sua fanciullezza, è andata distrutta. Ma non doveva essere una meraviglia, se aveva delle fessure da cui entravano i serpenti. Lo si deduce da un episodio che racconta lui stesso nel sigillus sigillome che gli capitò quando era ancora bambino. Un giorno vide che una serpe, sbucata dalla parete, si avvicinava alla sua culla. Terrorizzato, si mise subito a gridare per farsi sentire dal padre che riposava nella camera accanto. Ma se non era bella la casa, lo era il posto in cui sorgeva. Bruno ne conservò sempre un vivo ricordo, anche quando era molto lontano nello spazio e nel tempo. Nelle sue opere ci sono diversi accenni ai luoghi in cui visse i suoi primi anni di vita. Nello spaccio della bestia trionfante, egli fa dire a Mercurio, in quel tempo il cuculo soda cantare dalla starza, e non faccia udire nemmeno che dodici cuculate, e poi si parta, e va dalle roine del castello cicala per un decimennuti d'ora, e da là se ne vuole a Scarva Itaoi, 2, 634 sg. Starza significa tenuta, fattoria, e il luogo cui allude Bruno conserva ancora tale nome. Così egli vuole dire che il cuculo, dopo aver cantato nella fattoria che si estendeva fra le pendici del cicala e l'odierno cimitero di San Paolo, poteva, con un breve volo, giungere alle rovine del castello e di la volarsene ancora oltre. Nella nota di commento a questo passo autobiografico, Giovanni Gentile scrive che Bruno si compiacque di raccogliere alcuni ricordi del piccolo mondo in cui era vissuto fanciullo, e che a Londra, dopo tanti anni che ne era lontano, dopo tanti paesi visitati e tanta vita più ampia in cui si era trovato mescolato, gli tornava naturalmente alla mente, volendo rappresentare le piccole cure che la provvidenza divina doveva pur darsi per la piccola vita, anche volgare, di una piccolissima parte del mondo. Percorriamo anche noi i sentieri del Monte Cicala, dove da ragazzo Giordano Bruno andava a sentir cantare il cuculo e forse già meditava sui misteri del mondo. Si prova una strana sensazione all'idea di ricalcare i suoi passi e di vedere le stesse cose che vedeva lui, i monti e le colline, la pianura e il paesaggio. Alcuni ulivi sono così grandi che sicuramente esistevano già allora. Poi ecco i ruderi del castello, le cui origini risalgono all'inizio del XII secolo. Era già in rovina nel 1512, quando il nolano Ambrogio Leone scrisse la storia della sua città. Tra quelle mura crollate la fantasia galoppa ed evoca la presenza del precocissimo ragazzo che vi si aggirava pieno di curiosità. Ma il cuculo dov'è? Forse cantò solo per allietare l'animo del fanciullo e poi scomparve per sempre. Nella natura Bruno, così sensibile, cercava probabilmente anche conforto, visto che dovette abituarsi fin da piccolo a lottare con le difficoltà, la fanciulezza del Bruno non trascorse lieta e serena. Per lui non giochi, non divertimenti, non compagni della sua età e condizione, ma i sospiri e le lacrime della madre per la lontananza del marito soldato, e forse a volte per le ristrettezze domestiche. Di quei giorni di solitudine e di tristezza egli non si scordò più, s58. Infatti vi accennerà più di una volta, come vedremo in seguito, ma lo farà sempre con dignità e quasi con pudore, perché chi ha veramente sofferto nella vita non ne parla volentieri. I grandi dolori sono muti. Chi piange troppo forte difficilmente ha un carattere nobile. Qui gli psicologi, che sanno sempre tutto, potrebbero imbastire qualche tesi sulle supposte lacrime della signora Bruno e sulla mancanza di guida paterna per il figlio. Noi preferiamo rimanere sul monte cicala e contemplare il panorama. La montagna che si vede di fronte e che chiude l'orizzonte non è proprio il Vesuvio, ma il monte Somma, nella cui caldera si è formato, in tempi storici, il cono del Vesuvio. Insomma si tratta di un vulcano in un altro vulcano, o meglio di un vulcano vivo in un vulcano morto. Se da un lato il panorama rallegra la vista, dall'alto inclina la mente alla meditazione. Provare stupore dinanzi ai fenomeni della natura, dice Platone, è la vera origine della filosofia, e Bruno, tale stupore, incominciò a provarlo proprio sul monte cicala, al quale sciolse un himno di grande bellezza nei versi di esordio del terzo libro del De'immenso. Ricordo che quando ero fanciullo, il tuo grembo fecondo, o amenissimo monte cicala, nutriva le mie giovani carni, mi attraeva la tua sacra immagine. Incoronato comeri di edera, e dei rami degli olivi, e cinto tutti intorno di cornioli e di allori, di mirti e di rosmarini, di castagni, di querce, di pioppi, di olmi, lieti del connubio con la vite feconda, mentre una mano rugosa porgeva uva alla mia tenera mano, tu, tendendo l'indice, mi dicesti, guarda verso mezzogiorno, guarda da quella parte il mio fratello Vesuvio. È mio fratello e ti vuole bene anche lui, lo credi? Ora dimmi, se ti mando là, ci vuoi andare? Rimarrai poi con lui. Allora io, rivoltomi da quella parte con i miei limpidi occhi, contemplando quella figura in forme e percorrendo con lo sguardo il suo aspetto, nient'altro che un ammasso nerastro di terra, dissi, quello con il dorso prominente, quello con la schiena curva e dentellata, che raggiunge e fende il cielo. Tanto distante di qui, brutto, coperto di fumo, non produce alcun frutto, né pomi, né uva, né i dolci fichi, è privo di alberi e di orti, oscuro, tetro, triste, truce, bile, avaro. Ma tu, sorridendo, eppure è mio fratello e mi ama, e vuole bene anche a te. Osservalo bene, dunque, e non disprezzare le sue blandizie. So che non farà niente che ti sia molesto, e se non vorrai rimanerci ritornerai. Il ragazzo andò, e dopo che ebbe osservato da vicino il Vesuvio, ricco di vegetazione e abbondante di frutta, fece subito ricredere i suoi ingannevoli occhi. Quella montagna, che da lontano gli era sembrata brulla e inospitale, ora lo accoglieva amorevolmente e lo ricopriva di doni. Qui il filosofo si serve di un elemento autobiografico, sia pure trasfigurato poeticamente, per confutare Aristotele, il quale, basandosi solo su sensi, aveva escluso che ci potessero essere corpi infiniti o finiti al di là del cielo. Sempre nel De'immenso, alla fine dell'ottavo capitolo del secondo libro, si legge, anch'io, da ragazzo, credetti che non vi fosse nulla oltre il Vesuvio, dal momento che non potevo scorgere niente al di là di esso. Ma poi si era ricreduto. No, i sensi non bastano, anzi sono ingannevoli, e Aristotele, il principe dei peripatetici, che si basava esclusivamente sul giudizio dei sensi, giungeva a delle conclusioni sciocche. Così Bruno, che vedeva con l'occhio della mente, anticipava di due secoli la critica trascendentale. Bruno fu un genio precoce quanto e forse più di Campanella. Ma da chi ebbe i primi erudimenti? Non dai Gesuiti e neppure dai Domenicani, come pure si è pensato, perché i primi si stabilirono a Nola sul finire del 1559 e i secondi non vi ebbero alcun convento durante il XV secolo. Tuttavia a Nola non mancavano scuole e insegnanti privati, anche per il latino, e Giovanni Bruno seppe approfittarne per l'educazione del figlio. Secondo lo spampanato, il futuro filosofo avrebbe imparato a leggere e a scrivere da un prete nato intorno al 1530, che si chiamava Gian Domenico dei Annello ed era figlio di quella Laurenza ricordata nello spaccio della Bestia Trionfante. Il sacerdote teneva scuola privata in una casa vicina a quella dei Bruno. Successivamente il ragazzo avrebbe frequentato la scuola di un certo Bartolo di Aloia, che nel 1542 aveva preso in affitto una delle case vicino al Palazzo Severino e vi aveva aperto un ginnasio privato. I programmi e i metodi didattici ricalcavano quelli che nel 1536 Lucio Giovanni Scoppa aveva introdotti nella sua scuola napoletana di San Pietro in Vincoli, il primo ginnasio pubblico e laico del vicereame di Napoli, essi prevedevano uno studio ossessivo quanto sterile della grammatica, che veniva somministrata in dosi urto. Tutti i giorni, dall'alba al tramonto, grammatica, grammatica e poi ancora grammatica. Se qualche allievo accusava sintomi di rigetto, giù botte. Possiamo facilmente immaginare quanto il ragazzo preferisse andarsene a respirare nell'aperta campagna o sul suo amato Monte Cicala, dove contrasse ben presto l'abitudine all'osservazione diretta dei fenomeni. Per i grammatici, che gli avevano afflitto l'anima fin da piccolo, ebbe sempre un profondo disprezzo. Nelle sue opere, specialmente in quelle italiane, ne sferzò a sangue la pedanteria. Certe sue tirate sarcastiche ricordano quelle di Erasmo, il quale diceva che i grammatici sarebbero capaci di fare accoltellate per un solecismo. Del resto Erasmo era uno dei suoi autori prediletti, simili simili gaude. Le grandi intelligenze amano correre per conto proprio e non sopportano la pedanteria dei grammatici, i quali, come dice Philip Sidney, amico di Bruno a Londra, dum verba settantur, resipsas negligunt. Non essendoci a nola l'università, i giovani che volevano proseguire gli studi dovevano per forza andare altrove. I più facoltosi si recavano addirittura a Padova, come avevano fatto il figlio dello storico Ambrogio Leone e Pomponio de Algerio, del quale abbiamo già parlato. Bruno, invece, si recò nella vicina Napoli, era, a quanto risulta, il 1562, e quindi lui aveva 14 anni. Riportiamo un altro passo delle dichiarazioni fatte dinanzi al Tribunale Veneto il 26 maggio del 1592, e sono stato in Napoli a imparar l'ittere di umanità, logica e dialettica sino a 14 anni, e solevo sentir le lezioni pubbliche d'uno che si chiamava il Sarnese, ed andavo a sentir privatamente la logica da un padre agostiniano, chiamato Teofilo da Vairano, che dopo lesse la metafisica in Roma. E dei 14 anni, o 15 in circa, pigliai l'abito de esse Domenico in Napoli, doc. Ven. 8. Ma qui i conti non tornano, ci sino a 14 anni sta sicuramente per a partire dai 14 anni. O Bruno fu tradito dalla memoria, peraltro formidabile, oppure venne frainteso da chi scriveva i verbali degli interrogatori. Infatti un documento, pubblicato da Spampanato, prova in maniera irrefutabile che egli indossò l'abito di Chierico non a 14 e neppure a 15, bensì a 17 anni e mezzo, di e quinto decimo mensis iuni mdl x v receptus fuita ad habitum clericorum frateri Ordanus de Nola, qui in seculo vocabatur Philippus s. 606. In seguito, dopo la morte sul rogo del filosofo, una mano ignota giunse a margine, obit pessime. Si trattò dunque di una vocazione tardiva, perché 17 anni e mezzo erano un'età insolitamente avanzata per vestire l'abito di novizio, anche se quello non fu l'unico caso. Di regola i Domenicani preferivano virgulti più teneri, sì da poterli piegare e modellare meglio. Inoltre Bruno, nei tre anni trascorsi a Napoli prima di entrare nell'ordine dominicano, e cioè dal 1562 al 1565, aveva seguito dei corsi e fatto degli studi che non erano certo una propedeutica alla vita conventuale, ma chi erano in Sarnese e Teofilo d'Avairano, di cui nessuno saprebbe niente, se Bruno non ne avesse fatto i nomi. La fama è spesso legata a un semplice accidente o al caso. Giovanni Vincenzo da Sarno, detto il Sarnese, fu professore di logica nell'Università di Napoli, dove gli davano uno stipendio da fame, 25 ducati all'anno, vale a dire meno di un terzo di quello che guadagnava il soldato Giovanni Bruno. Sempre straccioni e morti di fame, questi poveri professori. Ma il Sarnese non se ne lamentò mai, forse perché, come gli antichi greci, riteneva indecoroso vivere sulla filosofia, anziché per la filosofia. L'uomo nobile, di pensiero, non dovrebbe mai trasformarsi in uomo banausico. Ma se il nostro professore guadagnava poco, in compenso parlava molto. Lo dice lui stesso, indotto da un grande amore del vero, e senza badare alle forze e all'età, ho consumato parecchi anni nel prendere parte non piccola alle dispute che sono così frequenti a Napoli e nell'interpretare, in scuole pubbliche e private, i libri di Aristotele, specialmente quelli sull'arte che si suol chiamare dialettica, S87. Scrisse anche moltissimi versi italiani e alcune lettere sull'immortalità dell'anima. Non della lingua che aveva in bocca. Battagliò soprattutto, lui di tendenze averroistiche e antifilologiche, contro coloro che riducevano tutto, anche Aristotele, a una questione filologica. Ma siccome i molti nemici che aveva erano ancora più linguacciuti e non gli davano tregua, lui a un certo punto pensò di chiedere la protezione del conte di Sarno, ti prego e ti scongiuro di aiutarmi e di difendermi dai malvagi e feroci calugnatori, che non cessano di azzannarmi con i loro denti di cane S91. La stessa cosa fece, nel secolo scorso, Anton Bruckner, il quale si rivolse all'imperatore Francesco Giuseppe affinché facesse star zitto il mordace critico musicale Edouard Hanslick. Quale influsso possa aver avuto il sarnese sul giovanissimo Bruno è difficile a dirsi, anche perché le forti intelligenze sono autonome e non si lasciano facilmente plagiare. Tuttavia, visto che negli eroici furori lo stesso Bruno dice di essere stato nutrito e allevato, da giovane, nella dottrina dei peripatetici, è probabile che sia stato proprio il sarnese a masticare gli Aristotele. Aggiungendovi, beninteso, l'ingrediente averroistico. Oltre a ciò, egli avrà forse instillato l'antifilologismo, che in Giordano Bruno resta una costante. Infatti egli non perderà occasione per scagliare i suoi dardi contro la cultura sterile e sclerotizzata. Ma il suo principale maestro di filosofia, come dichiarò lui stesso al bibliotecario parigino Guillaume Cotin, s651, fu l'agostiniano teofilo d'Avairano. Oltre ad avviarlo alla lettura di Agostino, gli dischiuse forse le porte del neoplatonismo, a cominciare da Giamblico. Da notare, teofilo è anche il nome, sicuramente non casuale, del personaggio cui Bruno affida, nella cena delle ceneri e nel della causa, principio et uno, l'esposizione delle proprie idee cosmologiche. Evidentemente era rimasto molto affezionato a quel maestro. Le notizie su teofilo d'Avairano sono piuttosto monche e frammentarie. Se ne vorrebbe sapere di più. Aveva studiato nel monastero di Sant'Agostino a Napoli, nel quale divenne poi professore. Il 22 maggio del 1566, fu assegnato all'Università Agostiniana di Firenze. Poi passò alla Sapienza di Roma, dove terminò la sua carriera. Quando abbandonò la cattedra, fu preso in casa dal principe Marco Antonio Colonna, che gli affidò l'educazione del figlio Ascanio. Morì nel 1577 a Palermo, dove aveva seguito il principe che era stato nominato vicere da Filippo II. Naturalmente Bruno aveva seguito anche altre lezioni. Di sicuro sappiamo, da lui stesso, che si iniziò ben presto, mediante la lettura di un'opera di Pietro Ravennate, All'arte della memoria. Quanto allo studio di Raimondo Lullo, altro punto di riferimento nel suo orizzonte intellettuale, vi era forse stato avviato da Teofilo d'Avairano. Insomma si può dire che egli, nei tre anni passati a Napoli prima di indossare l'abito di novizio domenicano, non si era proprio abbeverato all'acquasantiera e si era incamminato su sentieri diversi da quelli che conducevano al convento. Un passo fatale, che salto, per Bruno ancora adolescente, passare dalla quiete del Monte Cicala ai Trambusti e al Bailamme della grande città. A chi lo avranno affidato, i genitori. Forse a qualche parente o amico di famiglia. Il padre, che come soldato era costretto a spostarsi continuamente, poteva mantenerlo, ma non certo seguirlo da vicino. Così il ragazzo, lontano dai lari domestici, dovette abituarsi ben presto a muoversi da solo sulle vie del mondo. A quell'epoca Napoli era la più popolosa città d'Europa, e continuò ad esserlo ancora per qualche tempo. L'università o studio, come si diceva allora, si trovava nel grande cortile del monastero di San Domenico Maggiore, nel cuore della città. Le aule in cui si tenevano le lezioni erano tutte a pian terreno. Un'iscrizione latina ricorda che la aveva insegnato anche Tommaso d'Aquino e invita il visitatore ad arrestare il passo per venerare la memoria di quel grande maestro. Lo stesso re Carlo I, che tanto aveva insistito perché ritornasse a Napoli, stabilì che gli venisse data, come compenso, un once d'oro al mese. Per una volta tanto, un filosofo veniva pagato a peso d'oro. Ma solo in piccola percentuale, perché un'oncia, rispetto al peso corporeo di Tommaso, era un'inezia. Stando alle cronache, infatti, egli doveva essere grosso come un bue, se dunque avessero dovuto equilibrarne il peso in oro, così come si fa con l'Aga Khan, non sarebbero forse bastate tutte le ricchezze di Napoli. Gli studenti si contavano a migliaia, e la loro turbolenza era tale che il vicere, per riportare la calma, fu costretto ad emanare diversi editti. In quelli del 1556 e del 1558 si proibiva agli studenti l'uso di armi offensive e difensive, quasi si fosse trattato di bande armate. Se il rettore lo chiedeva, i capitani avevano l'ordine di arrestare quelli più scalmanati e di condurli alla gran corte della vicaria, dove ricevevano la punizione che meritavano. Anche senza armi, però, gli studenti continuavano a fare un baccano d'inferno, e non solo nelle aule e nel cortile dell'università, ma anche per le scale, dentro la ecclesia e lì claustri de San Domenico. Figuriamoci quello che facevano fuori. Da altri editti apprendiamo che nel pubblico studio si commettono infiniti romori, dentro e fora di esso, da studenti e altre particolari persone, quali vanno nel studio predict come in arne delle cetrangole ed altre cose nefand, e fare gridi e risse al tempo che si vuole leggere ed anche quando si legge ed o poi alla fine della lezione. Così, il 21 gennaio 1563, si ordinava di procedere senza pietà contro chiunque turbasse le lezioni e non stessela con tutto il silenzio che si deve. Si prescriveva la relegazione ai nobili e la galera agli ignobili e se 108. Ma i molti editti dimostrano che la situazione, anziché migliorare, andava di male in peggio. L'abitudine di disturbare le lezioni è antica e ne parla già Agostino. Senza voler giustificare quegli scalmanati studenti napoletani, c'è da dire che moltissimi professori, i quali ciarlano a vuoto e annoiano a morte chi è costretto ad ascoltarli, meriterebbero davvero di essere presi a cetrangolate. Ci sarebbe però un inconveniente, perché il sapore del cetrangolo, per quanto aspro e allappante, è pur sempre migliore di quello di certi discorsi accademici. Di sicuro è meno insipido. Forse la cosa migliore sarebbe che i professori seguissero la splendida massima della vesta, non annoiare con la parola. Scritta o parlata che sia. A Napoli aveva studiato anche il famigerato Giulio Santoro, uno, dei peggiori aguzzini dell'Inquisizione. Nell'autobiografia scrisse che, trascinato dalla mala conversazione dei compagni di università, aveva sperimentato in sé stesso il detto del profeta cum sancto sanctus eris et è contra. Ma poi aveva trovato la forza di rimettersi sulla buona via, vivendo bene cristianamente, con mortificare il senso della carne insultante s109. Se vivere bene cristianamente significa bruciar viva la gente, come fece lui con Giordano Bruno, allora sarebbe stato meglio lasciarsi traviare dagli studenti, indubbiamente meno pericolosi di certi santi o aspiranti tali. È possibile che anche Bruno, in una città come Napoli, si sia per qualche tempo abbandonato la pazza gioia, nuotando in gruppo con i compagni e contribuendo al pandemonio studentesco. A un certo punto, però, deve aver fatto i suoi conti, da un lato la sua natura dionisiaca, che non lo avrebbe mai abbandonato del tutto, dall'altro il bisogno di pace e di raccoglimento per potersi dedicare agli studi alla filosofia. Nel Sigillus Sigillorum dirà che la quiete e il raccoglimento sono una condizione indispensabile per l'uomo di pensiero. Pitagora, Zalmoxis, i monaci cristiani, Lullo e tanti altri ancora non avevano forse cercato la solitudine per meditare. Avrebbe potuto fare anche l'esempio di Bernardino Telesio, se avesse conosciuto i particolari della sua vita. Infatti il filosofo Cosentino, per potersi concentrare meglio nelle sue meditazioni, si ritirò in un convento benedettino. Ora, come conciliare la meditazione filosofica con la vita turbolenta di Napoli? Anche se è difficile leggere nel cuore dell'uomo, possiamo ragionevolmente pensare che Bruno, stufo di quel pandemonio studentesco e anelando la quiete dello spirito, abbia rivolto lo sguardo alle silenziose mura del convento dominicano attiguo all'università. Chissà, forse là dentro egli avrebbe potuto seguire indisturbato il corso dei suoi pensieri. Fatto sta che un bel giorno bussò alla porta di quel convento e la porta, per sua disgrazia, si aprì. Gli studiosi hanno fatto ipotesi su ipotesi circa i motivi che spinsero il giovane Bruno a compiere quel passo fatale. Si è pensato persino a una delusione d'amore. Aggiungere altre ipotesi non servirebbe a niente. Che l'abbia fatto per motivi economici, come pensano alcuni, o perché illuso dalla speranza di trovare un ambiente consono al suo sviluppo intellettuale, come pensano altri, resta il fatto che si trattò di un passo falso. Un temperamento focoso e vulcanico come il suo era il meno adatto alla vita di convento. Le aquile hanno bisogno di cielo libero, se messa in gabbia, muoiono di tristezza. Il convento di San Domenico Maggiore è uno dei più antichi, vasti e ragguardevoli edifici religiosi di Napoli. Ad esso sono legate molte memorie storiche. I Domenicani vi si stabilirono nel 1231. A mandarveli fu il Papa Gregorio IX, con il compito di combattere soprattutto gli eretici, che a Napoli come altrove erano numerosi. L'Ordine dei Frati Predicatori era stato fondato nel 1215 dallo spagnolo Domenico de Guzman. Quindici anni dopo, sorse per loro iniziativa il famigerato Istituto dell'Inquisizione, che fece più vittime di una pestilenza. Quando non bastava la parola, per riportare all'ovile le pecore smarrite, i Domenicani, che erano per così dire le truppe d'assalto del cristianesimo, ricorrevano volentieri al fuoco, alle forche e ad altri santi mezzi del genere. E se non riempirono di animo il Paradiso, di sicuro riempirono di fumo il cielo, perché le loro vittime venivano per lo più bruciate e vive. Le rovini dei castelli catari nella Francia meridionale, che quasi sembrano fumigare ancora, danno un'idea dei crimini cui può condurre il fanatismo religioso. Come gli stambecchi, per sfuggire ai cacciatori, furono costretti a rifugiarsi sempre più in alto sulle Alpi graie, così i catari, nel tentativo di sottrarsi alla feroce persecuzione dei Domenicani e compagni, andavano ad annidarsi su inaccessibili picchi rocciosi. E tutto questo accadeva in nome del Buon Dio. Ma tra i Domenicani troviamo anche uomini come Tommaso d'Aquino. Ci si sarebbe aspettato che egli, nato da nobile famiglia nel castello di Roccasecca, nel basso Lazio e ai piedi dell'abbazia di Monte Cassino, entrasse a far parte di quei benedettini che gli avevano dato la prima formazione. Volse invece lo sguardo verso il sud e andò a continuare gli studi nell'Università di Napoli, la più antica del mondo. Ma nel 1243 vestì, contro la volontà dei genitori, l'abito domenicano. Strana coincidenza, anche lui, quando fu attratto dal convento di San Domenico Maggiore in Napoli, aveva su per giù la stessa età di Bruno. Che questi ne abbia voluto seguire l'esempio. È un'ipotesi seducente, che merita attenzione. Di sicuro c'è che Giordano Bruno ebbe sempre, per Tommaso, una grande venerazione. Lo vedremo meglio in seguito. Ad accomunarli ci sono anche altre cose, per esempio i tumulti che le loro lezioni suscitarono a Parigi. Tommaso, comunque, ebbe una vita di gran lunga più fortunata. Dopo aver gironzolato per l'Europa e per l'Italia, nel 1272 tornò a Napoli, dove tenne cattedra, come s'è detto, e continuò la stesura della terza parte della Summa, Teologiae, rimasta incompiuta. Nel convento di San Domenico Maggiore si vede ancora la sua cella. Ma non ci rimase a lungo, messosi in cammino per partecipare al concilio di Lione, si ammallò durante il viaggio e morì il 7 marzo del 1274 nell'abbazia cistercense di Fossanova, non molto distante da Monte Cassino. Così un'abbazia lo vide nascere e un'altra lo vide morire. Quanti erano, al tempo di Bruno, i frati di San Domenico Maggiore? Abbastanza per costituire un piccolo esercito-insaio. Le regole per essere ammessi nell'ordine erano molto severe e selettive. Si accoglievano solo i ragazzi intelligenti, ben educati, istruiti in grammatica, ma non gli incolti e gli incapaci. Tre frati, scelti dal convento, avevano il compito di indagare accuratamente su coloro che chiedevano di essere ricevuti come novizie di farne un rapporto. Tra gli altri requisiti, il novizio non doveva essere servus, cioè di stato servile, o affetto da mali occulti. Insomma per entrare in quel corpo speciale che erano i Domenicani bisognava essere intelligenti, svegli, istruiti, di buona famiglia e di sana costituzione fisica. Reclute scelte, dunque. L'incarico di indagare sul giovane Bruno e sulla sua famiglia fu affidato, sembra, a un certo frarimigio di Monte Corvino, che verso la metà di marzo del 1565 si recò appositamente a Nola. Giovanni Bruno, allora, si trovava nelle Puglie e quindi non poteva dare notizie verbali su di sé e sulla sua famiglia. È dunque da presumere che sia stata la moglie a parlare con il frate, il quale si sarà sicuramente informato anche presso altre persone. E le notizie da lui raccolte furono evidentemente buone, altrimenti il giovane non sarebbe stato accolto in un ordine così severo nella scelta dei novizi. Ciò costituisce anche una riprova, sia pure indiretta, che quella di Bruno era una buona famiglia. Come se già detto, il giovane indossò l'abito di Chierico il 15 giugno del 1565. Priore del convento di San Domenico Maggiore, allora, era il baccelliere fra Ambrogio da Napoli, mentre il maestro dei novizi era fra Jacopo Saragnano da Acquamela. A vestirlo, come dichiarò lo stesso Bruno al Tribunale Veneto, fu il maestro Ambrogio Pasqua, non Pasqua, come si legge nei verbali dell'interrogatorio e come hanno continuato a scrivere i biografi. Ma immaginiamoci la scena della vestizione. Il novizio veniva accompagnato nella sala capitolare, dove doveva prostrarsi a terra totocorpore e con le mani in modum crucis extensis. Alla domanda del priore quid quaeris? Egli rispondeva misericordiam di et vestram. A questo punto il priore lo faceva alzare e gli diceva, figlio carissimo, nella tua petizione chiedi due cose, cioè la misericordia di Dio e la nostra. Ma noi non possiamo darti la misericordia di Dio. Tuttavia crediamo che tu l'abbia già avuta, perché Domine Dio ti ha indotto a entrare in questa religione. Non possiamo neppure darti la nostra misericordia, senza certe condizioni. Bisognava anzitutto osservare tre voti principali, obbedienza, povertà e castità. L'obbedienza doveva essere cieca e assoluta. Bisognava non avere più una volontà propria, se totaliteresse subietumete privatum propria volontate. Senza il permesso del priore, non si poteva neppure mangiare o bere. Quanto alla castità, non bastava quella del corpo, bisognava osservare anche la castità della mente. Più che uomo, bisognava essere pietra o legno. Dopo aver spiegato le altre regole dell'ordine, tutt'intese ad annientare la personalità e a macerare la carne, il priore, aiutato dal magister novitiorum, toglieva al novizio gli abiti secolari e gli metteva quelli religiosi, mentre il cantore intonava l'inno Veni Creator Spiritus. Poi il novizio, in una specie di sacro defile, veniva accompagnato all'altare, dove il priore gli aspergeva la testa con l'acqua santa. La scena della vestizione era figurata molto bene in un affresco della chiesa di Santa Sabina a Roma. Il corpo del novizio è allungato sul pavimento, con il capo prono e le braccia distese a forma di croce. Sparsi intorno, ci sono i suoi abiti secolari. Il tutto ispira un sentimento di rispetto misto a terrore. Appena lasciato l'abito secolare, i novizi, detti anche pueri o clerici, venivano affidati alle cure di un padre diligente e provato, che aveva il compito di indurli a fare continuamente esercizi di umiltà, a rinunciare a ogni idea di beni mondani, a sostituire alla propria volontà quella dei superiori, a osservare la più stretta obbedienza in tutte le cose e a evitare le contese. Inoltre doveva abituarli a rimanere al loro posto, a non scostarsi dal compagno nelle processioni, a tenere il capochino, a rispettare il silenzio nei luoghi e nei tempi previsti e a non chiedere a un superiore ciò che era stato negato da un altro. Ancora una volta, obbedienza cieca e assoluta. Bisognava annientare la propria personalità. Non tutti avevano la forza di sottostare a una disciplina così ferrea, da caserma. Molti, finché erano in tempo, scappavano. Per esempio, nel periodo dal 1559 al 1566, scapparono parecchi chierici, quasi tutti napoletani. E lo fecero chi dopo qualche giorno chi dopo qualche mese di permanenza nel convento, non sentendosela di promettere obbedienza, fino alla morte, a Dio, alla Vergine, al Beato Domenico e ai suoi successori. Qualcuno scappò a gambe levate, come per esempio un certo fra Alfonso Fellecchia di Nola, e Calfonsus Dismisita Bitu Meta Ripuit Fuga Mese 129. C'è anche qualche cosa di comico in un frate che getta la tonaca e si dà alla fuga. Chi non ha testa, dice il proverbio, a gambe. Ma fra Alfonso Fellecchia da Nola aveva evidentemente anche la testa, se scappò in tempo per riacquistare la libertà. Il suo concittadino Bruno, invece, resistette. E fu la sua rovina. Abbandonò anche il nome di Battesimo e da Filippo divenne Giordano, forse in segno d'omaggio al Domenicano Giordano Crispo da Napoli, allora maestro di metafisica, anzi magistrorum magister, nello studio. E siccome anche altri presero il nome di Giordano, se ne deduce che il Crispo godeva di molta considerazione. Per far presa sulla gente i Domenicani mirarono sempre, fin dall'inizio, alla predicazione e all'arte del dire. Non per niente si chiamavano frati predicatori. Più che ad affinare l'anima con la contemplazione pensavano ad affinare la lingua con l'esercizio, dato che il loro compito era quello di fare proseliti e non di contemplare. Ai professi vedima inflitta, almeno per un anno, la lezione giornaliera di un professore di retorica ecclesiastica, dovevano abituarsi ben presto a concionare e a fare gli avvocati del cielo. La lezione o lettura consistevo nell'esporre con precisione e chiarezza quanto di meglio rispondesse all'indole, allo spirito e ai fini dell'ordine nelle opere di Aristotele, di Cicerone e di Quintiliano, le quali parlano dell'invenzione, dell'elocuzione, della retta pronunze e del gesto, quei precetti, cioè, che il padre maestro Luigi da Granata nella seconda metà del Cinquecento raccolse in uno dei suoi scritti più noti, la retorica ecclesiastica si vede ratione concionandi. Ogni settimana, affin di dare degli esercizi ed esempi della maniera di trattazione di ciò che s'era imparato, si tenevano, con gli interventi degli studenti di filosofia, circoli simili ad Accademia e vi si recitavano dei brevi discorsi su temi che erano assegnati alcuni giorni prima s131. Le brevi allocuzioni o declamazioni, però, concernevano non tanto quello che agli studenti sembrava degno di imitazione nei classici, quanto i pregi dei padri della Chiesa, come ad esempio la facondia di Giovanni Crisostomo, la gravità e lo stile di Girolamo, la cume e la veemenza di Pietro Crisologo, la sentenziosa brevità di Ambrogio, la gravità e l'erudizione di Cipriano ecc. Sebbene avesse promesso obbedienza assoluta, Bruno dovette annoiarsi non poco in quei tornei di chiacchiere, e se gli altri leggevano i santi padri come modelli di retorica, lui li studiava per la loro vita e per la loro dottrina. Ma l'intelligenza comporta dei rischi anche nella casa di Dio, anzi lì più che altrove, visto che ci entrano solo i poveri di spirito. E così ecco il primo incidente. Un giorno, durante l'anno di noviziato, egli chiese a un novizio che leggiva la storia delle sette allegrezze in versi, che cosa voleva far di quel libro, che lo gettasse via e leggesse più presto qualche altro libro, come è la vita dei santi padri Doc. Venn. 8. Il titolo esatto del libro che Bruno vide in mano al novizio era le sette allegrezze della Madonna. Si trattava di una perifrasi popolare in ottave, pubblicata a Firenze nel 1551, di una lirica latina attribuita a Bernardo di Chiaravalle. Sarebbe più giusto, però, parlare di stucchevole filastrocca rimata. Eccone il finale nell'edizione uscita a Siena nel 1578, per l'allegrezze Vergine Maria, che ricevesti dal vostro figliuolo, io vi prego per vostra cortesia, che i cristiani guardiate da ogni duolo, pregando il vostro figlio che ci dia, eterna requie, e dall'inferna al stuolo ci liberi per sua santa pietade, non guardando alle nostre iniquitade. Dinanzi a una cosa così mencia, è facile capire il fastidio di Bruno. Eppure le allegrezze erano tenute in grande onore non solo presso i Domenicani, ma anche presso i seguaci di San Francesco. Non sarebbe stato più edificante sentire il canto degli uccelli o lo scrosciare di una cascata? Quanto al secondo libro indicato da Bruno, esso è da identificarsi non già con la leggenda aurea, di fra Jacopo da Varagine, come pensa lo spampanato, bensì con le vite dei santi padri del Domenicano Domenico Cavalca. Più tardi, e precisamente sotto il pontificato di Clemente XI, le allegrezze e altre con simili operette devozionali furono messe all'indice, perché, piene com'erano di pensieri puerili, di strane similitudini e di ridicole credenze, avrebbero potuto offuscare l'immagine della Madonna. Infatti la si descriveva come calciata dalla luna santa, come camera di Jesu Cristo, come scala, chiave e porta di vita eterna, oppure la si faceva apparire di grande altura, quasi fosse stata una montagna o un passo alpino. Ma al tempo di Bruno tali corbellerie venivano prese sul serio, e quindi il consiglio da lui dato al confratello, di gettar via le allegrezze e di leggere qualcosa di più sostanzioso, apparve come una profanazione del culto di Maria. Inoltre Bruno si era sbarazzato di tutte le figure dei santi, tenendo presso di sé solo il crocifisso. Così il maestro dei novizi, fra Eugenio Gagliardo da Napoli, stese contro di lui una denuncia, ma poi si astenne dall'inoltrarla e la stracciò. Trattandosi degli errori di un novizio, volle forse chiudere un occhio. Oppure avrà pensato che il trascurare il culto delle immagini e alcune devozioni della Vergine non era poi tanto grave, se paragonato a ciò che veniva imputato a frati e sacerdoti. I conventi, compreso quello di San Domenico Maggiore, non erano davvero covi di angeli. Nell'aprile del 1568 Pio V si dolse gravemente della dissolutezza dei celestini, dei monaci di Montevergine e dei muri conventuali di Napoli. Ma erano segreti che dovevano rimanere entro le mura dei conventi. Guai a parlarne fuori, il 22 dicembre del 1566 un terziario di San Domenico Maggiore, per aver rivelato fuori del convento i segreti dell'ordine, fu ritenuto degno di almeno un anno di trireme, ma poi ci si limitò a espellerlo dall'ordine e a privarlo della tonaca. Bisognava salvare l'apparenza e per questo veniva raccomandata la massima discrezione, sotto minaccia di pene severissime. Il 10 gennaio del 1571 venne letta nei conventi napoletani una lettera patente che intimava di non rivelare, a voce o per iscritto, un omicidio perpetrato nel convento di S. Pietro Martire. I trasgressori sarebbero stati puniti con un decennio di carcere, con la scomunica e, se del caso, con pene ancora più gravi. Chi sfoglia il registro dei processi fatti in San Domenico Maggiore, processi che riguardavano anche gli altri conventi della provincia dominicana, solleva il velo che copre un orribile quadro di costumi, la cui riproduzione spassionata e anche attenuata sembrerebbe fatta lo stesso con troppo foschi colori, se ogni particolare non venisse accertato da prove di indubbia origine e fede S. 136. Vi si commettevano delitti di ogni genere, compresi gli omicidi. Alcuni frati, come Teofilo Caracciolo o Marco De Gennaro, più che il rosario sapevano maneggiare il pugnale. Ma non erano i soli a osare le mani anziché la testa. E spesso ci scappava il morto. Altri erano ladri e altri ancora si abbandonavano al vizio della sodomia. Tra il 1567 e il 1570 furono emesse una cinquantina di sentenze, di cui ben 18 controconversi, chierici e sacerdoti di San Domenico Maggiore. Alcuni furono espulsi dall'ordine come pecore guaste e putride. Ma putridi e guasti sono gli uomini e non le pecore, animali dolci e mansueti. Bruno, naturalmente, seppe tenersi al di sopra di quel mondo corrotto. Ne mutuò forse il linguaggio nel candelaio, ma non i costumi. Non commise mai nessuna immoralità o delitto contro la proprietà e la persona S143. Nei grandi spiriti la superiorità intellettuale va sempre di pari passo con quella morale. La filosofia di Bruno si rispecchia nella sua vita, e viceversa. Nel quinto Costituto Veneto volle precisare meglio ciò che aveva dichiarato nel primo. Credo aver detto nel mio primo Costituto che il mio Maestro, quando ero un avizio, per mettermi terrore, fece una scrittura, perché io avevo dato via alcune immagini dei Santi, chi mi ricordo erano di Santa Caterina de Siena, e forse dei Santonini, se ben mi ricordo, ero tenuto soltanto un crucifisso, e perché avevo detto a un novizio, che leggeva la storia delle sette allegrezze della Madonna, che cosa voleva leggere quel libro, che era meglio che leggesse la vita dei Santi Padri o altro libro. Ma questa scrittura il detto Maestro la stracciò poi anche lì stesso giorno, e per conto di queste cose non so che se ne sia fatto altro processo né scrittura, Doc. Ven. 13. Infatti quella scrittura, se non lo atterrì, lo rese più prudente e circospetto. Per alcuni anni i suoi superiori non ebbero a lamentarsi di lui. Lo si deduce dal fatto che non gli negarono licenze e missioni, il che non sarebbe stato possibile, se egli non avesse dato prova di costumi irreprensibili e di grande profitto negli studi. E da presumere, anzi, che fosse così assorto negli studi da non accorgersi di ciò che lo circondava, e questo in un momento in cui l'ordine domenicano era costretto a emanare disposizioni come la seguente, dobbiamo per rispetto a Dio stroncare le iniquità e i delitti e, secondo le nostre leggi e istituzioni, punirli con le pene dovute, affinché i delinquenti vengano salutarmente repressi e gli altri siano indotti da tale esempio ad astenersi dal commettere scelleratezze. Ma le minacce servivano a poco e le scelleratezze erano all'ordine del giorno, truffe, grassazioni, turpitudine sessuali, frequentazioni di postriboli, ingravidamento di povere donne, risse, colluttazioni, ferimenti e anche omicidi. Qualche esempio ci aiuterà a capire meglio l'orribile situazione. Proprio nell'argo di San Domenico Maggiore due padri furono salvati per miracolo dalla vendetta di un cittadino che voleva colpirli con una roncola. In quello stesso luogo, nel 1590, Gesualdo da Venosa uccise la moglie che si trastullava con l'amante. E San Domenico lasciava fare? L'11 settembre del 1572, il frati Domenico Porace, che seguiva gli stessi corsi di teologia frequentati da Giordano Bruno, fu condannato a dieci anni di galera, era stato arrestato da un capitano di giustizia, che lo aveva sorpreso nottetempo per le vie di Napoli armato di archibugio e in compagnia di una fallofora. Poco dopo ci fu lo scandalo del venerabile padre Domenico di Olivano, per i suoi molti delitti, e specialmente per le nefandezze sessuali che aveva commesse come maestro dei novizi, fu condannato a sette anni di remi ed espulso dall'ordine domenicano. Un altro frate, di nome Mario, accoltellò un giovane secolare. Fra Libero di Marzano, invece, preferì accoltellare due suoi correligionari. Sono solo pochi esempi pescati a caso fra i tanti. Talvolta le pene erano più mostruose dei delitti. Un certo fraddomenico Passaro, per esempio, fu condannato a sessant'anni di galera perché aveva strappato una collana d'oro dal collo di una donna che pregava. Ma le condanne, per quanto severe, non riuscivano a tenere a freno l'indemoniata famiglia di San Domenico. Nel 1592 il vescovo Jacopo Aldo Brandini, nunzio a Napoli, chiese e ottenne piena, ampia e intera facoltà, autorità e potestà di arrestare e carcerare i regolari di ogni ordine e istituto, per quanto esenti e sotto la dispensa immediata del Papa e della sede apostolica, se colti fuori del chiostro a errare per le vie della città e a cagione di qualsivoglia delitto, di procedere contro di loro secondo la gravità del crimine o anche dello scandalo provocato, senza attenersi alle loro leggi particolari, di frenarli con provvedimenti adatti o con altre pene da imporsi a suo arbitrio, invocando l'aiuto del braccio secolare regolandosi del resto nel modo più acconcio e prudente, col minor danno possibile della religione S201. Il senso è chiaro, punire, ma con discrezione, in modo che la gente non sapesse ciò che capitava nei conventi. Bisognava salvare almeno l'apparenza, si non caste, saltim incaute. E ci si dimenticava che le religioni sono come i regimi politici, i quali valgono quel tanto che valgono quelli che li rappresentano, governanti e governati. Ad ogni modo il vescovo Aldo Brandini, pur avendo avuto carta bianca, si rese conto che non era facile arginare il vivere molto licenzioso di quasi tutti i regolari e dei Domenicani in particolare. Infatti, questi, nonostante i divieti, continuavano imperterriti a girare armati per la città e a seminare scandali. Quando poi il vescovo pensò di ripartire in diversi conventi della provincia l'irrequieta famiglia di San Domenico Maggiore, ci fu una vera sollevazione. All'inizio, fingendo di obbedire al nuovo ordine, più di cento frati Domenicani uscirono dalle mura di San Domenico Maggiore. Ma poi, muniti di pistole, coltelli e randelli, tornarono sui loro passi, presero d'assalto il convento, ne fortificarono le porte e corsero armati alle finestre per ributtare chiunque avesse voluto molestarli. E vi rimasero fortificati per alcuni mesi, inducendo a venire a patti non solo il vicere, ma anche il papa Clemente VIII. Qualcuno scrisse che i Domenicani, in quell'epoca, si abbandonavano a una vita sconveniente non solo a frati, ma anche a banditi. Le stesse cose, naturalmente, capitavano anche altrove. Era un mondo religioso in dissoluzione, contro cui avevano levato la voce già Dante e Boccaccio, il primo lanciando invettive, il secondo facendo fischiare la sperza satirica. Partito al grido della salvezza, il cristianesimo, in Italia come altrove, si era trasformato in diavolerio. La consacrazione, il 9 gennaio del 1566 in San Domenico Maggiore ci furono grandi festeggiamenti per l'elevazione al soglio pontificio di Pio V, che al secolo si chiamava Michele Ghislieri e proveniva anche lui dalle fila domenicane. Era nato nel 1504 a Bosco Marengo, vicino ad Alessandria, e da ragazzo aveva fatto il pastore. In tale veste avrà sicuramente imparato anche ad accendere i fuochi, attitudine che poi mise a frutto come inquisitore e inceneritore di eretici. Focosissimo in materia di inquisizione, così lo chiama, con involontaria ironia, lo storico Luigi Amabile nel suo libro Due Santo Ufficio della Inquisizione in Napoli. In seguito Bruno fece un viaggio a Roma ed ebbe modo di conoscere personalmente sia Pio V che il cardinale Scipione Reviva, bravo inquisitore e bruciatore di eretici anche lui. Il viaggio di Bruno, che dovette avvenire prima dell'1 grado maggio del 1572, data di morte di Pio V, è stato messo in dubbio da alcuni studiosi. E perché mai? Lo stesso Bruno ne parlò con il bibliotecario parigino Cotin, Giordano mi ha detto che fu chiamato da Napoli a Roma dal Papa Pio V e dal cardinale Reviva. Si voleva che egli desse prova della sua arte mnemonica, e lui, a tale scopo, recitò in ebraico il salmo davidico fundamentaeus in montibus sanctis. Non solo, ma al Reviva insegnò anche qualche cosa dell'arte mnemonica, doc. Paragrafo v. Ci si chiede come mai il filosofo non abbia fatto menzione di tale episodio nei suoi costituti processuali. Ma ci sono molte cose che egli, per brevità o per altri motivi, non disse. Giustamente lo spampanato, che pone il viaggio tra la metà del 1568 e il principio del 1569, scrive, che a Parigi abbia ricordato parecchi particolari della sua vita taciuti per una ragione o per l'altra a Venezia, e che tra questi particolari debba comprendersi il soggiorno romano anteriore all'1 grado maggio del 1572, il giorno cioè della morte di Pio V, è certo, risultando da documenti che finora sono rimasti ignorati o passati inavvertiti, s. 149. I priori dei conventi avevano l'ordine di non rilasciare facilmente permessi di allontanarsi. Il frate che andasse in giro senza permesso era ritenuto reo di grave colpa. Il convento di San Domenico Maggiore era avarissimo nel concedere licenze, appena sei dal 1560 al 1572. Uno di tali privilegi toccò a Bruno, che il 15 luglio del 1568 ottenne una lettera patente per recarsi tra i Domenicani della Lombardia Superiore e Inferiore, die 15 iuli focta e fueruntli tarai patentale S. Frati Lordano de Nola e Undia de Provincia Mutriusque Lombardiae Doc. Nap. 8. Espampanato scrive, in conformità della lettera patente del 15 luglio, nella seconda metà del 1568, o al più in principio dell'anno appresso, se non si spinse fino ai conventi della Lombardia inferiore o superiore. Il giovane professono l'anno giunse senza dubbio e si fermò, solo in compagnia di padri de San Domenico Maggiore, in qualcuno dei monasteri dell'eterna città appartenenti alla provincia romana, o, come più probabile, in quello Lombardo e Santa Sabina, S. 150. Non si capisce dunque perché certi studiosi vogliano mettere in dubbio il viaggio a Roma, documentato indirettamente dalla lettera patente e direttamente dalla parola dello stesso Bruno, il quale dice anche di aver dedicato a Pio V l'Arca di Noè, un'opera andata purtroppo smarrita, o i, 2, 842. Ci sono dei critici che, pur di fare dell'Accademia, negherebbero la stessa evidenza. Ma questo non vale solo per Giordano Bruno. Quanto alla provincia lombarda, di cui si fa cenno nella lettera patente, occorre dire, per maggior chiarezza, che alla Lombardia superiore appartenevano i conventi degli arcivescovati di Milano e di Genova. A quella inferiore, invece, appartenevano i conventi dell'Emilia, della Romagna e delle Marche. Si trattava di circa 2000 religiosi distribuiti in più di 120 conventi. Sicuramente quello fu l'unico permesso che Bruno ottenne di uscire dal convento di San Domenico Maggiore, dove trascorse ben 11 anni della sua vita e dove, grazie anche alla ricca biblioteca, acquistò quella formidabile cultura che tutti gli riconoscono. Dobbiamo quindi immaginarcelo immerso più nello studio che nella preghiera. Non si era forse sbarazzato delle immagini sacre, come abbiamo riferito sopra? Aveva una testa pensante, non adorante, e cercava di avvicinarsi alla divinità mediante la conoscenza, non già biascicando rosari e avemarie. Dopo l'anno di prova, le giovani leve domenicane dovevano frequentare un corso preaccademico, che durava tre anni ed era riservato ai cosiddetti studenti materiali. Nello studio di San Domenico Maggiore, però, tale corso durava un anno di più. Le materie di insegnamento erano la retorica, la dialettica, la filosofia naturale, la metafisica e la teologia. L'ingrediente maggiore nel programma era Aristotele, il cui pensiero veniva sminuzzato e servito in tutte le maniere, e questo non solo per la logica, ma anche per la fisica e persino per la cosmologia, come se nel frattempo non fosse apparsa l'opera rivoluzionaria di Copernico. Del resto le stesse costituzioni domenicane del 1566 rimandavano, per lo studio della logica, o l'organon di Aristotele, oltre che o l'isagoge di Porfirio, ai Topica di Boezio e alle Summola e Logicae di Pietro Ispano. Naturalmente venivano letti e studiati anche altri autori, i cui testi si potevano trovare nella biblioteca del convento. Un posto particolare occupavano Alberto Magno e Tommaso d'Aquino, anche perché, trattandosi di Domenicani, facevano, per così dire, parte della famiglia. Solo in casi particolari si facevano corsi di grammatica, perché si dava per scontato che lo studente materiale ne avesse già un'adeguata conoscenza. Comunque era tenuto ad averla, altrimenti non avrebbe potuto seguire quel primo ciclo di studi. Solo chi aveva frequentato con profitto tale ciclo poteva, se il giudizio dei professori era favorevole, proseguire gli studi in forma strettamente accademica e diventare, come allora si diceva, studente formale. Ma la selezione era feroce, senza contare che il numero chiuso non prevedeva più di una mezza dozzina di studenti formali. Nel 1571 il capitolo generale raccomandò la massima severità nella scelta degli studenti. Ordiniamo ai moderatori degli studi, in virtù della santa obbedienza allo Spirito Santo, sotto formale imposizione e sotto pena discomunica, di non ammettere nessuno nel numero degli studenti formali se non dietro un accuratissimo esame sulle principali questioni di filosofia, di logica e di fisica. Se il candidato non rispondeva esattamente ai quesiti che venivano posti, doveva essere inesorabilmente respinto. Ma non bastava essere preparati, bisognava avere anche eccellenti qualità morali e intellettuali. Un'altra condizione indispensabile per il passaggio al corso propriamente accademico era la frequenza, in qualità di studente materiale, di un biennio di teologia. Esami fatti in nome dello Spirito Santo e sotto la minaccia della scomunica dovevano per forza essere infallibili. E se si applicasse un simile metodo alle università di oggi? Ci sarebbe una scomunica generale. Tutti all'inferno, con soddisfazione dello Spirito Santo e con grande vantaggio della cultura. Nella prima metà di giugno del 1571, Bruno venne assegnato come studente formale allo studio domenicano di Andrea, in Puglia, ma non è detto che ci sia andato veramente, perché vi si opponeva il fatto di non aver ancora ricevuto la consacrazione sacerdotale. Così scrive Michele Miele, che in più punti rivede le bucce a spampanato, cfr. a.vv, Giordano Bruno, Cassino 1992, p. 49. Egli sposta anche di un anno la suddetta consacrazione, 1573 e non, come si pensava prima, 1572. Quindi Bruno proseguì gli studi in San Domenico Maggiore, dove la sua assegnazione come studente formale di teologia fu deliberata il 21 maggio del 1572, e a sceglierlo e a metterlo agli studi accademici fu Ambrogio Pasca, che allora era provinciale. Pasca lo vestì e Pasca lo prescelse. Su Diacono a 22 anni e Diacono a 23, Bruno fu ordinato sacerdote nella seconda metà del 1573. Ma non a Napoli, bensì a Campania, una cittadina poco distante da Eboli. Facciamolo dire a lui stesso, virgola e dopo fui promosso agli ordini sacri e dal sacerdozio alli tempi debiti, e cantai la mia prima messa in Campania, città del medesimo regno lontana da Napoli, stando allora in un convento del medesimo ordine sotto il titolo dei San Bartolomeo, Doc. Ven. Vi. Il vescovo di Campania si chiamava Girolamo Scarampo e fu lui a pronunciare sul capo di Giordano Bruno la formula solenne, ma terribilmente impegnativa, tu e sacerdosina eternum. C'è da rabbrividire che qualcuno pretenda o possa impadronirsi di noi per l'eternità. Quando deve essere libero, questo povero essere umano già programmato dalla natura. La Chiesa, con il battesimo, se ne impadronisce fin dalla nascita. Poi lo vincola con altri sacramenti, compreso quello del matrimonio. Non gli si lascia neppure la libertà di ammazzarsi, se così gli facesse piacere, perché la cosa costituirebbe un peccato grave. Per una volta tanto, dunque, bisogna dar ragione a Nice, che nell'Anticristo, paragrafo 26, dice che i preti si sono impadroniti di tutte le fonti della vita, come nascita, matrimonio e anche morte. Da allora in poi tutte le cose della vita sono ordinate in modo che il prete sia ovunque indispensabile, in tutti i naturali eventi della vita, quali nascita, matrimonio, malattia e morte, per non parlare del sacrificio, la cena, interviene il santo parassita per snaturarli, nel suo linguaggio, per santificarli. Anche Mephistofele voleva impadronirsi dell'anima di Faust, però ebbe almeno la buona creanza di presentarsi per quello che realmente era, cioè un diavolo. Ed era anche più generoso, perché prometteva, in cambio, il godimento di tutti i piaceri di questo mondo, compresa la bella Margherita. I preti, viceversa, ci promettono una ipotetica felicità nell'aldilà e intanto ci vincolano quella poca che abbiamo nell'aldiqua. A proposito di Faust vorrei citare, per diversivo, ciò che ne dice quella lingua biforcuta di Papini nelle stroncature, cos'è Faust? Un professore. Non poteva essere che un professore, il genuino eroe dei tedeschi. Virgola Mephistofele, che conosce i suoi porci, porta subito Faust a un'osteria dove alcuni bravacci cincano e cantano con la grassa allegria tutta propria dei loro paesi. Ma Faust, ancor fresco delle trappole intellettualistiche, non vuol saperne del vino e chiede di andarsene. Il demonio lo conduce allora, come un ragazzaccio curioso, in casa di una strega la quale, fra le altre cose, gli mostra nello specchio una bella ragazza che fila. Il professore, che forse non aveva assaggiato altre donne fuor delle puttane universitarie o delle serve di Bettola, entra in fregola e vuole a tutti i costi godersi la bella borghesina. Se l'alcolismo l'ha disgustato il mandrillismo l'attira. Ma rientriamo in argomento. Dunque Bruno, per recarsi a Campania, dove fu ordinato sacerdote e cantò la prima messa, era uscito di nuovo dal convento di San Domenico Maggiore. Quando vi ritornò? Non lo sappiamo, ma sicuramente non molto tempo dopo, perché doveva continuare gli studi di teologia, che richiedevano grande impegno. Lo dimostra già il fatto che gli studenti formali studiavano anche di notte, a lume di candela. Evidentemente non bastava loro il giorno, sebbene fussero autorizzati a dedicare tutto il loro tempo allo studio. L'anno accademico durava dal 14 settembre al 22 luglio, ma anche durante quel mese e mezzo di interruzione non erano previste vacanze vere e proprie. Insomma, per conseguire il dottorato, ci voleva una volontà di ferro. E bisognava anche macerarsi la carne, cosa del resto scontata per un frate. Una regola diceva, ama lo studio delle lettere e non amerà i vizi della carne. Un'altra massima, anch'essa di carattere ascetico e inserita nelle Costituzioni Domenicane, diceva che è meglio filosofare che diventare ricchi. Sì, ma come potevano avviarsi alla filosofia, gli studenti domenicani, se era loro proibito di leggere direttamente i veri filosofi pagani? Da una parte si ribadiva l'importanza della cultura, dall'altra si bandivano le arti liberali e si metteva all'indice un autore come Erasmo da Rotterdam, l'umanista per eccellenza. Ma Bruno, come vedremo, lo leggeva di nascosto. Tutti quei padri della Chiesa, che era costretto a studiare per programma, gli devono pure essere venuti a noia. A chi gli chiedeva se avesse letto i padri della Chiesa, Volter rispose, li ho letti, li ho letti, ma me la pagheranno. Chissà che Bruno, in cuor suo, non pensasse la stessa cosa. Dopotutto, i padri della Chiesa erano versati più in fanatismo che in filosofia, il che spiega il loro tono predicatorio. Erano esclamativi, ma non dimostrativi, e parlavano di Dio come se lo avessero avuto in tasta. Bruno, viceversa, era unicamente versato in filosofia. Quando gli inquisitori veneti gli chiesero se fosse mai stato versato negli studi teologici, lui rispose senza ambagi, non molto, avendo atteso alla filosofia, che questa è stata la mia professione Doc. Ven. 12. Era un Domenicano filosofo, o un filosofo vestito da Domenicano, e guardava al cielo per pensare, non per pregare. E non si dimentichi che la religione sta alla filosofia come una gamba di legno a una gamba vera. Gli studenti di teologia erano tenuti sotto stretta sorveglianza, affinché non si distraessero a leggere cose non previste dai programmi o, peggio ancora, libri messe all'indice. Ma di notte quella sorveglianza poteva essere lusa, dato che ogni studente aveva una cella propria, dove gli era permesso di vegliare sui libri, a lume di candela. E fu probabilmente durante le ore notturne che Bruno lesse, di nascosto, gli autori che gli stavano più a cuore. Insomma, come dice Spampanato, negli undici anni trascorsi nel convento egli ebbe sempre modo, da sacerdote più che da novizio, di applicarsi principalmente agli studi che gli procacciarono insieme la gloria e l'esecrazione S. 183. La sua sete di sapere era insaziabile, come dimostra la copia sbalorditiva delle sue letture. La stessa cosa farà, più tardi, il campanella, di cervello dentro un pugno io sto, e divoro tanto che quanti libri tieni il mondo non sazian l'appetito mio profondo. La biblioteca di San Domenico Maggiore, via via arricchita di lasciti e di nuovi acquisti, era famosa e conteneva opere che non si trovavano altrove, fra cui manoscritti e incunaboli di grande valore. Ma vi si potevano leggere solo i libri approvati dal capitolo generale dell'ordine domenicano. Gli altri, come per esempio quelli di Erasmo da Rotterdam, erano proibiti. Già l'indice di Paolo IV del 1559 e poi quello di Pio IV del 1564, noto come indice tridentino, avevano condannato l'opera del grande umanista. La stessa cosa fece il capitolo generale domenicano del 1569. Si temeva che i frati, con il pretesto delle buone lettere e di una lingua più raffinata, leggessero i libri di Erasmo e di altri simili, imbevendosi di malvagie dottrine e di pessimi costumi. In un documento di San Domenico Maggiore dell'ottobre 1570, si legge che fu fatta una certa spesa per cancellare con la colla bianca le cose di Erasmo ed altri eretici dagli nostri libri della libraria. Così, per salvare la fede, si censurava la cultura. Erano gli effetti della controriforma, ed Erasmo, che pur aveva avuto un fervente ammiratore in Leone X, veniva preso di mira ancora più di quanto non lo fosse stato in vita. Egli si riferiva soprattutto ai Domenicani quando parlava di cocollati, disonesti e turpi fannulloni. In una lettera dell'1 grado ottobre 1520 scrisse che si imbatteva in loro non in un luogo soltanto, ma ormai in quasi ogni città, e li vedo imperversare presso la turba illetterata e addentare non dirado unicamente il mio nome, in un modo che io ho vergogna di ripetere quello che essi non hanno vergogna di dire. E se quei cialtroni, si chiedeva l'umanista, non si trattenevano dal vomitare in sulzaggini e improperi in riunioni dedicate alle dottrine evangeliche, quali mai potevano essere le loro charle con stolte donniciole, vecchi rimbambiti, idioti superstiziosi e giovani inesperti che stanno ad ascoltarli come un oracolo? Eppure il vero cristiano era lui, Erasmo, che abborriva i fanatismi e si richiamava alla fonte diretta dei Vangeli. Ma i chieri ci sopportano tutto, tranne la satira corrosiva. Per loro la sferza e il sarcasmo dell'umanista dovevano essere ancora più pericolosi delle invettive di Lutero. Si capisce dunque perché gli dessero lo stracismo. Bisognava togliere dalla circolazione gli scritti di chi aveva riversato una valanga di sarcasmo sui chierici corrotti. Nulla è tanto pericoloso, per la Chiesa, quanto la satira e l'ironia. Per questo Voltaire, che spesso sembra una reincarnazione di Erasmo, è molto più temuto del rabbioso Nice, l'autore dell'Anticristo. Naturalmente Bruno si infischiò di quelle ottuse censure e fece di Erasmo uno dei punti cardinali del suo orizzonte spirituale. Nelle sue opere, sia italiane che latine, si trovano molti riferimenti ai colloqui, agli adagia e o l'elogio della pazzia, uno dei libri più belli di tutta la letteratura. Li lesse di nascosto, si capisce, però li lesse, pur sapendo a quale rischio andava incontro. Nel 1569, per esempio, il medico napoletano Francesco Brancaleone era stato processato non solo per sospetto di eresia, ma anche perché sotto il suo letto erano stati trovati libri di Erasmo e di Luciano, due geni della satira e fustigatori implacabili degli impostori. Evidentemente la Chiesa temeva proprio gli spiriti satirici, più ancora degli eretici. Bruno riuscì anche a procurarsi, non sappiamo come, una copia delle opere di San Giovanni Crisostomo e di San Gerolamo pubblicate e commentate da Erasmo. Lo dichiarò lui stesso ai giudici veneti, virgola fui avvisato che, dopo la mia partenza da Napoli, erano stati trovati certi libri delle opere di San Grisostomo e di San Gerolamo con gli scoli di Erasmo scancellati, degli quali mi servivo occultamente, e li gettai nel necessario, gabinetto, quando mi partii da Napoli, a ciò non si trovassero, perché erano libri sospesi per rispetto di detti scolli, sebbene erano scancellati, doc. ven. 13. Ma guardate un po' a quali sotterfuggi bisognava ricorrere per sfuggire alla censura. Ad ogni modo le anime affini trovano sempre la via per incontrarsi, e questo è il caso di Bruno e di Erasmo. Tuttavia ci si chiede, ancora una volta, come egli abbia potuto, in mezzo a tante restrizioni e censure, darsi una cultura filosofica, letteraria e scientifica così ampia, tanto da apparire a tutti, religiosi e laici, ammiratori e avversari, uno dei più eccellenti e rari ingegni che si possano desiderare o addirittura universal doc. ven. 7 xlll. Bisogna anche tener presente che egli, oltre alle letture furtive, che per lui erano sicuramente le più importanti, doveva studiare per gli esami annuali e per il dottorato che ne costituiva il coronamento. Ogni anno, infatti, gli studenti formali venivano sottoposti a un rigido esame. I voti, che riguardavano anche la condotta, erano segreti. Il momento più rischioso di quella lunga e massacrante corsa a ostacoli in chiave scolastica era l'examen ad gradus. Bruno superò, brillantemente com'è da presumere, tutte le prove, e nel luglio del 1575 sostenne gli esami di laurea. Conosciamo anche le tesi che discusse, verum est qui qui dicit di Thomas contra gentile se verum est qui qui dicit magister sententi arm doc. Paragrafo 2. Così, dopo un decennio esatto di studi e avendo superato tutti gli esami previsti, fu dichiarato dottore in teologia dal provinciale dell'Ordine Domenicano, che allora era fra Domenico vita. Ma bastavano, tutte quelle sbornie di teologia, per fare dei veri uomini di scienza, sia pure perfini apostolici? E la domanda che si pone Michele Miele, il quale risponde così, indubbiamente da chi era orientato alla teologia, e in particolare all'indirizzo tomistico col supporto aristotelico del tempo, una organizzazione scolastica del genere poteva essere vista come il vento in poppa. Ma che dire di chi, anche senza essere nemico della teologia, preferiva attardarsi sulle discipline studiate durante i corsi pre-accademici, e magari scrollarsi di dosso la tutela aristotelica per cercare nuovi orizzonti. Era il caso di Bruno, come sarà poi quello di Campanella, in Giordano Bruno Citt, pp. 47 sg. E infatti abbiamo visto che Bruno studiava di nascosto quello che non gli era permesso di studiare liberamente, cercando nella scienza e nella filosofia un antidoto alle dosi urto di teologia. La fuga, la vita di Giordano Bruno nel convento di San Domenico Maggiore ricorda per molti versi quella di Giuliano l'Apostata nella fortezza di Macellumi Manatolia, ai piedi del monte Argeo, dove l'aveva relegato lo zio Costanzo con l'intento di fame un monaco e di distoglierlo da qualsiasi aspirazione al potere. Per questo gli aveva messo al fianco, come precettore e forse anche come spia, il vescovo di Cesarea, un uomo settario e poco raccomandabile. Così anche Giuliano, tenuto sotto stretta sorveglianza, era costretto a leggere di nascosto gli autori che veramente lo interessavano. Quali? Gli stessi che appassioneranno Giordano Bruno e che più risentono della grande sapienza orientale, Pitagora, Platone, Eraclito, ma anche Plotino, Porfirio e Giamblico. Questi ultimi folgorarono letteralmente il grande rampollo imperiale, che nel culto del sole cercava forse una consolazione alle sue atroci sventure. Infatti lo zio Costanzo gli aveva trucidato i genitori, e lui stesso si era salvato per miracolo da quella carneficina. Ma mentre Giuliano, nella relegazione di Macellum, imparò subito a tacere e a diffidare di tutti quelli che lo circondavano, Bruno non seppe fare altrettanto nel convento, dove certamente non mancavano i delatori. Sapeva nascondere i libri di Erasmo, ma non le proprie idee, che diventavano sempre più eterodosse. L'imprudenza è, al pari della distrazione, una caratteristica degli spiriti superiori. Presi da problemi universali, spesso trascurano quelli particolari e non si accorgono di ciò che li circonda. Credono, ingenuamente, che tutti siano alla loro altezza e capaci di innalzarsi al di sopra dei tempi. Platone, il teorizzatore di un mondo ideale, conosceva poco quello in cui si trovava a vivere. Nel bel libro di Vinti Lauria, intitolato La settima lettera, Torino 1995, Dionigi, il tiranno di Siracusa, dice al filosofo, tu conosci poco gli uomini, Platone. Esattamente la stessa cosa si potrebbe dire di Bruno, anche lui conosceva poco gli uomini e la loro perfidia. altrimenti sarebbe stato più accorto nel manifestare le proprie idee o nel criticare quelle dei suoi confratelli. Era un atteggiamento pericoloso, e questo lui avrebbe dovuto saperlo. Facciamo un esempio fra i tanti, il calvario dell'umanista Onio Paleario, che dopo diversi processi per eresia fu bruciato vivo il 3 luglio del 1570, ebbe inizio proprio dalla discussione con un Domenicano. Molto spesso i Domenicani, per confutare radicalmente un avversario, lo mandavano al rogo, era più semplice e sbrigativo. Agli inquisitori che lo stavano condannando a morte, il Paleario, che era di tendenze luterane, disse con grande fermezza, se le vostre eminenze sostengono di avere contro di me tante buone ragioni, allora non c'è bisogno che si prendano e diano a me altro fastidio. Procedete dunque. Nel maggio del 1572, fra Agostino da Montalcino e due o tre altri confratelli, tutti toscani e tutti dominicani, furono ospiti festeggiati di San Domenico Maggiore. Proprio con il Montalcino, che a quanto pare ritornò a Napoli anche in seguito, l'incauto Bruno si lasciò andare ad alcune affermazioni compromettenti, io non saprei immaginarmi de che articoli me processassero, se non è che, ragionando un giorno con Montalcino, che era un frate del nostro ordine, Lombardo, in presenza de alcuni altri padri, e dicendo egli che questi eretici erano ignoranti e che non avevano termini scolastici, dissio che si bene non procedevano nelle loro dichiarazioni scolasticamente, che dichiaravano però la loro intenzione comodamente come facevano lì padri antichi della Santa Chiesa, dando l'esempio della forma dell'eresie Dario, che gli scolastici dicono che intendeva la generazione del figlio per atto di natura e non di volontà, il che medesimo si può dire con termini altro che scolastici, riferiti da Sant'Agostino, cioè che non è di medesima substanzia il figliuolo ed il padre, e che proceda come le creature dalla volontà sua. Ondes al torno quelli padri con dire che io difendevo li eretici, e che volevo che fossero dotti. Altro non so, né mi posso immaginar, che sia stato processato, doc. Venn. 13. Conoscendo la sua indole e la sua incapacità di tenere a freno la lingua, c'è da credere che egli abbia detto anche altro e che si sia accalorato nella disputa. Fatto sta che il Montalcino riferì tutto al padre provinciale Domenico Vita. La stessa cosa fecero anche gli altri padri presenti alla discussione. Il più scandalizzato dovette essere sicuramente il Montalcino, ammiratore dei fanatici teologi spagnoli e quindi fanatico a sua volta. Allora fu anche ricostruita la denuncia, poi stracciata, che contro Bruno aveva fatta il maestro dei novizi fra Eugenio Gagliardo. Oltre a ciò, qualcuno si prese la briga di andare a rovistare nella cella, gabinetto compreso. Dove furono trovati i libri di Erasmo. C'erano tutti gli elementi, dunque, per avviare un processo. E infatti il padre provinciale Domenico Vita lo avviò, ma poi gli atti furono trasmesse a Roma. Come si può desumere dalle stesse dichiarazioni di Bruno dinanzi al Tribunale Veneto, facilmente si potranno avere questi processi, perché restano imperfetti, e credo che fussero mandati allora al procurator dell'ordine a Roma d'Oc. Ven. 13. Insomma il processo fu iniziato a Napoli e terminato a Roma. Nel frattempo Bruno, fiutando il vento avverso e temendo di essere imprigionato, non aveva esitato a fuggire, e credo d'aver anche detto che, prima ch'io andasse a Roma l'anno 1576, se ben mi ricordo, e che io deposi l'abito ed uscii della religione, il provinciale fece processo contro di me sopra alcuni articulli, che io non so realmente sopra quali articulli, né di che in particolar, se non che me fu detto che si faceva processo contro di me di eresia, nel quale si trattava di questa cosa del noviziato ed altro. Per il che dubitando di non esser messo in pregione, mi parti da Napoli ed andai a Roma, Doc. Ven. 13. La sua presenza nel convento di San Domenico Maggiore è documentata fino al 30 gennaio 1576, il che lascia supporre che la foga sia avvenuta entro il mese di febbraio. Per sua stessa ammissione, Bruno aveva incominciato fin dai 18 anni a nutrire dubbi sulla Trinità, ma anziché tenerseli per sé, come richiedevano le circostanze, deve averli sempre più incautamente manifestati nelle discussioni con i correligionari. Ancora più incautamente deve essersi espresso dinanzi a quell'ottuso nottolone di Fra Agostino da Moritalcino, che ne rimase scandalizzato e andò subito a denunciarlo al padre provinciale. Follia umana, il dogma della Trinità, che a Goeti sembra una formula da strega e che chiama sarcasticamente un mostro a tre Faust, v. 7.975, ha provocato guerre e orrori a non finire. La logica si ribella già all'idea di un dio personale che crea il mondo dal nulla e poi lo amministri a suo piacimento. Se poi si parla di divinità una etrina, vale a dire di tre persone diverse in una, quasi si trattasse del polimorfismo delle foglie di eucalipto, allora la logica greda. Ad Agostino o a Tertulliano viene attribuito il detto, credo qui a absurdum. A sua volta Anseimo da Osta dice, credut intelligam. Ma una logica del genere se la possono permettere solo i padri e i dottori della Chiesa. L'uomo normale, che non ha particolari rapporti con il cielo, ragiona così, o si pensa o si crede. Ad ogni modo io preferisco rimanere con Goeti, amico mio, l'arte è vecchia e nuova. In tutti i tempi, per mezzo del tre e dell'uno, e dell'uno e del tre, si è avuta l'arte di diffondere l'errore al posto della verità. Così si charla e si insegna indisturbati. Chi vuole avere a che fare con i pazzi? Di solito l'uomo, quando ascolta parole, crede che sotto ci sia anche un pensiero, Faust, vv. 2560 sgg. Come si vede Goete, che qui parla per bocca di Mephistofele, se la rideva sul dogma della Trinità. Ma ancora di più se la rideva, su quelle astruserie ideologiche, Voltaire. Nel suo micidiale dizionario filosofico, sotto la voce ario, si legge, ed ecco una controversia incomprensibile, che ha tenuto in esercizio per più di sedici secoli la curiosità, la sottigliezza dialettica, lo spirito di intrigo, la bramosia di potere, il furore di persecuzione, il fanatismo cieco e sanguinario, la credolità barbarica, e che ha provocato sulla terra più orrori che non l'ambizione dei principi, la quale ne ha pur provocati moltissimi. Gesù è egli verbo. E se egli è verbo, è emanato da Dio nei tempi o prima dei tempi? E se è emanato da Dio, è coetaneo e consustanziale con lui o è invece d'una sostanza simile? È distinto da lui o no? È creato o generato? E può generare a sua volta? Ha la paternità, o la virtù produttiva senza paternità. E lo Spirito Santo è creato o generato, prodotto procedente dal padre, o procedente dal figlio, o procedente da tutti e due. E può generare, o può produrre. E la sua ipostasi è consustanziale con l'ipostasi del padre del figlio? E in quale modo, avendo essa precisamente la stessa natura, la medesima essenza del padre del figlio, non può fare le stesse cose di quelle due persone, che sono lui stesso. Io non ci capisco niente. Nessuno ci ha mai capito niente. E per questa ragione ci si è scannati a volontà. Anche Giordano Bruno non ci capiva nulla, sempre che avesse voglia di capirci qualche cosa, quegli arzigogoli teologici dovevano ripugnare non poco alla sua mente di filosofo. Però capì che bisognava fuggire, finché era ancora in tempo. Non sappiamo se, prima di allontanarsi da Napoli e dalla Campania, abbia rivisto i genitori e si è andato a chiedere la benedizione al suo amato Monte Cicala, certamente più benefico di coloro che amministravano la giustizia di Dio. Chissà, forse avrà chiesto anche un viatico al Vesuvio, ne aveva bisogno, ora che si avviava verso il suo tempestoso destino. Egli visse sempre in mezzo alla tempesta, come le procellarie. Anzi era lui stesso una tempesta. Lo si potrebbe paragonare ai gabbiani o ai gracchi alpini, i quali tanto più si animano, quanto più il cielo era annuvolato e procelloso. Ma quel frate che scappa dal convento, dopo aver trascorso undici anni nel silenzio della sua cella, e che all'improvviso si trova sotto il libero cielo, richiama alla mente anche un'altra immagine, quella dell'uccello che viene liberato dalla gabbia, dove ha disimparato a volare. Gli mancava la pratica del mondo e della vita, in cui si trovò subito immerso come in un elemento estraneo. Dove dirigersi e dove andare. Il passaggio da uno stile di vita all'altro richiede del tempo, e come l'uccello appena liberato dalla gabbia tende a ritornarci, così Bruno, giunto a Roma, andò a bussare alla porta di un altro convento, quello di Santa Maria sopra Minerva. Nel suo primo Costituto Veneto dichiarò, e continua in questo abito della religione dei San Domenico, celebrando messa e li divini offizii, e sotto l'obbedienza dei superiori dell'istessa religione e degli priori dei monasteri e conventi dove sono stato, sino l'anno del 76, che fu l'anno sequente dopo l'anno del Giubileo, trovandomi in Roma nel convento della Minerva, sotto l'obbedienza dei maestro Sisto de Luca, procurator dell'ordine, dove era andato a presentarmi, perché a Napoli ero stato processato due volte, Doc. Ven. 8. Il nome esatto di quel procuratore non era Sisto de Luca, come si legge erroneamente nel verbale, ma Sisto Fabri de Luca. Più tardi fu eletto, all'unanimità, generale dell'Ordine Domenicano. Nel 1581 ebbe anche il compito di censurare i saggi di Montaigne, ma siccome non capiva la lingua in cui erano scritti, li giudicò in base a quello che gli riferì un monaco francese e rimise alla coscienza dell'autore la correzione dei punti controversi. Lo racconta lo stesso Montaigne nel suo giornal de voyage en Italie, sotto la data del 20 marzo 1581. Ma perché Bruno andò a mettersi proprio sotto l'ala del procuratore dell'Ordine Domenicano? Cercava protezione in alto, oppure sperava che il suo caso passasse inosservato in mezzo ai gravi disordini che allora regnavano a Roma? Un contemporaneo, il marchigiano Guido Gualtieri, dice che nascevano frequentissimi e fierissimi tumulti. Di giorno e di notte era un rubare e ammazzare, molti gittati in tevere, né di popolo solamente, ma i monsignori, i figli di magnati, messi al tormento del fuoco, e nipoti di cardinali erano levati dal mondo. E ancora, questo numero spaventevole di rubatori e di ammazzatori non si era congregato solamente da odi e nemicizie fatte e ricevute offese, ma ogni briccone che voleva roba e amava il malfare ingrossava la turba. Ne erano pur degli uomini del secolo, ma assai di preti e di frati, lasciate le chiese e i conventi, correvano a questa vita esecrabile, orrenda e insaziabil sete di sangue umano, prendersi a giuocche sollazzo l'ammazzare uomini. Un lievissimo sospetto, una paroluzza, anche falsamente riferita, erano mortali. Tutta colpa dell'indole fiacca di Papa Gregorio XIII, che allora aveva più di 80 anni e rimetteva ogni cosa alle voglie di Giacomo suo figliuolo S. 261. Ma Roma era la capitale del cristianesimo o del diavolesimo. E lo Spirito Santo lasciava correre? Ad ogni modo Bruno poteva ragionevolmente sperare che, in mezzo a tutte quelle ribalderie e uccisioni, nessuno si interessasse a lui, re o soltanto di aver criticato il culto mariano e di aver avanzato dubbi sul dogma della Trinità. E invece, per una circostanza rimasta oscura, si trovò lui stesso coinvolto nei disordini che allora affliggevano la città eterna. Infatti qualcuno, per vendetta o per malvagità, volle addirittura accusarlo di un delitto. Cerchiamo di chiarire. Nella denuncia del 23 maggio 1592, che il patrizio veneziano Giovanni Mocenigo presentò contro il filosofo all'Inquisizione, si legge fra l'altro, ma ha detto d'aver avuto altre volte in Roma querele all'Inquisizione di cento e trenta articulli, e che ne fuggì mentre era presentato, perché fu imputato d'aver gettato in Tevere chi l'accusò, o chi credette lui che l'avesse accusato all'Inquisizione doc. Ven. I. Prima ancora che con il Mocenigo, Bruno aveva parlato di quella calugna con il bibliotecario parigino Guillaume Cotin, nel cui diario, sotto la data del 7 dicembre 1585, si legge che il filosofo è fuggiasco dall'Italia già da otto anni, sia per un omicidio commesso da un suo frere, per il quale egli è incolpato e in pericolo della sua vita, sia per le calunnie degli inquisitori, che sono ignoranti e che, non concependo la sua filosofia, lo accuserebbero di eresia doc. Paragrafo 2. Naturalmente frere sta per confrere, cioè confratello correligionario, anche perché non risulta da nessuna parte che Bruno avesse un fratello. Resta comunque il fatto che il suo nome fu annotato due volte nell'index processatorum per l'anno 1576. Se ne deve dunque dedurre che in quell'anno, come scrive lo spampanato, si prochedè due volte contro il Bruno, e nonostante manchino le scritture, che con ogni probabilità vennero richieste dal santo uffizio e vi rimasero, tuttavia si è indotti ad affermare che, se il primo è il processo religioso di cui si è già parlato, il secondo fu istruito per le accuse cui allusero il Mocenigo e il Cotin. I giudici veneti e il Santa Severina, il Cardinale Santoro, nella domanda di estradizione, ne tacquero, è vero, ma è pur vero che nulla vieta di supporre che tra il 1576 e il 1592 si fosse scoperto il colpivole, o quantomeno si fosse provato che l'esule non entrava appunto in quella fosca e crudele vendetta, né come autore né come complice, s 265. Riassumiamo. Se Bruno si fosse veramente macchiato di un delitto, i giudici veneti prima e quelli romani poi, tanto più severi verso l'imputato, ne avrebbero sicuramente parlato, anche se per loro gettare un uomo nel Tevere era certo meno grave che mettere in dubbio il dogma della Trinità. Invece non ne fecero il minimo accenno, il che dimostra, si è pure indirettamente, l'assoluta innocenza dell'imputato. A parlarne fu proprio Bruno, cheppure avrebbe avuto tutti i motivi di tacere, qualora fesse stato veramente colpevole. Comunque si studi la cosa, la conclusione è sempre la stessa, si trattava solo di un'atroce calunnia. Ha dunque ragione lo spampanato, quando scrive che a Roma, in quei giorni di anarchia, essendo riuscito a fuggire e a rimanere incognito il colpevole, verisimilmente venne imputato il Nolano per il rancore che egli aveva con il monaco ucciso S. 264. Ma poi ve lo immaginate un filosofo come Giordano Bruno che getti nel Tevere un uomo? Le sue armi erano la penna e la lingua, non le mani. Quanto al monaco finito in acqua, chi sarà stato? Spampanato pensa a qualcuno dei tanti frati napoletani che si recavano a Roma per loro faccende o per quelle del convento. Di sicuro non si trattò del Montalcino, che era ancora vivo e vegeto nel 1592. Verrebbe quasi voglia di dire, purtroppo. Non la morte, per l'amor del cielo, ma una solenne bagnata nel Tevere se la sarebbe meritata, visto che da lui ebbe inizio la tragedia del nostro filosofo. Probabilmente fu per non aggravare la sua posizione che Bruno, durante il processo Veneto, disse di non aver vituperato in alcun modo li religiosi. In realtà li detestava, come si può vedere da molti passi delle sue opere italiane e latine. Pur vivendo in mezzo a gente come quella descritta nel Candelaio, seppe conservarsi incontaminato. Il suo nome non figura mai nel registro di provincia, dove venivano segnati tutti coloro che si rendevano colpevoli di questa o di quella ribalderia. Si elevò al di sopra del mondo che lo circondava, seguendo unicamente i propri ideali. La lotta fu certamente lunga e difficile, ma egli ne uscì vittorioso. Il convento di San Domenico Maggiore, dove era vissuto per undici anni, doveva essere, stando a quello che vi si verificava, più simile a una sentina di vizi che ha un luogo di virtù, e se non sappiamo esattamente per quale motivo Bruno vi sia entrato, possiamo capire perché, a parte i processi, ne sia fuggito e ne sia rimasto disgustato. A quanto pare lì ce l'aveva soprattutto con uno schiercato sodomito, il tronfio Bonifacio ridicolizzato nel Candelaio. Nella dedica alla signora Morgana si legge, salutate da parte mia quell'altro Candelaio di carne ed ossa, delle quali è detto che regnume dei non possidebunt, e ditegli che non goda tanto che costisi dica la mia memoria esser stata strapazzata a forza di piedi porci e calci d'asini, perché a quest'ora gli asini son mozze l'orecchie, ed i porci qualche dicembre me la pagaranno. E che non goda tanto con quel suo detto, abiti in regionem lo ginquam, perché, si avverrà già mai chi ce li mi concedano ch'io effettualmente possi dire, surga me tibo, cotesto vitello sagginato senza dubbio sarà parte della nostra festa. Tra tanto, viva e si governe, ed attenda a farsi più grasso che non è perché, dall'altro canto, io spero di ricovrare il lardo, dove ho persa l'erba, si non sotto un mantello, sotto un altro, se non in una, in un'altra vita. Chi era, quel grasso bagascione? Secondo Spampanato, si trattava di Fra Bonifacio da Napoli, con fratello di Bruno nel convento di San Domenico Maggiore e suo acerrimo nemico. Sicuramente non era l'unico sodomito o candelaio, in quel convento. Ma è storia vecchia, molti ministri di Dio parlano di ascesi e hanno in tasca il passaporto per Sodoma. Viene anche in mente ciò che racconta Rousseau nelle sue confessioni, quando era nell'ospizio dei Catecumeni di Torino, dove lo preparavano per la conversione al Cattolicesimo, corse il rischio di essere sodomizzato da un risolatore di coscienze. Anche senza l'assurda calugna di aver gettato un confratello nel Tevere, a Roma, per Bruno, non c'era aria buona. Da Napoli lo avevano avvisato che, dopo la sua partenza, erano stati ritrovati libri proibiti che aveva letto di nascosto. È anche probabile che a Roma si fosse già informati del processo che a Napoli si stava istruendo contro di lui. Proprio in quei giorni, inoltre, nella città eterna si stava compiendo il triste destino dell'arcivescovo spagnolo Bartolomeo Carranza di Miranda. Sospettato di eresia, l'infelice era stato tenuto per quattordici anni in carcere, prima a Valladolide e poi a Castel Sant'Angelo. Il 14 aprile del 1576 abbiurò in presenza del Papa e degli inquisitori, ma morì poco dopo per le orribili torture che aveva subite. No, nel cielo di Roma non alleggiava lo Spirito Santo. Chi era accusato di eresia, come Bruno, poteva piuttosto scorgervi i sinistri presagi. Bisognava fuggire di nuovo. Uscito di religione e deposto l'abito, Bruno abbandonò Roma, il quartiere generale dell'amore cristiano, e riprese la via dell'esilio. Secondo lo spampanato, egli non rimase a Roma oltre il mese di marzo del 1576. Ci era arrivato di nascosto e ancor più di nascosto ne ripartiva. Nudo come biante, in quel tempo infuriava non soltanto la peste della Santa Inquisizione, ma anche l'onesta peste vera. Sarebbe difficile stabilire quale delle due fosse la peggiore e facesse più vittime. Facciamo un passo indietro e parliamo di uno dei massacri più raccapriccianti fatti in nome del Dio cristiano. Lo si potrebbe anche considerare un preludio o una prova generale della notte di San Bartolomeo. Ecco, in breve, l'orribile storia. In Calabria viveva, già da parecchie generazioni, una nutrita colonia di valdesi provenienti dal Piemonte. Per sfuggire alle persecuzioni nelle Alpi si erano rifugiati vicino alla Sila, la splendida foresta di pini giganteschi dove Gioacchino da Fiore aveva preconizzato il regno dello Spirito Santo. I primi vi giunsero, sembra, verso la fine del secolo XIII o all'inizio di quello successivo. Era gente quieta e laboriosa, dedita alla preghiera e alla coltivazione dei campi. Nel corso del tempo avevano fatto arrivare dalle valli alpine e altri correligionari e si erano stabiliti in diversi punti del Cosentino. A Montalto, non molto distante da Cosenza, edificarono un borgo che fu detto Borgo degli Ultramontani. La vicino, in un casale chiamato San Sisto, si trovava la loro chiesa principale. Ma il nome di quei valdesi è rimasto legato soprattutto al comune che si chiama ancora oggi guardia piemontese. Per circa due secoli e mezzo poterono vivere in pace. Le cose cambiarono bruscamente con il cardinale Alessandrino Michele Ghislieri, il terribile inquisitore e futuro papa con il nome di Pio V, che aveva deliberato di istruggere contemporaneamente sia i valdesi del Piemonte che quelli della Calabria, e se l'esecuzione di quel nefasto proposito fallì con i primi, ebbe successo con i secondi. La crociata contro i valdesi della Calabria, che erano diventati migliaia, incominciò nella primavera del 1561. Le squadre armate, benedette e aizzate dal Domenicano Valerio Malvicino, originario di Piacenza, misero tutto a ferro e fuoco. Per la bisogna furono anche arruolati criminali di professione, con la promessa di una completa amnistia dei loro misfatti e di una ricompensa per ogni eretico ucciso. Inoltre c'erano dei cani abdestrati che venivano lanciati dietro coloro che cercavano scampo nei boschi. Quelli di guardia piemontese furono presi con uno stratagemma architettato dal loro feudatario, che avrebbe dovuto, piuttosto, difenderli, anche nel suo interesse. Si chiamava Salvatore Spinelli, al quale la strage di quegli innocenti fruttò il titolo di marchese. Quanti nobili non traggono la loro origine da malfattori e criminali. Ma la scena più raccapricciante di tutti quei massacri si svolse a Montalto, dove erano stati concentrati i sopravvissuti alle stragi di San Sisto e di guardia piemontese. Abbiamo tre lettere di chi assistette con i propri occhi a quell'orrore. Anche se la mano esita a trascrivere simili cose, dobbiamo citare almeno la seconda lettera, scritta da Montalto l'11 giugno 1561. Per comodità del lettore, occorre aggiornare leggermente la grafia, senza però toccare il testo. Udite, fino a quest'ora s'è scritto quanto giornalmente di qua è passato circa a questi eretici, ora occorre dire come oggi di buon'ora si è incominciato a far l'orrenda justitia di questi luterani, che solo a pensarvi è spaventevole, che così sono questi tali come una morte di castrati, montoni, li quali erano tutti serrati in una casa e veniva il boia e li pigliava uno a uno, e gli legava una benda avanti agli occhi e poi lo menava in un luogo spazioso poco distante da quella casa, e lo faceva inginocchiare e con un coltello gli tagliava la gola, e lo lasciava così, poi pigliava quella benda così insanguinata, e col coltello insanguinato ritornava a pigliar l'altro, e faceva il simile. Ha seguito quest'ordine fino al numero di 88, il quale spettacolo quanto sia stato compassionevole, lo lasciò pensare a considerare a voi. I vecchi vanno a morire allegri, e i giovani vanno più impauriti. Si è dato ordine già sono qui i carri, e tutti si squarteranno e si metteranno di mano in mano per tutta la strada che fa il procaccia fino ai confini della Calabria. Virgola si è dato ordine di far venire oggi cento donne delle più vecchie, e quelle far tormentare e poi giustiziare anche loro per poter fare la mistura perfetta. Ve ne sono sette che non vogliono vedere il crocefisso né si vogliono confessare, le quali verranno bruciate vive, amabile 1892, pp. 235 sgg. Nella terza lettera, scritta il 12 giugno 1561, l'autore dice che in undici giorni si è fatta esecuzione di 2000 anime e ne sono prigioni 1600 condannati. Il numero esatto delle vittime non si conosce. In un'altra lettera, scritta da Montalto il 27 giugno 1561 e diretta a un prelato, si parla di 86 scorticati vivi, e poi fenduti in due parti furono a questo modo attaccati a pali ripiantati per tal uopo lungo la strada per la lunghezza di 36 miglia, e vedesi tale spettacolo spaventevole agli eretici e di grande confermazione ai cattolici. Altri furono unti di resina, a ciò venendo consumati a poco a poco essi soffrano di più, per correzioni della loro impietà amabile 1892, pp. 235 sgg. Fermiamoci qui, perché il cuore non regge al pensiero di ragazzini scannati o bruciati vivi insieme con i loro genitori. Ma è l'uomo è così mostruoso e criminale come quando agisce in nome di una fede, non importa se religiosa o politica. L'inquisitore Michele Ghislieri, che di quel massacro era stato l'ispiratore, fu fatto prima papa e poi anche santo. In altre parole egli si aprì la via al cielo, così come il feudatario Spinelli si aprì quella al Marchesato. Tutto questo avveniva in una terra di antica civiltà come la Calabria, dove era sorta tanta parte della filosofia occidentale e dove, secoli prima di Cristo, splendevano città come Crotone e Sibari. Chi non sa dell'alta sapienza che si insegnava nella scuola di Pitagora a Crotone. I pensieri salivano in alto come i pini giganteschi della Sila, sotto i quali i pitagorici andavano forse a meditare. Lo splendore continuò anche in epoca romana. Allora non si conosceva il concetto di eretico e nessuno avrebbe scannato un proprio simile per questioni religiose. Poi arrivarono i cristiani e cadde la notte. Allo storico tedesco Karl-Heinz Deichner non mancava certo la materia per scrivere la sua voluminosa Criminal Jeskic Tedes Schristentums, 1986, in italiano sono finora usciti, presso le edizioni Arielle di Milano, solo i primi due volumi. Ora ritorniamo a Giordano Bruno. Apprestandosi ad abbandonare la capitale del cristianesimo, egli avrebbe potuto dire a se stesso, patriarci Fugimus. Ma dove dirigersi? A sud come a nord il cielo era fosco. Gli dei erano assetati di sangue e gli inquisitori li abbeveravano continuamente. Dopo la strage dei valdesi della Calabria, il cui sangue non si era forse ancora essiccato, ecco quella, ancora più spaventosa, della notte di San Bartolomeo in Francia. E poi c'era anche, come se accennato, la peste, che infuriava soprattutto nel Veneto e nella Lombardia, senza però risparmiare le altre regioni. Il Papa Gregorio XIII indisse per espiazione il giubileo e, seguito da una grande folla, si recò a piedi scalzi nella chiesa di Santa Maria del popolo. Ma non risulta che i batteri patogene si siano lasciati commuovere dai piedi nudi di sua santità. Solo la Liguria, per il momento, sembrava non contaminata, e fu in quella direzione che si mosse Bruno. Evidentemente voleva tenersi lontano dai luoghi che, come scrisse otto anni dopo nello spaccio, erano messi in rotta e dispersione dalla peste. In seguito l'epidemia si diffuse anche in Liguria e solo a Genova fece ventimila vittime. Povero, solo, perseguitato, senza casa e senza la certezza del pane quotidiano, Bruno si avviava sull'aspro sentiero del suo destino. Sapeva chi fuggire, ma non dove fuggire. Era solo con se stesso e non aveva altro che se stesso. Nel sonetto che premise al candelaio si paragonò giustamente a Biante, quello che andava in giro dicendo omnia me a me comporto e che era diventato sinonimo di accattone, e ma chi in van d'andar vestito bramo, oi me a chi me in vo' nudo com' un via. Il saio, come s'è detto, l'aveva gettato alle ortiche, sicuramente per essere più libero e per sfuggire meglio alla curiosità del prossimo. Infatti l'incontro con un monaco veniva scambiato per cattivo augurio. Tutta colpa dei molti religiosi che, con la loro condotta, avevano insozzato l'abito che indossavano. Non sappiamo come e quando Bruno fosse giunto a Genova, però sappiamo che ci si trovava il 15 aprile del 1576. Lo si deduce da ciò che scrive nella prima scena del candelaio, io dico, in nome della benedetta coda dell'asino Cadorana a Castello, nella chiesa di Santa Maria di Castello, i Ginoesi. E poi, nel terzo dialogo dello spaccio, così ho visto io gli religiosi di Castello in Genova mostrar per breve tempo e far baciar la velata coda, dicendo, non toccate, baciate, questa è la santa reliquia di quella benedetta asina, che fu fatta degna di portare il nostro Dio dal monte Oliveto a Gerosolima. Adoratela, baciatela, porgete l'imosina, Contemplum accipietis, et vitam aeternam possi debitis. Quella strana reliquia veniva esposta alla Domenica delle Palme, che nel 1576 cadde il 15 di aprile, quando appunto la vide Bruno. La chiesa ha imposto al culto dei suoi fedeli cose ancora più strane e ridicole della coda di un asino, per esempio i numerosi santi prepuzzi, di cui parla anche Roger Peirefitte nelle chiavi di San Pietro. Pare che solo in Italia ce ne siano tre o quattro dozzine, come se Dio, facendosi uomo, si fosse provveduto, anziché di un flauto, di un organo multicanne. Ma io sono stato incuriosito da quella santa coda e, trovandomi nel capoluogo ligure, ho voluto accertarmi se la reliquia esistesse ancora. Il convento di Santa Maria di Castello è uno degli edifici più belli e ragguardevoli di Genova. La chiesa, nella cui navata si vedono alcune colonne romane, è in perfetto stile romanico, ma le sue origini sono molto più antiche. I Domenicani sono lì dal 1442. Un tempo dovevano essere molto numerosi, come si può dessumere dall'ampiezza del convento, ma ora sono rimasti appena in dieci. Proprio a uno di loro mi sono rivolto, garbatamente, per avere notizie sulla santa coda, di cui parla anche Salvatore Viale nel poemetto di Onomachia, che è del 1812. Ma la risposta del Domenicano è stata piuttosto sdegnata, questo è ridicolo, questo è ridicolo. Qui arriva gente da tutte le parti, ma nessuno mi aveva mai chiesto una cosa del genere. Alla fine, però, ha ammesso di aver anche lui sentito parlare della reliquia, ma che non sa dove sia andata a finire. Quando poi gli ho chiesto se conoscesse Giordano Bruno, Domenicano come lui, mi ha risposto con disprezzo, purtroppo. Evidentemente la coda è scomparsa, ma l'asino è rimasto. Ci si chiede, Bruno andò nella chiesa di Santa Maria di Castello per curiosità o per chiedere aiuto ai correligionari? Non lo sappiamo. E non sappiamo neppure, a parte la nota satirica sulla coda dell'asino di Gesù Cristo, quale impressione gli abbia fatto Genova, la superba. Petrarca, che ci era passato molto prima di lui, ne parlò così, io allora ero un fanciullo e ricordo le cose come in sogno, quando quel vostro golfo, che guarda a Oriente e a Occidente, sembrava una dimora non terrena ma celeste, simile a quella che i poeti pongono nei campi Elisi, cime di colli percorse da ameni sentieri, con valli verdeggianti e, tra di esse, le anime beate. Chi era che dall'alto non ammirasse le torri e i palazzi, la natura domata dall'arte, gli schienali dei colli rivestiti di cedri, di viti ed ulivi, e sotto le alte rupi le ville marmoree, simili a regge, che ogni città vi invidiava. Chi non ammirava attonito quei lieti recessi, dove tra gli scogli sorgevano atri dai dorati soffitti, e che giami di flutti marini e bagnati dalle tempeste, che con la loro bellezza attiravano gli sguardi dei naviganti e inducevano il marinaio, colpito da quel nuovo spettacolo, ad abbandonare il remo. E se viaggiavi per terra, come non ti sentivi compreso di stupore osservando l'aspetto augusto degli uomini e delle donne? Familiarum rerum, 14, 5. Bruno non dice niente né di Genova né della Liguria. Oppresso dalle difficoltà, forse non ebbe neppure il tempo di guardarsi attorno. Era una preda abbraccata. Probabilmente andò a cercare pace e cibo nel convento domenicano, così come certi animali ritornano, sia pur molto guardinghi, nella casa da cui sono fuggiti o sono stati scacciati. Ma a quanto pare non trovò né pace né aiuto, perché si allontanò presto anche da Genova. E poi, era scoppiata la peste anche in quella città, un motivo in più per allontanarsene. Il Bruno che fugge dai luoghi in cui ci sia qualche avvisaglia di peste fa venire in mente, per associazione, lo Schopenhauer che scappa da Berlino non appena sente pronunciare la parola colera. Talvolta i filosofi sanno essere anche prudenti. Tuttavia non si capisce bene perché Bruno, uscendo da Genova, si si è rifugiato a Noli, luogo molto bello, certamente, ma non meta per forestieri di quel tempo. Ci andò spontaneamente o su consiglio e raccomandazione di qualcuno che aveva conosciuto a Genova? Voleva avvicinarsi alla Francia o cercare un rifugio nella piccola repubblica di Noli, così gelosa dei suoi privilegi e della sua autonomia? Difficile a dirsi. Quello che sappiamo è che ci andò, come disse lui stesso ai giudici veneti, andai a Noli, territorio genoese, dove mi trattenni quattro o cinque mesi a insegnar la grammatica a tutti. E ancora, io stetti in Noli, come ho detto sopra, circa quattro mesi, insegnando la grammatica a figliuoli e leggendo la sfera a certi gentilomini doc. Ven. 8 e 9. Il fatto che vi abbia trovato lavoro farebbe pensare all'intercessione di qualche persona amica, perché non si può credere che i gentilomini del luogo prendessero lezione di cosmologia dal primo venuto e gli affidassero anche l'educazione dei figli. Per circa sette secoli la piccola repubblica di Noli seppe governarsi con i propri statuti, difendendo le sue franchigie municipali contro i nemici che ne insidiavano la libertà e l'indipendenza. Anche la sua posizione, in un'insenatura circondata per buone parte da aspre rilievi rocciosi, sembrava fatta apposta per difenderla dai nemici. Di là era passato anche Dante, altro grande fuggiasco, che ne volle lasciare un ricordo nel quarto canto del purgatorio, bassi in San Leo e discendesi in Noli. Qualcuno ha addirittura pensato che Dante abbia derivata l'idea del purgatorio dalla forma del Monte Ursino, su cui sorgeva il castello di Noli. Senza abbandonarci alla fantasia, vogliamo dire che il riferimento del poeta a Noli è molto preciso. Non si capisce, dunque, perché certi critici vogliano mettere in dubbio il suo passaggio da quelle parti, tanto che più che Dante, in un altro punto del poema, parla anche di Arles, dove è logico pensare che sia giunto attraverso la Liguria. Il Boccaccio e il Villani affermano che Dante fu anche a Parigi, ma i critici vogliono saperla più lunga e dicono che non è vero. A parte Dante, Noli, per assonanza, ricordava forse a Bruno Nola e magari anche Napoli. Infatti Noli, che nei documenti dell'XI e XII secolo si chiamava Naboli, deriva il suo nome da Neapolis, proprio come il capoluogo Campano. E poi c'era anche il mare. Così l'esule poteva se non altro sognare di essere ancora nella città in cui aveva trascorso tanta parte della sua giovinezza. Chi si aggira per Noli, invece, sogna la presenza di Giordano Bruno. La cittadina, che oggi conta circa 3000 abitanti, ha conservato sostanzialmente intatto, all'interno delle mura di Cinta, il suo antico tessuto urbano. Per questo è molto evocativa. Il pavimento sotto i portici, a breve distanza dal mare, fu certamente battuto dal passo del filosofo. E proprio sotto quei portici si trova la lapide che lo ricorda, Giordano Bruno prima di insegnare all'Europa le leggi dell'ordine universale fu maestro in Noli di grammatica e cosmografia. L'insegnamento della cosmografia, allora, si basava sulla sfera del Domenicano Giovanni di Sacrobosco, un testo chiave della scienza cosmologica medioevale e perfettamente inserito nella tradizione tolemaica. Bruno lo cita esplicitamente, anche nei suoi libri, ma è molto probabile che la lettura che ne fece a certi gentilomini di Noli fosse libera e non in sintonia con la tradizione domenicana. Ormai egli aveva maturato o andava maturando la propria concezione dell'universo ed era sulla scia di Copernico, non del medioevale Sacrobosco. Ma chi erano i gentiluomini cui insegnò la cosmologia? Probabilmente i consoli della Piccola Repubblica, i quali avranno pur voluto sapere chi fosse quel forestiero. Se ci fosse stata un'università, Bruno avrebbe potuto far valere il suo titolo accademico, ma a Noli non c'era l'università. E qui si pone di nuovo la domanda su chi possa averlo introdotto o aiutato. Tra quelli che lo ammisero nel convento di San Domenico Maggiore c'era anche il reverendissimo padre generale Fra Vincenzo Giustiniani, genovese s608, che non lo abbia aiutato lui? Potrebbe essere un'ipotesi. Nel 1575 Gianandrea Doria, nipote del famoso Andrea, si era impadronito di Noli, ma aveva stipulato un accordo con i suoi abitanti, dove fra l'altro si diceva, che si è riservata alla comunità di Noli la solita libertà, insieme con i privilegi. Quando vi giunse Giordano Bruno, la Repubblica era retta dai consoli Antonio Leone e Geronimo Faia, mentre i padri del comune erano Bernardino Badetta e G. Francesco Vincenti. Toccò forse a loro l'alto privilegio di avere Bruno come maestro di cosmologia. Gli statuti, però, prevedevano anche pene severissime contro chi avesse in qualche modo arrecato offesa alla religione e alla girarchia ecclesiastica. Si prescriveva che il colpevole venisse arrestato a furor di popolo e tradotto nelle carceri di Genova. Questo ci può aiutare a capire perché a un certo punto Bruno andò via anche dalla graziosissima Noli, dove aveva trovato rifugio e dove il mare aveva forse contribuito a dargli l'idea dell'infinito. Può anche darsi che le sue lezioni abbiano insospettito il vescovo di Noli, che si chiamava Leonardo Trucco, nome poco appropriato per un vescovo. Un secolo prima, dalla rada di Noli era partito, con una flottiglia di cinque navi, Cristoforo Colombo, anche lui esploratore di spazi infiniti. E ricordiamo anche un altro navigatore, la cui lapide si trova vicino a quella di Giordano Bruno, Antonio da Noli ardito tra gli arditi navigatori nolesi nella metà del XV secolo scoprendo le isole del Capo Verde additò la via dell'Indie per il capo di buona speranza a più fortunato straniero. Ma il più ardimentoso di tutti era lui, Giordano Bruno, che sfidò l'ignoto e il non ignoto, il mondo finito e quello infinito. Sicuramente avrà anche sentito il bisogno, lui così amante della natura, di fare delle camminate nell'entroterra di Noli. Sono luoghi che rinfrancano l'anima e inclinano la mente alla meditazione. Là le pietre parlano, per esempio quelle degli splendidi punti romani della Vaiponci, a qualche ora di cammino da Noli. Infatti l'antica strada romana, ossia la via Giulia Augusta, di cui si vedono ancora dei tratti, passava a Monte. Ma la parlano anche le grotte delle Manie, dove vissero uomini preistorici. È bello immaginare il filosofo che si aggira in quell'angolo di terra, con un occhio rivolto al mare e l'altro alla montagna. Ma a quanto pare fece anche qualche puntata verso la Francia, percorrendo tutta la costiera di Ponente e spingendosi almeno fino a Nizza. Lo si deduce da un passo dello spaccio, che i biografi non hanno preso nella dovuta considerazione, se vuole andare dove son molti fichi, vada in Figonia, cioè, dove la riva abbagna il ligustico mare, da Nizza in Sina Genova o i, 2, 818. Tali parole presuppongono una conoscenza diretta della costa ligure occidentale, dove fra l'altro si trovava il convento domenicano di Taggia, inaugurato nel 1490 e diventato presto famoso. Bruno vi sostò? È probabile, anche se non ci sono documenti che lo comprovino. Si tenga però presente che i documenti di quell'epoca sono andati in gran parte persi o distrutti, e ciò vale non solo per Taggia, ma anche per Noli e per Genova. In tutte e tre le città sono andato alla ricerca di qualche notizia, anche minima o indiretta, della presenza di Giordano Bruno, ma la ricerca non ha dato alcun frutto. Così non ci restano che i frutti di cui parla il filosofo, cioè i molti fichi della Liguria. Quanti ne avrà mangiati? Del resto la filosofia, in Europa, è nata con i fichi, in Grecia e nella Magna Grecia. Sì, la filosofia occidentale è stata allevata a fichi. Anche Nietzsche deve aver fatto grandi scorpacciate di fichi liguri. Chi non sa che egli trascorse molto tempo in Liguria, dove fra l'altro concepì e partorì il suo Zaratustra. E che i fichi gli piacessero lo si rileva da ciò che scrive nel prologo Ollecce Omo, i fichi cadono dagli alberi, essi sono buoni e dolci. Un superuomo mangia fichi non fa paura, ma quasi tenerezza. Secondo Spampanato, Giordano Bruno si fermò a Noli ben più di quattro o cinque mesi, cioè tutto il resto dell'anno in corso e l'inizio di quello seguente. Se si pensa che vi giunse verso la fine di aprile del 1576, il conto è presto fatto. Il lazzarista Raffaele De Martini si afferma che, con le lezioni di astronomia, Bruno provocò un processo a suo carico, il che si accorderebbe perfettamente con la severità degli statuti di Noli in materia religiosa, ma Spampanato mette in dubbio tale notizia, S 273. È tuttavia possibile che l'imprudenza, sua compagna inseparabile, gli abbia creato qualche guaio e alla fine lo abbia costretto ad abbandonare un rifugio così ameno, il cui nome gli ricordava quelli di Nola e di Napoli. E poi a Noli c'era la chiesa di San Paragono, anche lui di origine partenopea. Che Bruno sia entrato in quella chiesa, tanto antica e quanto bella, è attestato da un passo del della causa, dove si parla di una nutrice che era quasi tanto cotennuta, pettoruta, ventrata, fiancuta e innaticuta, quanto può essere quella londriota, che vidi a Westminster, la quale, per il scaldatoio del stomaco, ha un paio di tettazze, che paiono gli borzacchini, stivali, del gigante San Sparagorio Oi, i, 196. Anche quando era a Londra, dunque, egli continuava a ricordarsi di Noli, sia pure per fare una nota satiriche aggiungendo una S al già gigantesco Paragorio. E visitiamola anche noi, prima di uscire da Noli, quella bella chiesa, è il modo migliore per evocare la presenza di Giordano Brano. Mentre viaggio in direzione di Genova, mi chiedo di nuovo, la santa coda dell'asino di Gesù Cristo è veramente scomparsa? Io credo di no. In quest'epoca di pauroso rigurgito di clericalismo e di superstizione, dove madonne di legno o di marmo piangono lacrime di sangue maschile, è del tutto possibile che la suddetta coda riaffiori. Speriamolo. In caso contrario i fedeli potrebbero benissimo adorare anche un asino senza coda e magari scambiarlo per un cavallo dell'Apocalisse. Perché no? Abbiate fede. Da un mare all'altro, prima abbiamo paragonato Bruno a un gabbiano o a una procellaria. E lo era, infatti, sia per natura che per le circostanze della sua vita. La tempesta fu sempre il suo elemento e proprio per questo ci saremmo aspettati che egli, partendo da Noli, se ne andasse in Francia, dove spirava il Mistral. Ma forse quel vento impetuoso gli apportò alle narici puzza di bruciato, dato che nel sud della Francia il fumo degli autodaffè era ancora più denso e acre che altrove. Così egli preferì ritornare indietro e si fermò nella vicina Savona, padre del papa guerriero e conquistatore, anche di donne, Giulio II. Ripetiamo, io stetti in Noli, come ho detto di sopra, circa quattro mesi, insegnando la grammatica a figliuoli e leggendo la sfera a certi gentilomini, e dopo i me parti dell'Aid andai prima a Savona, dove stetti circa quindici giorni, e da Savona a Turino doc. Ven. 9. Solo quindici giorni? A distanza di tanti anni, sedici per l'esattezza, il filosofo non poteva ricordare tutto esattamente e quindi le sue dichiarazioni vanno prese, come si suol dire, con beneficio d'inventario. A Savona ci sarà stato spesso anche prima, data la poca distanza da Noli, così come sarà stato a Finale e in altri luoghi della costiera di Ponente. Comunque non sappiamo nulla di quello che abbia fatto Savona e come si ha vissuto. Possiamo solo arguire che egli, di là, abbia preso la strada per altare, Ceva, Mondovi, Torino. Tre secoli dopo, un altro grande spirito ribelle, Friederich Nietzsche, partirà da Savona con la mente rivolta a Torino, sbagliando però direzione e passando per Genova. Anche lui andava incontro a un atroce destino. E se Bruno definì Torino deliciosa, Nietzsche la cantò con l'odio addirittura di tirambiche. A volte un filo invisibile lega i destini dei poveri figli della terra. A parte la coincidenza del viaggio da Savona a Torino, fra Bruno e Nietzsche si possono fare altri paralleli. Tutti e due vissero, chi più a lungo e chi meno, sotto il cielo della Liguria. Tutti e due furono angeli ribelli e andarno raminghi per il mondo, sempre inseguendo il proprio ideale e senza mai il conforto di una casa o di una persona cara. Tutti e due fecero una fine tragica, l'uno nelle tenebre della follia, l'altro nel bagliore di un rogo. E ancora, tutti e due avevano appena quarantaquattro anni, quando il destino tolse all'uno il lume della ragione e all'altro, rinchiuso in carcere, la luce del sole. Ma ciò che soprattutto li accomuna è l'essere filosofi e poeti allo stesso tempo, anche se Bruno era dotato di una mente speculativa incomparabilmente più profonda. L'accento lirico delle opere di Bruno non è molto dissimile da quello che ritroviamo negli scritti di Nietzsche, e se questi amava tramutarsi in Dioniso, non si dimentichi che anche la filosofia di Bruno trae spunto dal bisogno di un'espansione dionisiaca nell'infinito. Ancora un particolare degno di nota. Nietzsche lesse con entusiasmo alcune poesie di Bruno, e in una lettera a Heinrich von Stein del 22 maggio 1884 scrisse, Mio caro signor dottore, queste poesie di Giordano Bruno sono un regalo di cui le sono grato con tutto il cuore. Mi sono permesso di appropriarmele come se le avessi scritte io e per me, e le ho prese come gocce corroboranti. Se lei sapesse quanto raramente mi viene ancora qualche cosa di corroborante dall'esterno. Ma lui almeno aveva una buona pensione e non era perseguitato, mentre Bruno era braccato e affamato. Dall'esterno non gli arrivava niente, e gli unici corroboranti li doveva trovare in se stesso, nel proprio genio. I paralleli finiscono qui. Per tutto il resto, le differenze tra i due erano abissali. Nietzsche, il superuomo, era più borghese di quanto non si pensi e non si sarebbe certo fatto bruciare vivo per le sue idee. Lo dice lui stesso, non ci faremmo bruciare per le nostre opinioni. E Antimo Negri commenta, no, Nietzsche non è Bruno, non ne ha la forza d'animo, il temperamento, l'eroico furore cfr. H. Fonstein, Giordano Bruno, Roma 2000, prefazione. Probabilmente Bruno arrivò a Torino nei mesi di febbraio o marzo del 1577. E anche qui ci si chiede, vi arrivò spontaneamente o su segnalazione di qualche persona amica? La città, che nel 1563 era diventata capitale dello stato sabaudo, gli piacque e gli rimase nella mente. Nello spaccio, scritto a Londra anni dopo, si legge, se non vuole andare vicino all'Alpi, alle rive del Po, dico alla metropoli del Piamonte, dove è la deliciosa città di Taurino. OI, 2, 763. Bruno non si sofferma quasi mai a descrivere luoghi della sua peregrinazione e quindi quell'aggettivo deliciosa sta a significare che Torino gli aveva fatto un'impressione del tutto particolare. A Montaigne, invece, che ci passò dopo di lui, la città non piacque. Nel suo giornale di viaggio in Italia, sotto la data 30-31 ottobre 1581, annotò, piccola città in un sito molto acquoso, non molto ben edificata, né piacevole, con questo che per mezzo delle vie corra un fiumicello per nettarle delle lordure. Evidentemente anche nella testa dei grandi le cose si riflettono in maniera diversa. Del resto non si potrebbe immaginare nulla di tanto diverso quanto le figure di Bruno e di Montaigne, l'uno tempestoso e sempre in lotta con le avversità, l'altro chiuso nella sua torre d'avorio e tutto dedito a coltivare, lontano dal mondo, la saggezza. Molto più affine a Bruno, per indole battagliera e vena satirica, un altro francese più avuto a Torino, Clement Marot. Anche lui fu perseguitato dal fanatismo religioso, sia cattolico che protestante, anche lui non fu mai prudente nella vita e pagò con la prigione la sua indipendenza, anche lui dovette constatare come a Ginevra, dove si era rifugiato, ci fosse aria irrespirabile per gli spiriti liberi. Alla fine riparò a Torino e vi morì nel 1544. Ma il nome che Bruno aveva sicuramente nel cuore, allorché si diresse verso Torino, era quello del suo maestro Erasmo da Rotterdam, che proprio nel capoluogo piemontese aveva conseguito, il 4 settembre 1506, il dottorato in teologia. I biografi sorvolano su questa coincidenza e fanno male, perché essa può aiutarci a capire gli spostamenti del filosofo, il quale potrebbe essersi detto, se a Torino uno spirito libero come Erasmo ottenne il dottorato in teologia, allora può darsi che ci sia dell'aria buona anche per me. Purtroppo non fu così. Lo apprendiamo dalle parole dello stesso Bruno, il quale dice che da Savona andò a Turino, dove non trovando trattenimento a mia satisfazione venne a Venezia per il pod hoc. Ven. 9. Per quanto deliciosa, dunque, la città non seppe trattenerlo, e così egli se ne andò. Vi avrà forse cercato in vano un'attività didattica, come potrebbe far pensare quel trattenimento a mia satisfazione? Ogni ipotesi è buona. Neppure sappiamo quanto tempo vi sia rimasto. Comunque abbastanza per vedere la città e serbarne un buon ricordo, almeno dal punto di vista estetico. Di sera sul ponte del Po, splendido. Al di là del bene e del male, così scriverà Nietzsche in una lettera da Torino del 7 aprile 1888. Quel po' lo vide anche Bruno, ma, a differenza del cantore di Zaratustra, lui non era al di là del bene e del male, perché cercava il primo e doveva combattere con il secondo. È anche probabile che sia andato a bussare, per motivi alimentari, alla porta del convento domenicano, nel centro storico di Torino, senza però lasciarvi traccia. Chi ha bisogno di pane non lascia mai tracce, forse perché non lascia cadere a terra neppure le briciole. E tuttavia Bruno aveva una gran voglia di vivere e di viaggiare, come dimostrano i suoi continui spostamenti. Forse in lui c'era anche un bisogno fisico di muoversi, dopo aver trascorso tanto tempo in convento. Aveva studiato il mondo sui libri, ma ora voleva anche vederlo. E siccome in tutte le cose c'è legge di compensazione, ecco che la sua povertà diventava un vantaggio, in quanto per conoscere il mondo e le genti il modo migliore è quello di viaggiare poveramente. Sembra un paradosso, ma è così. Il ricco signore che si sposta con una valanga di bagagli non è libero, e sta a chi viaggia con poco come un dromedario carico a un cane da caccia. Da questo punto di vista Bruno, il nostro biante, era molto leggero e poteva infischiarsi dei ladri e dei briganti che allora infestavano le strade. Ma per andare da Torino a Venezia scelse, come si è visto, la via fluviale, imbarcandosi in quel tratto del Po Oeriodano, come si chiamava anticamente, in cui è ambientato il mito di Fettonte. E qui la fantasia si impenna e vola al cielo. Dunque Fettonte, il figlio del sole e dell'oceanina Climene, abbagliato dalle nevi delle Alpi mentre guidava con mano inesperta il carro del padre, sarebbe precipitato, lui e i suoi aerei cavalli, nel tratto del Pochebagno a Torino. Dove, precisamente. Nel mito c'è anche questo, vicino all'attuale Parco Michelotti. Accorse sulle rive del fiume, l'Elia di Piansero e il loro divino fratello e le lacrime da esse versati si trasformarono in ambra. Secondo un'altra versione, l'inesperto Auriga, avvicinandosi troppo con il suo carro di fuoco alla terra, sarebbe stato fulminato da Giove per impedire un disastro universale. Con il mito di Fettonte è collegata anche la fondazione di Torino. Bruno rievoca più di una volta il mito di Fettonte. Per esempio nello spaccio, parlando dell'Eridano, Giove dice che i vi per mia mano cadde il fulminato figlio d'Apollo, per aver il padre abusato del suo ufficio, grado e autorità deol, 2, 603 sgg. In altre parole Febo, affidando la guida del suo carro al figlio Fettonte, avrebbe commesso, come si direbbe oggi, un abuso d'ufficio. Altrove è Apollo stesso che parla e definisce verme infernale lo scorpione, il simbolo del male, che fu la principal cagione dell'orribil caso e crude il morte del mio diletto Fettonte, perché, quando quel miserello dubbioso e timido con gli malnoti destrieri guidava del mio eterno fuoco il carro, questo pernicioso mostro minaccioso venne a far segli talmente incontro con la punta della sua coda mortale, che per l'orrendo spavento facendolo di sé stesso fuori, li fei dalle tenere mani cascar sul tergo dei cavalli freni Ibid, 773. Naturalmente qui lo scorpione è una metafora, ma proprio gli scorpioni metaforici sono i più velenosi, e Bruno dovette farne lunga esperienza. Ma lui non li temeva o non se ne curava, perché, a imitazione di Fettonte e di Icaro, volava in alto, quindi l'ali si cura all'aria porgo, nei temo intoppo di cristallo o vetro, ma fendo i cieli all'infinito mergo. E mentre dal mio globo agli altri sorgo, e per l'eterio campo oltre penetro, quel cal tri lungi vede, lascio al tergo, Ibid, I, 365. E fa anche suo il bellissimo sonetto del Tansillo, poiché spiegatò l'ali al bel desio, quanto più sottil pie l'aria mi scorgo, più le veloci penne al vento porgo, e spregio il mondo, e versi il ciel mi invio. Né del figlio o di dedalo il fin rio fa che giù pieghi, anzi via più risorgo. Chi cadrò morto a terra, ben m'accorgo, ma qual vita pareggia al morir mio? La voce del mio cor per l'aria sento, ove mi porti, temerario? China, che raro è senza d'uoltro pardimento? Non temer, rispondiò, l'alta ruina. Fendi sicur le nubi, e muor contento, si il ciel si illustre e morte ne destina, Ibid, 2, 999. Così Bruno era un Icaro o un fetonte dello spirito, che si lanciava ardimentoso oltre i flammantia moenia della filosofia. Ora però dobbiamo immaginarlo mentre discende la corrente del Po, con la mente forse rivolta a fetonte e con lo sguardo lanciato sulla gigantesca catena alpina che chiudeva l'orizzonte a Settentrione. Che spettacolo per uno spirito come il suo! E infatti le Alpi gli rimasero impresse nella mente e gli servirono per simboleggiare gli sforzi che occorre fare per giungere alla perfezione, la somma perfezione è non sentir fatica e dolore, quando si comporta fatica e dolore. Virgola. Su dunque, se sei virtù, non occuparti a cose basse, a cose frivole, a cose vane. Se vuoi esserla dove il polo sublime della verità ti vegna verticale, passa questo appennino, monta queste Alpi, o i, 2, 713 sgg. Sì, lui scalò le Alpi del pensiero e dalle loro cime e contemplò, impavido, le verità verticali che danno le vertigini. Si direbbe che egli, nel suo peregrinare, non seguisse un piano preciso e andasse piuttosto all'avventura. Quando credi che si diriga da una parte, te lo ritrovi dall'altra, simile a quegli uccelli che piegano improvvisamente a destra o a sinistra senza una ragione apparente. Così lo vediamo andare avanti e indietro per l'Italia settentrionale, senza che si riesca sempre a capire quale sia la sua meta. Forse non lo sapeva neppure lui. Il suo zizzagare rispecchia l'inquietudine del suo animo. Si può tuttavia supporre che egli sia andato a Venezia per due motivi, primo, perché la Repubblica Veneta godeva fama di liberalità, secondo, perché Venezia era. Allora il centro dell'editoria. Appena giuntovi, infatti, fece stampare una sua opera, Stetti un mese e mezzo in frezzaria a camera locante, in casa de uno dell'arsenale, che non so il nome, e mentre Stetti qui feci stampare un certo libretto, intitolato Dei segni dei tempi, e feci stampare quest'opera per mettere insieme un poco dei danari per potermi sustentar, la qual opera feci veder prima al riverendo padre maestro Remigio de Fiorenza, doc. Ven. 9. L'opera non ci è pervenuta e non sappiamo neppure se trattasse di filosofia, come pensano alcuni, o di astrologia, come pensano altri. Stando al titolo indicato dallo stesso autore, era sicuramente in lingua italiana. Oltre a ciò, non doveva essere di ampio respiro, visto che lo stesso Bruno parla di libretto. Ma povero lui, se doveva vivere con il ricavato di un libro, non importa di quale natura fesse, a meno che il suo correligionario padre Remigio non gli abbia dato, oltre al parere editoriale, anche qualche rinforzo pecuniario. Ma lo escluderei, perché generalmente i chierici, quando devono mettere mano alla scarsella, si fanno venire la paralisi al braccio. Ad ogni modo il padre Domenicano Remigio Nannini, che nel 1564 era stato trasferito dal monastero fiorentino di Santa Maria Novella a quello veneziano dei SS. Giovanni e Paolo, non doveva essere un fanatico. Aveva molto ingegno e ne dette prova nei suoi scritti. Fu un elegante poeta e oratore, quaresimalista esimio, esperto cultore delle discipline filosofiche e teologiche, versato scrittore di storia e di politica S275. Tra l'altro scrisse le rime, commentò Guicciardini e tradusse Ovidio, dando nello stesso tempo prova di eccellenti qualità letterarie, di cultura e di spirito libero. Tornato a Firenze per rivedere i suoi parenti, vi morì il 3 ottobre del 1580. La frezzeria, dove Bruno dice di essere vissuto un mese e mezzo in una camera d'affitto, era una delle contradi di Venezia dove maggiormente ferveva l'attività editoriale e tipografica. C'erano ben cinque officine tipografiche, fra cui quella di Domenico De Franceschi, e può darsi che il filosofo si sia rivolto a lui per far stampare il suo libretto. Ma a Venezia c'era pure la peste, anche se andava perdendo la sua virulenza. Le vittime, fra cui Tiziano, furono cinquantamila. Ancora in un dispaccio del 7 settembre 1577 si parla di povera città. Andandoci, Bruno corse un grave rischio. Ma per quella volta Venezia, che quindici anni dopo gli sarà fatale, lo risparmiò. La città lagunare aveva in serbo, per lui, qualcosa di ancora più pericoloso dei batteri patogeni. Lo vedremo in seguito. Dopo aver tirato avanti per un paio di mesi a Venezia, il filosofo, certamente anche per sfuggire alla peste, ritornò indietro e se ne andò a Padova, dove incontrò alcuni domenicani di sua conoscenza, che gli consigliarono di riprendere l'abito, e partendo domi di qui, io andai a Padova, dove trovando alcuni padri dell'ordine di esse domenico mei conoscenti, li quali me persuadettero a ripigliar l'abito, quando bene non avesse voluto tornare alla religione, parendoli che era più conveniente andare con l'abito che senza, e con questo pensiero andai a Bergamo. E mi feci far una veste di panno bianco di buon mercato, e sopra essa vi posi il scapulare, che io avevo conservato quando partii da Roma, doc. Ven. 9. Occorre avvertire che questi ricordi autobiografici furono scritti non da Bruno, come si può facilmente capire dalla sintassi spericolata, bensì dal notaio o scrivano che registrava gli interrogatori dell'imputato durante il processo a Venezia. E vada se che egli, per la fretta, non aveva potuto registrare parola per parola tutte le dichiarazioni dell'imputato, ma solo le cose essenziali. Ma anche Bruno, per prudenza o per dimenticanza, non raccontò tutti i particolari della sua vita. Insomma si tenne sulle generali. Così le scarne notizie contenute nei verbali ci possono più che altro servire di orientamento, ma non sempre. Egli non andò direttamente da Padova a Bergamo, come si potrebbe desumere dal passo appena citato, ma si fermò a Brescia, nel convento dominicano, dove operò una curiosa guarigione, grazie alle sue cure un monaco, divenuto improvvisamente profeta, gran teologo e poliglotta e messo in prigione per sospetto di stregoneria, ritornò ad essere quello che era sempre stato, cioè un Asinol, 2, Pars 2, 191 sg. A parte questo episodio spassoso, Brescia non lasciò un buon ricordo nel filosofo, perché i suoi abitanti erano, a quanto pare, scortesi. Nel Candelaio, atto 4, Scenavi, Bonifaccio dice, più presto perse cuiteranno i lepri le balene, i diavoli se faranno il segno della Santa Croce, sarà più presto un Bresciano uomo cortese, più presto Satanas dirà un Patere d'Ave Maria per le anime che sono in purgatorio, che io esser possa già mai senza l'amor della mia tanto amata e desiderata signora. Quali brutte esperienze avrà fatto, per mettere tra le cose impossibili la cortesia dei Bresciani? Questo particolare, come pure la storia del frate Ossesso, inducono a ritenere che egli si sia fermato a Brescia non un paio di giorni soltanto, ma per un periodo più lungo. In quella città, però, si cercherebbe in vano qualche traccia della sua presenza. Non esiste più neppure l'antico convento dei Domenicani, soppresso nel 1797. Sorgeva nell'area compresa tra le attuali vie in Audi, Bulloni e Moretto. Restano solo due chiostri, inglobati tra banche e compagnie di assicurazione. Dalla teologia alla plutocrazia, l'una più estranea dell'altra allo spirito di Giordano Bruno. Un'anima per molti aspetti affine alla sua possiamo semmai trovarla in Arnaldo da Brescia, anche lui ucciso dalla Chiesa Cattolica. Cresciuto nella tradizione patarina della Lombardia, Arnaldo era stato poi allievo di Abelardo a Parigi. Per aver difeso il suo maestro al concilio di Sens del 1140, fu condannato come eretico, ma per quella volta riuscì a farla franca. Non potè invece sottrarsi alle persecuzioni di San Bernardo, che continuò a calunniarlo e a infamarlo presso tutti coloro che lo accoglievano come fuggiasco. Il bravo santo era un vero specialista in materia, perché fece la stessa cosa anche con Abelardo. Nel 1144 Arnaldo accorse a Roma, dove si era formato un comune laico e dove la folla inferocita aveva ucciso a sassate Papa Lucio II, il quale aveva cercato di abbattere il governo democratico della città. Arnaldo, che aveva sempre sognato la separazione del potere temporale da quello spirituale, ma perché il potere spirituale deve essere assegnato alla religione? Nelle mani della filosofia starebbe molto meglio, sostenne audacemente quel governo. Ma nel 1155 Eli fu arrestato da Federico Barbarossa e consegnato al prefetto pontificio. Condannato subito a morte, Arnaldo fu prima strangolato e poi bruciato sul rogo. Mentre gli mettevano il cappio al collo, gli chiesero se volesse abbiurare le sue brave credenze, ma egli rispose fieramente che non aveva nulla da abbiurare e che non aveva alcuna paura della morte. Le sue ceneri furono gettate nel Tevere, affinché non diventassero oggetto di venerazione da parte della stupida plebbe. Ed eccoci di nuovo a Bruno. Andata e ritorno, così potremmo chiamare il suo peregrinare per l'Italia settentrionale. Naturalmente passò anche per Vicenza e Verona, anche se non ne sappiamo niente. Ci saremmo aspettati che da Verona volgesse verso il Brennero e se ne andasse in Germania, dove era nata la rivolta contro la chiesa di Roma, e invece continuò a tornare indietro, verso ovest. Si vede che la sua bussola era il sole. Cerchiamo di seguirlo, per quanto possibile. Dunque da Brescia, dove aveva trovato un monaco invasato i cittadini scortesi, andò a Bergamo per farsi fare una nuova tonaca bianca. A buon mercato, beninteso, e corrispondente alla sua borsa, che doveva essere vuota come un nido di rondine nei mesi invernali. I confratelli di Padova, che forse conoscevano il mondo meglio di lui, gli avevano consigliato di riprendere l'abito, che gli avrebbe se non altro garantito un giaciglio e un piatto di minestra presso i conventi. Lo scapolare l'aveva conservato, ricordo di casta o di anni difficili? Non diversamente gli alpini conservano il cappello che hanno usato durante la naia. Con il vecchio scapolare e la nuova vesta di panno bianco di buon mercato, Bruno passò da Bergamo a Milano, dove forse ebbe qualche contatto, direttamente o indirettamente, con un personaggio destinato a contare molto nella sua vita a Londra, Sir Philip Sidney. Di sicuro egli seppe della fama e della presenza del nobile inglese a Milano, come si rileva da questo passo della cena delle ceneri, non ti viene a proposito di riferire l'onesta conversazione, civiltà e buona creanza di molti cavalieri e molto nobili personaggi inglesi, tra quali è tanto conosciuto, et a noi particolarissimamente, per fama prima, quando eravamo a Milano et in Francia, e poi per esperienza, or che siamo nella sua patria, manifesto, il molto illustre et eccellente cavaliero, signor Filippo Sidneo, di cui il tersissimo ingegno, oltre i lodatissimi costumi, è si raro e singolare, che difficilmente tra singolarissimi e rarissimi, tanto fuori quanto dentro Italia, ne troverete un simile, o i, i, 69 sg. Il Sidney, sul quale torneremo, aveva studiato a Padova. Poeta, cortigiano e diplomatico, nel 1577 aveva portato per conto della regina Elisabetta un'ambasceria all'imperatore Rodolfo II. Al ritorno, facendo una lunga deviazione, volle rivedere i luoghi in cui era stato studente non molto tempo prima. Così anche lui, come Bruno, era giunto a Milano da Padova. Prima di procedere, ricapitoliamo brevemente la vita errabonda del filosofo fino a questo momento. Dopo aver trascorso circa 11 anni in convento, fugge da Napoli e ripara Roma, seguendo la via ordinaria che allora univa le due città e che passava per Capua, Gaeta, Fondi, Terracina e Velletri. Poi scappa anche da Roma e in nove tappe, secondo lo spampanato, raggiunge Sarzana e poi Genova, da dove si sposta a Noli. Dopo il lungo soggiorno a Noli, riparte alla volta di Torino. Ma non ci si ferma molto e si rimette in marcia, questa volta per via fluviale. Va a Venezia, dove soggiorna un paio di mesi. Poi, spinto dal bisogno o dal demone che gli urge dentro, prende la direzione inversa e per Padova, Vicenza, Verona, Brescia e Bergamo arriva a Milano. È l'estate del 1578. Quanto tempo girovagò per l'Italia settentrionale? Almeno due anni e mezzo. Chi avrà frequentato e dove avrà alloggiato? È una domanda che dovremmo farci spesso e alla quale, in mancanza di documenti, non è facile dare una risposta. Sappiamo soltanto che a Venezia visse un mese e mezzo in Frezzaria a Camera Locante, in casa di uno dell'arsenale, che non so il nome. Ma nelle altre città? Secondo spampanato, egli avrebbe alloggiato in Camera Locante a Genova, a Noli, a Torino e a Padova, e nei conventi dei padri predicatori, di San Domenico o di San Clemente e di Santa Maria delle Grazie, a Brescia, a Bergamo e a Milano s. 277. Escluderei Noli, dove è probabile che i gentilomini, cui egli dava lezione di astronomia, gli abbiano procurato anche da dormire, magari nel castello di cui si vedono ancora le rovine. Difficile stabilire quanto tempo si sia fermato a Milano, da dove riprese la marcia per Novara, Vercelli e Chivasso giunse di nuovo a Torino. Quando esattamente? Forse nel settembre del 1578. Perone ripartì subito, diretto a Schamberi. A cui abbiamo un'altra fatale coincidenza, perché mentre Bruno usciva da Torino, un altro grande infelice, anche lui campano, ci arrivava, Torquato Tasso. Nati sotto lo stesso cielo, eppure tanto diversi, Tasso morì in un convento, viceversa Bruno fuggì dal convento per morire sul rogo. Alle porte della città il poeta fu scambiato per uno straccione e i gabellieri non lo volevano lasciare entrare, era troppo lacero e scartellato. Ciò avveniva alla fine di settembre del 1578. A soccorrere il povero Tasso fu il marchese Filippo d'Este, genero del duca Emanuele Filiberto. Anche il principe Carlo Emanuele e l'arcivescovo Girolamo della Rovere, quando si conobbe la vera identità di quell'uomo bloccato alle porte di Torino, si dimostrarono premurosi. Così l'autore della Gerusalemme liberata, rifocillato e rimpannucciato, si fermò nella città fino al mese di febbraio del 1579. Anche lui era un biante, come aveva scritto fuggendo da Ferrara, me ne partì quasi nuovo biante e nandai a Mantova. Nessuno, invece, si mosse in soccorso di Giordano Bruno, il quale, anche se non dava in ciampanelle come Tasso, era altrettanto pieno di sciagure e bisognoso d'aiuto. Avranno fermato anche lui alle porte di Torino? Forse no, perché si era rimesso l'abito domenicano, lo scapolare doveva pur servirli a qualche cosa. Ma ora eccolo valicare le Alpi e dirigersi verso Schamberi, sempre seguendo, come bussola, il sole. Questa volta è proprio il Patrium Fugimus. Visto che l'Italia non gli offriva un cielo sotto cui respirare liberamente, decise di abbandonarla, ma il proverbio dice che chi non sta bene in casa propria non sta bene in nessun altro posto. E lui ne farà esperienza. Intanto cerchiamo di seguirlo lungo la valle di Susa, al cui imbocco si trova la spettacolare sacra di San Michele. Troneggia su uno sperone roccioso alto circa mille metri e dà l'impressione dell'Eterno. La si direbbe costruita da un architetto con la fantasia di Eschilo. Infatti si adatterebbe benissimo a fare da sfondo al prometeo incatenato. Quali sensazioni avrà suscitato, nell'animo del filosofo, quella abbazia posta lassù in cima come il nido di un'aquila? Cinque secoli prima, un monaco di nome Guglielmo, e primo cronista della Sacra, era rimasto affascinato dal panorama e aveva scritto, Il luogo è lontano da ogni impaccio e mondano tumulto. La pianura d'Italia, gioconda di laghi e di fiumi, vi si stende a far lieti gli sguardi umani. Fra tale e tanta quiete la mente dei servi di Dio esclama Giuliva, grande è il Signore. Una ventina di chilometri più in là, Bruno vide l'antichissima cittadina di Susa, così ricca di monumenti romani. Un'altra tappa la fece sicuramente nell'abbazia di Novalesa, dove i pellegrini pernottavano prima di affrontare la salita del Moncenisio. Infine, a piedi o con qualche cavalcatura, raggiunse i duemila metri del passo del Moncenisio e scese nella Savoia. Mettiamo, orientativamente, che fosse la prima decade di ottobre del 1578. Tre anni più tardi Montaigne farà la stessa strada tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Una meteora attraverso l'Europa, sì, Giordano Bruno fu davvero una meteora. Ma a che servono le meteore, se la gente è cieca? Il mondo è impenetrabile alla loro luce e così esse illuminano solo se stesse. Qui cade di nuovo a proposito l'aforisma, già citato, di Littenberg, si parla molto di illuminismo e si desidera più luce. Ma, Dio mio, a che serve tutta questa luce, se la gente o non ha gli occhi o quelli che li hanno li chiudono deliberatamente? E viene in mente anche Voltaire, il quale diceva che noi lasceremo questo mondo così stupido come l'abbiamo trovato venendoci. Per questo è forse meglio dire che Bruno, più che una meteora, fu una falena che si bruciò alla luce del proprio ideale. Giunto a Schamberi, andò ad abitare nel convento dei Domenicani, che non esiste più, fu distrutto nel XIX secolo. Sorgeva nell'attuale Placide Geneve, nel centro della città e vicino al castello, come si può vedere da una stampa risalente all'inizio del 1600. Si conserva solo il portale che, smontato pietra su pietra, fu ricostruito accanto al castello. È in stile gotico e molto grande, dal che si può dedurre anche la grandezza del convento. Il portale è ornato da una cornice su cui si alternano diverse figure di animali. A sinistra si vede una lepre inseguita attraverso i vigneti. Da un cane da caccia? No, da un coniglio. Curioso davvero. A destra, invece, si vedono un orso e un leone. Anche Bruno, che sicuramente vide quella scena, era una preda inseguita. Però non aveva paura e soprattutto non era un coniglio. L'accoglienza che trovò a Schamberi non fu molto incoraggiante. Un padre italiano lo mise subito al corrente della mancanza di cordialità a nord delle Alpi. Dinanzi ai giudici veneti, dopo aver parlato della tonaca che si era fatta fare a Bergamo, continuò dicendo, e con quest'abito me inviai alla volta de Lione, e quando fui a Schamberi, andando alloggia al convento dell'Ordine vedendomi trattato molto sobriamente e discorrendo sopra questo con un padre italiano che era lì, me disse, avvertite che non troverete in queste parti amorevolezza de sorte alcuna, e come più andarete innanzi ne troverete manco doc. Ven. 9. Per questo, forse, lo stesso Gesù Cristo aveva voluto trasferirsi al sud, infatti proprio in quel 1578 la Sacra Sindone, in cui i fedeli vogliono vedere l'immagine del Cristo morto, fu portata da Schamberi a Torino. La vide anche Bruno? Sulle reliquie se la rideva, ma quell'immagine di un uomo martoriato, sia pure falsa, avrebbe potuto attrarre la sua attenzione. Certamente vide le montagne che a Schamberi chiudono l'orizzonte, così al freddo delle prime nevi, che forse aveva già trovate sul passo del Moncenisio, si sommava la freddezza della gente transalpina di cui gli aveva parlato il padre italiano. Ma non aveva scelta e dovette adattarsi al nuovo ambiente. L'unico conforto o l'unico calore erano le sue risorse intellettuali. Una grande intelligenza sa starsene benissimo da sola e popolare di pensieri la solitudine che la circonda. Il vero filosofo basta a se stesso. E poi con chi avrebbe potuto colloquiare e intrattenersi un uomo della sua levatura intellettuale? Egli sapeva che nel mondo il numero dei stolti e perversi è incomparabilmente più grande che dei sapienti e giusti oi, 2, 550. Il filosofo è parco per natura e non nuota nella schiuma del superfluo. Divide, non moltiplica i bisogni. Come Socrate, bisognoso di pochissime cose, era vicinissimo agli dei di oggi nella Erzio, 2, 27. A Bruno bastavano il piatto di minestra e il letto francescano che gli passava il convento di Schamberi. Ma siccome detestava l'ozio, ritenendolo la cosa peggiore per un animo generoso, possiamo essere certi che avrà trascorso i giorni a pensare e a gettare le basi della sua filosofia. Poi, visto che nella bella cittadina savoiarda lo trattavano molto sobriamente, il che significa freddamente, se ne andò a Ginevra, onde voltai alla volta de' Ginevre, ed arrivato là, andai ad alloggiare all'osteria, e poco dopo il marchese Devico Napolitano, che stava in quella città, me domandò chi ero e che se era andato lì per fermarmi e professar la religione di quella città. Al quale dopo che ebbi dato conto di me e della causa perché ero uscito dalla religione, soggiunsi che io non intendevo di professar quella di essa città, perché non sapevo che religione fesse, e che perciò desideravo più presto di star lì per vivere in libertà e di esser sicuro, che per altro fine. E persuadendomi in ogni caso ad emetter quell'abito che io avevo, pigliai quei panni e me feci fare un paro di calce ed altre robe, ed esso marchese con altri italiani mi diedero spada, capello, cappa ed altre cose necessarie per vestirmi, e procurorno a ciò potesse intertenermi de' mettermi alla correzione delle prime stampe. Dove stetti, in quell'esercizio, circa doi mesi, andando però alle volte alle prediche e sermoni così dei italiani come dei francesi, che leggevano e predicavano in quella città, fra li altri ascoltai più volte le lezioni e prediche dei Nicolò Balbani Lucchese, che leggeva le pistole dei San Paolo e predicava li evangelii. Ma essendomi detto che io non potevo star lì lungo tempo, se io non mi risolvevo di accettare la religione di essa città, altrimenti che non avrei avuto sussidio da loro, me risolsi di partire, doc. Ven. 9. Ci mancava solo Bruno in cappa e spada. Ve lo immaginate? È una nota pittoresca in questa cupa tragedia. Vengono in mente, per analogia, il poeta Ovidio, che nella lontana Tomi è costretto a mettersi l'elmetto, e Nice, che dice di saper maneggiare tre armi, sciabola, cannone e dinamite. Ai poeti e ai filosofi le armi si addicono come la sela a una mucca o la museruola a una pecora. A parte questo, Bruno fu reticente circa il suo soggiorno a Ginevra e cercò di misurare le parole. E bisogna capirlo, non voleva compromettere ulteriormente la sua posizione di imputato dinanzi ai giudici dell'Inquisizione veneziana. Anzitutto, quando giunse a Ginevra? Dai documenti risulta che egli si iscrisse all'Accademia di quella città il 20 maggio del 1579, Filippus Brunus Nolanus, Sacrae Teologiae Professor Doc. Ginevra. Se ne deve dedurre che vi sia aggiunto poco prima. Ma da ciò si deduce anche che egli trascorse a Sciamberi almeno sei o sette mesi. E avrebbe fatto bene a rimanerci, perché la poca amorevolezza che vi aveva trovata era di gran lunga preferibile al fanatismo sanguinario dei calvinisti di Ginevra, i quali non la cedevano in nulla ai loro colleghi cattolici. Ma Bruno era versato in disgrazie come Don Quixote. E se le disgrazie non arrivavano, lui andava a cercarsele. Non viveva per combattere, ma senza combattere non poteva vivere. Non aveva la saggezza distaccata di un Marco Aurelio, il quale raccomandava a se stesso di brillare di indifferenza verso il rumore del mondo e si teneva alla larga dalla gente non virtuosa. No, Bruno era diverso, da una parte riconosceva che il mondo è miserabile e pieno di stolti, dall'altra non sapeva tenersene lontano con distacco o indifferenza. Saggio in teoria, imprudente nella pratica. Provava quasi gusto da capigliarsi con il primo venuto, come se tutti fossero stati alla sua altezza e in grado di capirlo. E fu proprio questa la sua rovina. Il sagge non discute con gli stolti e non se ne cura. Giustamente Schopenhauer dice, di fronte agli imbecilli non c'è che una solo modo per mostrare il proprio spirito, cioè evitare qualsiasi conversazione con loro una class cit, bd. 4,1, p. 293. A Ginevra, in quel tempo, c'erano molti esuli italiani. Si trattava per lo più di letterati, artisti, scienziati, nobili e predicatori, che formavano un insieme molto distinto e aristocratico. Il marchese di Vico, cui Bruno fa esplicito riferimento, era Gian Galeazzo Caracciolo, uno dei più illustri patrizi napoletani. Nel 1552, insieme con il conte Bresciano Massimiliano Martinengo, fondò a Ginevra la Chiesa e la Comunità Evangelica italiana. Spampanato ne parla così, la fermezza di carattere, lo zelo religioso, la rettitudine onde gli sempre operò, destarono l'ammirazione dell'austero Calvino che, intitolandogli il commentario alla prima epistola di S. Paolo ai Corinzi, nella prefazione al De Falais lo lodò altamente, e dell'intera città che lo scelse a suo rappresentante nel Consiglio dei Duecento, poi in quello dei Sessanta e S. 282. Insomma era il personaggio più ragguardevole della numerosa colonia italiana. Quanto a Nicolò Balbani, cui pure accenna il filosofo, era ministro della Chiesa Evangelica italiana di Ginevra. Ma non sopportava le critiche, il che non sorprende in un uomo di fede calvinista per giunta. Nel 1567 il suo conterraneo Simone Simoni, che gli aveva dato dell'asino, fu prima incarcerato, poi processato ed espulso da Ginevra. Lo stesso Bruno dovette presto accorgersi che i calvinisti erano ancora più fanatici dei cattolici e anche più sanguinari. Chi non la pensava come i gelidi teocrati del venerabile Concistoro di Ginevra commetteva un delitto di lesa divinità ed era degno, in quanto non credente, della pena capitale. Il venerabile Concistoro non era diverso dal sant'uffizio, e a Ginevra non c'era più amore che a Roma, come rileva giustamente Christian Bartolmes nella sua biografia di Bruno. Per l'una come per l'altra Chiesa la persecuzione era un dovere sacrosanto, un atto gradito a Dio, e quanto più era crudele, tanto più era stimabile. I supplizi inflitti ai miscredenti erano considerati un giusto giudizio degli uomini e del cielo. Lutero, cheppure aveva un'alta dose di fanatismo religioso, raccomandava di persuadere gli eretici con le scritture e non di vincerli con il fuoco. Nell'autunno del 1531, parlando con il suo discepolo Vei Dietrich, disse, Ho impostato la mia predicazione sull'annuncio della parola divina. Chi vuole mi segua, chi non vuole non mi segua. Wingley, sebbene assalito anche lui dalla pazzia religiosa, scrisse che bisognava scomunicare solo chi provocava scandali con i suoi delitti. Quanto a quelli che persistevano nei loro errori in fatto di religione, andavano lasciati al libero giudizio di Dio e non trattati con violenza. Qui parla più l'umanista che il fanatico religioso, e non si dimentichi che Wingley, oltre a essere in rapporto con Erasmo, aveva assorbito la lezione di Pico della Mirandola. Niente di tutto questo in Calvino, il gelido etruce cacicco della teocrazia di Ginevra. Già solo a vederne il ritratto vengono i brividi, volto scavato e arcigno, occhi vitrei, bocca sottile e mai sfiorata da un sorriso, barba caprina che ricade in esili cernecchi e naso che sembra il becco d'un rapace. Gli si legge in fronte che non gli riusciva di voler bene a nessuno. La sua è una fisionomia modellata dal fanatismo e dal rancore. Il suo Dio era quello, terribile e vendicativo, del Vecchio Testamento. Era Yahweh, di cui divenne un sacerdote fedele e zelante, anzi una specie di Ayatollah. In poco tempo trasformò Ginevra in un vero e proprio inferno ideologico. Gli oppositori venivano impiccati, decapitati o bruciati vivi. I più fortunati venivano incarcerati o esiliati. Molti prigionieri si uccisero per sfuggire alle torture. Dal pulpito della cattedrale di Saint-Pierre, Calvino chiedeva sempre nuovo sangue per introdurre la disciplina e i buoni costumi a Ginevra, da lui considerata una città a marcia. A loro volta gli ispettori del concistoro vigilavano sulla condotta dei cittadini e infliggevano mostruose sanzioni per qualsiasi infrazione, anche minima, del nuovo codice morale. Un violinista cieco, che suonava musica da ballo, fu mandato in esilio. Un uomo che si era appisolato durante una predica fu condannato a tre giorni di prigione. La stessa pena toccò a uno che aveva sorriso durante un battesimo. A un tipografo ubriaco, che aveva maledetto Calvino, fu perforata la lingua con ferro rovente, mentre a un altro, che gli aveva dato dell'ipocrita, fu tagliata la testa. Quegli sgherri del cielo punivano con la galera anche chi diceva Monsieur Calvin anziché madre Calvin. Perfino fischiettare per la strada, pattinare sul ghiaccio, indossare abiti colorati, mangiare qualche ghiottoneria o, peggio ancora, abbandonarsi in pubblico a qualche effusione d'amore erano colpe da punirsi severamente. Insomma Calvino, l'interprete di Dio, aveva instaurato a Ginevra un clima di terrore. In un passo della sua institutio christiana e religioni si legge che l'uomo è una bestia indomabile e feroce. Si riferiva forse a se stesso? Il suo fanatismo sanguinario culminò nella condanna al rogo del medico e umanista spagnolo Miguel Servet, la cui tragica esistenza fa il paio con quella di Giordano Bruno. Imbevuto di bibbe e di corano, serveo serveto, all'italiana, aveva fatto molto scandalo con la sua opera dei Trinitati Serroribus, in cui negava il dogma della Trinità, dicendo che esso non si trova mai espresso nelle sacre scritture e che fu formulato solo nel concilio di Nicea. A Parigi, dove si era rifugiato sotto falso nome per sfuggire alle persecuzioni dei cattolici, si immerse in diversi studi e collaborò fra l'altro con il Vesaglio ai primi esperimenti di dissezione anatomica. Poi si rifugiò a Lione, dove pubblicò un saggio sulla geografia tolemaica e una traduzione in latino della Bibbia, sostenendo che la parola vergine andava intesa nel senso di giovane donna, cui naturalmente non occorre alcun intervento divino per rimanere incinta. Così, oltre alle ire dei cattolici, si attirò addosso quelle dei protestanti. Erano peggiori i primi o i secondi? Lasciamoli alla pari, perché un fanatismo religioso vale l'altro. Impavido e imperturbabile, Serveto alternava la polemica teologica agli studi scientifici, scoprendo fra l'altro la circolazione del sangue fra il cuore e i polmoni. Poi con la scristianismi restitutio, nella quale sosteneva la necessità di ricostruire il cristianesimo sui fondamenti autentici, confutò la istitutio di Calvino e la dottrina della predestinazione. Venutone a conoscenza, Calvino fremè di rabbia e giurò vendetta, scrivendo al suo degno compare Guillaume farei, se Serveto viene a Ginevra, farò in modo che non ne esca vivo. Per prima cosa lo denunciò, lui protestante, all'inquisizione cattolica di Lione, dove lo spagnolo fu subito arrestato e incriminato per eresia. Poi fece qualche cosa di ancora più infame. L'opera di Serveto, che fra l'altro conteneva le lettere che egli aveva scritto a Calvino, era uscita sotto falso nome. Anche le lettere vi erano riprodotte con uno pseudonimo. L'accusato potè dunque negare di essere l'autore del libro. Allora Calvino non esitò a trasmettere al tribunale dell'inquisizione gli originali di quelle lettere. La prova era irrefutabile e il prigioniero fu condannato a morte. Ma riuscì a evadere e, ignaro del tradimento di Calvino, andò a rifugiarsi proprio a Ginevra, da dove pensava di proseguire alla volta dell'Italia. Per gli ospiti di passaggio come lui la legge prevedeva l'espulsione, ma Calvino lo fece subito arrestare. Accusa, eresia. Durante il processo, celebrato naturalmente in nome del buon Dio, furono sfoderate tutte le armi teologiche. Ma il Dio dei cristiani è un redentore o un armaiolo? Comunque l'arma peggiore era la bava velenosa di Calvino, per il quale gli eretici o quelli che egli considerava tali erano vipere fischianti, canne abbaianti, belve, delinquenti, schiavi di Satana. Serveto fu condannato ad essere arso vivo. La mattina di venerdì 27 ottobre 1553, venne condotto sulla piazza del mercato di Champel. Lo sesso e nevrotico Calvino non ebbe il coraggio di assistere o meglio di godersi lo spettacolo atroce di quella morte. Ci mandò il rozzo e brutale guillaume Farei, l'uomo che Erasmo aveva definito il più arrogante e sfruttato che mai avesse incontrato in vita sua. L'urlo disumano e terrificante di Serveto, quando le fiamme incominciarono a divorargli le carni, suonò come un inno di trionfo all'orecchio di Farei. Nella sua mento tenebrata dal fanatismo, quel rogo significava l'apoteosi di Calvino. L'infelice umanista spagnolo agonizzò a fuoco lento, con una copia della sua scristianismi restituti sul petto. Aveva chiesto che almeno lo decapitassero, anziché bruciarlo vivo, ma Calvino rifiutò. Prima di scomparire tra le fiamme, chiese al cielo il perdono dei suoi carnefici. Aveva appena 42 anni. In campo filosofico era un neoplatonico. Per lui tutte le creature sono fatte della stessa sostanza. Insomma, se vogliamo dirlo con altre parole, sono fenomeni diversi di un'unica sostanza universale. Ma questo un Calvino non avrebbe mai potuto capirlo. Eppure la sua dottrina della grazia e della predestinazione, derivata da Sant'Agostino, ha qualche cosa di filosofico o almeno di traducibile in filosofia. Se non predestinati, come dice Calvino, noi siamo certamente programmati, in quanto il nostro carattere è innato e immodificabile. Insomma ognuno di noi è quello che è per invincibile natura. Se si facesse crescere una pecora in un canile, essa non imparerebbe mai a fare il riporto, perché questo non rientra nel suo repertorio. E questo vale anche per gli uomini, tutti i pedagoghi del mondo non riuscirebbero mai a trasformare un vigliacco in un eroe o un cialtrone in un apostolo. Quanto al libero arbitrio, di cui tutti si riempiono la bocca, esso è molto più facile a predicarsi che a dimostrarsi. È vero che ognuno può fare quello che vuole, ma non può anche volere quello che vuole, perché le volizioni avvengono a nostra insaputa. Bisogna distinguere tra la libertà del volere e quella dell'agire, che non sono la stessa cosa. Ritorniamo a Bruno, che abbiamo lasciato in cappa e spada. Cedendo alle pressioni o alle lusinghe del marchese di Vico, ma soprattutto all'illusione di trovare fra i protestanti quell'amore di quella tolleranza che non aveva trovato fra i cattolici, egli aderì al calvinismo. Che su questo punto fosse molto reticente con gli inquisitori è perfettamente comprensibile, ma i documenti scoperti nel secolo scorso dimostrano che il suo soggiorno a Ginevra fu un'esperienza drammatica. Alcuni si chiedono perché egli abbia fatto un simile passo, sul quale si è ricamato anche più del necessario. Potremmo rispondere semplicemente così, per ingenuità, che fu una costante della sua vita. Ma sarebbe una risposta troppo sbrigativa. E allora diciamo che per lui, così allergico alle questioni teologiche, le religioni avevano solo un valore pratico, di istituzione sociale. E che bisognava adattarci così come ci si adatta alle leggi e ai costumi. Il professor Michele Ciliberto scrive che Bruno, convertendosi alla chiesa calvinista, non fece che obbedire a una disciplina alla quale cercò costantemente di attenersi, corrispondente al principio per così dire di massima economia, consistente nel ridurre al minimo gli attriti con le religioni storiche quando si trattasse di questioni non decisive sul terreno schiettamente filosofico. E per Bruno l'adesione alla chiesa di Calvino non aveva alcun valore da questo punto di vista Ciliberto 1996, p. 25. Bruno era un filosofo, non un teologo, visse per la filosofia e alla filosofia simmolò. Il resto non contava. La sua immatricolazione autografa all'Università di Ginevra recala data, come se è già detto, del 20 maggio 1579. Titolare della cattedra di filosofia, allora, era il professor Antoine de Lafayette, un francese originario di CH con accento circonflessu Theaudun. Aveva studiato anche a Padova, ma era rimasto quello che era e che continuò ad essere, un ciarlatano tronfio e ignorante. Sapeva però navigare nelle acque accademiche, dove la mediocrità è una bussola molto più sicura che una grande intelligenza. Dopo aver accumulato incarichi e prebende, riuscì a farsi nominare primario professore di teologia e alla fine principale ministro di Ginevra, ottenendo così il posto che era stato di Calvino. Morì di peste il 4 settembre del 1615. Bruno non sarebbe stato Bruno, se non fosse entrato in conflitto con quel professore di filosofia, del quale notò immediatamente l'incompetenza e la mediocrità. Ma siccome la libera discussione era proibita dai regolamenti, egli, anteponendo la verità agli interessi personali, fece stampare un foglio in cui enumerava ben venti errori commessi dall'impostore in una sola delle sue lezioni. Apriti cielo. Fu subito incarcerato e accusato di aver screditato pubblicamente un insegnante, cosa che comportava pene molto severe. E fu incarcerato anche lo stampatore, che si chiamava Jean Bergeon. Nei registres di Consail di Ginevra, sotto la data del 6 agosto 1579, si legge, Filippo Giordano, detto Bruno, italiano, detenuto per aver fatto stampare certe risposte e invettive contro il signor della faie, elencando venti errori di costui in una delle sue lezioni. È stato disposto che venga ascoltato oggi dopo pranzo in presenza di dotti e del segretario che va lì. Jean Bergeon, detenuto per aver stampato le suddette invettive su richiesta dell'italiano, il quale gli disse che esse non contenevano altro che filosofia. È stato disposto che resti in prigione fino a domani e che sia condannato a un'ammenda di cinquanta fiorini, doc. Jean. I. L'indomani, veramente, il povero stampatore era ancora in carcere, dove ebbe forse modo di riflettere sui misteri della filosofia, dicono che renda saggi e porta invece in galera. Tuttavia, facendo valere la sua buona fede, Bergeon se la cavò abbastanza a buon mercato, perché lo rimisero in libertà e gli fecero anche uno sconto. In considerazione dei sespeti Moiens, l'ammenda fu ridotta da cinquanta a venticinque fiorini. Se avessero chiesto venticinque fiorini di ammenda anche a Giordano Bruno, sicuramente egli non avrebbe saputo dove trovarli, perché i suoi Moiens erano molto più petis di quelli dello stampatore, anzi erano inesistenti. La sua unica ricchezza era la parola, scritta e parlata, ma la parola, a Ginevra, era proibita o pericolosa. Lui ne aveva fatto uso e per questo si ritrovava in carcere. Ginevra fu la prima e vera stazione del suo calvario, ma sarebbe stata forse anche l'ultima, se egli, pensando che non valeva assolutamente la pena di sacrificare alla contesa con un professore imbecille la propria vita e la filosofia che gli si andava delineando nella testa, non avesse dimostrato un po' di duttilità. Fra quelli che andarono a interrogarlo in prigione c'era anche un italiano originario di Moncalieri, Michele Varro, ex segretario del Consiglio e poi sindaco. Lo apprendiamo dalla nota del 10 agosto 1579, avendo Filippo Brune, sic, italiano, risposto in prigione sulle calunnie che ha fatte stampare contro il signor Antoinette Lafai e avendo, venerdì scorso, riconosciuto la sua colpa in presenza dei signori ministri e del signor Varro, si è disposto che egli, implorando perdono da Dio, dalla giustizia e dal suddetto De Lafai e, venga rimesso in libertà e rinviato al concistoro per riconoscere anche la sua colpa, e che venga inoltre condannato a lacerare e distruggere il suddetto libello diffamatorio, doc. Gin. 3. Il libello fu distrutto, a maggior gloria dell'ignoranza del professor della Fai e da un lato e dell'università calvinista dall'altro. Nel concistoro, dove si presentò il 13 agosto, il filosofo riprese animo. Quanto all'accuso di aver errato nella dottrina e di aver chiamato pedagoguesi ministri della Chiesa di Ginevra, disse che su questo punto non voleva né scusarsi né condannarsi, perché il De Lafai e aveva riferito le cose in modo non rispondente al vero. Par di capire che il professore, oltre che ignorante, fesse anche bugiardo. Però aveva potere, perché era protetto e spalleggiato da Teodore de Bezze, il degno allievo e successore di Calvino. Che cosa poteva fare contro simili personaggi un povero frate Ramingo? Bruno dovette abbassare la testa, altrimenti correva il rischio di farsela tagliare. Cercò di difendersi e disse che lo si perseguitava, ma non servì a niente. Tra le varie minacce che gli fecero c'era anche quella di essere rinviato ai nostri signori, con la preghiera di non tollerare in nessun modo un tale personaggio, capace di turbare la scuola. E intanto, dopo averlo ammonito a seguire la vera dottrina, lo espulsero dalla Chene, cioè lo scomunicarono, Doc. Gin. 4. Se voleva esservi riammesso, doveva sottomettersi e umiliarsi. Il dio calvinista era inesorabile. Bruno capì che non aveva via d'uscita, o assecondare quei fanatici o finire la vita in prigione e magari sul patibolo. Ricomparso nel concistoro il 27 agosto, mise il freno al suo orgoglio intellettuale, cosa che gli dovette costare uno sforzo sovrumano, e fece ciò che si pretendeva da lui. Così fu assolto dall'interdetto e riammesso a parteci per alla Chene Doc. Gin. V. Da altra fonte sappiamo che fu costretto a fare ammenda in ginocchio. Voila, Monsiede Lafaye, assistito dalla grazia calvinista, aveva trionfato. Per Bruno, invece, fu un'umiliazione atroce e non se ne dimenticò più. Ma tutto sommato gli andò ancora bene, se si pensa a quello che capitò ad altri prima e dopo di lui. Prendiamo il caso del filosofo calabrese Valentino Gentile, che insieme a Matteo Gribaldi e Giorgio Biandrata aveva preso onorevolmente le difese del serveto. Nel 1558 fu accusato di eresia perniciosa, incarcerato, processato e condannato al rogo, pena poi mitigata in quella della degapitazione. Tuttavia i giudici proposero di indugiare nell'eseguire la sentenza, per vedere se il condannato si pentisse e abbiurasse le sue idee. Sicuramente lo avranno anche se viziato. Fatto sta che il povero gentile, malato e mal ridotto a causa della dura prigionia, alla fine cedette. Ma le parole non bastavano, l'onore del dio calvinista esigeva qualcosa di più edificante e solenne. Così il 2 settembre del 1558, l'eretico, che Calvino aveva definito delirante, fu costretto a percorrere seminudo e con un cero in mano le vie di Ginevra, a dichiarare infami e bruciare con le proprie mani i suoi scritti, a inginocchiarsi dinanzi ai giudici e a implorare pietà, che però non gli fu concessa. Infatti, anche dopo quella cerimonia così umiliante e vergognosa, egli continuò a rimanere in carcere. Ma poi, non si sa come, riuscì a fuggire e riprese la sua vita errabonda attraverso l'Europa, continuando a sostenere e a propagandare le sue idee. Fu anche in Polonia, da dove però dovette fuggire per la vittoria che nel 1565 il partito calvinista aveva riportata contro i dissidenti. Dopo un soggiorno in Moravia e in Austria, dove pare che incontrasse alcuni suoi correligionari anabattisti, il gentile, con coraggio misto a imprudenza, ritornò in Svizzera, forse sperava che con la morte di Calvino, avvenuta nel 1564, il clima fosse cambiato. Matteo Dore de Bezze, successore di Calvino, non era certo migliore del maestro. In breve, Valentino Gentile venne subito riacciuffato e incarcerato. Ma a Berna, non a Ginevra. Durante il processo tenne duro e non volle assolutamente abbiurare. Fu decapitato il 10 settembre del 1566. E qual era il suo delitto? L'aver sostenuto che Dio è uno e non trino, e che non è possibile fondare sulla Bibbia la dottrina della Trinità. Una colpa, come ognuno vede, da punirsi senz'altro con il rogo o almeno con la decapitazione. Senza saperlo e senza volerlo, Giordano Bruno era capitato in un inferno, dove i diavoli si dicevano apostoli della verità e le prigioni, le forche e i roghi tenevano il posto della discussione e del ragionamento. Il fanatismo religioso dei calvinisti di Ginevra, detta la Roma del protestantesimo o il baluardo dei protestanti, non aveva nulla da invidiare a quello di Pio V, il quale diceva che non si potrebbe fare niente di tanto gradito a Dio quanto il perseguitare apertamente con zelo i suoi nemici. Teodore de Bezze giudicava una peste gli spiriti liberi e un dogma diabolico la libertà di filosofare. Il venerabile Concistoro, per far regnare nella città lo spirito del Vangelo, associava in sé lo Stato e la Chiesa. Il cittadino veniva con ogni mezzo sottomesso al volere dispotico delle autorità religiose. Per salvare le anime si violentavano le coscienze e si martoriavano i corpi. E sempre in nome del Dio cristiano, che ognuno sosteneva di interpretare nel senso giusto, cattolici, luterani e calvinisti. E intanto si facevano la guerra. Quale contrasto con l'alta sapienza indiana? Chi volesse farsene un'idea, legga due segreto della Dea Tripura, Torino 1995, un testo sacro redatto probabilmente proprio in quell'epoca. Qui parla la saggezza e non il fanatismo, l'amore e non la vendetta, la filosofia e non il dogma. Bruno rimase a Ginevra non circa due mesi, ma il doppio. Avrebbe fatto meglio a non metterci piede o almeno a fuggire, se era possibile, immediatamente dopo aver svergognato il professor della Faye, seguendo il proverbio arabo, hai detto la verità? Sella il cavallo. Ma lui era troppo orgoglioso e troppo combattivo per darsi alla fuga precipitosa dinanzi al nemico. Cosir fu vittima dell'intolleranza calvinista da un lato e della verità offesa di un tronfio accademico dall'altro. L'unico vantaggio che ritrassi dal soggiorno ginevrino fu che, correggendo le bozze, si impadronì dell'arte tipografica. Era già qualche cosa, che gli poteva servire per guadagnarsi il pane. Ma quell'arte gli tornò poi utile anche per la stampa delle sue opere. Ho girato per il centro storico di Ginevra, inseguendo con la fantasia all'ombra di Giordano Bruno. Alenne. Due di Ruedes Grangesce a una lapide a Cavour. Vi fu messa dall'ambasciata italiana nel 1967. Ma sarebbe pretendere troppo che le ambasciate e gli ambasciatori conoscessero anche la filosofia. Per Bruno, dunque, niente lapidi, niente ricordi, il visitatore vada a cercarselo o a immaginarselo per conto proprio, dove e come può. Ecco la bella cattedrale romanico-gotica, dove Calvino continuò fino all'ultimo a sputare rabbia e anatemi. Egli stesso diceva che gli riusciva più facile combattere gli eretici, mandandoli magari a morte, che domare la bestia selvaggia della sua rabbia. Bruno vi avrà forse sentito concionare tedore de Bezze, non meno dispotico e legnoso di Calvino. L'interno della chiesa, costruita come tante altre chiese su un precedente tempio romano, è spoglio. I calvinisti, che se ne impadronirono nel 1536, vi tolsero tutto l'armamentario iconografico cattolico. I protestanti mancano di fantasia, come appunto dimostrano le loro chiese. Lo riconosce anche l'ateo Schopenhauer, ed è tutto dire, non si può negare che le chiese cattoliche hanno qualche cosa di solenne e di maestoso, che suscita raccoglimento e che manca nelle nostre chiese protestanti, dove lo stridulo canto della folla fa male all'orecchio e l'individuo con la bocca spalancata induce spesso a ridere resetag bucondiere sicheraus deniaren 1803-1804, Leipzig 1923, p. 34. Ancora più drastico Egon Friedel, secondo il quale i protestanti avrebbero introdotto la noia nella religione. È così. Anche Gregorio Magno criticava le immagini, dicendo che esse sono la Bibbia degli ignoranti, però non avrebbe mai sottoscritto un decreto di iconoclastia, ben sapendo che le immagini hanno un forte potere di seduzione sull'animo umano. Ciò che deve guidare la folla deve essere comprensibile a tutti, anche se lo si deve presentare in forma figurata. Da questo punto di vista bisogna riconoscere che i cattolici hanno più intuito psicologico dei protestanti. Razionalizzare la religione, che per sua natura è irrazionale, significa distruggerla. Ed è proprio quello che hanno fatto i protestanti. Io non piango di certo, anzi per me va benissimo. Ma quanti possono soddisfare con la filosofia il proprio bisogno metafisico. Il concistoro di Ginevra, dove Bruno fu costretto a umigliarsi, non esiste più, quello attuale è del 1721. Spostiamoci più in là ed ecco, non molto lontano dalla cattedrale, il collegio e l'accademia. Fu qui che il filosofo conobbe il fanatismo dei calvinisti, e fu tra queste mura che gli toccò di dover ascoltare le castronerie di Monsieur le professeur Antoine de la Faye, in modo particolare quelle su Aristotele. La via accanto reca un nome che evoca immediatamente l'atmosfera di quel tempo, si chiama Rue Teodore de Beze. Ma la evocano anche le scritte irriverenti che sono state tracciate con la vernice sui muri e che suonano quasi come una vendetta postuma di Giordano Bruno. Una dice, Calvin cest come l'armé, sapu e le fric puzza di soldi. Veramente Calvino puzza anche di morte, come dimostrano i rifiuti sparsi un po' dappertutto intorno a questa sua vecchia roccaforte. Invece il monumento eretto serveto, ma solo nel 1903, puzza di ipocrisia. È un blocco di granito posto sul luogo dell'orribile supplizio. La facciata principale è rivolta verso la strada sottostante e quindi nascosta alla vista del passante. A nasconderla ci sono anche le piante. Per leggere la scritta bisogna scavalcare le sbarre di ferro che servono da parapetto e scendere nella scarpata. È una scritta anodina e, se uno non sa chi fosse serveto, potrebbe anche credere che egli sia morto per cause accidentali, le 27 ottobre Mdli Imourut sur le Biu con accento circonflesso che era Champel-Michel Servedeville e Neuve d'Aragon. Nelle 29 sept. Mdxì. Sì, ma chi l'ho mise su quel bucher? Ancora più anodina e ipocrita è la scritta rivolta verso il passante. Fils respecteux et reconnaissants de calvinotre grande reformate urmais condamnant un error qui fut celle deson siecle, et fermament attaccessa la liberté de conscience selon le vrais principes della reformation et dell'Evangile, nu avonse le vece monumente xpietuire le 27 ottobre Mdmi. Dunque il rogo voluto dal grande riformatore sarebbe stato una semplice erreur, quasi una svista, così parlano i risuolatori di coscienze. Ma Calvino non era illuminato dalla grazia? E il Dio che egli diceva di rappresentare non era eterno, ossia al di sopra dei siecles? A breve distanza del monumento a Serveto, i figli rispettosi e riconoscenti di Calvino hanno costruito una centrale termica. Per riscaldarsi meglio la coscienza? La nostra riconoscenza va invece a Sebastian Castellion, un tempo amico di Calvino e poi suo giudice implacabile. Si era avvicinato al riformatore, perché sperava di trovare in lui un difensore della libertà di pensiero contro la violenza della Chiesa cattolica, di cui aveva avuto un esempio nel rogo di alcuni eretici a Lione, ma quando Calvino rivelò la sua vera natura, egli abbandonò Ginevra e si rifugiò a Basilea. Alta e vibrante la sua voce di sdegno per l'uccisione di Serveto, l'accusa è stata di aver interpretato liberamente le sacre scritture, ma è forse solo che abbia fatto ciò? Lo stesso Calvino non ha forse innovato più lui in dieci anni che la Chiesa cattolica in sedici secoli? Infine, chi ha dato a Calvino l'autorità di giudicare ciò che è vero e ciò che è falso? È presunzione pensare di possedere la certezza del vero. Da che mondo è mondo, tutti i mali sono venuti dai dottrinari che pretendevano che il loro sistema fosse l'unico. Per lui bruciare vivo un uomo non significava difendere una dottrina, ma semplicemente uccidere un uomo. E ancora, chi vorrebbe mai farsi cristiano, se quelli che confessano la fede in Cristo vengono martirizzati dai cristiani con il fuoco, con l'acqua e con la forca, senza misericordia alcuna, e trattati più crudelmente dei banditi e degli assassini? Chi non penserebbe che Cristo sia qualche moloccio o un altro dio simile, se vuole che gli vengano immolati degli uomini? È quello che ci chiediamo anche noi. Quanto agli eretici, Castellion diceva, se rifletto su ciò che è propriamente un eretico, non trovo altro se non che noi chiamiamo eretici tutti quelli che non si accordano con la nostra opinione. Tali parole dovettero suonare come una sfida radicale all'orecchio di Calvino, che affidò la risposta al suo delfino e tiramantice Teodore de Bezze, mai, da quando esiste il cristianesimo, furono udite simili bestemmie. E ancora, meglio avere un tiranno che una licenza che permetta a ognuno di agire a proprio arbitrio. Pretendere che non si debbano punire gli eretici è come dire che non si devono punire gli uccisori del padre e della madre, dato che gli eretici sono ancora peggiori CFR. Creveri 1996, pp. 225 sg. Purtroppo i posteri hanno innalzato monumenti al De Bezze e al suo maestro Calvino, ma hanno dimenticato il saggio Castellion. L'umanità non ama quelli che cercano di illuminarla e spesso li mette a morte. Ed è questa la tragedia del mondo. Il clima della Ginevra di quel tempo è rievocato abbastanza bene dal museo che si trova nella casa Tavel. Un'ordinanza del 1566 sanciva che le ruffiane e i ruffiani venissero bastonati pubblicamente e poi banditi. Figuriamoci quello che poteva capitare a chi non seguiva l'ortodossia calvinista. Se fare il sensale d'amore comportava le bastonate e l'espulsione dalla città, dubitare che Calvino e i suoi compari fossero illuminati dalla grazia comportava quantomeno la forca. E di fatti Teodore De Bezze, di cui si vede il busto, aveva proprio l'aspetto di un forcaiolo. A questo punto ci si potrebbe chiedere, perché il Marchese di Vico e gli altri italiani che vivevano a Ginevra non aiutarono Bruno? È semplice, perché i peggiori nemici degli italiani sono sempre stati gli italiani stessi. Essi sono insuperabili nel combattersi l'un l'altro. Il Marchese di Vico non era solo italiano, ma anche napoletano e quindi conterraneo di Giordano Bruno, eppure non risulta che abbia soccorso il filosofo, quando questi venne incarcerato. Egli aveva dato a Bruno uno spada, ma avrebbe fatto meglio a usarla per difenderlo dai suoi persecutori. No, questo non lo fece. Il suo unico scopo, evidentemente, fu quello di vestire Bruno da calvinista, ma non di difenderlo. In breve, era un bigotto filisteo, ma che altro ci si poteva aspettare da un aristocratico di quel tipo? Gli storici ne parlano con grandi elogi e Benedetto Croce, questa specie di console generale di Egel a Napoli, gli dedica un saggio di oltre cento pagine vite di avventure, di fede e di passione, Bari 1953, pp. 187 sgg. Ma io non riesco a provare simpatia per quello strano Marchese, una figura a dir poco sconcertante. Tracciamone un breve profilo. Nato a Napoli nel 1517, Caracciolo apparteneva a una delle famiglie più ricche e aristocratiche. Per parte di madre era imparentato con il terribile cardinale Giampiero Caraffa, spietato persecutore di eretici e futuro papa con il nome di Paolo IV, il quale arrivò a dire, se nostro padre fesse eretico, noi porteremmo le fascine per bruciarlo vivo. Anche la moglie del Marchese era una carafa e nipote del papa. Gli dette sei figli, quattro maschi e due femmine. Che qualche cromosoma del papa inquisitore finito nel pronipote. È possibile. Ricchissimo, favorito dalla sorte e ben voluto dall'imperatore Carlo V, alla cui corte si recava spesso, il Caracciolo aveva tutto per essere un uomo soddisfatto. Ma a un certo punto fu folgorato dal calvinismo il 21 marzo del 1551, senza rivelare la sua intenzione, abbandonò Napoli, la famiglia e tutto il resto. Prima, forse per sviare l'attenzione, si recò dall'imperatore, che allora si trovava ad Augusta, poi fuggì di nascosto e l'8 giugno raggiunse Ginevra, dove fissò la sua nuova dimora. A nulla valsero i ripetuti tentativi per farlo tornare sui suoi passi. Durante un incontro clandestino con la famiglia, la figlia più piccola scoppiò a piangere e gli si gettò ai piedi, implorando di non essere abbandonata, ma lui non si lasciò commuovere né dalla bimba, né dalla moglie e neppure dal vecchio padre. Era dunque un fanatico, e i fanatici sono sempre pericolosi, anche quando parlano in nome di Dio. Certo, egli aveva tutto il diritto di abbracciare la fede che voleva, ma non quello di abbandonare la famiglia. A meno che Caraccelo non volesse fuggire dalla moglie. E i figli? Caraccelo non era uomo di studio e di penna, ma d'azione. Appena giunto a Ginevra, non perse tempo e volle subito fondare una chiesa calvinista per la colonia italiana che diventava sempre più numerosa, fino a raggiungere, secondo i calcoli più prudenti, oltre 5.000 unità. Molti erano degli umanisti, che speravano di trovare a Ginevra quel clima di libertà e di tolleranza che l'inquisizione aveva avvelenato in Italia. Ma si ingannavano. Caraccelo divenne un fedelissimo di Calvino, che gli affidò compiti sempre più importanti. Tutti, italiani e non italiani, lo ossequiavano e lo chiamavano rispettosamente il signor Marchese. Era uno dei personaggi più autorevoli del regime teocratico instaurato da Calvino e se ne deve dedurre che tutte le decisioni, comprese le condanne a morte, avessero, direttamente o indirettamente, anche il suo assenso. Non risulta che sia rimasto scosso dall'esecuzione di serveto, come invece lo furono altri fuoriusciti italiani, meno nobili di lui per censo, ma certamente più nobili di lui nell'animo. A quanto pare lo lasciò indifferente anche la fine del filosofo Valentino Gentile, che pure era stato membro della Chiesa italiana. Credo che questi due esempi siano sufficienti per farsi un'idea di quell'irremovibile calvinista napoletano. Ma Croce, che come il suo papà Egel vede dappertutto la ragione e il divino corso della storia, scrive, il rogo di Server, bisogna riconoscere ciò come un fatto, riscosse l'approvazione dei maggiori uomini della riforma, di quanti avevano il sentimento della responsabilità. Con questa restrizione o soppressione della libertà il Calvino salvava allora la vita stessa della libertà e il suo avvenire Croce, vite di avventure, di fede e di passione Citt. Da uno che aveva fatto l'elogio dell'inquisizione non ci si poteva aspettare altro, ma io trovo ripugnante questo modo di ragionare. Se si giustificano i roghi, allora si può giustificare tutto, ed è proprio quello che fa Benedetto Croce, che evidentemente si ispira al folle principio egeliano, ciò che è razionale è reale, e ciò che è reale è razionale. Davvero? Se è così, allora io, razionale per razionale e reale per reale, ai roghi e alle forche di Calvino preferisco andare a spasso col mio cane nel bosco, lo trovo più piacevole. I più illuminati della chiesa italiana fondata da Caraccio la Ginevra furono perseguitati, incarcerati o addirittura ammazzati. Altri si rifugiarono a Basilea, dove, forse perché via leggiava lo spirito di Erasmo da Rotterdam, c'era aria migliore. A Basilea si era anche rifugiato, come s'è visto, l'umanista savoiardo Sebastian Castellion, al cui libro de Aeretici San Sint per sequendi collaborarono gli italiani Celio II Curione e Lelio Soccini. Da tutto ciò si capisce facilmente che il Marchese Caracciolo era intagliato nello stesso legno del suo maestro Calvino e che faceva agli altri quello che l'Inquisizione avrebbe fatto a lui, se lo avesse avuto fra le mani. Tutti perseguitavano e uccidevano in nomi di quello stesso Dio unico che ognuno sosteneva di interpretare nel modo giusto. E così eccoci di nuovo a Giordano Bruno, che nella primavera del 1579 arriva pieno di speranza a Ginevra, dove un illustre patrizio italiano, napoletano per giunta e quindi suo conterraneo, ha fondato una comunità evangelica, che, almeno nominalmente, dovrebbe essere un'oasi di pace e di tolleranza. Ma che cosa accadde in realtà? Lo si può dedurre dalle scarne dichiarazioni dello stesso filosofo. Il prode Marchese gli disse senza mezzi termini che, se voleva rimanere a Ginevra, doveva per forza abbracciare la religione del posto. Insomma lo indusse a farsi calvinista. Quando poi Bruno fu incarcerato e costretto a umiliarsi per non rischiare la vita, il caraccelo non mosse un dito per soccorrerlo. Almeno così sembra. Questo è un punto su cui i commentatori sorvolano. Se egli non si accorse dell'intelligenza geniale di Bruno, era stupido, se se ne accorse e non fece nulla per aiutarlo, era infame e fanatico. Nell'uno come nell'altro caso, un Marchese scadente e un uomo non certamente degno degli elogi che gli hanno tributati alcuni storici. Morì a Ginevra, dove, con la benedizione del suo adorato Calvino, si era preso un'altra donna, il 17 maggio del 1586. Ancora una cosa. A Ginevra, prima di Calvino, si adoravano parecchie reliquie, fra cui un pezzo di cervello di San Pietro, che poi i calvinisti gettarono nel Rodano. Io non amo le reliquie e non saprei che farmene, ma ho l'impressione che quel supposto pezzo di cervello di San Pietro fosse più innocuo e facesse meno danni del cervello completo di Calvino e dei suoi compari. Sfida a domicilio, Bruno se ne andò da Ginevra con l'animo esacerbato per le violenze morali che vi aveva subite. Nello spaccio, alludendo soprattutto ai calvinisti, parlerà di maligna e presuntuosissima ignoranza, di pestifero germe e di macchia del mondo. Essi non sapevano fare altro che togliere le conversazioni, dissipar le concordie, dissolvere l'unioni. Insomma, mentre si dicono ministri dunque risuscita morti e sane infermi, essi sono quei che, peggio di tutti altri che pasce la terra, stroppiano gli sani ed uccidono gli vivi o i, 2, 661 sg. Quel togliere le conversazioni sembra una chiara reminiscenza dei metodi usati a Ginevra, dove era proibito discutere. Anche Campanella scrisse, quanto alla riforma d'Inghilterra, essa è unita sotto il calvinismo, ma non così arrabbiato come quello di Ginevra s 300. Povero biante! Uscendo dalla roccaforte calvinista, egli non era soltanto nudo, ma anche ferito. E si trovava di nuovo dinanzi a un bivio, dove andare? Il primo contatto con i protestanti era stato sgradevole e persino pericoloso. Questo forse gli sconsigliò di incamminarsi verso il nord, dove i protestanti erano ancora più numerosi. Sicuramente avrà ripensato anche a quello che gli aveva detto il correligionario italiano nel convento di Schamberi, più fosse andato a nord e meno avrebbe trovato cordialità. E ne aveva avuto la conferma a Ginevra. Che cosa sarebbe accaduto oltre Ginevra? Simile a quei poveri cani randaggi, che ai bivi restano incerti sulla via da prendere, egli deve aver sostato a meditare sul proprio destino. La rosa dei venti gli diceva che il nord era oscuro e il sud, da cui era scappato, proibito. Anche il Monte Bianco, che vedeva laggiù all'orizzonte meridionale, sembrava, con quella sua mole gigantesca, un impedimento per ritornare indietro. Così diresse i suoi passi verso ovest, seguendo ancora una volta il cammino del sole, sebbene da quella parte il cielo fosse rischiarato dalle fiamme sinistre degli auto da fe. Ma lui, lo si è accennato, era una falena destinata a morire tra le fiamme, ed andai a Lione, dove stetti un mese, e non trovando comodità di guadagnar tanto che mi bastasse di poter vivere per li miei bisogni, di là andai a Tolosa, dove è un studio famoso Doc. Ven. 9. Affidati alla corrente della vita ed essa da qualche parte ti sbatterà. Bruno volle seguire la corrente del Rodano. E ripercorriamoli anche noi, per la strada vecchia, i circa 150 chilometri che separano Ginevra da Lione, cercando di seguire l'esule che si muove nella nostra immaginazione come un'ombra bruna nella notte. Il paesaggio non può essere cambiato di molto e quindi il pensiero di vedere le stesse cose che vide il filosofo emoziona lo spirito. I boschi e i monti, le valli e i fiumi, tutto attrae l'occhio del viandante. Ecco la bella chiesa romanica di Nantua e poi l'abbazia, ancora più bella, di Ambronai, dove pernottavano i pellegrini. Intorno ci sono tigli secolari. Solo una cosa Bruno non poteva vedere, perché il misfatto, quando lui passò da queste parti, non era stato ancora perpetrato. Mi riferisco agli sfregi fatti durante la rivoluzione francese sui portali di queste belle chiese romaniche, tutte le figure di santi furono rotte e ammartellate. Si commettono delitti non solo in nome della religione, ma anche in nome della dea ragione. Che mondo di pazzi! Gli uni si ammazzano di fatica per innalzare templi a un dio, gli altri, sempre in nome di un dio, li vanno a distruggere. Così gli iconoclasti si alternano agli iconolatri, e su tutti regna sovrana la follia. La stessa cosa si può notare nei paesi conquistati dagli islamici, altri monoteisti. Un solo esempio, i volti delle figure affrescate nelle chiese rupestri della Cappadocia furono sfregiati in nome di Allah. Secondo il Bartolmes, Bruno sarebbe andato a Lione perché chiamatovi da qualche altro profugo, suo conoscente o connazionale. È un'ipotesi come un'altra. Di sicuro sappiamo che in quella città c'erano molti teisti e antitrinitaristi sfuggiti alle persecuzioni gesuitiche del 1556. Ma Lione ospitava anche una numerosa comunità italiana di banchieri, di commercianti e di dotti. Siccome non è pensabile che Bruno sia venuto a contatto con i banchieri, i commercianti e i quattrinai, con i quali non aveva assolutamente nulla da spartire, si può ipotizzare che abbia avvicinato qualche dotto. Ma chi? Forse qualcuno che potesse introdurlo nel mondo dell'editoria, e non tanto per pubblicare qualche libro, che allora non aveva ancora pronto, quanto per guadagnarsi il pane come correttore di bozze. A Lione c'erano i migliori tipografi di Francia. Già altri grandi spiriti, fra cui il serveto, vi si erano guadagnati la vita come correttore di bozze. Era lo stesso lavoro che Bruno aveva imparato e svolto a Ginevra. Voleva farlo anche a Lione? È probabile. Del resto parrebbe quasi che la sua intenzione originaria, abbandonando l'Italia, fosse quella di andare a Lione. Infatti nel Costituto Veneto del 30 maggio 1592 dichiarò che, dopo essersi fatto fare una vesta di panno bianco di buon mercato a Bergamo, si avviò alla volta di Lione. Se vi fosse andato direttamente, anziché deviare per Ginevra, forse si sarebbe risparmiato la triste esperienza dei fanatici calvinisti. Ma così non fu, come abbiamo visto. A confronto di Ginevra, Lione, l'antica Lugdunum dei Romani che Nerone fece subito ricostruire dopo la distruzione provocata da un incendio accidentale, era una città piena di respiro e di storia. Il centro è molto evocativo, a cominciare dai nomi, l'Estra Boules, come si chiama un sottopassaggio, deriva dal latino transambulare. Anche Bruno era un transambulante qui, se non altro, poteva ripararsi dalla pioggia. Magnifica l'Arwe St. Gian, rimasta supergiù uguale a com'era nella seconda metà del secolo XV. Ed è rimasta uguale anche la cattedrale, il cui portale sembra che spalanchi le braccia per accogliere il visitatore. Ma gli iconoclasti della rivoluzione francese non si arrestarono neppure dinanzi a questo portale maestoso e distrussero amartellate le teste dei santi. In quel periodo Lione subì distruzioni vandaliche e rappresaglie feroci. E dire che nel Medioevo vi si erano svolti ben due consigli ecumenici. A quello del 1274 avrebbe dovuto prender parte anche Tommaso d'Aquino, ma morì durante il viaggio. Fece molto uso della preposizione contra, il nostro dottore angelico, per esempio nella summa contra gentiles, ma i gentili o pagani non distrussero i templi degli altri, come invece fecero i cristiani con quelli greci e romani, e soprattutto non misero mai sul rogo chi non la pensava come loro in fatto di religione. Il fanatismo religioso è una specialità delle religioni monotestiche. Dunque Bruno, come disse lui stesso, sarebbe rimasto a Lione solo un mese, che possiamo collocare tra il settembre e l'ottobre del 1579. Non avendovi trovato la possibilità di guadagnarsi da vivere, riprese il suo cammino e puntò su Tolosa, l'epicentro del furore teologico. Una folle audacia, perché questo significava andare a sfidare il diavolo a domicilio. Questa volta la procellaria si cacciava nell'occhio del ciclone. Ma, come spesso capita agli ardimentosi, gli andò bene. Forse fidava anche nelle ferite che aveva riportate a Ginevra, che all'occasione li potevano servire da salvacondotto o da lettera di credito. Intanto cerchiamo di seguire il suo itinerario, Vienne, Valence, Avignone, Nmes, Montpellier, Narbonne, Carcassonne e infine Tolosa. Viaggiare, in quei tempi, non era soltanto disagevole, ma anche pericoloso, perché le vie erano piene di briganti, di grassatori, di bande armate e di soldataglia. Tuttavia il nostro biante, almeno da questo punto di vista, era al sicuro. Che cosa avrebbero potuto rubargli? Forse aveva con sé dei manoscritti, ma questi, come del resto i libri, non hanno mai fatto gola e ladri. Nascondete i vostri soldi in mezzo a qualche libro, e state pur certi che nessuno andrà a cercarveli. La cultura e la povertà, sua sorella inseparabile, diventano un talismano contro i malintenzionati. La cultura ha un potere apatropaico. Il Bruno che viaggia con la scarsella piena di ragnatele fa venire in mente il proverbio tedesco, i mendicanti fischiettano anche quando nel bosco vagano i ladri. Oppure quello che dice Apuleio nelle metamorfosi 1,15, ignori forse che una persona nuda non può essere spogliata neppure da dieci lottatori? Non sappiamo dove elli si sia fermato e che cosa abbia visto. Sarà stato preso dalla tentazione di andare a vedere la bellissima fonte di Vaichiusa, dove il Petrarca trascorse tanti anni della sua vita? Forse sì, visto che vi farà un preciso riferimento, e per mia fede, se io voglio adattarmi a defendere per nobile l'ingegno di quel tosco poeta, che si mostrò tanto spasimare alle rive di Sorga per una divalclusa oi, 2, 935. D'accordo, si dirà che questa è una reminiscenza letteraria, però non bisogna dimenticare la sensibilità di Bruno per le bellezze naturali. E che in Provenza egli si sia guardato attorno lo dimostra un passo della cena, non si vede il medesmo in tutta la Provenza. Tutte le pietre, che sono sparse per gli campi, non mostrano un tempo a essere state agitate dall'onde? La temperie della Francia parvi che dal tempo di Cesare al nostro sia cangiata poco? Allora in loco alcuno non era a tale viti, ed ora manda vini cossi deliziosi come altre parti del mondo, o i, i, 159. Anche il calcare non molitico con cui è fatto lo spettacolare Ponte du Gard, che Bruno sicuramente vide, dimostra che un tempo era agitato dall'onde. Costruito nel 19 a. c., alto 50 metri e lungo quasi 300, quel ponte romano è la meraviglia delle meraviglie. Rabelais, che ne rimase affascinato, lo definì più divino che umano. Due secoli dopo ne rimarrà affascinato Rousseau, ma aveva detto d'andare a vedere il Ponte del Gard, e non mancai di farlo. Dopo aver mangiato certi fichi squisiti, presi una guida e andai a vedere il Ponte del Gard. Era la prima costruzione romana che vedessi, e m'aspettavo di vedere un monumento degno delle mani che l'avevano costruito. Davvero l'oggetto superò le mie aspettative, e fu la prima volta che mi successe in vita mia, soli romani potevano produrre quell'effetto. Virgola. Percorsi tre piani di quella superba costruzione, che il rispetto quasi mi impediva di calpestare. Il rimbombo dei miei passi sotto quelle volte immense pareva volermi far sentire la voce forte di quelli che le avevano innalzate, e in tanta immensità mi smarrivo come un insetto. Pur facendomi piccolo piccolo, sentivo un non so che elevarmi l'animo, e mi dicevo sospirando, perché non sono nato romano? Rimasi in quel posto parecchie ore, in una contemplazione rapita, finché me ne tornai distratto e sognante illunga. Illunga. Rousseau, Confessioni, Milano 1955,1, 274. Per Alexandre Dumas, infine, quel ponte, da lui definito una epopea in pietra, superava tutte le meraviglie del mondo. Ponti, acquedotti, teatri, colonne, biblioteche e bagni a profusione, la civiltà romana, di cui proprio in Provenza si vedono tante vestigia, d'esta stupore. E c'era un'uniformità di stile che andava dall'uno all'altro capo dell'immenso impero. Le terme di bat in Inghilterra erano così splendide come i bagni di Dura Europos sulle Ofrate, e le biblioteche delle varie province dell'impero non avevano nulla da invidiare a quelle di Roma. Si pensi alla meravigliosa biblioteca di Celso ad Efeso. Ne si conoscevano il razzismo e l'intolleranza religiosa. Ognuno era libero di adorare il proprio Dio o di non adorarne nessuno, senza correre il rischio, per questo, di essere bruciato o squartato vivo. Poi arrivarono i cristiani e fu la sventura. E proprio nella Francia meridionale è facile vedere quanto siano state feroci le persecuzioni e le guerre di religione. Abbiamo già accennato, in precedenza, alle rovine dei castelli catari, in cui par di sentire ancora l'urlo disperato degli infelici che vi furono trucidati. Particolarmente evocativi sono i castelli di Peirepertuse e di Queribus. Lassù i catari credevano di essere più vicini al cielo, ma i cattolici li precipitarono nell'inferno. Bisognava sterminarli perché erano ascetici, non mangiavano la carne, non accettavano elemosine, disprezzavano il danaro e consideravano questo basso mondo il regno del male. La crociata contro i catari, detti anche albigesi dalla città di Albi in cui avevano la loro chiesa principale, fu indetta da Innocenzo III ed ebbe inizio nel 1209. Il comando della Santa Truppa, 20.000 cavalieri e 200.000 fanti, fu affidato al conte Simon de Montfort. Il primo orrore si ebbe a Betziers, occupata nel luglio del 1209, i 20.000 abitanti furono tutti massacrati, compresi i cattolici che si erano rifiutati di consegnare gli eretici. Uccideteli tutti, Dio saprà riconoscere i suoi, così gridava Arnaud Amouri, abate generale di Citeaux e luogotenente del Papa. Un cronista scrisse, Betziers fu presa il giorno di Santa Maria Maddalena. O suprema giustizia della provvidenza! Gli eretici pretendono che Maria Maddalena fosse stata la concubina di Gesù Cristo, è dunque a giusto titolo che questi cani fossero presi e massacrati proprio in quel giorno Craverie, l'eresia Cite, p. 144. Seguirono altri orrori e altre carneficine. Nel marzo del 1210, il Montforte scogitò qualche cosa di insuperabile nel suo genere, per terrorizzare e costringere alla resa gli abitanti della Stors, una roccaforte a nord di Carcassonne, avviò per l'altura una processione spettrale. Si trattava di oltre cento persone cui egli aveva fatto cavare gli occhi e tagliare il naso, le orecchie e le labbra. Erano attaccati l'uno all'altro come le processionarie e solo a chi le guidava era stato lasciato un occhio. A ricordare inconsapevolmente quell'atroce spettacolo ci sono i cipressi, che fanno l'impressione di nere candele intorno a una mostruosità della storia umana. Si capisce dunque perché molti, pur di non cadere vivi nelle mani di quei mostri, si uccidessero. Per esempio gli abitanti di Minerve, anziché arrendersi, preferirono buttarsi in un rogo così grande che il fuoco si appiccò ai boschi circostanti. Altri si lasciarono morire di fame, ma i più furono scannati o bruciati vivi. La strage, al cui confronto quella dei valdesi in Calabria sembra poca cosa, ebbe termine nel 1215, quando il figlio del re di Francia sostituì Simon de Montfort al comando della Crociata. In quello stesso anno Innocenzo III, per celebrare la vittoria, convocò il quattro concilio ecumenico lateranense. L'eresia dei Catari, sembra, fu scoperta la prima volta a Boni e a Colonia nel 1144. E Bervin, abate di Steinfeld, ne dette notizia a Bernardo di Chiaravalle, il quale aveva il rogo facile e per questo salì agli onori dell'altare con il titolo di Dr. Melliflus. Anche la parola Catari, ossia puri, sorse in Germania, dove, con il passar del tempo, diventò Ketzer, termine che significa per l'appunto eretico. Dalla Germania, dunque, partirono le prime denunce, ma dalla Germania si levò anche la più alta condanna dell'orrenda carneficina. Leggendone la storia, il grande poeta Nicolaus Lenaura brividì e scrisse gli albigesi. Dobbiamo ritornare a Giordano Bruno, che abbiamo lasciato con il pensiero vicino al Pont du Gard. Anche Avignone e Montpellier devono avergli ricordato il Petrarca, così diverso da lui. Infatti lo strapazza e lo accusa di aver idolatrato la donna, anche se poi lo prende a modello per i sonetti e le canzoni degli eroici furori. Per tutto il resto, quale grande contrasto, Petrarca era ricco e vezzeggiato dai potenti, Bruno era perseguitato e aveva solo le gambe per spostarsi da un luogo all'altro. Veramente viaggiò molto anche Petrarca, però a cavallo. Nel bellissimo ritiro di Vaichiusa potè rimare in santa pace le lacrime che andava versando dietro a Laura, facendo l'apoteosi della donna. Bruno, viceversa, come Lucrezio, come certi padri della Chiesa e anche come certi autori indiani, dissacrò l'amore e lanciò bordate sarcastiche contro gli sdilinquimenti degli innamorati che esaltano fino al cielo quella febbre quartana, quella estrema ingiuria e torto di natura, che con una superficie, un'ombra, un fantasma, un sogno, un circeo incantesimo ordinato al servaggio della generazione, ne inganna in specie di bellezza. La quale insieme viene e passa, nasce e muore, fiorisce e marcisce, ed è bella Cossi un pochettino all'esterno, che nel suo intrinseco vera, e stabilmente è contenuto un naviglio, una bottega, una dogana, un mercato di quante sporcane, tossichi e veneni abbia possuti produrre la nostra madrigna natura, la quale dopo aver riscosso quel seme di cui la si serve, ne viene sovente a pagar d'un lezzo, d'un pentimento, d'una tristizia, d'una fiacchezza, d'un dolor di capo, d'una lassitudine, d'altri e d'altri malanni che son manifesti a tutto il mondo, affinché amaramente dolga, dove suavemente proriva, o i, 2, 929 sg. Tutte le nature violentemente passionali come Bruno hanno questo atteggiamento di disgusto verso il sesso, se sono in una disposizione di spirito elevata e la conoscenza prevale sulla forza demoniaca dell'istinto sessuale. Si legga, al riguardo, la profondissima metafisica dell'amore sessuale di Schopenhauer, altra natura violentemente passionale. Quanto a Bruno, lui stesso diceva che a raffreddarlo non sarebbero bastate le nevi del Monte Caucaso orifeo i Bid, 931. In breve, non era una lasagna fredda e avrebbe potuto dire quello che poi dirà a Byron, più vedo gli uomini e meno mi piacciono. Come sarebbe bello se potessi dire altrettanto delle donne. Ma Bruno si tenne tutto per sé e accennò solo di sfuggita alle sue passioni longitudinali, mentre il Petrarca parlò anche più del necessario di se stesso e dei suoi sospiri amorosi. A Bruno dovevano dare molto fastidio le iperboli sentimentali, voglio dire che alle donne, benché talvolta non bastino gli onori e ossequi divini, non perciò se gli denno onori ed ossequi divini. Voglio dire che le donne siano cosi onorate ed amate, come denno essere amate ed onorate le donne i Bid, 931. Tre secoli dopo sarà Schopenhauer a criticare sarcasticamente il culto della dama, da lui definita un mostro della civiltà occidentale, così, appunto, hanno considerato le donne anche gli antichi e i popoli orientali, e di conseguenza hanno riconosciuto la posizione ad esse adeguata molto meglio di noi con la nostra galanteria francese all'antica e con la nostra sciocca venerazione per il sesso femminile, fiore supremo della stupidità cristiano-germanica, che è servito soltanto a rendere le donne così arroganti e sfacciate, tanto che a volte ci ricordano le scimmie sacre di Benares, le quali, consce della propria sacralità e inviolabilità, si permettono ogni cosa parerga e paralipomena, vol, 2, paragrafo 369. Naturalmente in Bruno e in Schopenhauer c'era anche il gusto di provocare. Ma procediamo. Nessun periodo della vita di Bruno è così avvolto nella nebbia come quello che gli trascorse nella bella e soleggiata Tolosa. Quel poco che ne sappiamo è contenuto in queste dichiarazioni, virgola andai a Tolosa, dove un studio famoso, ed avendo fatto pratica dei persone intelligente, fu invitato a leggere a diversi scolari la sfera, la quale essi con altre lezioni di filosofia forse sei mesi. Ed in questo mezzo essendo vacato il luogo del lettore ordinario di filosofia di quella città, il quale si dà per concorso, procurai dei adottorarmi, come io feci, per maestro delle arti, e cussi mi presentai al detto concorso, e fui admesso ed approbato, e lessi in quella città dopo i, doi anni continui il testo di Aristotele de Anima ed altre lezioni de filosofia. E dopo i per le guerre civili me parti ed andai a Paris, doc. Venn. 9. Tutto qui. C'è solo da aggiungere che a Tolosa si confessò o si presentò da un esuito, forse per regolare la sua posizione, ma di questo, come pure della dedica che gli fece il filosofo portoghese Francisco Sanchez, parleremo dopo. Andò direttamente a Tolosa o fece delle soste intermedie, per esempio a Montpellier, sede anch'essa di una famosa università? Propendiamo per la seconda ipotesi. In mancanza di documenti, qui possiamo fare solo delle ipotesi e muoverci al buio, ma come scartare l'idea che a Montpellier, la Salerno francese, egli sia andato a vedere dove vissero Raimondo Lullo e Paracelso, due degli autori a lui più cari? Il primo vi insegnò e scrisse, mentre Paracelso vi fu dichiarato eretico. L'arrivo di Bruno a Tolosa si può far cadere, orientativamente, nel tardo autunno del 1579. Ma parliamo prima della città. Fondata dai Romani, di cui restano molte vestigia, Tolosa divenne, nel Medioevo, un epicentro del fanatismo cattolico. Nel 1215 Domenico de Guzman, che già si era distinto nella persecuzione dei Catari, vi fondò l'Ordine dei Frati Predicatori, meglio noto come Ordine Domenicano, che si espanse presto in altri paesi e, prendendo in appalto l'Inquisizione creata da Innocenzo III, fece più vittime di tante calamità naturali. Tanto zelo meritava una ricompensa e infatti Domenico, chiamato zelator animarum maximus, fu fatto santo. Nel suo libro Mille Santi del Giorno, lo scrittore cattolico Piero Bargellini dice che Domenico non aveva che 51 anni quando, consumato dalle fatiche, dall'applicazione intellettuale e dall'ogorio mentale, morì a Bologna nel 1221 e fu come si spegnesse una stella fra gli uomini, per riaccendersi, anche più luminosa, tra i Santi. Non si spensero, invece, i roghi che lui, da bravo fuochista del cielo, aveva accesi, anzi continuarono ad ardere per secoli. Rabelais, che vi bazzicò nella prima metà del 1500, dice che a Tolosa tutti quelli che cadevano in sospetto di eterodossia venivano bruciati a guisa di aringhe affumicate, dovunque venissero scoperti, anche sulle cattedre dello studio Pantagruel, 1, 2, K, 5. Nel 1619 tale sorte toccherà, come vedremo, al filosofo Giulio Cesare Vanini. No, nella città della Gaia scienza non spirava aria buona per i filosofi. Tolosa, dunque, poteva essere per Giordano Bruno una trappola mortale. Di là era partito l'incendio e la si era formato il quartier generale de l'Inquisizione. Egli, che era pur sempre un Domenicano, lo sapeva bene. Prima ancora che ci mettesse piede, quella città gli doveva essere, per così dire, familiare. Ma, per quanto possa sembrare strano, egli vi potè vivere e insegnare tranquillamente. Almeno così pare. Forse la brutta avventura di Ginevra lo aveva reso più prudente, oppure gli si avvalse proprio di quell'avventura per presentarsi come nemico dei calvinisti. A una domanda degli inquisitori di Venezia risponderà, sono da sedici anni in circa che io non mi sono mai presentato al confessore, eccetto due volte, una volta in Tolosa da un Jesuito, ed un'altra volta in Parisi da un altro Jesuito, mentre trattavo, per mezzo di Monsignor Vescovo di Bergamo, allora nonzio in Paris, e di Don Bernardin di Mendoza di ritornar nella religione, con intenzione di confessarmi. E loro mi dissero che non potevano assolvermi per essere apostata, e che non potevo andare ai divini offizii, doc. Ven. 12. Non bisogna dimenticare, leggendo queste e altre dichiarazioni autobiografiche, che egli parlava da imputato dinanzi a un tribunale dell'Inquisizione che cercava, comprensibilmente, di mettere in risalto ciò che potesse giovargli, come appunto i due tentavi, falliti, di rientrare nella religione. Chi fosse quel Gesuita di Tolosa non lo sappiamo. Forse era una delle persone intelligenti che Bruno dice di aver frequentate nella città francese. Se non lo assolse, cosa che del resto dipendeva da Roma e non da lui, probabilmente lo aiutò. Eppure i Gesuiti avevano uno speciale privilegio e potevano, in certi casi, assolvere gli scomunicati. Verrebbe anche da pensare che un transfuga dominicano non dispiacesse a un Gesuita, vista la rivalità che esisteva tra i due ordini. È da supporre che i Gesuiti fossero più tolleranti o più aperti, il che potrebbe aiutarci a capire perché Bruno, per confidarsi, abbia scelto uno di loro. La delusione subita a Ginevra era tanto più bruciante quanto più egli aveva sperato che i protestanti agissero come correttivo dell'oppressione cattolica. Il perseguitato magnifica e nobilita, con gli occhi della speranza, il nemico del suo nemico. Ma quando scopre che il supposto salvatore è peggiore del persecutore o almeno uguale a lui, la delusione gli attanaglia il cuore e lo spinge a fare passi sconsiderati. E proprio quello che fece lui, che, sottrattosi alle grinfi dei calvinisti, andò a mettersi alla portata di quelle, altrettanto pericolose, dei cattolici di Tolosa. Ma ebbe fortuna, forse anche grazie a quel Gesuita. Ci piace pensarlo. L'unica testimonianza dei rapporti che Bruno ebbe con l'ambiente accademico di Tolosa è costituita dalla dedica che gli fece il filosofo e medico portoghese Francisco Sánchez. È stata scoperta e pubblicata di recente dallo studioso polacco Andrzej Noviki. È scritta in latino e contiene, stranamente, un errore di grammatica, Brunus, nominativo, al posto del dativo Bruno. Eccola nell'originale, C. L., Arissimo, V., Iro, Domino, Giordano B., Rum,us, Sic, Nolano T., Eologiae, D. Focatori, P., Ilosop,o Acutissimo Famo, Iliaritatis, G., Ratia, H., Honoris, C., Ausa, D., Ono, D., Edith, F. Sánchez A. Noviki, Giordano Bruno nella patria di Copernico, Vroclav, Ossolineum 1972, pp. 19 sgg. Traduzione, al chiarissimo signor Giordano Bruno Nolano, dottore in teologia, filosofo acutissimo, in segno di familiarità e per rendergli onore di Eden Dono F. Sánchez. La dedica appare sul frontespizio di un esemplare dell'opera di Sánchez Codney Il Cittur, pubblicata a Lione nel 1581. Oltre a una profonda stima del portoghese verso l'italiano, la dedica lascia presupporre che i due si conoscessero bene, altrimenti il Sánchez non avrebbe parlato di familiarità. Ma la sua opera non piacque a Bruno, che sullo stesso frontespizio annotò sarcasticamente, Mirmco Donageriste appellatse dottore ma è stupefacente che questo asino si dia il titolo di dottore. Nella pagina seguente rincarò la dose e scrisse un'altra nota di condanna, è stupefacente che egli abbia in mente di insegnare. Non si può dire che Giordano Bruno masticasse le parole, quando doveva fulminare qualcuno. Nella cena chiamerà asino ignorante presuntuoso il teologo Andrea Sosiander, o i, i, 88. Ancora più feroce il giudizio su Francesco Padrizi, un altro sterco di pedanti, italiano, che ha imbrattati tanti quinterni con le sue discussioni peripatetiche e che, semplicemente parlando, mostra aver del bestiale asino Ibid, 260. Come si spiega il suo sarcasmo contro chi gli aveva fatto un dedica così calorosa ed elogiativa. Francisco Sanchez era nato in Portogallo nel 1551 e aveva studiato medicina in Italia, segnatamente a Roma, dal 1571 al 1573. In precedenza si era rifugiato in Francia con i genitori, tutti e due ebrei, e si era convertito al cattolicesimo. Quando ritornò in Francia dopo gli studi in Italia, dove fra l'altro aveva appreso a unire l'indagine medica alla speculazione filosofica, insegnò chirurgia all'Università di Montpellier. Poi, essendo Montpellier diventata una roccaforte o gonotta, passò a Tolosa e vi restò fino al 1623, anno della sua morte. I suoi contemporanei lo chiamavano Sanchez lo scettico, e anche in seguito continuò ad essere considerato il più devastante degli scettici e un grande pironiano. Ma Bertrand Levergeois, autore di uno dei più bi e libri su Giordano Bruno, scrive che in realtà Sanchez era profondamente radicato nella fede cattolica, al punto che due dei suoi figli si fecero preti. E aggiunge che un'attenta lettura del Codney Ilscitur dimostra che il portoghese non era quello scettico che hanno voluto farne i posteri. E allora come spiegare il rifiuto dell'opera da parte di Bruno. Diamo di nuovo la parola all'Evergeois, che fa una profonda analisi della questione. Non si trattava tanto di scetticismo, egli dice, quanto di ignoseologia in generale. In effetti Bruno non tarderà a porre l'accento su tutto ciò che lo separa dall'approccio di Sanchez. Per non parlare delle divergenze più profonde, l'anti-aristotelismo del portoghese poggia su una rivalorizzazione dell'esperienza, mentre il Nolan non accorderà che un credito relativo al procedimento empirico Levergeois 1995, pp. 97 sgg. Tutta la conoscenza, secondo Sanchez, verrebbe dai sensi, e basta già questo per capire che tra lui e Bruno non ci poteva essere nessun accordo in campo gnoseologico. Non si sa come quando la copia del Codni Ilscitur, che l'autore regalò al filosofo italiano, si è andata a finire in Polonia. Ma quella dedica acquista un particolare significato, perché getta un raggio di luce sul soggiorno di Bruno a Tolosa, dove, come sembra, egli godeva di una certa notorietà. Le sue lezioni dovevano essere trascinanti ed è probabile che sia andato a sentirle anche Sanchez, il quale non aveva ancora una cattedra all'Università di Tolosa. Quella di medicina, che era vacante, gli fu soffiata sotto il naso nella primavera del 1581. Divenne ordinario di filosofia solo nel settembre del 1585. Così si spiega più facilmente l'annotazione di Bruno, è stupefacente che egli abbia in mente di insegnare. Non è per nulla stupefacente, invece, che sia diventato ordinario Sanchez e non Bruno, nessun genio ha mai fatto carriera nelle università. Quelli sono ambienti in cui la mediocrità è molto più redditizia di una grande intelligenza. Ma anche per tutto il resto la vita di Bruno ci dimostra che un'intelligenza geniale finisce per rivelarsi controproducente, nel senso che chi la possiede somiglia a uno che si aggiri per i mercati con i lingotti d'oro o le casse forti, anziché con il denaro spicciolo. Sembrerebbe che Bruno fosse rimasto a Tolosa due anni e mezzo, perché dice che vi lesse forsi sei mesi la sfera e dopo i, doi anni continui, il testo de Aristotele de Anima ed altre lezioni de filosofia. Di che lezioni si trattava? Probabilmente di fisica e di matematica, ma anche di arte lulliana. Infatti risale proprio a quel periodo, secondo alcuni, la composizione della Clavis Magna, un trattato mnemotecnico lulliano inedito e smarrito. Ma il soggiorno a Tolosa quanto durò effettivamente? Secondo Spampanato, una ventina di mesi, secondo altri di più. Comunque sia, si trattò di un soggiorno molto lungo per una natura così irrequieta. Ed è veramente strano che a Tolosa non si trovi alcuna traccia, neppure minima, della sua presenza. I registri universitari dell'epoca sono andati persi e i vari archivi, compreso quello dei Domenicani, sono muti. Pur sapendo di essere stato preceduto da cacciatori di gran fiuto, ho voluto non di meno fare delle ricerche, tutto in vano. Eppure riesce difficile a rendersi all'idea che non ci sia niente. Focoso, battagliero e trascinante, Bruno non era tipo da passare inosservato. Possibile che nessuno, magari uno studente, un religioso o un privato cittadino, ne abbia annotato da qualche parte il nome? Ogni tanto affiorano, qua e là, nuovi documenti sulla vita errabonda di Bruno. Chissà che un giorno non se ne trovi qualcuno anche a Tolosa. Il Domenicano Michele Miele, di cui si è già parlato, ha qualche dubbio circa il dottorato che Bruno dice di aver conseguito a Tolosa, ed in questo mezzo essendo vacato il luogo del lettor ordinario de filosofia di quella città, il quale si dà per concorso, procurai dei adottorarmi, come io feci, per maestro delle arti, e cussi mi presentai al detto concorso, e fui admesso ed approbato. Ma il miele, che è anche professore, mi scrive, immatricolarsi non significava fare lo studente. Bruno ha insegnato a Tolosa sfruttando la laurea in teologia conseguita a San Domenico Maggiore. Questo è avvenuto anche altrove durante la sua peregrinano europea. Insomma, se capisco bene, avrebbe fatto un concorso per titoli, come diremmo oggi. Ma se è così, che bisogno avrebbe avuto, Bruno, di dire che si era addottorato per maestro delle arti, ossia Magister Artium? Quanto alla mancanza di indizi della presenza del filosofo a Tolosa, il mio gentile edotto corrispondente scrive, credo però che realmente il convento di Tolosa non abbia niente su Bruno. Anche supposto che il filosofo abbia lasciato a suo tempo delle tracce in città, non si può non tener conto del diluvio della rivoluzione francese, che per i conventi è stato qualcosa di più radicale delle nostre soppressioni. Il Domenicano si riferisce alla soppressione dei conventi in Italia. E allora andiamo a cercarle con gli occhi dell'immaginazione, le tracce del filosofo. Il centro storico di Tolosa, dove sorgeva l'università, è molto evocativo. Rue dei Taur, percorsa chissà quante volte anche da Bruno, è una stretta arteria affiancata da edifici medioevali, fra cui la trecentesca chiesa Notre Dame du Taur, e parla una lingua antica. In fondo alla via c'è la stupenda basilica di S. Tisernin, dinanzi alla quale si resta estasiati. È una delle più belle chiese romaniche che esistano. Di fuori come di dentro, essa dà un senso di pace allo spirito. Un tempo vi facevano tappa, per rifocillarsi l'anima e il corpo, le torme di pellegrini che si recavano a Santiago dei Compostela. E anche Bruno, a modo suo, era un pellegrino in cerca di pace, se non di miracoli. Invece la grande chiesa dei Talesi a Cobbins, dove i Domenicani ebbero il loro quartier generale fino alla rivoluzione francese, in cute soggezione e suscita quasi un senso di sgomento. È così ardita che sembra più una sfida che una preghiera al cielo. Grida volontà di potenza. Del resto i Domenicani, che la costruirono tra il XIII e il XIV secolo, non erano forse truppe d'assalto in veste teologica? Al centro, sotto la navata che si perde in alto come una pareta picco, c'è la tomba di San Tommaso d'Aquino, le cui spoglie, per ordine del Papa Urbano V, furono portate qui nel 1369. Prima si trovavano nell'abbazia di Fossanova, nel Lazio, dove egli era morto il 7 marzo 1274. Bruno ebbe sempre una grande considerazione per la Quinate e lo dichiarò anche dinanzi al Tribunale Veneto, io disprezzo li sopra detti eretici e dottrine loro, perché non meritano nome di teologi ma di pedanti, ma dei dottori ecclesiastici cattolici io ne fo quella stima che devo, e particolarmente di San Tommaso, che ho sempre, come ho detto di sopra, stimato ed amato come l'anima mia. E che sia la verità, ecco che nel mio libro intitolato De Monade, numero et figura, carte o pagine 89, dico in lode de San Tommaso quanto potete vedere. E indicò il passo in cui la Quinate veniva definito honoratque lux di qualsiasi genere di teologi e di filosofi per i patetici in specie, doc. ven. 12. Come non pensare, dunque, che egli sia andato a rendere omaggio alla sua tomba. Anzi ci sarà andato spesso, perché è sempre meglio colloquiare con un filosofo morto che con qualche asino vivo. E si sarà aggirato anche nell'ampio chiostro, dove ci si sente sollevati e non vagamente minacciati come nell'interno della chiesa. Tolosa viene chiamata città rossa, perché è tutta costruita di mattoni. Ma in quell'epoca di autodaffè doveva essere rosso anche il suo cielo. Abbiamo già visto che Rabelais parlava di gente bruciata viva come aringhe affumicate. La roccaforte dell'ortodossia cattolica accendeva l'inferno per propiziare il paradiso. Il 3 e il 4 ottobre del 1572 furono massacrati e bruciati centinaia di protestanti. Era la ripetizione, su scala ridotta ma meglio organizzata, della notte di San Bartolomeo. Sorprende che Bruno, apostate accusato di eresia, abbia potuto vivere indisturbato a Tolosa. Forse l'avrà protetto l'ombra di San Tommaso, ispirandogli prudenza. Nessuno protesse, invece, il filosofo Giulio Cesare Vanini, che a Tolosa fu bruciato vivo nel 1619. La sua tragica esistenza ricorda molto da vicino quella di Giordano Bruno e occorre parlarne. Nato nel 1585 a Taurisano, in provincia di Lecce, Vanini era entrato nell'ordine dei Carmelitani. Nel 1606 si adottorò in diritto a Napoli, poi si trasferì a Padova per proseguire gli studi teologici. Fu un periodo molto fecondo per la sua formazione culturale, grazie anche ai contatti con gli ambienti più spregiudicati della vicina Venezia. Probabilmente ebbe rapporti anche con Galilei, che allora insegnava a Padova. Ma il 28 gennaio del 1612 il generale dell'ordine Carmelitano, Enrico Silvio, gli ordinò di rientrare immediatamente a Napoli e di mettersi a disposizione dei superiori. Fiutando aria di bruciato, Vanini prese il largo e si rifugiò a Londra insieme con il confratello Giovanni Maria Genocchi, anche lui studente a Padova e anche lui colpito da un provvedimento disciplinare. Nella capitale inglese i due abbiurarono la fede cattolica e si convertirono all'anglicanesimo. La cetimone della conversione si svolse il 28 giugno del 1612 nella Cappella dei Merciai di Londra, e a renderla più solenne c'era anche la presenza di Sir Francis Bacon, che sapeva navigare bene, per essere un filosofo, negli intrighi di corte. Ma i due apostati non tardarono ad accorgersi che i puritani non erano migliori dei cattolici. Anche l'isolamento in cui erano costretti a vivere, l'uno presso l'arcivescovo di Canterbury e l'altro presso quello di York, fece loro subito rimpiangere Padova e Venezia. All'inizio del 1613, tramite l'ambasciatore spagnolo, ripresero i contatti con la Chiesa cattolica e ottennero la promessa che, se fossero tornati indietro, non sarebbero stati processati. Tutto si svolse nella massima segretezza, almeno così essi credevano. Ma quei contatti non erano sfuggiti all'arcivescovo di Canterbury, che si chiamava Giorgia Botti e aveva in custodia Vanini. Quando questi gli chiese il permesso di poter visitare le università di Oxford e di Cambridge, finse di acconsentire, ma in realtà gli tese una trappola. Insomma lo fece accompagnare dai missari segreti, ai quali l'incauto rivelò la sua intenzione di lasciare l'Inghilterra e di rientrare in senno alla Chiesa cattolica. Fu subito arrestato e chiuso in carcere. La stessa sorte toccò a genocchi. Era il 26 gennaio del 1614. Pochi giorni dopo, genocchi riuscì ad evadere e a rifugiarsi nell'ambasciata spagnola. Invece Vanini fu prima processato e scomunicato, poi consegnato al braccio secolare per subire un secondo processo. La pena più lieve che incombeva sulla sua testa era la relegazione nelle sperdute isole Bermuda. Quanto a quella più grave, ognuno se la può immaginare facilmente. Ma alla fine, forse grazie all'aiuto dell'ambasciatore spagnolo, riuscì anche lui a evadere dal carcere e a far perdere le proprie tracce. Era destino che gli esoli italiani si imbattessero in Giorgia Bott, il cui livore calvinista si era già sfogato contro Giordano Bruno, come vedremo in seguito. Fuggiti in maniera rocambolesca dall'Inghilterra, Vanini e genocchi si recarno a Bruxelles dove, per tramite del nunzio apostolico Guido Bentivoglio, ottennero, apparentemente, il perdono del Papa e anche il permesso di vivere con l'abito del clero secolare. Poi genocchi ritornò a Genova, sua città natale, e Vanini andò a Parigi, dove si trattenne alcuni mesi presso il nunzio apostolico Roberto Ubaldini. Da ora in poi la sua vita diventa una corsa a ostacoli verso la morte. Spinto dal demone che gli urgeva dentro, riprese a errare e da Parigi, anziché recarsi a Roma dove era stato convocato con il pretesto dell'imprimatur di un manoscritto andato perduto, raggiunse il genocchi a Genova. Temeva, giustamente, di essere arrestato, e per questo era diventato guardingo. A Genova rimase dall'ottobre del 1614 al gennaio dell'anno successivo, facendo il precettore presso le famiglie Spinola e Doria. Probabilmente quelle potenti famiglie lo aiutarono anche a fuggire, allorché la Chiesa rivelò le sue vere intenzioni. Infatti Genocchi fu arrestato, mentre Vanini, avvisato per tempo, potè sottrarsi alla cattura e rifugiarsi precipitosamente a Lione, dove fece stampare l'Anfiteatrum Aeternae Providentiae, la sua opera principale. Nell'agosto del 1615 era di nuovo a Parigi. Introdottovi forse dal poeta napoletano Giambattista Marino, che lui chiamava Amico mio degno di singolare venerazione, frequentò la corte di Maria de' Medici e divenne il filosofo alla moda. Aveva tutto per farsi apprezzare, cultura vastissima, vivacità, conversazione brillante e anche bell'aspetto. Nel 1616 pubblicò i dialoghi di Admirandis Naturae Arcanis, ottenendo subito un clamoroso successo, soprattutto presso gli ambienti cosiddetti libertini. Ma i parrucconi della Sorbona insorsero e condannarono l'opera, sebbene prima l'avessero approvata. Per non finire nelle mani dell'inquisizione, Vanini fuggì di nuovo e sotto il falso nome di Pompeo Ugilio, storpiato poi in Lucilio, si rifugiò a Tolosa in casa del conte di Carman, a Udrien du Montluc. A chi poteva venire in mente di cercare nella roccaforte dell'ortodossia cattolica un fuggiasco sospettato di atismo. Forse fu questo il pensiero di Vanini e dei suoi protettori. E infatti tutto andò bene in un primo momento, ed egli, sotto le false vesti di Pompeo Ugilio, potè fare il precettore. Ma il 2 agosto del 1618, non si sa bene in base a quali voci, fu accusato di insegnare l'ateismo e tratto in arresto. Il processo, sul quale non ci soffermeremo, durò molti mesi. La sentenza di morte fu emessa l'8 febbraio del 1619 ed eseguita il giorno stesso. Strana coincidenza, anche Giordano Bruno, 19 anni prima, era stato condannato a morte un 8 di febbraio. Nei documenti, che parlano una lingua infame e raccapricciante, si legge che a Vanini fu attaccato al collo un cartello con la scritta ateo e bestemmiatore del nome di Dio. Poi fu condotto dinanzi alla chiesa metropolitana di St. Etienne, affinché, mezzo nudo e con una candela in mano, chiedesse perdono a Dio, al re e alla giustizia delle sue supposte blasfemie. A quale Dio e a quale giustizia, messi e urs? Alla fine quei mostri condussero il filosofo nella plage dei Salin, dove era già tutto pronto per il rogo. Durante il tragitto, il religioso che lo assisteva tentò di indurlo a ricredersi, mostrandogli il crocifisso e rappresentandogli i sacri misteri dell'incarnazione e dell'amirabile passione di nostro Signore, ma il condannato non volle neppure guardarlo e rifiutò quella suprema ipocrisia, così come, una volta sul patibolo, rifiutò di porgere la lingua al boia che doveva tagliargliela. Allora il boia gliela strappò a viva forza con una tenaglia. Il resto lo fecero le fiamme del rogo. Un testimone oculare di quell'orrore, impassibile nel suo ottuso e rivoltante cinismo, riferisce fra l'altro, torvo e ostinato, Vanini rifiutò i conforti del cordigliere che lo accompagnava. Virgola. Prima di accendere il rogo, gli fu ordinato di mostrare la lingua perché fosse tagliata. Rifiutò, il carnefice non potè averla che con le tenaglie di cui si servì per tirarla fuori e tagliarla. Non si è mai sentito un urlo più spaventoso, voi l'avreste preso per il muggito di un bue, il resto del suo corpo fu consumato dal fuoco e le sue ceneri furono sparse al vento. Tale fu la fine di Lucilio, Sic, Vanini, quell'urlo bestiale emesso prima di morire dimostra la sua poca costanza. Io l'ho visto in prigione, io l'ho visto durante il supplizio e io l'avevo conosciuto prima che fosse arrestato, Gabriele Barthelemi de Gramont, Historia Mgaltiae Abex Cessu Enrici 4 Libri 18, Tolosa e 1643, pp. 272 sgg, a scrivere queste parole, senza inorridire o almeno vergognarsi, fu Barthelemi de Gramont, presidente del Parlamento di Tolosa. Altre testimonianze ci parlano dell'aspetto fisico di Vanini, era alto, magro, molto ben fatto, aveva lo sguardo penetrante e parlava con grande facilità il latino. Mentre lo conducevano al patibolo, esclamò, andiamo, andiamo a morire da filosofi. Aveva appena 34 anni. Siccome si occupava anche di medicina e di scienze naturali, teneva in casa un batracce. Bene, per i giudici quel povero e innocente batracce costituì la prova irrefutabile che Vanini era non solo uno stregone, ma anche ateo, in quanto l'animale era il Dio che lui adorava. In fondo è vero, Vanini, come Giordano Bruno, non faceva differenza tra un essere vivente e l'altro, però si dimenticò di dire che gli animali, mettiamo un batracce, sono spesso più intelligenti e nobili di tanti uomini, come appunto dimostra il comportamento di quei giudici. Una parte decisiva, nelle persecuzioni e nell'orribile fine di Vanini, la ebbero alcuni gesuiti, tra cui Jacques Gaultier e François Garasse, due ragni velenosi, senza però l'intelligenza e l'onestà dei ragni. Abbiamo abbastanza fantasia per raffigurarci quello e altri crimini commessi in nome di Dio? No, perché non tutti possono essere H. O. Condiere Silderlin che, identificandosi in Vanini, gli sciolse un inno e scagliò la maledizione contro i suoi carnefici, e in più ti dissero. A te? Con bestemmie t'oppressero il cuore, ti legarono, e ti dettero alle fiamme, O sacro uomo! Perché non tornasti, in fiamme dal cielo per colpire i blasfemi, suscitando la tempesta che la cenere dei barbari lungi dalla terra e dalla patria gettasse? Ma quella che vivo amasti, e che temorente accolse, la sacra natura, scorda la gire degli uomini e i tuoi nemici tornarono, come te, nell'antica pace. H. O. Condiere Silderlin, S. O. Condiere Sintlichewerke, Stuttgart 1946, B. D. I. P. 262. Ma chi lo capì meglio di tutti fu Schopenhauer, di cui ci limitiamo a riportare questo giudizio, prima di bruciare vivo il geniale e profondo Vanini, gli strapparono la lingua, perché egli, con essa, avrebbe bestemmiato Dio. Confesso che, quando leggo simili cose, mi viene voglia di bestemmiare quel Dio Naclas Citt, 4, 2, P. 23. Ora facciamo un passo indietro e ritorniamo a Bruno, anche lui bruciato vivo nel mese di febbraio, però 19 anni prima. Si vede che gli inquisitori sceglievano i mesi invernali per scaldarsi la coscienza con i roghi. A parte questo, Tolosa era anche la città della Gaia scienza e a Bruno poteva per certi aspetti ricordare Napoli. Anche Tolosa, infatti, aveva uno straordinario numero di campanili e la vivacità tipica delle città meridionali. E se Napoli aveva la più antica università del mondo, Tolosa aveva, con Bologna, Parigi e Oxford, una delle più rinomate università cristiane, dove si insegnava Aristotele quando i papi ne proibivano ancora la lettura. Per quanto roccaforte dell'ortodossia, il che si spiega anche con il fatto che allora la città era il capoluogo di una regione per tre quarti protestante, a Tolosa non mancava certo qualche spirito libero, almeno nell'intimo. Del resto lo stesso Bruno, il ribelle per eccellenza, vi nacque alla filosofia. Napoli lo aveva battezzato Domenicano e Tolosa, dove i Domenicani erano nati, lo battezzò filosofo. A corte, Giordano Bruno era ancora a Tolosa, quando i bravi figli di Dio, stufi di un periodo di tregua, incominciarono di nuovo ad affilare le armi per scannarsi l'un l'altro al grido, andiamo, moriamo con Cristo. Così il filosofo, vista la mala parata, se ne andò, ma questa volta verso nord, ed o poi per le guerre civili me partì ed andai a Paris d'Oc. Ven. 9. Sebbene fosse figlio di un uomo d'arme, Bruno, da bravo filosofo, aveva in orrore le guerre, soprattutto quelle di religione. A cui abbiamo un altro tratto in comune con Schopenhauer, il quale, all'avvicinarsi del Tintinio di guerra, si rifugiò a Rudolstadt, una trentina di chilometri a sud di Weimar, e là, senza vedere soldati o sentire tamburi, scrisse nel 1813 la sua dissertazione sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente. La minaccia di una ripresa della lotta sanguinosa tra cattolici e eugonotti si profilò nell'estate del 1581, ma è probabile che Bruno abbia abbandonato Tolosa solo verso l'autunno. Ora egli viaggiava alla volta di Parigi, e non sembra che il cielo di Francia gli abbia mostrato un volto corrucciato. Ciò che gli aveva detto il confratello italiano a Schamberi, che cioè più fosse andato avanti e meno avrebbe trovato amorevolezza de sorte alcuna, si era rivelato vero a Ginevra, ma a Tolosa era andata meglio e ancora meglio andò, almeno in un primo tempo, a Parigi, dove me messi a leggere una lezione straordinaria per farmi conoscere e far saggio di me, e lessi trenta lezioni e pigliai per materia trenta attributi divini, tolti da esse Tommaso dalla prima parte, della summa teologiae, e dopo essendo stato ricercato a pigliare una lezione ordinaria, restai e non volsi accettarla, perché li lettori pubblici di essa città vanno ordinariamente a messa e dagli altri divini offizii. Ed io ho sempre fuggito questo, sapendo che ero scommunicato per essere uscito dalla religione ed aver deposto l'abito, che si bane in Tolosa ebbi quella lezione ordinaria, non ero però obbligato a questo, ad andare a messa, come sarei stato indetta città de Paris, quando avesse accettato la detta lezione ordinaria. E leggendo quella straordinaria, acquistai nome tale che il re Enrico III mi fece chiamare un giorno, ricercandomi se la memoria che avevo e che professava, era naturale oppure per arte magica, al quale diedi soddisfazione, e con quello che li dissi e feci provare a lui medesmo, conobbe che non era per arte magica ma per scienza. E dopo questo feci stampare un libro de memoria, sotto titolo De Umbrisi De Arum, il qual dedicai a sua maestà, e con questa occasione mi fece lettor straordinario e provisionato, doc. Venn. 9. L'obbligo, per i professori, di andare alle funzioni religiose era stato introdotto con un decreto del 21 agosto 1568, ma evidentemente non veniva applicato in tutte le università. E se a Tolosa uno scomunicato come Bruno potà insegnare senza andare in chiesa, vuol dire che Tolosa, almeno in questo, era più liberale di Parigi. Forse in quella fortezza dell'ortodossia c'erano degli interstizi, e l'aria fresca della Garona riusciva di tanto in tanto a farvi penetrare qualche refolo di libertà. Non sarebbe male, però, che anche oggi certi professori venissero costretti a espiare con preghiere e atti di contrizione i danni che arrecano alla mente dei loro allievi. Ma che vita avventurosa, quella di Giordano Bruno. Ed era solo all'inizio. In cinque anni, da quando era fuggito dal convento, aveva vissuto più cose lui che altre in cinquanta. Era andato ramingo da una città all'altra e da un paese all'altro, sperimentando su se stesso quello che fa dire a Bartolomeo nel quarto atto del candelaio, l'uomo, senza l'argento ed oro, è come uccello senza piume, che chi lo vuol prendere, se il prende, chi se il vuol mangiare, se il mangia. Lui non se l'erano mangiato, anche perché era piuttosto coriaceo, ma di ferite ne aveva riportate tante. È l'eterno destino dei figli delle muse, i quali, per dare buoni frutti, devono soffrire, come gli ulivi e le viti. L'ambrosi è un distillato del dolore. Meister Eckhart, anche lui domenicano, dice, l'animale più veloce che vi porti alla perfezione è il dolore. Anche se in plume, tuttavia, Bruno seppe volare e alla fine si ritrovò alla corte di Francia. Dalla povera cella di un convento alla più sfarzosa delle regge, che salto. La capitale francese, dove un tempo aveva insegnato il suo amato San Tommaso, dovette fargli molta impressione e stimolare la sua volontà di affermazione. Se già si era imposto a Tolosa, come si può dessumere dalla dedica che gli fece Francisco Sanchez, ora veniva la prova suprema, imporsi anche a Parigi. Vivacissimo, non convenzionale, pieno di slancio, ma all'occasione anche sarcastico, con la battuta pronta e la parola scaltra, egli sapeva come sedurre l'uditorio. I suoi occhi dovevano sprizzare fuoco, ma spesso erano anche velati di malinconia, intristiti a Ilaris, in Ilaritate Tristis. Raffaele gli, che lo conobbe anni più tardi e ne divenne discepolo, riferisce che Bruno improvvisava con grande facilità sul primo soggetto propostogli. Trascinato dall'ardore dell'animo e dalla passione per ciò che insegnava, egli parlava con tanta rapidità che non era possibile stargli dietro con la penna, stando ritto su un piede solo, dettava e meditava contemporaneamente quanto uno può seguire con la penna, tanto veloce era il suo ingegno e tanta la forza della sua mente all, I, pars 4, p. 5. Le prime parole di egli sono una citazione dell'Oraziano di Ctabat Stanspede in uno Sat. I, 4,10, solo che Orazio lo dice per criticare la fretta con cui Lucilio scriveva i suoi versi, mentre egli lo dice in senso positivo. Ma qui occorre citare soprattutto il boemo Hans von Nostiz, che nel 1582 aveva ascoltato le lezioni di Bruno e ne era rimasto affascinato, mi ricordo che 33 anni fa Giordano Bruno Nolano, dando per la prima volta a Parigi splendida prova di sé nell'arte lulliana e mnemologica, ovvero memorativa, attirava a sé privatamente molti discepoli e uditori, e anch'io, per rendermi conto della natura di quella meravigliosa arte, più di una volta feci parte del suo auditorio, ammirando grandemente l'abilità e la prontezza di Bruno cfr. G. Aquilecchia, in studi secenteschi, Vol. 17, 1976, pp. 155 sg. Insomma Bruno affascinava e strappava applausi, che arrivarono anche all'orecchio del re Enrico III, che volle conoscerlo di persona. Figlio di Enrico II e di Caterina de' Medici, il giovane sovrano era nato il 18 settembre del 1551. Aveva dunque tre anni meno di Bruno. I contemporanei ce lo descrivono ora in toni di tirambici ora con qualche punta di malignità, ora come un angelo ora come un bazzicabarbieri. Nell'incisione di un veneziano, fatta nel 1588, sembra un gallo cedrone. Quando non era ancora salito al trono, ecco come ne scriveva un signore della corte a Sir Francis Vasingham, segretario di Stato della regina Elisabetta I, il duca d'Angio ha la disgrazia che i suoi ritratti non gli rendono giustizia. Lo stesso Yannet non ha mai reso quell'incanto che ha intorno alle labbra quando parla, quella dolcezza, con la quale sorprende chi all'onore di vederlo privatamente, non si rappresenta né con la penna, né col pennello. Ha la mano bella e così ben proporzionata che non potrebbe essere meglio finita se fatta al tornio, e non avrà mai quel che merita, se non porterà uno scettro. Meno indulgente l'ambasciatore veneto Giovanni Michiel, che lo vide l'anno dopo. Egli non solo abbassa il tono delle adulazioni, ma dà anche nel sarcastico, tutti i suoi valorosi istinti sono scomparsi, tanto si è abbandonato all'ozio, tanto le volutà dominano la sua vita, che se ne sta lontano da ogni esercizio, in maniera che tutti ne stupiscono. Passa quasi tutto il tempo con le signore, coperto di profumi e con i capelli arricciati. Si mette bucole alle orecchie e anelli di tutti i generi alle dita. Non si ha idea di quel che spende per la bellezza e l'eleganza delle camicie e degli abiti, affascina le signore in mille modi e soprattutto col dono di gioielli che gli costano somme enormi, di maniera che ne ottiene tutto quello che vuole CFR. Onemi, HFU con Dieresi RST, Caterina De Medici, Milano 1980, PP. 300 SG. Se si ha lo scettro in Francia, non c'è davvero bisogno di avere tante camicie o di agghindarsi come un faggiano per ottenere tutto dalle donne. Ad ogni modo riesce difficile vedere tanta dolcezza in chi fece trucidare il duca di Guisa, per non parlare dell'appoggio che Enrico Tredette alla madre nell'ordire la strage degli Ugonotti nella notte di San Bartolomeo. Fu una delle carneficine più orrende in nome del Dio cristiano. Il segretario dell'ambasciata spagnola scrisse, il sangue e la morte correvano per le strade. L'orrore era tale che nell'Uvr le loro maestà, che ne erano stati gli autori, non potevano difendersi dalla paura. Sentiamo anche la testimonianza di un pastore svizzero, tremo nel vedere il fiume pieno di cadaveri orrendamente sfigurati IBID, 263 SG. Ma non tremava Caterina, la quale arrivò a dire che quel massacro si era compiuto in difesa della vera fede e a gloria della Chiesa. Particolarmente feroce fu l'uccisione del vecchio ammiraglio Coligni. Dopo averlo pugnalato a tradimento, ne gettarono il corpo in una stalla. Ma poi andarono a riprenderlo, lo mutilarono, staccandogli la testa e le mani, lo trascinarono per le strade e alla fine lo appesero per un piede a una specie di forca, mentre la gente applaudiva e giubilava. Tutto ad maiorem dei gloriarti. Con tutti quegli odi, quei tradimenti e quegli eccidi, la corte di Parigi sembrava quella di Attila al tempo in cui vi furono massacrati i nivellunghi. Si è calcolato che le guerre di religione, che furono anche guerre civili, siano costate alla Francia circa un milione di morti. Ma chi potrebbe calcolare il numero delle vittime che in Europa e anche fuori dell'Europa furono immolate sull'altare del Dio cristiano. La Francia di quell'epoca si potrebbe definire un palcoscenico su cui la pestifera Erini, come Bruno chiama le guerre di religione, recitava una tragedia spaventosa. Il Bartolmes scrive, due confederazioni implacabili, due eserciti quasi selvaggi, la Lega e la Causa, Lorena e Navarra, dividevano la nazione più profondamente di quanto in passato l'Italia non fosse stata dilaniata dalla lotta tra l'impero e il clero. I papisti radevano al suolo i tempi degli ugonotti, gli ugonotti saccheggiavano le sacristie dei papisti, il sangue scorreva nelle città e nelle campagne, il fanatismo soffocava gli affetti della famiglia e della città, i preti scomunicavano a suon di campagne e con le candele spente sul suolo, i pastori tuonavano contro il fariseismo e l'idolatria Bartolmes 1846,1, p. 72. La notte di San Bartolomeo, tra il 23 e il 24 agosto del 1572, Enrico III non aveva ancora compiuto il ventunesimo anno di età. L'anno dopo cinse la corona di Polonia e infine nel 1574, alla morte del fratello Carlo IX, divenne re di Francia. Amava le arti e la poesia, le scienze e la filosofia. Anche se all'età di appena 18 anni si era battuto bene nelle battaglie di Yarnac e Moncontour, non aveva l'animo del soldato e cercava di governare più con la testa che con la spada. Accordando la libertà di culto e facendo delle concessioni ai protestanti, cercò di far convivere cattolici e ugonotti, i quali non pensavano che a scannarsi. E infatti ci fu una parentesi di pace. Ma poi le ostilità ripresero vigore. Niente è così difficile come mettere d'accordo quelli che si combattono per motivi religiosi, perché il loro fanatismo non conosce né tregua né ragione. Il re avrebbe voluto fare una vita tranquilla e coltivare i suoi studi. Si circondava di dotti e introduceva lui stesso il discorso sui vari argomenti. Inclinava alla malinconia, ma all'occasione sapeva essere gioviale ed espansivo. Il residente Veneto Girolamo Lippo Manocelo descrive come un uomo che scopre l'intenzione e animo suo, perdona e accarezza quelli che l'hanno grandemente offeso, è affabile e dolce, liberalissimo, anzi prodigo, dando tutto quello che ha, senza distinzione di persone S319. In modo particolare amava l'Italia, dove era nata sua madre, e gli italiani. La corte ne era piena, tanto che si parlava di italianizzazione della corte francese. Per lo più si trattava di artisti, di medici e di consiglieri, quale ad esempio il toscano Jacopo Corbinelli, che, come vedremo in seguito, fu anche amico di Giordano Bruno. La corte di Francia parlava italiano e lo stesso sovrano non voleva parlare altra lingua con gli ambasciatori di Firenze o di Venezia. Nella sua mente rimase sempre vivo il ricordo della grandiosa accoglienza che gli avevano fatta a Venezia nell'estate del 1574, durante il viaggio di ritorno dalla Polonia a Parigi. Appena saputo che era morto il fratello Carlo IX, si affrettò a togliersi la corona degli jaghelloni per mettersi quella, molto più importante, dei francesi. Prima, però, volle sostare a Venezia, città che lo affascinò, anzi lo stregò. L'arco di trionfo fu edificato dal palladio e decorato in chiaroscuro dal tintoretto. Pare che il sovrano si sia intrattenuto anche con Veronica Franco, l'amica di Tiziano. Non è pensabile che l'invito del re a Giordano Bruno sia sorto spontaneamente. Qualcuno deve aver fatto da tramite. Chi. Si è pensato all'ambasciatore veneto Giovanni Moro, cui il filosofo dedicò il De Compendiosa Architettura et Complemento Artis Lulli, pubblicato a Parigi nel 1582. Ma si può pensare anche ad altri personaggi ugualmente influenti, per esempio a Jean Regnault, che introdusse Bruno in casa di Henry d'Angouleme, gran priore di Francia e fratello naturale del re. Insomma qualcuno, dopo aver sentito le lezioni del filosofo, deve averne parlato a Enrico III, e questi, che aveva un grande interesse per tutto ciò che riguardava la filosofia e la mnemotecnica, volle conoscere di persona quel filosofo italiano che suscitava tanta curiosità. E ora immaginiamoci Bruno che, sicuro di sé e forte del successo tenuto con le sue lezioni, sale gli scaloni dell'Uve, dove lo aspetta il re in persona. Ma soprattutto immaginiamoci la scena dell'incontro, da una parte un monarca scettrato e coperto di orpelli, che con un cenno può mettere in ginocchio il mondo, dall'altra un ex frate Scarno e Mingherlino, che dal mondo ha ricevuto solo bastonate. Per il primo la filosofia era oggetto di curiosità o di passatempo, per il secondo era lo scopo supremo della vita. Il primo aveva il potere, che è tutto, il secondo aveva la verità, che nel mondo è sempre stata una moneta fuori corso. Eppure, una volta tanto, la filosofia trovò ascolto presso un re. Pare che Enrico III ricevesse il pomeriggio, e dobbiamo supporre che il suo colloquio con Bruno si sia protratto a lungo, perché dimostrare che la mnemotecnica non era per arte magica ma per scienza richiedeva un certo tempo e non si poteva esaurire con quattro parole. Sicuramente ci saranno stati altri colloqui. La mnemotecnica era una moda culturale e per Bruno anche una fissazione, che alla fine gli sarebbe costata cara. Resta il fatto che l'interesse da lui suscitato nella corte francese, dove molti credevano di poter conseguire un sapere enciclopedico con l'arte della memoria, fu dovuto proprio alle sue lezioni lulliano-mnemotecniche. Dopo quel colloquio quel colloquio, Bruno fece stampare il Deumbris Idearum e lo dedicò al re, e questi, che sicuramente era rimasto colpito dalla vivacità intellettuale del filosofo, lo nominò Lettor straordinario e provisionato. Così Bruno, sia pure con una formula straordinaria o temporanea, si ritrovò di punto in bianco nel Collège Royal, il futuro Collège di Francia, il cui orientamento era in netto contrasto con il conformismo aristotelico della Sorbona. Lettore reale o membro del gruppo dei Lecteurs Royaux, che successo e che fortuna, per il povero e nudo biante. Ora aveva una posizione che non solo gli permetteva di lavorare con serenità, ma lo metteva anche al riparo dai fulmini degli aristotelici e degli scolastici, di cui Parigi era la roccaforte. Finalmente vedeva riconosciuti i suoi meriti, e non deve far meraviglia che sciogliesse in idilode al suo alto benefattore, di cui divenne entusiastico e sincero ammiratore. Già nella dedica del Deumbrisi Dearum, la prima delle opere pubblicate a Parigi, egli chiama Enrico Tremagnanimo e a buon diritto degnissimo dello sequio di tutti i dotti. Più tardi, nella lettera proemiale alla Cena delle Ceneri, che è dedicata all'ambasciatore francese a Londra Michel de Castelnau, scriverà, a voi si consacra, che in questa Britannia rappresentate l'altezza di sì magnanimo, sì grande e sì potente re, che dal generosissimo petto dell'Europa, con la voce della sua fama, fa rintronar gli estremi cardini della terra oi, 1,17. Un altro solenne elogio di Enrico 3 si trova alla fine del terzo dialogo dello spaccio, questo re cristianissimo, santo, religioso e puro. Virgola. Ama la pace, conserva quanto si può in tranquillità e devozione il suo popolo di letto, non gli piacennò gli rumori, strepiti e fragori di instrumenti marziali che administrano al cieco acquisto di instabili tirannie e principati della terra, ma tutte le giustizie e santità di che mostrano il diritto cammino al regno eterno oi, 2, 826. Enrico 3 non meritava certamente lodi così sperticate e altisonanti, al limite della geografia, ma Bruno era sincero e, spinto dalla gratitudine, volle innalzare alle stelle il suo benefattore. Il naufrago è portato dalla sua stessa situazione a divinizzare la mano che lo soccorre. E il sovrano non solo aveva soccorso il filosofo, ma gli aveva anche aperto le porte della corte, dove si riunivano letterati e scienziati, compreso il vecchio Ronsard. Si è detto che Bruno, quando scriveva gli elogi che abbiamo appena citati, era ospite dell'ambasciatore francese a Londra e che dal ministro argomentava il re. In altre parole avrebbe riverberato su Enrico 3 la liberalità e la cultura dell'ambasciatore. Ma è una tesi che non regge, perché osannò il re anche prima di conoscere l'ambasciatore. Lo dice lui stesso nella dedica della cabala a uno scuro Don Sapatino, che lo spampanato identifica in Sabatino Savolino, parroco di una contrada vicina a Nola. La Bruno parla di re Enrico di Francia, il quale immortaleggio con l'ombre delle idee oi, 2, 842. Ma il Deum Brissidearum fu scritto e pubblicato ben prima del soggiorno londinese. Dunque l'alta stima per il sovrano era nata a Parigi e non a Londra. Per quanto altisonanti e di tirambiche, nelle lodi di Bruno ai suoi benefattori non c'è adulazione, ma solo gratitudine. Verso chi gli prestava un po' d'aiuto l'esule fo sempre prodigo di gratitudine, l'unica moneta di cui disponesse. Però non sapeva né fingere né adulare. Ora che aveva un lettorato retribuito e la protezione del re, avrebbe potuto farsi strada a corte e negli ambienti accademici, se fosse stato a corto e diplomatico. Ma non lo era, e così non fece carriera né alla corte di Enrico III né altrove. Del resto le corti, dove di regola si dice quello che non si pensa e si pensa quello che non si dice, sono l'ambiente meno adatto per un filosofo, specialmente per un filosofo come Giordano Bruno. Ciò che fa il vero filosofo, dice Schopenhauer, è il coraggio di non tenersi nessuna questione sul cuore. E Bruno ce ne dà l'esempio, pieno di slancio e senza mai badare alle conseguenze, egli scrive tutto ciò che egli detta il suo genio, anche a costo di crearsi un mare di nemici. Non ha paura e tira diritto alla meta. Nello spaccio, mette in bocca alla sollecitudine queste parole, via da me ogni torpore, ogni ocio, ogni negligenza, ogni desidiosa accidia, fuori ogni lentezza. Tu, industria mia, proponite avanti gli occhi della considerazione il tuo profitto, il tuo fine. Rendi salutifere quelle altrui tante calunnie, quelli altrui tanti frutti di malignità ed invidia, e quel tuo ragionevole timore che ti cacciaro dallo tuo natio albergo, che ti alienaro dagli amici, che ti allontanaro dalla patria, e ti bandirò a poco amichevole contrade. Fa, industria mia, meco glorioso quello essiglio e travagli, sopra la quiete, sopra quella patria tranquillitade, commoditade e pace. Su, diligenza, che fai? Perché tanto ociamo e dormiamo vivi, se tanto dobbiamo ociare e dormire in morte. E ancora, animosità, con la voce del tuo vivace fervore, quando la difficoltà mi preme, oltraggia, e resiste, non mancar sovente d'intonarmi all'orecchio quella sentenza, tu ne cede malis, sed contraudentiorito, o i, 2, 715 sg. Sì, le parole che la Sibilla Comana aveva dette ad Enea potevano servire di viatico anche a lui, che sicuramente presentiva di andare incontro a un destino tragico. Ma rimase sempre impavido e tirò diritto per la sua strada, come il cavaliere di cui parla Nece nella nascita della tragedia, qui un solitario sconsolato non potrebbe scegliere un simbolo migliore del cavaliere con la morte e il diavolo, come lo ha disegnato Diukon Dieresirer, il cavaliere con la corazza, dal duro sguardo di bronzo, che, incurante dei suoi orridi compagni e tuttavia senza speranza, sa prendere la sua terribile via, solo con il destriero e il cane. Un tale cavaliere dureriano fu il nostro Schopenhauer, gli mancò ogni speranza, ma volle la verità. Non c'è un suo pari e fenice, essa con Dieresimtliche werke, critische studien ausgabe in 15b a con Dieresimtdein, di tv 1980, i, 147. E invece sì, Giordano Bruno somiglia al cavaliere di Diukon Dieresirer molto più di Schopenhauer. A Parigi, nel 1582, pubblicò anche Il Candelaio, che Jean Rocchi definisce un superboatto di rottura con i poteri dei pedanti, dei ciarlatani e del danaro. La commedia è ambientata nella Napoli di quel secolo, ma i tipi e vizi su cui l'autore fa fischiare la sua sferza si possono trovare in qualsiasi secolo, perché l'uomo è sempre uguale a se stesso. Quando mai il mondo è stato privo di imbecilli o di pedanti come quelli raffigurati in questa commedia? Nella storia della letteratura italiana, Francesco de Sanctis scrive, La scena è in Napoli, la materia è il mondo plebeo e volgare, il concetto è l'eterna lotta degli sciocchi e dei furbi, lo spirito è il più profondo disprezzo e fastidio della società, la forma è cinica. Però nega valore artistico alla commedia, che altri invece trovano bellissima, anche se era un grande critico, de Sanctis incorreva in errori clamorosi. Più calzante il giudizio che del candelaio da Luigi Settembrina nelle sue lezioni di letteratura italiana, l'ardito filosofo, che doveva rovesciare tutta la scienza del suo tempo, incominciava a riderne prima, e il suo riso è terribile. Suoi motti levano la pelle come acqua bollente. I filistei e i bigotti trovano osceno o almeno troppo crudo il linguaggio del candelaio, ma, a parte che tale linguaggio ha un preciso scopo di eversione, va detto che l'oscenità di certe espressioni viene neutralizzata o desemantizzata dalla loro comicità. Così le parole perdono il loro significato originario e, anziché urtare, muovono al riso. Ma poi la meno autorizzata a scandalizzarsi è la chiesa, visto che il candelaio non ha niente da invidiare, in fatto di scurrilità, alla calandra, la commedia del cardinale Bibbiena che fu recitata in Vaticano alla presenza di Leone X. Oltre a un intento letterario, la commedia ne ha anche uno filosofico, che viene enunciato nella dedica, il tempo tutto toglie e tutto dà, ogni cosa si muta, nulla sannichila, è un solo che non può mutarsi, un solo è eterno, e può perseverare eternamente uno, simile medesimo. Con questa filosofia l'animo mi si aggrandisce, e me si magnifica l'intelletto. Però, qualunque sia il punto di questa sera che aspetto, sì la mutazione è vera, io che son nella notte, aspetto il giorno, e quei che son nel giorno, aspettano la notte, tutto quel che, o è qua o è là, o vicino o lungi, o adesso o poi, o presto o tardi. Qui c'è già il nocciolo della sua filosofia. L'eterno fluire delle cose nel mondo fenomenico sarà un tema costante nella speculazione filosofica di Bruno, così come lo sarà l'idea della metempsicosi, cui pure accenna nella dedica. Ciò che non muta mai ed è eterno è il principio metafisico, di cui il mondo fenomenico è solo un'ombra o un riflesso. Il candelaio è dedicato a una certa signora Morgana B., forse una donna di nola amata da Bruno negli anni giovanili, come suppone lo spampanato. Ma quando fu scritto. Pur tenendo conto della vulcanica attività del filosofo, sembra impossibile che egli, in un anno, abbia potuto scrivere il De umbris idearum, il De compendiosa architettura et complemento, il Cantus Circaeus e il Candelaio, tutte opere pubblicate a Parigi nel 1582. Molto probabilmente gli incominciò a scrivere la commedia già in Italia e la portò a termine a Parigi, dove, nella prima estate di quell'anno, fu scritta anche la lettera dedicatoria. Lo si deduci dalle parole, a chi inviarrò quel che dal serio influsso celeste, in questi più cuocenti giorni, ed ore più lambiccanti, che di conto aniculari, mi han fatto piovere nel cervello le stelle fisse, le vaghe lucciole del firmamento mi han crivellato sopra, il decano dei dodici segni ma ha balestrato in capo, e nell'orecchia interna mi han soffiato i sette lumi erranti. Sirio in flusso sta per influsso di Sirio, la stella principale della costellazione del Cana Maggiore, in cui il sole resta dal 24 luglio al 26 agosto. Nel Candelaio, come più tardi nella Cena delle Ceneri, Bruno si rivela anche un grande scrittore satirico. Ma ora vediamo come egli parla di se stesso nella commedia. Già nel titolo si definisce accademico di nulla accademia detto il fastidito. Intristitia hilaris, in hilaritate tristis. Poi, nell'antiprologo, l'autoritratto, l'autore, si voi lo conosceste, direste cave una fisionomia smarrita, par che sempre si in contemplazione delle pene dell'inferno, parsi stato alla pressa come con le barrette, berrette, un che ride solo per far come fan gli altri, per il più lo vedrete fastidito, restio e bizzarro, non si contenta di nulla, ritroso come un vecchio d'ottanta apostrofo anni, fantastico come un cane che ha ricevute mille spellicciate, bastonate che gli hanno tolto il pelo, pasciuto di cipolla. Qui c'è dell'ironia, e molto amara. E non occorre dire che la cipolla, oltre a essere simbolo di povertà, fa anche piangere. Ma Bruno non piangeva, anche se avrebbe avuto tutti i motivi, e giocava con il proprio destino. Di cui l'ironia su se stesso nei versi di esordio del candelaio, e peggio, converrà forza a megramo mostrar scoperto alla signora mia il zero e menchia come il padradamo, quando era buono dentro sua badia. Una pezzentaria di braghe mentre chiedo, dalle valli veggio montar gran furia di cavalli. In altri termini, oltre a non aver di che coprirsi le pudenda, egli si sentiva minacciato. Da chi? Ma dai pedanti. È soprattutto nel De Umbris Idearum che affiorano già alcuni temi della sua filosofia, non possiamo conoscere direttamente la verità e le nostre idee sono solo ombre dell'idea eterna. La verità è metafisica, non fisica. Le nostre idee possono essere pensate solo se rivestite di forme adeguate alla nostra conoscenza. Tuttavia le ombre delle idee, che stanno tra la luce e le tenebre, ci permettono di cogliere l'unità nella pluralità, perché dietro i fenomeni c'è un principio metafisico ed eterno. Bruno scrive, una sola cosa è quella che definisce tutte le cose, uno solo è lo splendore della bellezza in tutte le cose, un solo fulgore luccica dalla moltitudine delle specie G. Bruno, le ombre delle idee, Milano 1988, p. 115. Il tutto è nell'uno e l'uno è nel tutto, perché uno solo è il corpo dell'ente universale, uno solo l'ordine, uno solo il governo, uno solo il principio e una sola la fine, uno solo il primo e uno solo l'ultimo ibid, p. 65. Così cadono le girarchie, perché tutto ciò che vive, avendo la stessa origine, anche pari dignità e valore. C'è musica platonica e neoplatonica, in questo trattato, ma vi si avverte anche un certo sapore di filosofia indiana. A differenza di Platone, però, che non stabili idee delle singole cose, ma solamente della specie, Bruno ammette le idee delle singole cose ibid, p. 125. È interessante rilevare che qui, per la prima volta, l'autore accarezza l'idea di essere uno dei mercuri inviati dagli dèi, la provvidenza degli dèi, lo dissero i sacerdoti egiziani, non smette di mandare agli uomini alcuni mercuri in certi tempi stabiliti, benché sappiano in anticipo che questi non saranno accolti per niente o saranno accolti male i bid, p. 35. E infatti i mercuri, ossia i messaggeri della verità, non hanno mai avuto buona accoglienza in questo mondo di oscurantisti, e Schopenhauer ha perfettamente ragione nel dire, chi è venuto al mondo per istruirlo seriamente nelle cose più importanti può dirsi felice se la fa Franca una class cit, 4, 2, p. 1. Ma il Bruno mercurio che piomba a Parigi reca non già il caduceo, bensì la sferza, i cui schiocchi risuonano già nel Deumbre Siderum. Il filosofo, che parla per bocca di Filotimo, dice che egli non appartiene alla schiera di coloro che, raccogliendo insieme di qua e di là i pensieri degli altri, per ottenere l'immortalità a spese altrui, si mettono nel numero degli autori che lavorano per i posteri e, come la maggior parte di coloro, si presentano dottori di quelle discipline di cui non hanno certamente alcuna conoscenza e comprensione, e per giunta molte volte non possono evitare, dopo essersi adattata addosso alla meglio la pelle del leone con le invenzioni degli altri, di rientrare abbastanza spesso nella propria pelle e infine forzare la voce, quando lanciano qualcosa fuori dal loro fiacco Marte, poiché è facile aggiungere alle invenzioni altrui, o gettano fuori qualcosa dalla deficienza di una stupida sensibilità. Quelle cose sono gli arieti delle incapacità oratorie, le catapulte degli errori, le bombarde delle sciocchezze, e i tuoni, i lampi, le folgori e le grandi tempeste delle ciocaggini, ibid, p. 47. Sono scudisciate. Ma una volta tanto, forse perché ispirato da Mercurio, Bruno ebbe l'accortezza di non fare i nomi dei dottoroni e degli arcimaestri presi di mira, si limitò ad addombrarli, quei pedanti o tromboni che fossero, con appellativi strani e bizzarri quali Farfacon, Bobus, Corpoforos, Berling, Scoppe, Clister e via fantasticando. Tuttavia qualcuno dovette riconoscersi ugualmente, senza contare che lo stesso Bruno non seppe resistere a lungo alla tentazione di rivelare i veri nomi di coloro che aveva sferzati. Nel dicembre del 1585, durante il secondo soggiorno parigino, ne rivelò alcuni al bibliotecario Cotin, doc. Paragrafo 3, ma è probabile che li abbia svelati anche ad altri, magari subito dopo l'uscita del libro. La prudenza non era il suo forte. Umbra profunda sumus, ne nos vexeti sinepti. Non vos, se i doctos tam grave quaeritopus, così si legge nel frontespizio del Deum Brissidearum. E con diè resi l'avvertimento che l'autore rivolge a chi si appresta a leggere l'opera, ombra profonda siamo. Non tormentateci, o inetti, non voi richiede un'opera così seria, ma i dotti. Non tutti possono cogliere l'aspetto eterno nel divenire, il noumenico nel fenomenico, il principio metafisico che si nasconde negli individui che si alternano sulla scena del mondo. Per questo il libro non è per nulla accessibile a tutti con i suoi pensieri. Consapevole della propria superiorità intellettuale, l'autore mette in bocca a Filottimo queste parole, è turpe, disse Aristotele, essere solleciti a rispondere a chiunque faccia domande, i buoi muggiscano ai buoi, i cavalli nitriscano ai cavalli, gli asini raglino agli asini i bid, p. 45. Questa è un'eccellente massima di saggezza, ma Bruno, disgraziatamente per lui, non vi si attenne mai. Il suo carattere impulsivo e passionale glimpidiva di tradurre in pratica di vita la saggezza che egli elaborava con la mera riflessione razionale. Così, anziché tenersi filosoficamente in disparte e lasciare che gli asini ragliassero agli asini, si cacciava nella mischia. Quando poi si rendeva conto che gli asini erano proprio asini, li sferzava. Ma anche gli asini, all'occasione, tirano calci, specialmente se si tratta di asini accademici, Bruno ebbe a farne lunga esperienza. La sua voce e le sue teorie steccavano troppo forte nel coro dei ragli, e quindi i quadrupedi universitari scalciavano per allontanarlo. Lichtenberg, che non sopportava agli olandesi, scrisse che l'asino gli faceva l'impressione di un cavallo tradotto in olandese. A maggior ragione Bruno avrebbe potuto dire che il raglio è un nitrito in chiave accademica. Nonostante tutto, però, si ha motivo di credere che il suo primo soggiorno parigino, grazie alla protezione del re e anche di qualche eminente personaggio della corte, sia trascorso in modo relativamente tranquillo per una natura tempestosa come la sua. Ma poi il cielo di Parigi si rannuvolò di nuovo ed egli fu ripreso dal demone della vita e rabbonda. Stava iniziando la reazione dei cattolici, che degli a due anni avrebbero costretto Enrico III a revocare gli editti di pacificazione con i protestanti. La pace sottoscritta il 14 dicembre del 1580 stava per finire, e Bruno dovette forse annusare nell'aria qualche pericolo per la sua incolumità. Già nella compendiosa architettura egli aveva chiesto all'ambasciatore Giovanni Moro, cui l'opera era dedicata, aiuto contro quelli che avrebbero potuto calumniare le sue teorie. Di sicuro si riferiva agli accademici aristotelici, il cui livore doveva essere particolarmente velenoso. Ad essi è forse rivolto anche ciò che dice Filotimo nel Deum Bris Dearum, l'inchiostro di seppia aggiunto alla lucerna fa sembrare etiopi gli uomini, così pure una mente corrotta da livore giudica turpi anche le cose che sono indubbiamente belle. Tutto dipende da come le cose si riflettono nella nostra testa. Combattersi e scannarsi in nome di Dio, che follia! Bisognava cambiare aria e dirigersi verso altri lidi. Enrico Tre lo aiutò di nuovo e allora comandò al suo ambasciatore a Londra. Così Bruno abbandonò le rive della Senna per quelle del Tamigi, che per lì tumulti che nacquero dopo, pigliai le cenze e con i littere dell'istesso re andai in Inghilterra a star con l'ambasciatore di sua maestà, che si chiamava il signor della Malvicera, per nome Michel de Castelnovo, in casa del quale non faceva altro, se non che stava per suo gentilomo. E me fermai in Inghilterra doi anni e mezzo, né in questo tempo, ancora che si dicesse la messa in casa, non andavo, né a casa, né fuori a messa, né a prediche, per la causa sudetta. E tornando il detto ambasciatori in Francia alla corte, l'accompagnai a Paris, dove stetti un altro anno, trattenendomi con quelli signori che io conoscevo, a spese peromi e la maggior parte del tempo, doc. Ven. 9. Ora è possibile seguirlo meglio, perché abbiamo un documento che ci consente di datare con sufficiente approssimazione il suo arrivo in Inghilterra. Il 28 marzo del 1583 l'ambasciatore inglese a Parigi, Henry Cobham, mandò questo dispaccio a Francis Vasingham, primo segretario del Regno d'Inghilterra, intende venire in Inghilterra il signor dottore Giordano Bruno Nolano, un professore di filosofia, la cui religione io non posso raccomandare. Questo è proprio un giudizio da ambasciatore. E la filosofia? Ma non aspettiamoci che gli ambasciatori sappiano anche spiare i pensieri di un filosofo. Essi si sono sempre sentiti piuttosto a disagio sui sentieri del Parnaso e questo spiega perché il Cobham, parlando di Bruno, si limitasse all'aspetto religioso. Sicuramente avrà saputo che il filosofo era uscito dalla religione e che il suo insegnamento era tutt'altro che ortodosso, come dimostravano i suoi conflitti con gli ambienti accademici. Fatto sta che quel dispaccio, diretto al segretario della Regina e insieme capo dello spionaggio, non era una buona segnalazione per l'ignaro filosofo. Siccome in Francia, all'inizio del 1583, era entrato in vigore il calendario gregoriano, la data del dispaccio di Cobham va spostata dal 28 marzo al 7 aprile. È un piccolo particolare di cui va tenuto conto. I biografi concordano nel dire che Bruno sbarcò in Inghilterra nella primavera del 1583, ma quando, esattamente, non lo sappiamo. Di sicuro c'è che tra il 10 e il 13 giugno egli si trovava a Oxford, al seguito del conte palatino Albert Lasky. Si può ragionevolmente supporre che sia passato un po' di tempo tra la segnalazione dell'ambasciatore Cobham e la partenza, e che Giordano Bruno sia arrivato verso l'inizio di maggio o alla fine di aprile del 1583. Da una corte all'altra, molti si sono chiesti perché il filosofo abbandonasse Parigi, dove aveva uno stipendio sicuro come lettore reale e dove poteva contare sulla protezione di Enrico III, per trasferirsi in Inghilterra. Pensare a una qualche segreta missione diplomatica affidatagli dal sovrano, come fa la studiosa francesa Iates, significa lavorare un po' troppo di fantasia. Bruno era la persona meno diplomatica che si potesse immaginare, ed è da escludere che il re se ne servisse per compiti che richiedevano tatto, accortezza e flessibilità. Semmai egli era adatto per seminare scompigli, non per cercare accordi. Giustamente Gentile dice che Bruno non fu uomo pratico, neppure per propagandare le sue idee. Figuriamoci quelle degli altri. Come pensare, dunque, che la corte di Francia affidasse proprio a lui una qualche delicata missione diplomatica. Ma la Iates è di diverso parere e ritiene possibile che sia stato proprio Enrico III a mutare il corso della vita di Bruno, inviandolo in missione in Inghilterra e trasformandolo da mago errante in un singolarissimo tipo di missionario Iates 1989, p. 227. Mago e missionario? Ma Bruno era un filosofo, non uno stregone o un imbonitore di folle. Una testa ingegnosa mette in giro una trovata e mille teste bislacche la ripetono, è proprio ciò che ha fatto la Iates con questa storia del mago e del missionario. I cosiddetti scritti magici di Bruno sono in realtà opere di filosofia, anzi di ignoseologia. Quanto al resto, Bruno stesso, come s'è visto, dice che si allontanò da Parigi per lì tumulti che nacquero. Dirà la stessa cosa anche in seguito, quando abbandonerà Parigi per la seconda volta. Forse quei tumulti vanno intesi come proteste suscitate nel mondo accademico dal suo insegnamento così poco convenzionale. Per evitare ulteriori contrasti in attesa che il clima cambiasse, il re potrebbe averlo mandato presso il proprio ambasciatore a Londra. Una proposta molto allettante, per il nostro filosofo, sempre così curioso di conoscere nuova gente e nuovi cieli. Ma è anche probabile che per tumulti Bruno intendesse le discordie religiose che stavano riprendendo vigore. Nulla lo inorridiva come le guerre di religione, le più assurde di tutte, e la Francia, in diciotto anni, ne aveva avute sette. Come già a Tolosa, da cui era fuggito, egli fiutava nuovamente aria di guerra. Gli animi erano avvelennati e la reazione cattolica, che in seguito avrebbe costretto il re a revocare gli editti di pacificazione con i protestanti, si stava mettendo in moto. Il clero si apprestava a chiedere l'applicazione, rigida e integrale, di tutti i provvedimenti dottrinari stabiliti dal concilio di Trento. Il sangue versato nella notte di San Bartolomeo non era evidentemente bastato, all'orizzonte si profilavano di nuovo segni funesti. Sotto quel cielo che faceva la faccia corrucciata, il filosofo deve aver avvertito la precarietà della propria esistenza, oltre che apostat dal cattolicesimo, egli si era compromesso con i calvinisti di Ginevra, senza contare che a Parigi era ormai noto per le sue idee non ortodosse. Stando così le cose, non deve far meraviglia che egli sentisse il bisogno di cambiare cielo, cosa che del resto si accordava perfettamente con la sua natura irrequieta. D'altra parte egli viveva solo per la filosofia e per questo aveva bisogno di tranquillità. Chissà, forse avrebbe potuto trovarla in Inghilterra, che molti allora descrivevano come un paese tranquillo. E Bruno partì con la benedizione di Enrico III, contento a sua volta di liberarsi per qualche tempo di quel filosofo Guastafeste cui aveva si accordato la sua protezione, ma che ora poteva riuscirgli scomodo. Michel de Castelnau era ambasciatore a Londra dal 1575. Nato intorno al 1520, aveva trascorso gli anni della giovinezza nei viaggi e negli studi, ma si era anche distinto come uomo d'arme, militando fra l'altro negli eserciti del Piemonte e della Toscana, nonché nelle flotte di Malta e della Corsica. Anche il padre di Bruno era un uomo d'arme, e chissà che questo non abbia contribuito alla benevolenza dell'ambasciatore per quel filosofo ramingo. Ma soprattutto Castelnau si distinse nei maneggi diplomatici, e non solo al servizio di Enrico III, ma anche di Enrico II, di Francesco II e di Carlo IX. Aveva svolto compiti diplomatici in diversi luoghi, fra cui Roma e Torino. Era anche un uomo di penna, tanto che alcuni lo vorrebbero più interessato alle lettere che alla diplomazia. Aveva molti amici tra la fauna intellettuale francese, a cominciare da Ronsard. Era cattolico, però tollerante e per nulla fanatico. Prima di essere nominato ambasciatore a Londra, anzi in coincidenza con tale nomina, aveva sposato Marie Bottel, di oltre trent'anni più giovane di lui. A gatto vecchio sorcio tenerello, direbbe Bruno. I loro quattro figli, due maschi e due femmine, nacquero tutti a Londra. Fa onore a Castelnau l'aver offerto all'esule italiano una calda ospitalità, permettendogli così di concentrarsi su suoi pensieri e di scrivere i suoi capolavori. Quello fu, per il filosofo, il periodo più fecondo. Secondo Spampanato, Bruno si sarebbe stabilito in casa dell'ambasciatore a partire dall'estate del 1583, ma altri non sono dello stesso parere. Sentiamo Aquilecchia, al suo arrivo in Inghilterra, nell'aprile del 1583, Bruno prese dimora a Londra, e non proseguì, come vorrebbe invece lo Spampanato, direttamente per Oxford, andando ad alloggiare presso l'ambasciatore francese Aquilecchia 1971, p. 28. Infatti, come pensare che egli sia andato a Oxford prima ancora di aver consegnato al Castelnau le littere che gli aveva date Enrico III? Oggi, grazie a nuovi documenti venuti alla luce, possiamo seguire meglio gli spostamenti di Bruno tra Londra e Oxford durante i primi mesi del suo soggiorno inglese. È probabile che egli fosse al seguito del Castelnau quando questi, all'inizio di giugno del 1583, incontrò il conte polacco Albert Laschi, giunto anche lui a Londra nella primavera di quell'anno. Se non pazzo, come lo riteneva Enrico III, Laschi doveva essere quanto meno stravagante. Basta vederne il ritratto, aveva l'aspetto di un fauno o di un brigante, con due enormi baffoni a forma di cavatappi. L'incontro avvenne nel palazzo reale di Greenwich, e se Bruno era presente, come si suppone, vide per la prima volta la regina Elisabetta. Di sicuro sappiamo che egli faceva parte del gruppo che pochi giorni dopo accompagnò il Laschi a Oxford. Chi lo aveva invitato? Molto probabilmente Philip Sidney, che guidava la comitiva. Di lui, come s'è detto in precedenza, Bruno aveva già sentito parlare a Milano, ma non è escluso che l'avesse anche conosciuto. Se così fesse, potremmo capire meglio il desiderio del filosofo di andarsene in Inghilterra. I due erano fatti per intendersi. Ma della loro amicizia parleremo dopo. Dunque Bruno si recò a Oxford al seguito del conte Laschi e di Philip Sidney, il più raffinato dei cortigiani di Elisabetta e. Ma poteva, il nostro filosofico Gian Burrasca, trattenersi dal mettere a rumore anche gli ambienti accademici di Oxford? Certamente no. E infatti, sebbene non fosse tra gli oratori designati, sostenne pubblici dibattiti con il teologo John Underhill e con altri parrucconi di quella celebre università, agitandosi come una mangusta dialettica. In una postilla dell'umanista Gabriele Marginalia, a cura di G. M. Smith, Stradford dopo Navon 1913, p. 156, si legge, Giordanus Neapolitanus, Oxonii disputans cum doctore Underhill, tam in teologia, cam in filosofia, omnia revoca bat in locus topicos, et axiomata Aristotelis, atque in dedequavis materia promptissime argue bat. Traduciamo, il napoletano Giordano, disputando a Oxford con il dottor Underhill, sia in teologia che in filosofia, riportava tutto ai luoghi topici e agli assiomi di Aristotele, e di qui, con grande prontezza, argomentava su qualsiasi materia. Quel promptissime dice già tutto sulla scaltrezza dialettica di Bruno. Più che di una disputa si trattò di una tenzone, anzi di uno scontro. Lo si deduce da ciò che ne dice lo stesso Bruno nella cena, questi sono i frutti d'Inghilterra, e cercatene pur quanti volete, che li troverete tutti dottori in grammatica in questi nostri giorni, nei quali in la felice patria regna una costellazione di pedantesca ostinatissima ignoranza e presunzione mista con una rustica inciviltà, che farebbe prevaricar la pazienza di Giobbe. E se non il credete, andate in Oxonia, e fatevi raccontar le cose intravenute al Molano, quando pubblicamente disputò con cui dottori in teologia in presenza del principe alasco polacco ed altri della nobiltà inglesa. Fatevi dire come si sapeva rispondere agli argomenti, come restò per quindecisillogismi quindecisvolte qual pulcino entro la stoppa quel povero dottor, che, come il corifeo dell'Accademia, ne puosero avanti in questa grave occasione. Fatevi dire con quante inciviltà e discorte sia procedè a quel porco, e con quanta pazienza ed umanità a quell'altro, che infatto mostrava essere napolitano nato ed allevato sotto più benigno cielo, o i, i, 133. Riesce piuttosto difficile immaginarsi Bruno pieno di pazienza, ma sorvoliamo. Il Laschio alasco si fermò a Oxford dal 10 al 13 giugno del 1583, e fu appunto in uno di quei giorni che Bruno si scontrò con il teologo Underhill, definito senza mezzi termini porco. È un epiteto poco adatto a un interprete di Dio, ma chi può escludere che tra i teologi ci siano anche dei porci? Tutto si svolse nella University Church of St. Mary T. Virgin, detta più semplicemente St. Mary. Tranne qualche rimaneggiamento, la Chiesa è rimasta come era allora. Ne riparleremo. Non è arrischiato pensare che Francis Vasingham, sulla base del dispaccio ricevuto dall'ambasciatore inglese a Parigi, avesse prevenuto i dottori di Oxford contro Bruno e le sue idee. Ciò aiuterebbe a spiegarci meglio l'ostilità che il filosofo incontrò fin dal primo momento in quella città universitaria. Dopotutto Vasingham era anche capo dello spionaggio e avrà pure voluto tener d'occhio un personaggio che aveva idee religiose poco raccomandabili. Insomma, per ripetere le parole dell'ambasciatore Henry Cobham, un professor di filosofia, la cui religione io non posso raccomandare. Per i bigotti puritani inglesi, questo non era un buon passaporto. E di fatti le ostilità furono molte, a Oxford come a Londra. Quanto al teologo Underhill, sarà stato pure un porco inadatto a competere in filosofia, però sapeva navigare bene nella carriera, tanto che di lì a poco fu nominato vice-cancelliere dell'Università Oxoniense. E Bruno voleva ottenere una cattedra proprio a Oxford? In Genuo. Dopo quel primo assaggio poco promettente, egli ritornò a Londra, probabilmente con il Sydney, e pubblicò tre opere latine, tra cui l'explicatio Triginta Sigillorum, in alcuni esemplari della quale inserì la famosa lettera al vice-cancelliere dell'Università di Oxford. Ma quando la scrisse, esattamente, quella lettera. A giudicare dal tono, forse dopo aver fatto altre brutte esperienze a Oxford. Se ne veda la traduzione completa, fatta da Ludovico Limentani, in Sofia i, 1933. Sunteggiamo. La lettera è altisonante e fa l'effetto di una sfida. Bruno si presenta come dottore in una teologia meglio elaborata e professore di una sapienza innocua e più pura. Dice di non sentirsi straniero in nessuna parte, tranne che presso gente barbara ignobile. Attesta in suo amore per gli uomini in generale, senza distinzione tra italiano e inglese, maschio e femmina, mitrato e incoronato, uomo di toga e uomo d'arme, uomo cocollato e uomo non cocollato, però ama soprattutto chi nelle relazioni sociali si manifesta più pacifico, civile, fedele e utile. Egli guarda, là dove può scorgersi il volto del vero uomo, all'anima e alla cultura dell'intelletto. Detesta invece quelli che, senza studiare, si spacciano per dotti. Dice di temere una così fatta genia più della morte e sottolinea la natura della propria filosofia. Ma attacca anche, più o meno direttamente, l'ambiente puritano. E conclude, non vorrei intanto che, a quel modo che, in tempo di inondazione, gli stronzoli degli asini dissero agli aurati frutti, siamo anche noi pomi che galleggiano, così a qualsiasi stolto e asino sia ora lecito di farsi avanti, ragliando, alle nostre tesi presentate qui e altrove, in questa o in altra maniera. Se però ci sono alcuni di tal titolo, degnità e capacità da essere in qualche modo ritenuti non indegni di venire alle prese con noi, e ai quali noi possiamo replicare senza disdoro del nostro Stato, troveranno dispostissimo e prontissimo un uomo, con il quale potranno saggiare la misura delle proprie forze. Questa lettera, con la quale Bruno chiedeva in sostanza di poter insegnare a Oxford, è stata variamente interpretata. Per quelli che, come gli accademici e i professori, sono abituati ai salamelecchi e alle incensature di rito, essa suona bizzarra e vanagloriosa. Per altri, essa è un colpo di gran casa o uno squillo di tromba. Ma tutti concordano nel dire che quello non era il modo migliore per chiedere una cattedra. Ci voleva più modestia o almeno più accortezza. Sarà anche vero, ma qui viene in mente Goete, il quale dice che solo gli straccioni sono modesti. Il genio ha tutto il diritto di essere superbo e di avere un'alta coscienza di sé. Ci mancherebbe altro, rispose Schopenhauer a chi lo accusava di superbia, che io fossi un genio e non me ne accorgessi. E non parliamo di Nice, che detronizzò Dio per mettere sé stesso al suo posto. Dopotutto Bruno, il teorizzatore dei mondi infiniti, una specie di astronauta dello spirito, si limitò a scrivere che era dispostissimo a discutere le sue tesi, però con avversari che fossero alla sua altezza e non con gli stronzoli degli asini che pretendevano di galleggiare insieme con gli aurati frutti, vale a dire con le mele, immagine usata anche da Lutero contro i propri nemici. Sembra incredibile, ma la lettera ebbe l'effetto desiderato, perché Bruno, nell'estate del 1583, iniziò a Oxford un corso di lezioni. Se però si pensa a ciò che seguì, viene quasi da pensare che gli avessero teso una trappola. Infatti fu subito costretto a interrompere le lezioni, e in malo modo per giunta. Lo si arguisce chiaramente dal passo già citato della cena, dove il filosofo, dopo aver parlato dell'inciviltà di quel porco di Onderil, continua dicendo, informatevi come gli han fatte finire le sue pubbliche letture, e quelle dei immortalità ti animai, e quelle dei quintuplici sfera. È evidente che egli si riferiva non solo al primo, ma anche al secondo soggiorno a Oxford. E fin qui è sempre Bruno che parla. Esagerava? Non proprio. Quanto gli fossero ostili i dottori di quella università lo si può capire dalle astiose parole di George Abbott, segnalate nel 1960 da Robert McMulti. Nel 1583 George Abbott, futuro arcivescovo di Canterbury, si trovava a Oxford come membro del Balliott College e avrebbe assistito alla scena descritta, vent'anni dopo, in un suo libro dal titolo chilometrico, Terea Sonsvich Doctori Latbroud eccetera eccetera, 1604. Ed ecco la sua testimonianza, piena di boria e di sufficienza, quando quell'omiciattolo italiano, che si autodefiniva Filoteus Jordanus Bruns Nolanus, magis elaborata teologia doctor, eccetera, a margine, praefat, in Explicatio Triginta Sigillorum, con un nome certamente più lungo del suo corpo, visitò nel 1583 la nostra università al seguito del duca polacco Alasco. Non stava nei panni per il desiderio di compiere qualche memorabile impresa, di divenire famoso in quel celebre Atenneo. Ritornandovi non molto tempo dopo, quando, con molta più audacia che saggezza, ebbe occupato il posto più alto della nostra migliore e più famosa scuola, rimboccandosi le maniche come un giocoliere e facendoci un gran parlare di Chentrum e Chirculuse e Circunfernquia, tale è infatti la pronuncia del suo paese natio, egli intraprese il tentativo, fra moltissime altre cose, di far stare in piedi l'opinione di Copernico, per cui la terra gira, e i cieli stanno fermi, mentre, in realtà, era piuttosto la sua testa che girava, e il suo cervello che non stava fermo. Quando egli ebbe finito la sua prima lettura, un uomo grave, che occupava allora, come tuttora occupa, una posizione eminente in quella università, ebbe l'impressione di aver letto da qualche parte quelle stesse cose che il dottore stava esponendoci, ma, tenuto per sé il suo sospetto, quando ascoltò la seconda lezione di Bruno gli sovvenne di che cosa si trattava, e recatosi nel suo studio, trovò che sia la prima sia la seconda lettura erano state tratte, quasi parola per parola, dalle opere di Marsilius Ficin, a margine, De Vita Coelitus Comparanda. Dopo che egli ebbe messo al corrente della cosa quel raro ed eccellente ornamento della nostra terra, colui che ora è vescovo di Durham, ma allora era diacono della Chiesa di Cristo, si pensò, dapprima, di render noto all'illustre lettore quanto avevano scoperto. Ma colui che per primo aveva contribuito ad accertare la verità, più saggiamente propose di metterlo alla prova ancora una volta, e se egli avesse continuato a prendersi gioco di lui, e di tutto l'uditorio, per la terza volta, allora avrebbero agito a loro piacimento. E poiché Jordanus continuava ad essere idemi Jordanus, essi gli fecero sapere attraverso una certa persona che avevano già avuto troppa pazienza nei suoi riguardi e che egli li aveva già abbastanza infastiditi, e così, con grande onestà da parte di quell'ometto, la questione ebbe termine, Iates 1989, pp. 231 sg. Così parlano e calunniano i futuri arcivescovi di Canterbury. Qui il vero giocoliere o il vero pataccaro è la bot, che ci dipinge la scena più con la bava del suo livore calvinista che con la tavolozza della realtà. Che fosse una persona falsa lo dimostra anche il suo comportamento con il filosofo Giulio Cesare Vanini, di cui abbiamo già parlato. È strano che i biografi non abbiano messo nel dovuto risalto l'analogia fra le vicende di Bruno e quelle di Vanini anche in questo, tutti e due incrociarono nel loro cammino la bot, il quale doveva essere un vero uccello di malaugurio. Più che benedizioni, come ci si sarebbe dovuto aspettare da un uomo di chiesa, egli dispensava maledizioni. Cecurie Wuxabbot, archeveque dei Canterbury, così lo chiama Emile Namer nell'introduzione al suo libro Documents er la vie dei Jules Cesare Vanini de Taurisano, Bari 1965. 65. E doveva anche essere un nottolone, perché allibì nel sapere che Vanini aveva con sé le opere di Aretino e di Machiavelli o Macciavelli, come scriveva lui. Una ragione in più dunque per imprigionare il filosofo, poi deferirlo al tribunale ecclesiastico, scomunicarlo e infine esigliarlo niente meno che alle Bermuda, come sarebbe certamente avvenuto, se Vanini non fosse riuscito a fuggire di prigione. Nel suo commento alle vite brevi di uomini eminenti di John Aubrey, Milano 1989, pp. 275 sgg, il lunga Rodolfo Vico parla dell'Abbot così, Abbott, George, 1562-1633. Arcivescovo di Canterbury. Ardente puritano, bruciava le immagini religiose nella piazza del mercato. Scriveva dei libelli che lo resero antipatico a tutti, ai tempi che era direttore degli University College di Oxford, nel 1605 mandò 150 studenti in galera perché erano rimasti a capo coperto in sua presenza nella chiesa di St. Mary. Contribui alla versione autorizzata del Nuovo Testamento. Come arcivescovo di Canterbury continuò a battersi contro la setta degli arminiani, ne fece bruciare due e altri li fece torturare. Siccome aveva ucciso un uomo, una volta che era a caccia con l'arco, sebbene fosse stato perdonato dal re, i vescovi si rifiutarono di ricevere da lui la consacrazione. Nel 1627 venne privato di ogni autorità. Così sappiamo con chi abbiamo a che fare. È probabile che la bot non avesse digerito le critiche di Bruno contro i pedanti che a Oxford avevano interrotto le sue lezioni. Nella cena delle ceneri, inoltre, c'era del feroce sarcasmo su certi costumi inglesi, e questo deve essere stato ancora più indigesto. La botte ebbe tutto il tempo di conoscere le opere del filosofo italiano, la descrizione che egli fa dell'omiciatolo è inserita in un libro pubblicato, come se detto, nel 1604. Ma l'autore ricordava bene o caricava per partito preso? A sentire lui, Bruno, colto con le mani nel sacco come plagiario, si sarebbe ritirato in buon ordine, e così con grande onestà da parte di quell'ometto, la questione ebbe termine. Ma rileggiamo le parole dello stesso Bruno, che scriveva a caldo e si rivolgeva a persone che avrebbero potuto facilmente verificare come si erano svolte le cose a Oxford, informative come gli han fatte finire le sue pubbliche letture, e quelle de immortalitate animai, e quelle de quintuplici sfera. Dov'è qui, l'atteggiamento remissivo attribuito gli dal futuro arcivescovo? C'è da chiedersi, piuttosto, se i dottori di Oxford capissero veramente ciò di cui parlava il filosofo, che andava maturando la sua rivoluzione cosmologica. È sintomatico che la bot, ancora all'inizio del XVII secolo, facesse del sarcasmo sulla teoria copernicana esposta da Bruno, per cui la terra gira, e i cieli stanno fermi, mentre, in verità, era piuttosto la sua testa che girava, e il suo cervello che non stava fermo. Questo è proprio un discorso da arcivescovo. Bene, allora mettiamola così, il cervello di Bruno girava e molto, addirittura a velocità vertiginosa, mentre quello del futuro arcivescovo di Canterbury era piatto e quindi stava fermo. Probabilmente la bot, da bravo teologo, non sapeva che farsene delle nuove teorie astronomiche, perché riteneva di essere sufficientemente rischiarato dai lumi della grazia o dai raggi dello Spirito Santo. E intanto impartiva lezioni circa la pronuncia del latino, come se il latino lo avesse inventato lui. Anche l'accusa di plagio non sta in piedi, perché, se Bruno soleva inserire qua e la passi di altri autori, come fanno tutti, li modificava e li adattava alle sue teorie del tutto originali. Può darsi benissimo, invece, che egli, contrariamente ai proponimenti espressi nella lettera al vice cancelliere dell'Università di Oxford, non riuscisse a controllarsi come richiedeva la situazione. Era troppo impulsivo e fu proprio questa la sua rovina. Ai compassati e flemmati cipidanti di Oxford gli dovette sembrare una specie di demonietto esagitato, tanto più che la natura non gli aveva dato un corpo atletico. Avere grandi idee in testa è come essere in preda a una grande passione amorosa. Non si riesce a dominarla e a dominarsi, e perciò la condotta diventa sproporzionata all'individuo. In tale stato è facile apparire esaltati o anche un po' matti. Ma siccome la bottrica ama sopra l'aspetto fisico di Bruno e ne fa motivo di scherno, se ne deduce che lui doveva avere la statura di un dinosauro. La statura è il cervello. Del resto un uomo come Bruno, di cui non conosciamo esattamente la statura fisica, va misurato dalla cintola in su. Al suo soggiorno a Oxford si riferiscono sicuramente anche le parole che un non identificato NW scrisse nella premessa alla trattazione inglese, fatta nel 1585 dal poeta Samuel Daniel, di un'opera di Paolo Giovio, «Voi non potete dimenticare ciò che il Nolano, quest'uomo di infiniti meriti in mezzo ad altri fantastici passatempi, ebbe giustamente a notare quando venne nelle nostre scuole, e ciò è che tutte le scienze si erano sviluppate grazie alle traduzioni. In quel tempo il Daniel, come l'ignoto NW, era laureando presso il Magdalen College. Ma era anche cognato di Giovanni Florio, altra conoscenza che Bruno fece a Oxford. E anche il Florio, nella prefazione alla sua traduzione degli Essays di Montaigne, riporta le parole di Bruno sull'utilità delle traduzioni, «Il mio vecchio compagno, il Nolano, mi diceva, e pubblicamente insegnava, che tutto il sapere ha tratto la sua origine dalle traduzioni». Giovanni Florio era nato in Inghilterra, dove il padre, il grammatico Michelangelo Florio, si era rifugiato per motivi religiosi dalla natia toscana. Ma nel 1554, quando il piccolo Giovanni aveva solo pochi mesi, i genitori, non si sa bene per quali motivi, furono costretti ad abbandonare l'Inghilterra e a tornare nel continente, forse in Francia o nell'Italia settentrionale. Non è dato sapere quando, esattamente, Giovanni si è ritornato in Inghilterra, comunque era già adulto. Di sicuro sappiamo che egli si trovava a Londra nel 1578, quando pubblicò il suo manuale di conversazione The First Fruits of Florio. Seguendo le orme paterne, si dedicò all'insegnamento e alla diffusione della lingua italiana. Anche a Oxford, dove si era trasferito, continuò a insegnare italiano, nel 1581 risulta immatricolato al Magdalen College. Forse il suo primo incontro con Giordano Bruno avvenne proprio in tale collegio. I due fecero subito amicizia e nella tarda estate del 1583, molto probabilmente per intercessione del filosofo, il Florio passò anche lui al servizio dell'ambasciatore Castelnaue e divenne precettore di una delle sue figlie, la piccola Caterine Marie. Sposò, come s'è già accennato, la sorella del poeta Samuel Daniel, la quale si chiamava Rose. Florio morì di peste nel 1625, all'età di 72 anni. Sentiamo qualche suo giudizio sugli inglesi, affinché non si creda che fosse solo Giordano Bruno a usare la sferza. Anzitutto si lamenta della poca conoscenza delle lingue straniere, quando arrivai a Londra, non sapendo una parola d'inglese, abbordai più di 500 persone prima di trovarne una che sapesse dirmi dove si trovava la posta. Vedo dei gentiluomini, ma in realtà sono piuttosto dei villanzoni, che, quando hanno imparato due parole di spagnolo, tre di francese e quattro di italiano, pensano di aver studiato molto. Duro il giudizio su quelli che si impancavano a giudici di cose che non conoscevano, questi idioti, che non sanno neppure ciò che un libro racchiude e tuttavia non si fanno scrupolo di parlarne, hanno più l'ardire della diffamazione che l'industria dello studio. Conosco delle bestie, mi viene voglia di pubblicarne i nomi, le quali sono così libere nelle loro parole che, senza arrossire, giudicano ciò che non hanno mai letto e se 354. Sembra quasi il ritratto dell'arcivesco Wabot. A Oxford Bruno conobbe anche Alberico Gentili, che molti considerano il fondatore del diritto internazionale. Quanto a lui stesso, però, non ebbe neanche il diritto di vivere nella propria patria, dalla quale dovette fuggire per motivi religiosi. Figlio del medico Matteo Gentili Rossi, Alberico era nato il 14 gennaio del 1552 a San Ginesio, nelle Marche, e nel 1572 si era laureato in diritto civile a Perugia. Ma sette anni dopo fu costretto, insieme con il padre e due fratelli, ad abbandonare l'Italia per sfuggire all'Inquisizione. Prima di rifugiarsi in Inghilterra, essi, come vedremo in seguito, avevano cercato fortuna in Germania. La via del loro esilio coincise con quella di Giordano Bruno, solo che il filosofo la percorsa in senso inverso. Nel 1582 Alberico si stabilì a Oxford, dove poi ebbe la cattedra di diritto civile. Anche lui entrò in contatto prima con i calvinisti e poi con i luterani. Insomma aveva molte cose in comune con Bruno, almeno sul piano biografico, tutti e due erano perseguitati dall'Inquisizione e tutti e due conoscevano le miserie dell'esilio. È da presumere che Bruno non sia rimasto a Oxford solo il tempo necessario per fare le poche e contrastate lezioni di cui si è parlato. La compagnia di Florio, di Gentili e di altri ancora, fra i quali possiamo annoverare brillanti studenti come il poeta Samuel Daniel, lo avrà certamente ripagato delle delusioni subite dai dottoroni tipo Underhill. Anche altrove li seppe suscitare l'entusiasmo degli studenti, forse perché prendeva per le corne i professori. Un bel giorno, comunque, riprese la strada per Londra e si stabilì definitivamente in casa del Castelnau, dove scrisse le sue opere italiane. Prima di abbandonare Oxford anche noi, visitiamo i luoghi che possono maggiormente rievocare la presenza del filosofo. La chiesa di St. Mary, dove avvenne la disputa con il teologo Underhill, non si può dire bella, ma è carica di storie di ricordi. I sedili del coro, tarlati dal tempo, sono originali e risalgono al 1400. Qualcuno di essi sopportò anche il peso, peraltro non eccessivo, di Giordano Bruno? Oppure egli aveva tanto fuoco in corpo da non sentire il bisogno di sedersi? La fantasia galoppa e corre dietro a quel demonietto tarantolato che semina lo scompiglio tra gravi e compassati funzionari del cielo. Il rettore o vicario di St. Mary, nel 1583, si chiamava Simon Lea. Poter essere stati per un momento al suo posto, durante la tensione tra Bruno e Underhill. Ma tutto il centro storico di Oxford è molto evocativo, le case, le vie, le chiese e i collegi hanno conservato il loro aspetto amico. Piace ricalcare con il pensiero i passi del filosofo che si aggira tra questi edifici o nei cortili di qualche collegio. Per esempio in quelli, molto ampi, del Magdalen College, uno dei più antichi e forse il più bello di tutti. Fu fondato nel 1458 sul posto dell'antico St. John Hospital. Qui forse Bruno entrò insieme con il polacco Lask e qui tornò sicuramente per far visita al suo amico Giovanni Florio. Dal Magdalen Bridge, che si trova vicino al collegio omonimo, si vede anche la cattedrale con la sua torre. Ma Bruno non aveva bisogno di torri o di campanili per rivolgere lo sguardo al cielo, tutta la filosofia che aveva in testa mirava in alto, allo spazio infinito. Gli altri non potevano né seguirlo né capirlo. Egli era solo e così mi piace immaginarlo nell'ampio chiostro del Magdalen College. Solo e assorto. Londra, che cos'è che fa il vero filosofo? Il coraggio di non tenersi nessuna questione sul cuore. Schopenhauer, tutto sommato il rifiuto dei professori di Oxford gli fece bene, perché lo restitui a se stesso. Ora poteva pensare e scrivere in pace, senza perdere tempo a discutere con chi, come le mummie accademiche, non poteva capirlo. La sua era una dottrina riservata a pochi, perché non fa per le spalli di quasi voglia questa soma, ma per quelli che possono portarla, come il nolano. Coloro che hanno la possessione di questa verità non denno ad ogni sorte di persona comunicarla, si non vogliono lavar, come se dice, il capo all'asino, se non vuolen vedere quel che san fare i porci alle perle, e raccogliere, come frutto del proprio studio e della propria fatica, ciò che suole produrre la temeraria e sciocca ignoranza, insieme con la presunzione d'inciviltà, la quale è sua perpetua e fida compagnia oi, i, 36 sg. Così Bruno, con evidente allusione all'esperienza fatta ad Oxford, fa dire al suo alter ego teofilo. Ma il clima intellettuale di Londra era diverso da quello di Oxford, dove chi, come Bruno, parlava di Copernico e teorizzava l'infinità dell'universo, veniva accolto con scherno. La polvere sui banchi dei cole non era evidentemente polvere di stelle e le parrucche impedivano ai professori di alzare gli occhi al firmamento. In breve tempo e lavorando come un forzato della penna, Bruno scrisse e pubblicò i suoi capolavori, che sono anche capolavori della filosofia europea, la cena delle ceneri, della causa, principio et uno, dell'infinito universo e mondi. Tutti e tre dedicati all'ambasciatore Castelnau, che gli aveva dato la possibilità di scriverli, accogliendolo con tanta munificenza e libertà nel luogo più eminente della sua casa, o i, i, diciassette. Senza l'aiuto del Castelnau, i nemici, che erano tanti, lo avrebbero distrutto, se io, illustrissimo cavaliero, contrattasse l'aratro, fascesse un gregge, coltivasse un orto, rassettasse un vestimento, nessuno mi guardarebbe, pochi m'osservarebbero, da rari sarei ripreso e facilmente potrei piacere a tutti. Ma per essere delineatore del campo della natura, sollecito circa la pastura dell'anima, vago della cultura dell'ingegno ed edalo, artefice esperto, circa gli abiti dell'intelletto, ecco che chi ad occhiato me minaccia, chi osservato massale, chi giunto mi morde, chi compreso mi vora, divora, non è uno, non son pochi, son molti, son quasi tutti. Se volete intendere onde sia questo, vi dico che la cagione è l'università de che mi dispiace, il volgo codio, la moltitudine che non mi contenta, una che mi innamora, quella, la filosofia, per cui son libero in suggezione, contento in pena, ricco nella necessità de e vivo nella morte, o i, i, 345 sg. È la filosofia che gli dà la forza di andare avanti, indi accade che non ritrao, come lasso, il piede dall'arduo cammino, né, come desidioso, dismetto la braccia dall'opra che si presenta, né, qual disperato, volgo le spalli al nemico che mi contrasta, né, come abbagliato, diverto gli occhi dal divino oggetto. Virgola. Così, signor, gli santi numi disperdano da me cu e tutti che ingiustamente modiano, Così mi sia propicio sempre il mio Dio, Così favorevoli mi siano tutti governatori del nostro mondo, Così gli astri mi facciantale il seme al campo ed il campo al seme che appaia al mondo utile e glorioso frutto del mio lavoro con risvegliare il spirito e aprire il sentimento a quei che son privi di lume, come io certissimamente non fingo e, se erro, non credo veramente errare e, parlando e scrivendo, non disputo per amor della vittoria per se stessa, perché ogni riputazione e vittoria stimo nemica Dio, vilissima e senza punto di onore, dove non è la verità, ma per amor della vera sapienza e studio della vera contemplazione ma fatico, mi cruccio, mi tormento, ibid. E si raccomanda a Castelnau, anche se non ce n'è bisogno, tra tanto, benché sono certo che non è bisogno dell'ora comandarvi, non lascerò pure, per far parte del debito mio, di procurar che vi sia veramente raccomandato quello che non intrattenete tra vostri familiari come uomo di cui avete bisogno, ma come persona che ha bisogno di voi per tante e tante cagioni che vedete, o i, i, 363. Sì, Bruno aveva trovato nel Castelnau non solo un protettore, ma anche un alleato sul piano etico e intellettuale. Fu sicuramente una delle poche persone che seppero capirlo. Era un cattolico aperto e liberale. Nei suoi Memoirs scrisse che, per combattere gli eretici e riportare sulla buona via coloro che si erano smarriti, le armi dello spirito, quali il buon esempio, la carità, la predicazione e altre opere buone, servivano molto di più della spada che versa il sangue del prossimo. Quanto ai protestanti, accusava i calvinisti di Francia, di Scozia e di Ginevra di coprire le loro passioni sotto il pretesto di una religione riformata le Vergeoes 1995, p. 175. Sono parole, specialmente quelle sul buon esempio, che avrebbe potuto scrivere Bruno. Insomma i due erano fatti per intendersi. Fra le tante e tante cagioni, di cui parlava Bruno, ce ne doveva essere una molto grave. Per cercare di capirla dobbiamo citare ciò che il filosofo, sempre rivolto a Castelnau, scrive nella lettera proemiale del De la Causa, Principio et 1, se dall'altro lato mi riduco a mente come, lasciando gli altri vostri onorati gesti da canto, per ordinazion divine e alta provvidenza e predestinazione, mi siete sufficiente e saldo difensore negli ingiusti oltraggi che io patisco, dove bisognava che fosse un animo veramente eroico per non dismetterle braccia, desperarsi e darsi vinto a si rapido torrente di criminali imposture, con quali a tutta possa ma ave fatto impeto l'invidia d'ignoranti, la presunzione di sofisti, la detrazione di malevoli, la murmurazione di servitori, gli sussurri di mercenari, le contraddizioni di domestici, le sospizioni di stupidi, gli scrupoli di riportatori, gli zeli di ipocriti, gli odi di barbari, le fure di plebei, furori di popolari, lamenti di ripercossi e voci di castigati, ove altro non mancava cun di scortese, pazzo e malizioso sdegno femminile, di cui le false lacrime sollion esser più potenti, che quanto si voglia tumide onde e rigide tempeste di presunzioni, invidie, detrazioni, mormorii, tradimenti, ire, sdegni, odi e furori, eccovi veigo qual saldo, fermo e costante scoglio. Virgola. Io, dunque, qual nessun già mai potè accusar per ingrato, nullo vi tuperò per di scortese, e di cui non è chi giustamente lamentarsi possa, io, odiato da stolti, dispregiato da vili, biasimato da ignobili, vi tuperato da furfanti e perseguitato da genii bestiali. Virgola. Io, per tale tanto favore da voi ricettato, nodrito, difeso, liberato, ritenuto in salvo, mantenuto in porto, come scampato per voi da perigliosa e gran tempesta, o i, i, 175 sgg. Chi sarà stata quella donna maledica che contribui a creare, con il suo disa cortese, pazzo e malizioso sdegno femminile, un clima di ostilità intorno al filosofo. Mistero. Di solito sono le donne respinte o punte nella loro vanità che si vendicano in maniera velenosa e implacabile. Ma, a parte questo, che cosa era successo? Nel commento al passo che abbiamo appena citato, il gentile avanza l'ipotesi che Bruno fosse stato arrestato per le aspre critiche rivolte agli inglesi nella cena. Ma il Castelnaulo avrebbe fatto liberare degli, per evitare altri guai, se ne sarebbe stato per un certo periodo chiuso in casa. L'ipotesi non è campata in aria, e ad avvalorarla concorrono anche altri elementi. Nel primo dialogo del De La Causa, pubblicata subito dopo la cena, un interlocutore prega Filoteo, ossia Bruno stesso, di essere più prudente, perché, per vostra pace e vostra quiete, la quale con fraterna carità devi desio, non vorrei che di questi vostri discorsi vengano formate comedie, tragedie, lamenti, dialoghi, o come vogliam dire, simili a quelli che poco tempo fa, per esserno essi usciti in campo a spasso, per aver fatto il giro della città, vi hanno forzato di starvi rinchiuso e ritirato in casa oi, 1,194. Probabilmente gli inglesi non avevano digerito la satira che il filosofo, nella cena, aveva fatta dei loro costumi e neppure il sarcasmo che egli aveva riversato sui pedanti di Oxford. E siccome gli inglesi sono tanto bravi nel criticare gli altri quanto poco disposti a sentir criticare se stessi, credettero forse di dover punire con la prigione, e magari anche con le botte, l'audacia dello straniero che aveva osato denigrarli, sia pure in forma pittoresca e caricaturale. Si direbbe che Londra, in quel tempo, fosse piena di villanzoni, di tangheri e di ribaldi, i quali, appena vedevano uno straniero, gli andavano addosso come cinghiali o tori inferociti. Ed erano molti a dirlo, come vedremo fra poco. L'unico torto di Bruno fu, come al solito, l'imprudenza, perché lo scrisse apertamente, mentre gli altri stranieri, più accorti, se ne lamentavano in lettere o in dispacci diplomatici, come gli ambasciatori veneti. La marmaglia di Londra indusse il filosofo a scrivere che potrebbe vantarsi l'Inghilterra ad avere una plebe, la quale in essere irrispettevole, incivile, rozza, rustica, salvatica e male allevata non cede ad altra, che pascer possa la terra nel suo seno. Or, messi da canto molti soggetti, che sono in quella degni di qualsivoglia onore, grado e nobiltà, e covi proposta avanti gli occhi un'altra parte, che, quando vede un forastiero, sembra, per Dio, tanti lupi, tanti orsi, che con suo torvo aspetto gli fanno quel viso, che saprebbe far un porco ad un che venesse a togli il tinello davanti. E continua dicendo che, conoscendoti in qualche foggia forastiero, ti torcene il musso, ti ridono, ti ghignano, ti petteggiano con la bocca, ti chiamano, in suo linguaggio, cane, traditore, straniero, e questo appresso loro è titolo ingiuriosissimo, e che rende il supposito, straniero, capace a ricevere tutti i torti del mondo, si è pur quanto si voglia uomo giovane o vecchio, togato o armato, nobile o gentiluomo. Or qua, se per mala sorte ti viene fatto che prendi occasione ai toccarne uno, o porre mano all'armi, ecco in un punto ti vedrai, quanto è lunga la strada, in mezzo d'uno esercito di coteconi, villanzoni, i quali, virgola facendo una onoratissima e gentilissima prospettiva de una selva de bastoni, pertiche lunghe, alebarde, pertisane, partigiane, e forche rugginenti, con una rustica furia te le vedrai avventar sopra, senza guardare a chi, perché, dove e come, virgola, ognuno sfogando quel sdegno naturale ci ha contro il forestiero, ti verrà di sua propria mano, se non sarà impedito dalla calca degli altri che ponenu in effetto simil pensiero, e con la sua propria verga, a prender la misura del saio, e se non sarai cauto, a saldarti ancora il cappello in testa, o i, i, 70 sg. Botti agli stranieri, dunque. Ne avrà prese anche Giordano Bruno? È probabile. Come avrebbe potuto, altrimenti, fare una descrizione così viva e particolareggiata di quei tangheri violenti. Poi c'erano altri che, in luogo di donarti il buongiorno o buonasera, dopo averti fatto un grazioso volto, come ti conoscessero e ti volessero salutare, ti verranno a donare una scossa bestiale. Accuso, dico, quell'altri, i quali talvolta fingendo di fuggire, o voler perseguitare alcuno, o correre a qualche negocio necessario, se spiccano da dentro una bottega, e con quella furia ti verranno da dietro o da costa a donar quella spinta che può donare un toro quando è stizzito, come pochi mesi fa accadde ad un povero messer Alessandro Citolino, al quale in cota al modo, con riso e piacer di tutta la piazza, fu rotto e fracassato un braccio, Ibid, 77. Il poeta e letterato Alessandro Citolini, così conciato dalla marmaglia di Londra, era di Serravalle delle Alpi, l'attuale Vittorio Veneto. Abbracciata la fede protestante, si era dovuto rifugiare prima in Svizzera e poi in Inghilterra. Visse distenti e morì, come sembra, in conseguenza di quel turpe episodio. Aveva superato l'ottantina, essendo nato intorno al 1500, e ciò rende ancora più odiosa quell'aggressione. Ma anche Giordano Bruno ricevette parecchie spintonate mentre, in compagnia di Giovanni Florio e del medico gallese Matteo Vinne, si recava in casa del cortigiano Fulche Greville, or dopo Chilnolano ebbe riscosse da vinti in circa di queste spintonate, particolarmente alla piramide vicino al palazzo in mezzo di tre strade, ne si fermo, ci si fecero, incontro sei galantuomini, dei quali uno gliene die una sì gentile e gorda, grande, che sola possè a passar per diece, e gliene fè donar un'altra al muro, che possè a certo valer per altre diece i bid, 81. Era la sera del 14 febbraio 1584, primo giorno di Quaresima, detto anche giorno delle ceneri. Di qui il titolo La cena delle ceneri, come spiega lo stesso autore nella dedica a Castelnau. Splendida la descrizione che Bruno fa della traversata notturna di Londra, dall'ambasciata francese a Viteal, dove si trovava l'onorata stanza di Fulche Greville. Qui egli si rivela anche un grande scrittore. Inoltre qui abbiamo una descrizione realistica della Londra del tempo, barcaioli disonesti, vie fangose ecc. Ad ogni modo, pur dopo molte peripezie, Bruno e i suoi due amici, per la grazia di San Fortunato, giunsero finalmente a destinazione. La cena, durante la quale Bruno avrebbe dovuto esporre la propria teoria sul moto della Terra, degenerò in diverbio per l'intolleranza di due dottori inglesi arroccati nella vecchia concezione del mondo. Così il filosofo si licenziò dall'ospite di lì a poco incominciò a scrivere la cena. Ciò che egli dice dei costumi inglesi da allora trova conferma in altre testimonianze. Erasmo da Rotterdam, ad esempio, pregava il cancelliere inglese di liberare tutta la Britannia dai latrocinii, dai grassatori e dai vagabondi oziosi. Per lui solo il volgo cantabrico supera in barbarie quegli inospitali britanni. Altrove scrive che presso i britanni è tale la fuga dal lavoro e tale l'amore dell'ozio, che non si svegliano neppure quando luccica la speranza del faticoso danaro. Poi abbiamo la testimonianza degli ambasciatori. Ne basta una, quella dell'ambasciatore Giacomo Soranzo, il quale scrive che gli inglesi sono superbissimi ed inimicissimi coforestieri S366. E se Bruno raccomandava di non uscire di casa senza urgente bisogno, in quanto a Londra si facevano dei brutti incontri, gli stessi consigli venivano dati da Florio, che la città la conosceva ancora meglio. Poi c'era la brutta abitudine di bere tutti dallo stesso boccale, e per Bruno, abituato agli eleganti banchetti dell'ambasciatore Castelnau, fu un vero sollievo non trovare un simile uso in casa di Fulch e Greville, qua, per grazia di Dio, non vidi il cerimonio di quell'urciolo o becchieri, che suole passare per la tavola a mano a mano, da alto a basso, da sinistra a destra, e da altri lati, senza altro ordine che di conoscenza e cortesia da montagne, il quale, dopo che quel, che mena il ballo, se l'ha tolto in bocca, e lasciatovi quella impannatura di pinguedine, che può ben servir per colla, appresso beve questo e vi lascia un'amica di pane, beve quell'altro e vaffigge all'orlo un frisetto di carne, beve costui e vi scrolla un pelo della barba, e così, con bel disordine, gustandosi da tutti la bevanda, nessuno è tanto mal creato, che non vi lasse qualche cortesia delle reliquie, che tiene circa il mustaccio. Or, se a qualcuno, o perché non abbia stomaco, o perché faccia del grande, non piacesse di bere, basta che solamente se la coste tanto alla bocca, che vi imprima un poco di vestigio delle sue labbra ancora. Questo si fa a fine, che siccome tutti son convenuti a farsi un carnivoro lupo col mangiar ad un medesimo corpo d'agnello, di capretto, di montone o di grugno corocotta, possi, applicando tutti la bocca ad un medesimo bocale, venghino a farsi una sanguissuga medesima, in segno d'una urbanità, una fratellanza, un morbo, un cuore, un stomaco, una gola e una bocca. E ciò si pone in effetto con certe gentilezze e bagatelle, che è la più bella comedia del mondo a vederlo, e la più cruda e fastidiosa a trovar visi un galantuomo in mezzo, quando stima essere obbligato a far come fan gli altri, temendo esser tenuto incivile e discordese, perché qua consiste tutto il termine della civiltà e cortesia, o i, i, 82 sg. In nota, il gentile cita opportunamente un passo dei colloqui di Erasmo, dove si dice la stessa cosa. Traduco, in Inghilterra è segno di civiltà a porgere il tuo bicchiere a chi partecipa a un convito, mentre in Francia è un'offesa. Se si proponesse una legge che vietasse di avere il bicchiere in comune con un altro, difficilmente troverebbe applicazione in Inghilterra. Anche nell'elogio della pazzia viene ricordata la brutta abitudine di bere in giro alla stessa coppa, così come nella dedica a Tommaso Moro è ricordato il porcello Grunio Corocotta, scritto satirico che divertiva ai ragazzi già al tempo di San Gerolamo. Anche in questo, dunque, Bruno e Erasmo suonavano sullo stesso registro. Ma mentre Erasmo si rivolgeva a Tommaso Moro, spirito eminente e ricco di ironia, Bruno dovette vedersela con gente permalosa e allergica alle critiche. Il prima a offendersi fu l'anfitrione Fulke Greville, che infatti ruppe con il filosofo. Siamo però obiettivi, ambientando la cena nella casa del suo ospite, Bruno, senza volerlo, commise un'indelicatezza o almeno un'imprudenza, perché così si dava l'impressione che il Greville avallasse le sue aspre critiche non solo all'Università di Oxford, ma anche alla popolazione di Londra. Insomma comprometteva l'ospite. Qualcuno glielo fece forse notare e così si spiega perché abbiamo due redazioni del primo e del secondo dialogo della cena, una delle quali è stata resa nota solo nel 1950. Se si mettono a confronto le due redazioni, ci si rende subito conto che il filosofo, oltre ad attenuare i toni, sopprime alcuni riferimenti. Proprio questa inaspettata prudenza fa pensare al consiglio di qualche amico, più diplomatico di lui. Il Sidney, per esempio. Tutto immerso nei suoi pensieri, Giordano Bruno non era davvero quello che si dice un uomo pratico. Non cercava l'utile, ma la verità, costasse quel che costasse. Aveva l'innocenza del divenire, per usare un'espressione di Nice. L'innocenza, ma anche il coraggio. Solo lui poteva far fronte, senza tempennare, all'ondata di ostilità che gli si abbattè addosso dopo la pubblicazione della cena. Se proprio non fu imprigionato, è certo che ci fu una violenta reazione da parte di quelli che si erano in un modo o nell'altro riconosciuti nei personaggi presi di mira nell'opera. E non si trattava solo di accademici, ma anche di comuni cittadini. In quel periodo, stranamente, ci furono anche degli attacchi materiali contro l'ambasciata francese e un trovatello, che il Castelnau aveva preso con sé per puro spirito di carità, perse un occhio. Al grido di cani francesi, la marmaglia prima insultò i membri dell'ambasciata e poi fece irruzione negli uffici. Castelnau scrisse una lettera furibonda al Vasingam e gliela fece recapitare da Giovanni Fiorio. E Bruno cercava aiuto e protezione proprio presso il Vasingam, come si può dedurre dall'alto elogio che gli fa nella cena. Doppiamente ingenuo, perché il Vasingam, a parte il dispaccio che gli aveva mandato da Parigi l'ambasciatore Cobham, era schierato in un campo avverso al suo. Lo stesso discorso vale per l'altro elogiato nella cena, Robert Dudley, conte di Leicester, favorito della regina, cancelliere dell'Università di Oxford e rappresentante della corrente puritana avversa al protestantesimo moderato. Nel primo dialogo dei della causa, Bruno fa un'orgogliosa difesa di sé stesso. Riportiamo alcune battute tra Annesso, sotto cui si nasconde forse Sidney, e Filoteo, l'alter ego di Bruno. Annesso, ancogli dei son soggetti a ricevere ingiurie, patire infamie e comportar biasimi, ma biasimare, infamare e ingiuriare è proprio devili, ignobili, da poco escelerati. Filoteo, questo è vero, però noi non ingiuriamo, ma ributtiamo l'ingiurie, che son fatte non tanto a noi, quanto alla filosofia spregiata, con far di modo ca'gli ricevuti dispiaceri non s'aggiungano degli altri. Annesso, volete, dunque, pare arcane che morde, affinché non ardisca ognuno di molestarvi? Filoteo, così è, perché desidero la quiete, e mi dispiace il dispiacere. Armesso, sì, ma giudicano che procede troppo rigorosamente. Filoteo, affinché non tornino un'altra volta essi, ed altri imparino di non venire a disputarmeco e con altro, trattando con simili mezzi termini queste conclusioni. Annesso, la offesa fu privata, la vendetta è pubblica. Filoteo, non per questo è ingiusta, perché molti errori si commettono in privato, che giustamente si castigano in pubblico. Annesso, ma con ciò venite a guastare la vostra reputazione, e vi fate più biasimevole che coloro, perché pubblicamente se dirà che siete impaziente, fantastico, bizzarro, capo sventato. Filoteo, non mi curo, purché oltre non mi siano essi o altri o molesti, e per questo mostro il cinico bastone, a ciò che mi lasci non star cofatti miei in pace, e se non mi vogliono far carezze, non vegnano ad esercitar la loro inciviltà sopra di me. Il dialogo è ad alta tensione e verrebbe voglia di riprodurlo per intero. Esso rivela anche il carattere forte e inflessibile dell'autore, il quale amava sì la quiete, ma non era certo disposto a tradire la verità per il quieto vivere. Noli Metangere, chi lo attaccava doveva sapere che egli avrebbe usato il cinico bastone o, cosa ancora più micidiale, l'arma del suo sarcasmo. Del resto nessun genio ha mai avuto un carattere condiscendente. Un vero carattere è sempre un carattere forte. Certo, il vivere in un paese straniero comportava degli obblighi, ma al vero filosofo ogni terreno è patria. E poi in gioco non era la sua persona, bensì la filosofia, e cosimi sieno propici gli superi, armesso mio, che io mai feci di simili vendette per sordido amor proprio o per villana cura d'uomo particolare, ma per amor della mia tanto amata madre filosofia e per zelo della lesa maestà di quella. La quale da mentiti familiari e figli, perché non è vil pedante, poltron dizionario, pedante, stupido fauno, ignorante cavallo, che, o con mostrarsi carco di libri, con allungarsi la barba o con altre maniere mettersi in prosopopeia, non voglia intitolarsi della famiglia, è ridutta tale, che appresso il volgo tanto val dire filosofo, quanto un frappone, ciarlatano, ciormatore, un disutile, pedantaccio, circolatore, saltimbanco, ciarlatano, buono per servir per passatempo in casa e per spavanta chioduccelli alla campagna, o i, i, 202. Anche Schopenhauer ce l'ha con le barbe, questo segno distintivo del sesso in mezzo alla faccia. C'è chi, anziché il cervello, si fa crescere il pelo. Spampanato pensa che i primi a manovrare contro Bruno fossero i due toscani Pietruccio Baldini e Tommaso Sassetto, che ruotavano intorno a Robert Dudley e che erano stati presi di mira già nelle prime pagine della cena, due sono le false ed onorate reliquie di Firenze in questa patria, i denti di Sassetto e la barba di Pietruccio o i, i, 23. La cosa è molto probabile, perché, ripetiamolo, i peggiori nemici degli italiani sono gli italiani stessi. E storia vecchia. Tuttavia se non il Dudley, certamente il Sidney, che era suo nipote, non fece mancare la sua protezione al filosofo. Lo dimostra il fatto che due delle maggiori opere scritte da Bruno a Londra, lo spaccio della bestia trionfante e degli eroici furore, sono dedicate, con parole di profonda gratitudine, proprio al Sidney. Si resta stupefatti dinanzi all'attività di Giordano Bruno. In circa due anni e mezzo del suo soggiorno inglese, egli, pur in mezzo alle tante traversie che abbiamo cercato di delineare, scrisse e pubblicò Ars Remination di, Explicatio Triginta Sigillorum, Sigillus Sigillorum, la cena delle ceneri, della causa, principio et uno, dell'infinito universo e mondi, spaccio della bestia trionfante, cabala del cavallo pegaseo e degli eroici furori. Anche se i libri si dicono stampati a Venezia o a Parigi, furono in realtà stampati a Londra. Lo rivelò lo stesso filosofo nel Costituto Veneto del 2 giugno 1592, dicendo che tutti i libri che dicono nella impression loro che sono stampati in Venezia, sono stampati in Inghilterra, e fu il stampator che volse metterve che erano stampati in Venezia, per venderli più facilmente da ciò avessero maggior esito, perché quando s'avesse detto che fossero stampati in Inghilterra, più difficilmente si avriano venduti in quelle parti, e quasi tutti lì altri ancora sono stampati in Inghilterra, ancor che dicano a Parisi o altrove. Detto altrimenti, Venezia era sinonimo di garanzia, di qualità e di cultura. Ma i tempi cambiano e oggi capiterebbe esattamente il contrario. Non si fa forse così con le stoffe? Come si chiamava lo stampatore delle opere di Bruno a Londra. Lo spampanato scrive, dai più si crede che il francese Thomas Wautrollier, che era venuto a Londra alcuni anni avanti e avea messo su tipografia in Blackfriars, sia stato lo stampatore delle opere italiane del Bruno, a cominciare dalla cena S364 SG. In realtà, come è stato poi dimostrato da Giovanni Aquilecchia, lo stampatore non fu il francese Wautrollier, bensì l'inglese John Charles Vaud. Altra questione, dove si trovava l'ambasciata francese e quindi l'abitazione di Giordano Bruno? In un libro apparso nel 1907, lo studioso inglese William Boulting la collocò in Butkerrov, Via dei Macellai, un nome davvero poco augurale per un filosofo che amava gli animali e credeva nella metempsicosi. Da allora tutti, senza ulteriori ricerche, hanno accolto la tesi del Boulting. Così anche lo spampanato scrive che la residenza del Castelnau era posta in Butkerrov, in uno stretto vicolo della piazza presso S. Clemente Danese S. 343. Ma chi ha mai visto un'ambasciata in uno stretto vicolo? Chi conosce gli ambasciatori sa che essi amano darsi grandi in tutti i sensi, e che quindi non si accontenterebbero mai di vivere in uno uno stretto vicolo? Per una volta bisogna dunque dar ragione al professor John Bossi, autore di uno dei libri più sciagurati e infelici sul nostro filosofo, Giordano Bruno Ente e Mbassi Affair, London 1991. Per quel che riguarda la tesi principale, è una patacca ammantata di scientificità e come tale va subito buttata dalla finestra. Nella ricostruzione della Londra di quel tempo, però, il Bossi dice delle cose molto utili e giuste. Egli sostiene, con buoni argomenti, che l'ambasciata francese si trovava al confine occidentale della city, in un palazzo che si chiamava Salisbury Court. Siamo vicinissimi alla chiesa di St. Bride e abbastanza lontani da quella di St. Clement Danes. Il Bossi apporta anche la testimonianza di tre contemporanei. Fino al 1564, la casa appartenne al vescovo di Salisbury, poi cambiò proprietario e si chiamò Bookerst House. Un breve viottolo la collegava al Tamigi, come si rileva anche dalla descrizione che Bruno fa del tragitto per andare da Fulche Greville, or, benché fussemmo nella strada diritta, pensando di far meglio, per accortare il cammino, divertimmo verso il fiume Tamesi, per ritrovare un battello, che ne conducesse verso il palazzo. Giunsemmo al ponte del palazzo del Milord Bookerst, a quinci, gridando e chiamando Oares, gondolieri, passammo tanto tempo, quanto arrebbe bastato a bellaggio di condurne al loco determinato OI, I, 53 SG. Per strada diritta è da intendersi sicuramente la Flee Street, alle spalle dell'ambasciata francese, percorrendola verso ovest, Bruno e i suoi due amici avrebbero potuto raggiungere Viteal, dove si trovava la casa del Greville. Ma, per far prima, vollero prender la barca dinanzi al molo della Bookerst Fuse. Se non che i barcaioli li scaricarono poco dopo, e così essi dovettero proseguire a piedi. Salisbury-Court esiste ancora, ma non c'è niente di evocativo. Gli edifici vecchi, compresa l'ambasciata francese, furono distrutti dal grande incendio del 1666. Alenne. 8 di Salisbury Square, una targa sembra che voglia richiamare la memoria del passato, City of the Salisbury Courthouse 1629-1649. La via è in discesa e i palazzi sono così alti che non lasciano a vedere neppure il Tamigi, anzi neppure il cielo. È come se si fosse in fondo a un enorme crepaccio. Il fiume è laggiù, a poca distanza. Anche la chiesa di Est. Bride, che il filosofo avrà visto chissà quante volte, fu distrutta dall'incendio e poi rifatta dall'architetto Vren. Per quanto ci si aggiri nella zona, non si trova nulla che rievochi la vita di quel tempo. Se per un miracolo Giordano Bruno potesse rinascere e rivedere questi luoghi, non riconoscerebbe più neanche il Tamigi. Eppure li qui visse e pensò più intensamente che altrove. Presso il Castelnau si sentiva come a casa sua e quasi non provava rimpianto né per l'Italia né per la natia nola, in quanto per lui l'ambasciatore aveva convertito l'Inghilterra in Italia, Londra in nola e la casa, separata da tutto il mondo, in lari domestici Hall, 2, Pars. 2, 75. Insomma il colto, umano e ospitale Castelnau gli aveva creato attorno un caldo clima familiare. E sentiamo come Bruno parla della piccola Caterine Marie, che deve aver allegrato non poco il suo cuore di uomo solo e sventurato, che dirai della generosa figlia, che appena un lustro e un anno ha visto il sole, e per le lingue non potrai giudicare se l'è da Italia o da Francia o da Inghilterra, per la mano circa gli musici e strumenti non potrai capire se l'è corporea o incorporea sostanza, per la matura bontà di costumi dubiterai se l'è discesa dal cielo oppure è sortita dalla terra? Ognun vede che in quella, non meno per la formazione di sì bel corpo è concorso il sangue dell'uno e l'altro parente, Calia fabbrica del spirito singolare le virtù dell'animo eroico di quei medesimi. E continua dicendo che quella bimba di appena sei anni era affatto degna di sua madre, Marie Boquetel sposata a Castelnau, rara avis come la Maria da Bostel, rara avis come la Maria da Castelnau Roy, i, 295 sg. Questo elogio così tenero e delicato della piccola Caterine Marie Castelnau ricorda le parole che lo sventurato Ulisse rivolge a Nausicaa. È bello e commovente immaginare Giordano Bruno che, interrompendo le sue meditazioni filosofiche, gioca con quella bambina. Le avrà fatto anche da precettore, dando il cambio all'amico Giovanni Florio. La Caterine Marie era l'unica a rallegrarla a casa, perché gli altri figli dei Castelnau si trovavano altrove. Nel 1595, ancora giovanissima, Caterine Marie andò sposa a un Luis de Roquechewart, ma il destino non le fu benigno, morì, poco più che trentenne, nel 1612. Ma era un destino di famiglia, perché anche gli altri figli morirono prematuramente. E così pure la madre, morta nel fiore degli anni il 9 dicembre del 1585, subito dopo il rientro in Francia. Durante il suo periodo londinese ebbe vita travagliata per gravidanze difficili, l'ultima delle quali doveva portarla alla tomba. Di lei Bruno dice che era una donna non solamente dotata di non mediocre corporal beltade che gli avvela e ammanta l'alma, ma oltre, che col triunvirato di molto discreto giudizio, accorta modestia e onestissima cortesia, d'indissolubil nodo tiene avvinto l'animo del suo consorte, ed è potente a cattivarsi chiunque la conosce. 2, 295. Elogio di circostanza? Assolutamente no, visto che anche da altri la signora Castelnauci viene descritta come una donna di alte qualità, esse 344. Nelle parole che il filosofo rivolge all'ambasciatore e alla sua famiglia c'è non soltanto una profonda gratitudine, ma anche affetto. Appare invece difficile districarsi nei contatti che egli ebbe con la corte inglese e con gli ambienti culturali di Londra. Conosceva bene la regina Elisabetta, che chiamò Diva e innalzò al cielo, anteponendola alle sofonisbe, le Faustine, le Semiramidi, le Didoni, le Cleopatre ed altre tutte dei quali gloriarsi possano l'Italia, la Grecia, l'Egitto e altre parti dell'Europa ed Asia per gli passati tempi oi, 1,223. E con accento circonflesso decisamente un elogio all'ottava alta. Ma in sede processuale Bruno allenterà le corde della sua lira, ed in particolare nel mio libro della causa principio ed uno io lodo la regina d'Inghilterra e la nomino Diva, non per attributo di religione, ma per un certo epiteto che gli antichi ancora solevano dare a principi, ed in Inghilterra, dove allora io mi ritrovava e composi quel libro, se suole dar questo titolo de Diva alla regina, e tanto più me indussi a nomarla così, perché ella me conosceva, andando io continuamente con l'Ambasciatori in corte d'Oc. Ven. 13. La regina conosceva anche l'opera del filosofo e, a quanto sembra, la teneva in grande considerazione, si veda, a questo riguardo, Ricci 1990. Ma non era certo con la sovrana d'Inghilterra che Bruno, povero filosofo e rabondo, poteva stabilire un sodalizio intellettuale. I potenti della terra, anche quando sono colti e intelligenti come Elisabetta I, guardano sempre dall'alto in basso, lo richiede l'etichetta. E se la regina si degnò di colloquiare con l'esule italiano, leggendone e anche apprezzandone l'opera, ciò costituisce una prova in più della sua intelligenza e giustifica in qualche modo le alte lodi che le tributò il filosofo. Un vero compare spirituale Bruno lo trovò sicuramente in Philip Sidney, cui dedicò lo spaccio della bestia trionfante e gli eroici furori. Nello scozzese Alexander Dixon, invece, trovò un allievo, che nell'opera De Umbra Arationis, pubblicata a Londra nel gennaio del 1584 è scritta con evidente imitazione del De Umbris Idearum di Bruno, ci appari come un fervente ammiratore della nolana filosofia. Nel primo dialogo del De La Causa, Bruno ne parla così, qua per uno troverete quel dotto, onesto, amorevole, ben creato e tanto fidele amico Alessandro Dixon, che il nolano ama quanto gli occhi suoi oi, i, 214. Nei dialoghi seguenti, invece, egli compare tra gli interlocutori come Dixon o Arelio, nome derivato da Errol, dove il Dixon era nato nel 1558. Da ciò che egli dice in tali dialoghi appare evidente che tra lui e Bruno c'era non solo una grande amicizia, ma anche molta intesa sul piano speculativo. Tutti e due erano antiramisti e tutti e due ebbero a subire gli attacchi degli ambienti accademici. Di recente è venuta alla luce anche una dedica di Bruno al suo discepolo. È scritta su una copia del De Umbris Idearum ed è stata pubblicata da Rita Sturlese nella rivista Rinascimento, Vol. 27, 1987, Diomina Alexandro Dixon o Barra Bonarum Literarum Optime Merito. Iordanus brunus nolanus in sui memoriam, et amicitiae prototipon dono de dit manu propria. E cioè, al signor Alexander Dixon, bene merito delle lettere, Giordano Bruno Nolano donò di propria mano come suo ricordo e insegno di amicizia. Ma poi i loro rapporti, per cause che non ci sono note, si guastarono, cfr. La nota di G. Aquilecchia, in o, 3, 345. Alcune non hanno saputo resistere alla tentazione di associare il nome di Bruno a quello di Shakespeare. Il tramite del loro contatto sarebbe stato Giovanni Florio. Si è giunti perfino ad attribuire a Bruno alcune tragedie di Shakespeare o almeno a parlare di un influsso del filosofo sul drammaturgo. Anche la Iates, dopo aver riscontrato o creduto di aver riscontrato la presenza di Bruno nella commedia di Shakespeare pene d'amor perdute, scrive, si impone dunque un modo interamente nuovo di affrontare il problema di Bruno e di Shakespeare, Iates 1989, p. 386. L'ipotesi di un contatto tra il filosofo italiano e il poeta inglese è ghiotta, anzi ghiottissima, ma, in mancanza di prove, occorre prudenza. Spampanato si limita a dire che non è ammissibile che il drammaturgo Elisabetiano, l'amico di Giovanni Florio, abbia interamente ignorato la vita e libri di uno che senza alcun dubbio destò ammirazione e insieme scalpore nella più alta e colta società contemporanea di Londra s. 360. Già, ma chi era veramente Shakespeare? Della sua persona sappiamo poco o niente. È molto più probabile che Bruno abbia conosciuto Christopher Marlowe. Gli indizi, a questo riguardo, non mancano. Alcuni studiosi sostengono anche la tesi di un influsso diretto di Bruno su Marlowe, soprattutto nel Dr. Faustus. Difatti nella tragedia è presente un personaggio che si chiama Saxon Bruno, prigioniero del Papa, che Faust sottrae al rogo facendolo tornare sano e salvo in Germania. Qui le analogie con la vita del filosofo saltano agli occhi, in quanto, come vedremo in seguito, Bruno visse e insegnò per due anni a Wittenberg, in Sassonia. Il tramite tra i due potrebbe essere stato il poeta Thomas Watson, grande amico di Marlowe e ammiratore delle opere mnemoniche di Bruno. È anche probabile che Watson abbia conosciuto direttamente il filosofo a Parigi. Lo si potrebbe dedurre dal fatto che egli, durante il primo soggiorno parigino di Bruno, si recò, al seguito di Francis Vasingham, alla corte di Enrico III. Ma che grande poesia ebbe, allora, l'Inghilterra. Saranno stati pure rozzi, però quegli inglesi non conquistarono solo il mondo, ma anche il Parnaso. La grande letteratura, dice Vico, sorge nelle epoche barbariche, dove ci siano passioni selvagge e potenti. Sotto la rude scorza inglese, criticata da Bruno e da Erasmo, si nascondeva dell'ottima stoffa poetica. E ora cerchiamo, per quanto possibile, di ricalcare i passi di Giordano Bruno per le vie di Londra. Rechiamoci, anzitutto, nella celebre abbazia di Westminster che Joseph Addison definì un grande magazzino della mortalità. Ma Bruno vi scorse la vita, non la morte, perché in un passo del della causa già ricordato egli dice di aver visto a Westminster una donna con un paio di tettazze, che paiono gli borzacchini del gigante San Sparagorio e che, conce in cuoio, varrebbero sicuramente a far due pive ferrarese. San Sparagorio, non Sparagorio, veniva rappresentato con una figura gigantesca e quindi anche i suoi borzacchini, ossia stivali, avevano una misura fuori dell'ordinaria. Dunque Bruno si aggirò sotto le navate di questa abbazia. È probabile che abbia pensato anche lui alla vanità di tutte le cose, proprio come, molto più tardi, farà il quindicenne Schopenhauer, che sotto la data del 14 giugno 1803 scriverà nel suo tacquino, la vista della chiesa di Westminster offre infinita materia di riflessione. Se, in queste mura gotiche, si vedono i resti e i monumenti di tutti questi poeti, eroi e re, se si vede come questi, di secoli così diversi, stiano qui insieme o meglio come riposino insieme le loro ossa, allora viene da pensare se anche ora essi siano così insieme là dove non sono divisi né dai secoli, né dalle condizioni sociali, né dallo spazio, né dal tempo. E della pompa e della grandezza che li circondavano, che cosa si sono portati nell'aldilà? I re lasciarono qui gli scettri e le corone, gli eroi le armi e i poeti la gloria. È ciò che ci si chiede dinanzi alla tomba di Elisabetta I, morta nel 1603. Che cosa rimane di tutte le qualità che le aveva attribuite Giordano Bruno? La tomba fu fatta costruire da Giacomo I, figlio di quella Maria Stuart che la diva Elisabetta aveva fatto decapitare. La regina innalzata al cielo dal nostro filosofo e raffigurata in una statua giacente. Ha il volto duro, che forse neppure la morte riuscì ad addolcire. Solo le mani sono veramente belle, anche se si macchiarono di sangue, quella sinistra regge il globo e quella destra lo scettro. L'iscrizione funebre, in latino, parla fra l'altro di plurimarum linguarum peritia, praeclaris tum animitum corporis dotibus. E che fosse poliglotta lo dice anche Bruno, nella cognizione delle arti, notizia delle scienze, intelligenza e pratica de tutte le lingue, che da persone popolari ed otte possono in Europa parlarsi, lascio al mondo tutto giudicare qual grado lei tenga tra tutti gli altri principi oi, i, 67 sg. Con gli italiani non voleva parlare altra lingua che l'italiano. Pare che gli esoli italiani, a Londra, amassero riunirsi soprattutto intorno alla borsa e alla cattedrale di San Paolo, non si sa se per sognare l'oro o per chiedere aiuto al buon Dio. Ma sembra che in quel tempo la borsa di Londra fesse ricca più di ciarlatani che di oro. Lo dice anche il Florio nei suoi Second Fruites. E vi bazzicava anche la marmaglia. Bruno parla di una mescuglia di desperati, di disgraziati da lor padroni, dei fuorisciti da tempeste, dei pellegrini, dei disutili ed inerti, di cui che non han più comodità di rubare, di cui che frescamente son scampati di prigione, di quelli che ha un disegno di ingannar qualcuno, che le viene a tre da là. E questi son tolti dalle colonne della borsa e dalla porta di San Paolo, o i, i, 75. La solita marmaglia di porto, là vicino c'era il molo del Tamigi e anche il London Bridge, l'unico ponte di Londra fino al 1729. Le sue origini risalgono ad epoca romana. La cattedrale di San Paolo era poco distante dalla Salisbury Court, ma la chiesa che vide Bruno, distrutta dall'incendio del 1666, era molto più grande di quella rifatta, sullo stesso luogo, dall'architetto Vren. Ad ogni modo, se è facile immaginarsi un filosofo che si aggiri da solo con gli amici intorno a una cattedrale, riesce pressoché impossibile immaginarselo nella borsa. Giordano Bruno non aveva proprio nulla da spartire con gli speculatori e i quattrinai, lui era solo uno speculatore dei celli infiniti. La borsa di Londra fu costruita nel 1566 e si chiamò Royal Exchange a partire dal 1570. Era nel cuore della città e non molto lontana dall'ambasciata francese. Nel 1844 fu ricostruita per la terza volta. La scritta in alto dice, Annelizza a Condi e Resibetta e R. 12 Contructum, Anno Victoria e R. 7 Restauratum. Gli imbroglioni ci saranno ancora, però sono azzimati e irriconoscibili. Anche qui, in mezzo a tutti questi palazzi di vetro, non è rimasto assolutamente nulla della Londra del 1500. Qui siamo nel centro della finanza internazionale, ma la filosofia non ha mai avuto conti in banca. Petrarca ha ragione, povera e nuda vai filosofia, dice la gente al vil guadagno intesa. È stato e sarà sempre così, le muse, che raramente partoriscono in ricchi palazzi, non amano il lusso e tengono i loro figli a stecchetto, forse per timore che ingrassino e che l'ispirazione si tramuti in flatulenze. Essi devono riempirsi la testa, non le tasche. Eppure non sarebbe male che in mezzo a questa selva di banche ci fosse anche un tempietto alla saggezza e in mezzo a tanti azzimati quattrinai anche un diogene con la lanterna. Dove ci porterà questa civiltà, in cui un broker conta molto più di un filosofo o di uno scienziato. Nella zona ci sono i resti delle mura romane, che in origine avevano un'estensione di oltre cinque chilometri. Le avrà viste sicuramente anche il filosofo, grande ammiratore della civiltà romana, ma il suo sguardo, come sembra, era rivolto soprattutto alle londinesi, graziose, gentili, pastose, morbide, gioveni, belle, delicate, biondi capelli, bianche guance, vermiglie gote, labbra succhiose, occhi divini, petti di smalto e cuori di diamante, per le quali tanti pensieri fabbrico nella mente, tanti affetti accolgo nel spirito, tante passioni concepo nella vita, tante lacrime verso dagli occhi, tanti suspiri sgombro dal petto e dal cor sfavillo tante fiamme, a voi, muse d'Inghilterra, dico, ispiratemi oi, i, 26. Cercava solo ispirazione e niente altro? Assolutamente no. Nei protocolli del processo Veneto si legge, oltre di questo mi disse, che gli piacevano assai le donne, e che non avea arrivato ancora al numero di quelle di Salomone, e che la Chiesa faceva un gran peccato nel far peccato quello con che si serve così bene alla natura, e che lui lo avea per grandissimo merito Doc. Ven. 4. Anche se le parole del delatore Mocenicova hanno prese con cautela, come tutto il resto di quello che egli scrive, ci sono motivi per credere che Bruno, in fatto di donne, fesse davvero un micco insaziabile. Era una natura demoniaca o meglio dionisiaca, e sapeva per esperienza diretta che l'amore, la più tirannica delle passioni, ci guida come i fuochi fatui e poi ci lascia negli stagni. Come avrebbe potuto, altrimenti, parlare di quella febbre quartana. Virgola che con una superficie, un'ombra, un fantasma, un circeo incantesimo ordinato al servigio della generazione, ne inganna in specie di bellezza? Oi. 2. 929. Si conosce solo ciò che si è, così suona un principio della sua filosofia. Prima di Giordano Bruno, la bellezza delle donne inglesi era stata esaltata da Erasmo, suntic nem fae divines vultibus, blandai, faciles esse 368. Due secoli dopo, invece, sarà Lichtenberg a cantare la straordinaria bellezza dell'inglesi. In una lettera del 19 aprile 1770 al suo compare Johann Christian Dieterich, Lichtenberg, anche lui un micco insaziabile in fatto di donne, scrive, appena si mette piede in Inghilterra, a patto, però, che oltre ai piedi si abbia anche qualche altra cosa, allo studente, come al filosofo e al libraio, saltano subito agli occhi la straordinaria bellezza delle donne e la grande quantità di tali bellezze, e più ci si avvicina a Londra, più il fenomeno aumenta. Per chi non si sente sicuro da questo lato, io conosco un solo mezzo, ritorni subito indietro, con il primo battello, in Olanda. La sarà al sicuro. In vita mia ho visto molte belle donne, ma da quando sono in Inghilterra ne ho viste di più che nel resto della mia vita, e dire che sono in Inghilterra da appena dieci giorni. Lui non aveva assolutamente bisogno di ritornare indietro, perché da quel lato si sentiva più sicuro di uno stambecco. Anche se frequentava l'alta società, Bruno non era uomo di società. Il Florio riferisce che vestiva sempre allo stesso modo, che mangiava poco e si alzava presto. Evidentemente aveva conservato le abitudini del convento. E anche probabile che avesse un solo vestito. Per passeggiare e meditare, Bruno aveva il giardino dell'ambasciata francese, che doveva essere molto grande. E forse proprio in quel giardino cresceva l'uva di cui parla, e questo anno ancora ho mangiato dell'uva degli orti di Londra, non già così perfette come dei peggiori di Francia, ma pur tale quali affermano mai esserne prodotte simili in terra inglesa o i, i, 159. Il richiamo alla Francia farebbe pensare che si trattasse proprio dell'orto dell'ambasciata e forse sarà stato il Castelnau a fare il paragone. Altri, invece, parlano di uva eccellente. Nell'agosto del 1590, il mercante Paolo Gandola scriveva da Londra a un suo amico fiorentino, «Io di qua ho di già mangiato uva buonissima, per esserne stato quest'anno grandissimo caldo, e di più di quello che è stato questi venti anni, tal che ne mangio ogni giorno buonissima» i Bid, nota. Anche altri, fra cui Erasmo e Florio, parlano dell'uva londinese. Dato il suo amore per i fiumi, Bruno sarà andato a caccia di idee anche lungo la riva sinistra del Tamigi, tra la City e Westminster. Della città di allora non è rimasto niente, l'incendio del 1666, di cui Samuel Pepis ci ha lasciato una drammatica descrizione, la distrusse quasi per intero. Bisogna tener conto che le case erano costruite per lo più in legno, specialmente nella parte medioevale. Ma qualche cosa che vide anche Bruno è rimasto. Per esempio il loco, che si chiama il Tempio I, i, 55. Nel temple, il cui nome si deve ai templari che qui avevano il loro quartiere generale, si ha per davvero l'impressione di tornare indietro di alcuni secoli. Anche se alcuni di questi edifici furono danneggiati durante l'ultima guerra, conservano qualcosa di superstite. Particolarmente interessante è la Temple Church, che risale al XII secolo. È in stile gotico ed è dedicata a esse Maria Vergine. Questa è anche la zona dei tribunali, e alcuni edifici esistevano già al tempo di Bruno. Dal momento che egli parla del Tempio, possiamo essere sicuri di ricalcare i suoi passi. Più in là, percorrendo lo stile, si arriva alla cosiddetta Piramide, cui Bruno fa esplicito riferimento, or dopo Chilnolano ebbe riscosse da vinti in circa di queste spuntonate, particolarmente alla Piramide vicina al palazzo in mezzo di tre strade OI, i, 81. Si trattava della Eleonor Cross, ultimo dei tredici monumenti che Edoardo i fece erigere per segnare le tappi del funerale della defunta consorte dal Nottinghamshire all'abbazia di Westminster. La si vede molto bene in un'incisione di Ilunga Norden del 1593. E si vede anche come fosse nel bel mezzo di una piazza e vicino al palazzo reale di Viteal. Il monumento fu distrutto dai puritani nel 1647 e al suo posto fu eretta la statua equestre di Carlo I, nella Trafalgar Square. Una copia della piramide originale, cioè di quella che vide Bruno, si trova dinanzi alla Sharing Cross Station. Nella dedica dello spaccio al suo amico e protettore Sidney, il filosofo accenna a un'imminente partenza dall'Inghilterra, dicendo che sta per voltare le spalle alla vostra bella, fortunata e cortesissima patria. Probabilmente gli scrisse queste parole nell'autunno del 1584, quando il Castelnau ricevette l'ordine di rientrare in Francia. Ma doveva passare ancora un anno prima che ciò avvenisse. Così Bruno ebbe il tempo di scrivere e di pubblicare altre due opere. Ma anche l'ambasciatore passò quell'ultimo anno con la penna in mano, perché fu proprio nell'autunno del 1584 che egli cominciò a scrivere le sue memorie. Non si trattò, per lui, di un anno tranquillo, a parte la malattia o le malattie della moglie, egli non sapeva come pagare i molti debiti che aveva contratti. Il governo di Parigi si rifiutava categoricamente di ripienargli Eli, anche perché egli era ormai caduto in disgrazia. Ma non rischiava certo la galera, perché godeva pur sempre dell'immunità diplomatica. Il successore arrivò a Londra il 28 luglio del 1585, deciso a sgombrare l'ambasciata da tutti quelli che non fossero cattolici dalla testa e piedi. Era totalmente diverso dal tollerante e illuminato Castelnau, che trascorse gli ultimi mesi a far visite di congedo e a sistemare le sue cose. Ormai era in Inghilterra da dieci anni, un tempo insolitamente lungo per un ambasciatore. Forse la cosa si spiega con il fatto che il compito del Castelnau era soprattutto quello di appoggiare la causa di Maria Stuart, la quale sarebbe stata decapitata di lì a due anni. La partenza avvenne nell'ottobre del 1585. E Bruno, che senza di lui non avrebbe certo potuto vivere in una città dove si era fatto tanti namici, lo seguì, e tornando il detto ambasciatori in Francia alla corte, l'accompagnai a Paris-Doc. Venn. 9. Un mese dopo, partì da Londra anche il Sydney, l'altro angelo custode di Bruno. Fu mandato dalla regina Elisabetta nelle Fiandre, dove, il 17 ottobre del 1586, morì combattendo contro gli spagnoli. John Aubrey, vite brevi di uomini eminenti Citt, p. 69, scrive che il Sydney, pur essendo ferito gravemente, volle a tutti i costi e contro l'ordine tassativo dei medici congiungersi carnalmente con l'amata consorte, che era la figlia di Francis Vasingham. Così morì su un duplice campo di battaglia, quello di Marte e quello di Venere. Aveva appena 32 anni e lasciò un grande rimpianto, come perfetto gentiluomo e come poeta, anche se le sue opere furono pubblicate postume. Era un bell'uomo, come se le muse avessero voluto dargli la loro benedizione anche dal punto di vista fisico. Il suo corpo fu messo in una bara di piombo e riportato con grande pompa a Londra, alla chiesa di St. Paul, dove venne seppellito nella cappella di Nostra Signora. A rendere più solenne questo funerale erano tutti i nobili e le grandi cariche dello Stato, tutti i giudici e i registrati, tutti i soldati e comandanti e gentiluomini presenti a Londra, il sindaco e gli assessori, e le corporazioni IBID. Miglior destino, se vivere a lungo è una fortuna, lo ebbe Giovanni Florio, che morì nel 1625, all'età, come s'è detto, di 72 anni. Seppe farsi strada a corte, fino a diventare lettore e segretario della regina Anna. Fu lui che nel giugno del 1612, forse su ordine della regina, si recò sulla costa olandese per accompagnare nel loro ultimo tratto di viaggio verso l'Inghilterra Giulio Cesare Vanini e Giovanni Maria Genocchi. E questo è un altro tranello di congiunzione tra Bruno e Vanini. È presumibile che Florio abbia parlato con i due nuovi arrivati dell'atroce morte toccata al suo Oldefellov Nolano, come lo chiama, e che ne abbia parlato con i due nuovi arrivati. Anche la bot, presso il quale Vanini alloggiò, avrà forse parlato di Bruno. Eppure Vanini non accenna mai, nei suoi scritti, al Nolano, il che è veramente strano. Dobbiamo forse vedervi un segno di prudenza? Ma anche questo sarebbe strano in uomo della sua tempra. Non si può però escludere che prima o poi affiorino nuovi documenti sulla vita di Vanini, tali da gettar luce sul mistero a cui ho accennato. Appena giunto in Inghilterra, egli si nascose sotto un nome falso, The Witness, mentre il Genocchi si fece chiamare The Frankies. In alcuni documenti inglesi il nome Vanini è storpiato, per errore di lettura, in Vandoni, a causa dello svolazzo che il carmelitano Salentino soleva tracciare tra la n e la e della penultima sillaba del suo cognome, CFR. F. D. Paola, altri documenti vaniniani, in bollettino di storia della filosofia, Vol. V. 1977. Le ricerche su Bruno e Vanini potrebbero forse riservare qualche sorpresa. Il viaggio da Londra a Parigi, per i Castelnau e per Bruno, non avvenne sotto buoni auspici. Appena lasciate le coste, la nave fu assalita e depredata dai pirati. In una lettera del 3 novembre 1585, Castelnau, da Parigi, scrisse al suo amico scozzese Archibald Douglas che i briganti gli avevano lasciato solo la camicia, essendo stato derubato di quanto portavo dall'Inghilterra, dei graziosi doni avuti da Elisabetta e dell'Argenteria. Non avevano lasciato niente né a lui né ai suoi familiari, sicché essi somigliavano a quegli esuli irlandesi che, con i bambini per mano, chiedono l'elemosina S387. E derubarono anche il povero filosofo. Gli lasciarono solo le idee e forse qualche manoscritto, ma queste sono cose che non fanno gola ai ladri comuni. Prima di abbandonare anche noi l'Inghilterra, vorremmo fare un'ultima considerazione. Si direbbe che ancora oggi gli inglesi non perdonino a Giordano Bruno di aver satireggiato i loro costumi. Ne è una prova il libro, già citato, del professor John Bossi, subito tradotto in italiano come se si trattasse di una rivelazione. Il libro del professore è scorrevole e contiene notizie utili, ma nel punto principale si rivela, lo ripeto, per una patacca ammantata di scientificità. Siamo abituati alle stravaganze di certi studiosi d'oltralpe, l'uno sostiene di aver localizzato la misteriosa Atlantide, l'altro afferma di sapere quanto era lunga la barba di Omero e il professor Bossi vorrebbe farci credere che Bruno fosse una spia. In breve, egli ha scoperto alcuni messaggi segreti provenienti dall'ambasciata francese a Londra e diretti al Vasingham. Essi recano la firma di un misterioso Henry Fagot. Si trattava, a quanto pare, di un prete, visto che, traendo il segreto dalla confessione, riferì quello che gli era stato confidato nel confessionale, e cioè che alcuni congiurati cattolici volevano uccidere la regina. E che cosa fa, a questo punto, il professore? Punta il dito su Giordano Bruno e lo identifica con Henry Fagot. È una tesi tanto assurda quanto strampalata. Eppure da noi alcuni lettori di Bocca Buona l'hanno presa sul serio. Gli italiani ragliano volentieri su registri inglesi. È capitato così anche con la storia del mago fabbricata dalla Iates. Per smontare l'ipotesi del professor Bossi bastano poche cose. Uno, i biglietti sono scritti in francese, ma non risulta che Bruno abbia mai scritto una parola in tale lingua. Due, alcuni messaggi furono scritti a Parigi, mentre Bruno si trovava a Londra. Altri messaggi, ancora, recano la data del 1586, quando il filosofo si trovava addirittura in Germania. Tre, la calligrafia non è assolutamente quella di Giordano Bruno. Quattro, il filosofo aveva smesso da tempo l'abito tallare e quindi non avrebbe mai potuto confessare qualcuno, tanto più che tutti sapevano che egli era scomunicato. Cinque, in un messaggio il nome di Florio è storpiato in Fleuriot. Ma Bruno conosceva benissimo il suo amico Giovanni Florio e non ne avrebbe mai storpiato il nome in quel modo. Fermiamoci qui, perché, come diceva Wagner a proposito di Nietzsche, voler confutare un'idea folle comporta il rischio di passare a propria volta per folli. Se Henry Fagott scriveva male, il fagotto del professor Bossi emette un suono fesso e si vorrebbe dire al suo padrone di andarlo a suonare in un altro cortile. Alla fine, con cinismo rivoltante, egli si dimostra quasi contento dell'orribile sorte toccata al filosofo. Dinanzi a tanta insensibilità, io mi arrendo. Resto con il filosofo John Tolando o con il poeta Samuel Coleridge, i cui strumenti emettono non suoni fessi, ma inni di lode a Giordano Bruno. Ritorno a Parigi, è da presumere che Castelnau scrivesse a caldo, quando, nella lettera del 3 novembre 1585, narrò di essere stato assalito dai pirati durante il viaggio di ritorno in patria. Se ne deduce che egli e il suo seguito, Bruno compreso, arrivarono a Parigi tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. E qui finisce l'incontro tra il filosofo e il diplomatico. Nelle memorie del Castelnau, pubblicate postume dal figlio Jacques, non si fa parola di Giordano Bruno, ma ciò dipende dal fatto che tali memorie, anche se furono scritte a Londra, comprendono solo il periodo che va dal 1559 al 1570. Del resto, nel clima di intolleranza e di fanatismo religioso che gravava di nuovo sulla Francia, soprattutto ad opera della Lega Cattolica, l'ambasciatore, per quanto aperto e liberale, non avrebbe avuto interesse a far sapere che era amico e protettore di un apostata perseguitato dall'Inquisizione. Ad ogni modo, se Castelnau non parlò di Bruno, Bruno parlò del Castelnau, se l'ambasciatore dette ricovero al filosofo, il filosofo dette fama all'ambasciatore. Chi si ricorderebbe del Castelnau, se il suo nome non fosse legato a quello di Giordano Bruno? Conscio della propria grandezza, Bruno sapeva o almeno sperava che l'ambasciatore sarebbe stato ricordato in eterno per l'aiuto che gli aveva dato. Lo si intuisce da ciò che scrive nella Dedica del De Infinito. Probabilmente i due si saranno ancora frequentati per qualche tempo, ma ormai il loro distacco era inevitabile. Caduto in disgrazia e pieno di guai, il Castelnau non poteva fare più nulla per il suo amico Bruno. Il clima di Parigi era molto cambiato e tutto lasciava prevedere nuovi eccidi nel nome di Dio. Il duca di Guisa, spalleggiato dalla Spagna, aveva già mobilitato le sue forze. Nel mese di luglio del 1585, Enrico III era stato costretto a revocare l'editto di pacificazione tra protestanti e cattolici, cedendo così ai fanatici della Lega. Il nuovo ambasciatore francese a Londra, che era un uomo del duca di Guisa, non perdeva occasione per mettere in cattiva luce il suo predecessore, il quale finì per ritirarsi nei suoi possedimenti a Joinville, vicino a St. Dizie sulla Marna. Là, in campagna e lontano dai rumori del gran mondo, trascorse i pochi anni che ancora gli restavano da vivere. Oltre che colto e raffinato, doveva essere un bell'uomo, come si vede dal ritratto che il figlio Jacques, nel 1621, incluse nell'Es Memoires de Messire de Castelnau, Signor de la Mauvisiere. Aveva fronte ampia e sguardo profondo. Sotto le fellucche, di solito, c'è più vanità che cervello, ma sotto quella di Castelnau ci doveva essere molto cervello e punto vanità. Lo dimostrano la sua cultura, il suo amore per la filosofia e la sua refrattarietà al fanatismo religioso. Senza di lui, difficilmente Bruno avrebbe potuto scrivere quello che scrisse a Londra. Il filosofo se ne sdebitò facendo del suo protettore un ritratto destinato a durare nel tempo. Leggiamo la dichiarazione di Bruno dinanzi al Tribunale di Venezia, è tornato il detto ambasciatori in Francia alla Corte, l'accompagnai a Paris, dove stetti un altro anno, trattenendomi con quelli signori che io conoscevo, a spese per omi e la maggior parte del tempo doc. Ven. 9. Forse sperava di nuovo nell'aiuto di Enrico III, ma il sovrano, che doveva far fronte al fanatismo della Lega Cattolica, non poteva più proteggere ufficialmente un apostata e uno scomunicato. Così il filosofo dovette arrangiarsi e vivere come meglio poteva, ci era abituato. Ma se egli, come il Castelnau, era stato derubato dai pirati durante la traversata della Manica, come poteva vivere a spese proprie? Probabilmente il buon ambasciatore gli procurò un po' di danaro dopo l'arrivo a Parigi. Piace pensarlo. E se così fu, Castelnau dette una prova suprema della sua magnanimità. Se il primo soggiorno di Bruno a Parigi non fu tranquillo, il secondo fu addirittura tempestoso. E' già sintomatica l'annotazione del dotto olandese Arnold van Buckel, il quale cita Bruno tra i personaggi ragguardevoli conosciuti a Parigi nel dicembre del 1585, filosofiae subtilior cam salutis suae condeniat professore est Giordanus Brunus Nolanus Italus, cui falso coniomenas Sumpsit Filotei. Composuit libellum de arte reminescendi et italica ed idit lingua conscripta, gli furori eroici, il Candelaio, con moedia s645, nota. Traduzione, Giordano Bruno Nolano, italiano, che ha assunto lo pseudonimo di Filoteo, professa la filosofia in maniera più sottile di quanto convenga alla sua incolumità. Ha composto l'opuscolo de arte reminescendi e ha pubblicato, in italiano, Gli eroici furori e Due candelaio, una commedia. La preziosa notizia era stata già pubblicata in Francia sul finire del secolo scorso. Difficile dire se van Buckel abbia conosciuto personalmente il filosofo o se ne abbia solo sentito parlare nei circoli letterari e accademici. Ad ogni modo, l'annotazione che egli scrisse nel suo giornale testimonia che la fama del Nolano era molto diffusa nella capitale francese. Certo che Giordano Bruno era imprudente e che la filosofia che professava metteva a repentaglio l'incolumità della sua vita. Ma chi cerca la verità è anche disposto a correre dei rischi. Altrimenti che razza di filosofo sarebbe? Qui cade a proposito il detto di Ezza Pound, secondo il quale chi non è disposto a correre rischi o a fare sacrifici per le proprie idee e dimostra che o non valgono niente le sue idee o non vale niente lui. Delle due luna. Bruno era un terremoto e sapeva a quali pericoli andava incontro, ma non poteva agire diversamente, così volevano la sua natura e la sua filosofia. Si considerava, e in un certo senso lo era davvero, un mercurio inviato dagli dèi a illuminare il mondo. Non si capirà mai la tragedia di Giordano Bruno, se non si tiene presente la portata rivoluzionaria della sua filosofia, che sovvertiva dalle fondamenta la concezione del mondo. Era un estraneo, una specie di marziano che parlava una lingua incomprensibile all'Occidente teologizzato, e questo spiega perché egli fosse perseguitato dai cattolici e dai protestanti, dai dottori di Oxford e da quelli di Parigi. Suonava su un registro non adatto ai loro orecchi. In breve, Bruno era nato postumo. Per ritemprarsi lo spirito per ricaricarsi la mente, egli, a Parigi, frequentava la biblioteca di Saint-Victor, sulla collinetta chiamata Montaigne Saint-Genevieve e quindi a due passi dal Collège de Cambrai. Bibliotecario era il monaco Guillaume Cotin, il quale soleva annotare in un diario i nomi e i fatti di quelli che andavano a leggere o a prendere in prestito i libri. Così fece anche con Giordano Bruno. Le sue annotazioni furono scoperte e pubblicate nel 1900. Quelle riguardanti il nostro filosofo, Dieci in tutto, contengono preziose notizie di carattere biografico. La prima recala data del 6 dicembre 1585, ho visto Giordano Bruno che, or non è molto, è stato in Inghilterra con l'ambasciatore del re e ha insegnato a Oxford. Sta per pubblicare L'Arbor Philosophorum. Ha fatto stampare molti libri in italiano e in latino, come L'Esposizione dell'Ars Lully, Dei Trenta Sigillis, ecc. Ha il padre che vive a Mola. Abita presso il Collège dei Cambrai. Ha preso in prestito il Lucrezio nell'edizione di Obertus, doc. Paragrafo i. L'Arbor Philosophorum, cui cui si fa accenno, non ci è pervenuto. Quanto al Lucrezio, si trattava dell'edizione curata da Umbert van Giffen, latinizzato in Obertus Giffanius, e uscita ad Anversa nel 1566. Ma passiamo ad altro. Dunque Bruno abitava vicino al Collège dei Cambrai, dove di solito i lettori reali tenevano i loro corsi e le loro dispute, prima della costruzione, iniziata nel 1610, del Collège dei France. Lì vicino c'era anche la Sorbona, roccaforte dei pedanti e degli aristotelici. Così Bruno, sempre pronto a scannare i pedanti, si trovava nel luogo ideale. C'è anche chi pensa che egli abitasse in casa dello stampatore Gilles Gorbin, che nel 1582 aveva pubblicato le sue prime opere. E intanto apprendiamo che suo padre, in quel tempo, era ancora vivo. Ciò lascia supporre che il filosofo si tenesse in contatto con la famiglia, ma non sappiamo come, perché non esistono lettere. Tuttavia il poco conforto che gli poteva venire dai genitori così lontani non durò a lungo. Nel Costituto Veneto del 26 maggio 1592, infatti, Bruno dichiarò che il padre e la madre erano morti. Così il destino risparmiò agli infelici genitori la pena di dover seguire, sia pure da lontano, il calvario di quel loro figlio perseguitato dalla sventura. Ormai Bruno era solo e abbandonato a se stesso, senza neppure il conforto di una madre, di un parente o almeno di una persona amica. A tenergli compagnia c'erano solo i grandi spiriti del passato, come quel Lucrezio a lui tanto caro, simili simili gaudè. Ora egli aveva abbandonato l'italiano per il latino, e se prima aveva modellato gli eroici furori sulla poesia del Petrarca, in seguito modellerà i suoi poemi latini sul dererum natura di Lucrezio. Bruno si recò nella biblioteca di San Vittor anche il giorno dopo Elmonaco fece un'annotazione più lunga e circostanziata, 7 dicembre, 1585. Giordano Bruno è venuto di nuovo. Mi ha detto che la cattedrale di Inola è dedicata a San Felice. Egli è nato nel 1548, ha 37 anni, è esule dall'Italia da otto anni. Veramente di anni ne erano passati poco più di sette, ma fa lo stesso. Quel giorno il filosofo confidò al monaco, anche i motivi che lo avevano costretto a lasciare l'Italia, l'essere stato ingiustamente accusato di un oscuro episodio di violenza, come se è detto nei capitoli precedenti, e il dover evitare le calunnie degli inquisitori, che sono ignoranti e che, non conoscendo la sua filosofia, gli darebbero dell'eretico. Teneva in grandissimo conto San Tommaso e disprezzava le sottigliezze degli scolastici, dei sacramenti e anche dell'Eucarestia, ignote a San Pietro e a San Paolo, i quali non seppero altro che hoc est corpus meum. Dice che i torbidi religiosi sarebbero facilmente tolti di mezzo, se fossero spazzate tale questioni, e confida che questa sarà presto la fine della contesa. Ma detesta insommo grado gli eretici di Francia e d'Inghilterra, perché non tengono conto delle buone azioni e predicano la certezza della loro fede e giustificazione, mentre tutta la cristianità tende al buon vivere, doc. Paragrafo 2. Quale effetto avranno fatto, sul pio monaco Cotin, gli aspri e sarcastici giudizi di Bruno sui sacri tromboni dell'epoca? I predicatori gli sembravano tutti dei ciarlatani, anche se non li chiamava proprio così, e non ne risparmiava nessuno, tra i predicatori apprezza soltanto l'ebreo, per la sua eloquenza e ancor più per il suo sapere. Dice che il Panegarola non ha dottrina ed è futile. Il fiamma, invecchiando, è scaduto e si pente di aver predicato gli ultimi tre anni, perché così ha sciupato la fama che si era conquistata nei luoghi in cui aveva predicato con successo. Disprezza molto il Toledo e i gesuiti che predicano in Italia, in quanto nell'esordio si profondono in grandi misteri, dicendo, con eccessiva gravità, che essi sono contenuti nei loro testi, ma alla fine non dicono nulla doc. Paragrafo 3. L'ebreo, ossia l'ebraista Andrea Dei Monte, Francesco Panigarola, Gabriele Fiamma e Francesco De Toledo erano tutti predicatori di grido. Le notizie più interessanti sono quelle di carattere biografico. Nella nota del 27 dicembre si legge, Giordano Bruno mi ha detto che è stato derubato o lasciato derubare dal servitore che aveva doc. Paragrafo V. Alludeva a quello che gli era capitato durante il viaggio di ritorno da Londra a Parigi o a un nuovo furto? Comunque sia, egli ora non poteva neppure far stampare i suoi libri. Il ladro doveva essere molto scalcagnato, se non sapeva scegliersi una vittima più opima del povero Giordano Bruno. Ma il filosofo, abituato alle avversità, non si perse d'animo. Alcuni mesi dopo, Jacopo Corbinelli, anche lui esule italiano a Parigi, parlò di Bruno come di un piacevol compagnetto, epicuro per la vita Iates 1988, p. 123. Le lettere di Corbinelli, insieme con le annotazioni del Cotin, gettano molta luce sul secondo soggiorno parigino del filosofo. Andiamo per ordine. Appena ritornato a Parigi, Bruno ripetè il tentativo, già fatto a Tolosa, di rientrare nella Chiesa, se non nell'ordine dominitano, io ho già detto nell'Imea i constituti che del caso mio ne ragionai con Monsignor Vescovo di Bergamo, Nonzio in Francia, al quale fu introdutto da Don Bernardin Mendoza, ambasciator cattolico, conosciuto da me nella corte d'Inghilterra, e non solamente ragionnai con Monsignor Nonzio del caso mio, ma soggiongo ora che l'ho pregato e ricercato istantemente che ne scrivesse a Roma a sua beatitudine, ed impetrarmi grazie a chi fosse ricevuto nel gremio della Chiesa Cattolica e che non fosse astretto a ritornar nella religione. E vivendo allora Sisto V, il Nonzio diffidava di ottener questa grazia e non volse scriver, offrendoce, offrendosi, però che, volendo io tornar nella religione, averia scritto e aiutatomi, e poi mi indricciò, indirizzò, ad un Padre Jesuito, che mi so ricordato che ha nome il Padre Hans Spagnol, il qual vivendo ve ne potrà far fede. E con esso trattai il caso mio, e lui mi ressolse che era necessario ch'io procurasse la soluzione delle censure dal Papa, e che non si poteva far di meno ch'io tornasse nella religione, e fui ancora avertito da lui che, essendo scomunicato, non potevo assister agli divini offizii, ma che potevo bene andare a udir le prediche e a dir le mie orazioni in Chiesa, Doc. Ben, 17. Chi fosse esattamente il Gesuita Lons Spagnola è difficile dire. In compenso sappiamo benissimo chi fosse il nunzio apostolico. Si trattava di Monsignor Girolamo Ragazzoni, nominato vescovo di Bergamo nel 1577 e mandato come nunzio a Parigi nell'estate del 1583. Fu un abile diplomatico e seppe subito guadagnarsi la benevolenza di Enrico III. Ma forse avrebbe potuto guadagnarsi anche la benevolenza del cielo, se avesse fatto qualche cosa in più per aiutare Giordano Bruno, anziché limitarsi a mandarlo da un gesuita spagnolo. Fallito il tentativo di ottenere il perdono di Santa Madre Chiesa, il filosofo si sprofondò negli studi, la sua unica e vera consolazione. E non c'è dubbio che colloquiare con Lucrezio fosse molto più appagante che ragionar con un gesuita spagnolo o con il nunzio Ragazzoni. Ma Giordano Bruno era versato in disgrazie come il suo contemporaneo cervantese avrebbe potuto scrivere anche lui un Don Quixote, però non della cavalleria errante, bensì della ragione bastonata. Il destino volle che egli, a Parigi, conoscesse il salernitano Fabrizio Mordente, inventore del compasso differenziale. Questo Mordente, fratello di un commilitone del padre di Bruno, aveva la testa calda ed era più instabile di una trottola. All'età di vent'anni vendette i propri beni e, con il ricavato, si mise a girare il mondo. Dopo aver visitato le isole del Mediterraneo, fui in Africa e in Asia. Visse per tre anni in India. Poi si imbarcò su una nave portoghese e, navigando per quattro mesi e diciotto giorni, approdò in Portogallo. Ma non ci si fermò molto, perché se ne andò prima in Inghilterra, poi in Francia, nelle Fiandre, in Germania, in Ungheria e in altri paesi ancora. Fece anche ritorno a Napoli. Ma siccome non gli riusciva assolutamente di star fermo in uno stesso luogo, neppure in quello che gli aveva dato in Natali, si rimise in marcia attraverso l'Europa, sebbene non fosse più di primo pelo e veleggiasse verso la Sessantina. Nel 1584 uscì Adam Versa la sua monografia sul nuovo compasso. L'anno dopo, a Parigi, fece stampare un foglio con la figura, accompagnata da una didascalia, del Marchingegno. Egli aveva un'asperticata stima di se stesso e diceva di essere giunta alle sue scoperti per grazia specialissima donata dal sommo e unitrino creatore S396. Forse era convinto che gli dei volessero servirsi del suo compasso per raddrizzare e mettere in sesto questo povero mondo. Sotto la data del 2 febbraio 1586, il bibliotecario Cotin annotava, Giordano mi ha detto che è a Parigi Fabrizio Mordente, salernitano, dio dei geometri, superiore a tutti quelli che lo hanno preceduto e ai contemporanei, ma che non sa il latino, le sue invenzioni saranno fatte stampare in latino da Giordano Doc. Paragrafo 7. Da ciò si deduce facilmente che Bruno conosceva già da qualche tempo il Mordente, che con tutta probabilità aveva incontrato nella cerchia di Jacopo Corbinelli, un'isola italiano molto influente alla corte di Francia. È anche possibile che il filosofo abbia assistito a una pubblica esposizione fatta dal Mordente del suo compasso e che ne sia rimasto entusiasta, sembrandogli, come dice Aquilecchia, che quella scoperta tecnico-geometrica fosse atta dimostrare il limite fisico della divisibilità conforme ai principi della propria monodologia, che proprio durante questo secondo soggiorno parigino andò precisandosi, Giordano Bruno, Roma 1971, p. 60. Così, un po' per entusiasmo, un po' perché indottovi dalle preghiere dello stesso Mordente e un po' per affinità di patria, ratione patriae affinitatis, accettò di buon grado di rompere il silenzio che circondava il nome del padre delle invenzioni meccaniche e si mise al lavoro. Nacquero così dialoghi duo fabrici mordentii salernitani proprie divine ad invenzione ad perfectam cosmimetriae praxima, usciti nella primavera del 1586 presso lo stampatore Pierre Chéville-Lotte. Ma prima ancora che l'opera fesse pubblicata, tra Bruno e Mordente era scoppiata una lite furibonda. Lo apprendiamo da una lettera di Corbinelli del 16 febbraio 1586, dove si legge che contro il Nolano è in collera bestiale il nostro Fabrizio et se ne vuol vendicare in ogni modo, ma non mi pare che gli abbia tutte le ragioni, perché il Nolano sebbene onorase, si onori, di quello suo discorso, tutta volta, tuttavia, celebra Anquetfa Autore Chinel Autore Iates 1988, p. 120. Ho ritoccato leggermente, per comodità del lettore, la grafia di Corbinelli. Che cosa era successo? Evidentemente il salernitano, che non sapeva il latino, si era fatto tradurre il manoscritto e, sospettoso com'era, temette che il filosofo volesse appropriarsi della sua scoperta. In realtà Bruno faceva grandi elogi del Divino Mordente, che riusciva così bene nelle scienze mai tentate, però gli rimproverava di non saper trascendere la sfera empirica della ricerca e di non capire la portata speculativa della sua stessa invenzione. Insomma Bruno trascendeva il fenomeno e parlava da un punto di vista metafisico, ma questo il Mordente, chiuso com'era nel suo orizzonte meccanico, non poteva capirlo. Così, offeso dalla lode ambivalente del filosofo, comperò tutte le coppie dei dialoghi, quando questi furono pubblicati, e le distrusse. Sentiamo di nuovo il Corbinelli, che il 14 aprile del 1586 scriveva al suo corrispondente padovano Gian Vincenzo Pinelli, il nolano ha stampato non so che, dove mette in cielo il compasso di Fabritio, ma come filosofo par poi che vogli regolare il giudizio e la traditiva del detto Fabritio quasi mostrandoli che gli abbia bisogno dunque di chi meglio le ragion sue. Fabritio fulminava, et voleva stampare ma s'avviluppa et quando parla, et quando scrive, e il nolano che sapeva questo sera preparato a volerli ben lavare il capo nel due dialogo. Mi par che la cosa sia cessata, et che ciascun si contenti di non passar più oltre. A Fabritio costa parecchi scudi per comparare et far abbruciare il dialogo del nolano, che se ne potrò aver uno, lo manderò a V.S. Yates 1988, p. 121. E invece la cosa non finì lì, perché il mordente, facendo onore al proprio nome, continuò a mordere e a tormentare il filosofo. Ne parlava male pubblicamente e si riprometteva di far stampare una risposta velenosa contro di lui, cosa che però non potè fare per la sua scarsa familiarità con la penna. Allora Bruno, sdegnato e irritato per quell'ingratitudine, scrisse due dialoghi latini, che furono pubblicati prima del 6 giugno 1586, e rovesciò addosso al malcapitato geometra una valanga di sarcasmo. I dialoghi sono l'idiota triumfanz e il de somn' interpretazione. Bruno li dedicò a Piero del Bene, altro personaggio molto noto alla corte francese e fautore della politica concilietrice di Enrico III, anche se non nascondeva le sue simpatie per il re di Navarra. In precedenza, il filosofo gli aveva dedicato la figurano aristotelici fisici auditus. Sicuramente del Bene, amico tra l'altro di Corbinelli, era uno di quei signori con i quali Bruno disse di essersi intrattenuto durante il suo secondo soggiorno pareggino. Ma come reagì il mordente ai sarcasmi del filosofo? Non potendo competere con la penna, pensò di adoperare la lingua, pieno di livore e di zelo cattolico, andò dal duca di Guisa, che era a capo della fazione cattolica, e certamente si sarà adoperato per rendere più difficile la posizione di Bruno, che invece parteggiava per il gruppo dei concilianti politiches. Così la lite scientifica tra due italiani a Parigi, nati per giunta sotto lo stesso cielo, assumeva, per Bruno, un pericoloso risvolto politico. Gli italiani, ripetiamolo, sono stati sempre specialisti nel nuocere ai propri connazionali e Fabrizio Mordente ce ne dà la riprova. E non si dimentichi che non c'è nulla di più velenoso della vanità ferita o schernita. Ad aggravare la posizione del filosofo ci fu anche un altro episodio, ancora più clamoroso. Si tratta della disputa da lui sostenuta, il 28 maggio del 1586, nel Collège de Cambrai, alla presenza dei Letteurs Royaux e sulla base di un opuscolo che egli aveva fatto stampare sotto il nome del suo discepolo Giannenequin. Tale opuscolo, intitolato Centumet Viginti Articuli Dei Natura et Mundo Adversus Peripateticos, era una specie di programma del dibattito, e Bruno vi ribadiva le sue teorie contro la fisica aristotelica. Che cosa si ripromettesse da quella disputa non è chiaro, probabilmente voleva sondare il terreno e accertarsi se esso fosse o non fosse adatto alla semina della sua filosofia. Ma l'abbiamo già detto, egli suonava su un registro troppo diverso inattuale per trovare ascolto. A Parigi, non meno che a Oxford, gli orecchi degli accademici erano pieni di cerume scolastico e quindi non potevano sentire quella musica nuova. Nessuna meraviglia, dunque, che la disputa degenerasse ingazzarra. Sentiamo il Cotin, a cui l'episodio fu riferito non dallo stesso Bruno, bensì da persona o da persone a lui ostili, come è facile capire tra le righe, 28 e 29 maggio, 1586, il 28 e il 29, che furono il mercoledì e il giovedì della Pentecoste, Giordano invitò i lettori reali e tutti gli altri a sentirlo declamare nel collegio di Cambrai contro parecchi errori di Aristotele. Alla fine della lezione o orazione sfidava chiunque volesse difendere Aristotele o contraddire lui, Bruno, e, non presentandosi nessuno, egli gridava ancora più forte, come se avessi riportato la vittoria. Allora si levò un giovane avvocato, Rodolfus Calerius, che in una orazione difese Aristotele contro le calunnie del Bruno, dopo aver detto che i lettori tacevano perché ritenevano il Bruno indegno di risposta. Alla fine invitò Bruno a rispondergli e a difendersi, ma questi tacque se ne andò. Gli studenti cercarono di trattenerlo, dicendo che non lo avrebbero lasciato andare se non avesse risposto o non avessi ritirato le calunnie lanciate contro Aristotele. Tuttavia egli si liberò, alla fine, dalle loro mani, non so se a condizione che l'indomani sarebbe ritornato per rispondere all'avvocato. Il quale avvocato, avendo con affissioni convocato gli uditori, l'indomani salì in cattedra e continuò con molto garbo la difesa di Aristotele contro le imposture e le vanità del Bruno, invitando questi, ancora una volta, a rispondere. Ma Bruno non comparve, e da allora non si è più visto in città. Poi il Cotin, tra il 1 grado e il 4 giugno, fece questa aggiunta, Giordano era su una piccola cattedra, presso l'uscita del giardino, e sulla cattedra grande c'era il suo discepolo Giananne Quinn che sosteneva le tesi di Giordano, delle quali Giordano pretendeva essere giudice. Il discepolo non seppe che cosa rispondere al primo argomento del Calerius. Quando Bruno fu sollecitato a dare dunque lui stesso la risposta, non volle farlo, dicendo che l'ora era passata, e l'indomani non volle presentarsi, dicendo che era stato già battuto il giorno precedente, Doc Par, X. Chi conosce l'indole combattiva di Bruno resta molto scettico dinanzi a questo racconto, che sembra fare il paio con quello della bot. Come, un agguerrito dialettico quale Bruno, che aveva tenuto testa ai dottoroni di Oxford e ad altri parrucconi della scienza ufficiale, batteva in ritirata dinanzi a un avvocatuccio. Impossibile. O era tendenzioso il cotinolo o era a chi gli aveva riferito il fatto. Oltre a ciò, nelle parole del bibliotecario c'è una punta di compiacimento nel veder sconfitto chi gli aveva parlato con sarcasmo delle sottigliezze degli scolastici, dei sacramenti e dell'eucarestia. Ben diversa è la versione dell'informatissimo Corbinelli, che in data 6 giugno e con evidente allusione alla disputa avvenuta una settimana prima, scriveva, il Nolano sempre contro il mordente, et nuovi dialoghi. Ora egli è dretto, è dietro, a distruggere tutta la filosofia peripatetica e per quel poco che io ne intendo, me ne intenda, mi par che edica molto bene le ragion sue. Penso che sarà lapidato da questa università. Ma presto se n'andrà in Alemagna. Basta che in Inghilterra ha lasciato scismi grandissimi in quelle scuole, Iates 1988, p. 123. E vi sembra che un uomo si fatto avesse paura di affrontare i lettori reali, gli studenti e gli avvocati del Collège de Cambrai? Potevano lapidarlo, questo sì, ma non confutarlo o intimorirlo. No, proprio non ci siamo, immaginarsi che Giordano Bruno si ritiri con la coda fra le gambe dinanzi al giovane avvocato Rodolfus Calerius, ossia Raul Calgnet, sarebbe come immaginarsi una mangusta che scappi dinanzi a un ramarro. Sentiamo spampanato, la voce della foga che misero in giro, dopo la disputa cameracense, nel Collège de Cambrai, alcuni aristotelici idolatri, e a cui diede orecchio il dotto padre di Saint-Victor è una sciocca malignità smentita dalle ampie e uniformi dichiarazioni del Nolano che collimano, non ci si è ancora badato, con quelle d'uno straniero a cui non c'è ragione di non prestar fede S403. Lo straniero è l'olandese Arnold van Buckel, di cui abbiamo già riportato l'annotazione su Bruno. Ma ora abbiamo un nuovo documento, che modifica o corregge sostanzialmente il resoconto della disputa fatto dal Cotin, si veda, a questo proposito, per fetti 1992. Questa volta abbiamo una testimonianza diretta, non indiretta come quella del Cotin. Due parole, anzitutto, sulla figura del testimone. Si trattava del medico parigino François Rasse des Neux, il quale, come scrive la Perfetti, fece convivere la professione di medico e di chirurgo con una viva curiosità intellettuale e con un forte impegno politico-religioso. Dal 1559 al 1586 tenne una specie di registre giornal, dove annotava e trascriveva un po' di tutto, diverse trascrizioni e appunti testimoniano inoltre l'attenzione di Rasse des Neux per le polemiche che agitavano il College Royal e l'Università. Di particolare interesse, a questo riguardo, sono le annotazioni su alcune delle dispute che caratterizzarono l'insegnamento e le dottrine anti-aristoteliche di uno dei personaggi più in vista del College Royal, Pierre de l'Aramé. Anche la disputa indetta da Giordano Bruno era diretta contro gli aristotelici e il medico umanista, naturalmente, non se lo lasciò sfuggire. Oltre a trascrivere una parte del manifesto che annunciava l'attenzione, fece un rapido resoconto di come l'attenzione si svolse. Traduco il testo latino, dopo il triduo della Pentecoste Giordano Bruno Nolano, da mercoledì fino a sabato, difenderà per bocca di Jeanne N. Quinn, se Dio vuole, centumet viginti articulos de natura et mundo contro i peri patetici. Ogni giorno dalla mattina alla sera. Il 28 maggio 1586, nell'auditorio Reggio, del Collège, de Cambrai, il giovane N. Quintenne, con la presenza del Nolano, il discorso contro la dottrina di Aristotele. Al termine del discorso, il Nolano invitò alla discussione chiunque volesse. Siccome non si faceva avanti nessuno, egli salì sul podio e parlò a lungo contro il mondo finito di Aristotele. Finalmente si fece avanti un tale che indossava un pallio, il quale, provocando il Nolano con ingiure e chiamandolo Giordano Bruto, propose in maniera confusa alcune argomentazioni, e, non essendo data al Nolano facoltà di rispondere, la cosa finì in tumulto e si chiuse tutto. Il Nolano si definisce Sferza di Aristotele e chiama lo stesso Aristotele Dio dell'ignoranza, perfetti 1992, pp. 99 sgg. Qui abbiamo un ritratto di Bruno molto più conforme all'originale. Dunque il filosofo non scappò, come vorrebbe farci credere il Cotin, ma gli fu negata la facoltà di rispondere al suo contraddittore, il quale non doveva essere un grande dialettico, se parlava confuse, in maniera confusa. Così, non potendo competere sul piano filosofico con Bruno, ricorse agli insulti e gli aizzò contro la platea, è quanto sembra di capire dalle parole di Racedes Neux. Tutto ciò avvalora l'ipotesi, avanzata dalla Iates, che il Callie fosse stato ispirato di ridurre al silenzio, in un modo o nell'altro, il filosofo. E che cosa ci poteva essere di meglio, per ottenere un simile scopo, che sollevare un tumulto? In mancanza di cavalli, dice il proverbio, si fanno correre gli asini, e il raglio di cento asini riuscirebbe a coprire anche la voce di un demostene. È proprio quello che avvenne, a quanto pare, nel Collège de Cambrai. Se poi quegli asini abbiano anche scalciato non lo sappiamo, però possiamo pensarlo. Sicuramente l'andamento della disputa fu più tumultuoso di quanto non dica il Cotin. Lo dimostra il fatto che tutto si svolse in un giorno solo, cioè il 28 maggio, mentre ne erano previsti quattro, dal mercoledì al sabato. Resta da chiedersi perché Bruno andasse a cacciarsi in simili baraonde. In questo, bisogna dirlo, era poco filosofo. Quanto sarebbe stato meglio, per la sua pace e per la sua incolumità, osservare il mondo con distacco e riderci magari sopra. Ma era una procellaria e le procellarie stanno bene solo in mezzo alla tempesta. Questo spiega perché egli, pur navigando in un mare di guai, non perdesse il buon umore e fesse, come dice Corbinelli, un piacevol compagnetto, epicuro per la vita. Per lui la massima buddista saggezza nell'avversità andrebbe tradotta in fermezza nell'avversità. Per quanto temerario, però, il filosofo dovette avvertire di essere in pericolo fin dal suo ritorno nella capitale francese. Ce ne danno una conferma indiretta le parole, già riportate, dell'olandese Arnold van Duckel. È anche sintomatico che Bruno, nella lettera aperta al rettore dell'Università di Parigi. Jean-Philippe Lesac, dicesse di volersene andare dalla città. Si tenga presente che la lettera fu stampata prima della disputa al Collège des Cambrai, perché faceva parte, insieme con una dedica a Enrico III, dell'opuscolo anti-aristotelico Centumet Viginti Articuli de Natura et Mundo ad versus peri pateticos. Citiamo le sue parole, ora che ho intenzione di andare in giro per altre università, non potrei né dovrei mettermi in viaggio senza congedarmi. Da ciò si deduce facilmente che la disputa tumultuosa fu solo una delle tante cause che lo spinsero ad abbandonare Parigi, ma non l'unica. Il clima era pesante e Bruno poteva finire come il povero Pier dell'Aramè, meglio noto con il nome latinezzato di Petrus Rammus. Fu ucciso nella notte di San Bartolomeo su istigazione di malvagi e invidiosi aristotelici S329.